Ciao a tutti, benvenuti a questo corso di Angular, oggi episodio 00 introduttivo dove vado a spiegare cosa serve per questo corso, cosa potete aspettarvi e tutti gli argomenti che andremo a trattare. Si tratta di un corso di circa 45 e più episodi, potrà cambiare, non è ancora definitivo, molto probabilmente potrebbero essere qualcosina in più. Qua metto Udemy punto di domanda, al momento della registrazione non ho ancora un account Udemy ma molte persone mi chiedono sempre se posso fare qualcosa in più nei miei corsi oltre a ciò che vado a portare sempre su YouTube, motivo per cui ci sto pensando. Questo qua potrebbe essere un corso tranquillamente di 120-150 episodi, semplicemente il mio obiettivo è sempre mettervi in condizione di guardare il mio corso e dopo quelle 4, 5, 7 ore poter già cominciare a programmare su tutti i livelli con quel framework o quel linguaggio. Senza però entrare nello specifico, lascio sempre poi a voi la parte di approfondimento, molte persone mi chiedono puoi per favore approfondire, non è un problema se lo fai anche su Udemy, motivo per cui l'ho messo come punto di domanda. I requisiti per questo corso sono TypeScript, ho fatto un corso di TypeScript recentemente sul canale introduttivo apposta per Angular, è molto veloce ma andiamo a vedere quelle che sono le basi per poi capire quello che facciamo in Angular, perché potreste perdermi facilmente se è il vostro primo framework e soprattutto se siete abituati a programmare magari console HTML, CSS e JavaScript. Questo è uno step di tool, strumenti che usiamo abbastanza importante ed è facile perdersi dalla normale programmazione web all'utilizzo di framework. Ok? Arriviamo a quelli che sono gli argomenti. Faremo un'introduzione di Angular, quindi vedremo che cos'è Angular, cosa serve, come si installa eccetera eccetera. Chiaramente. Andremo a capire con cosa stiamo lavorando, quindi vi mostrerò quello che è tutto il progetto e vedremo tutti i file del progetto, perché vedrete che uscirà tanta tanta roba ed è facile spaventarsi e non capire quello che stiamo utilizzando. Parleremo di componenti che sono l'essenza di Angular, quindi anziché avere una pagina scritta tutta a mano, andiamo a scrivere specifici componenti, il menu, il menu in alto, magari può essere il footer o una tabella oppure delle card, quindi andiamo a creare componenti singoli che possiamo richiamare più e più volte. Sono appunto l'essenza di Angular. Parleremo di data binding ed eventi, quindi vedremo come possiamo generare degli eventi. Quando succede qualcosa qua, fai questo e sono quelli normali, possono essere un click, può essere un drag eccetera, ma possono essere anche eventi che stabiliamo noi. Quando succede questa cosa qua, mandiamo un evento, diciamo guarda c'è un evento e allora dobbiamo essere in grado di raccoglierli. Vedremo che cos'è il data binding, ovvero il binding è sostanzialmente il collegamento, come possiamo dire all'applicazione a questi componenti che sono staccati l'uno dall'altro, mi devi passare questo dato da questo componente a questo componente e viceversa, perché essendo staccati dobbiamo comunicare in qualche modo ed è esattamente questo. Parleremo delle direttive, in inglese sarebbero directive, ok io l'ho messo direttamente in italiano, si tratta appunto di direttive che possiamo dare ai nostri componenti e dire fai così, fai così o fai altre cose. Vedremo poi cosa sono le pipe, parleremo dei services, i services saranno fondamentali per comunicare tra componenti senza diventare scemi col data binding, quindi avremo questi servizi che sono un po' più astratti e ci permettono di parlare con tutti i componenti. Se non capite adesso quello che sto dicendo non preoccupatevi perché ne parleremo nel dettaglio, ma giusto per darvi un'idea. Vedremo il routing, che cos'è il routing? Ovvero la possibilità di spostarsi tra una pagina e l'altra. Questo perché in HTML voi avreste il banale a href, premete e andate su un'altra pagina, ma in Angular non ci sono altre pagine, c'è solo l'index HTML e ci spostiamo con JavaScript, quindi mostriamo e non mostriamo roba esclusivamente con JavaScript. Quindi il routing è fittizio, in realtà non esiste, siamo noi che ci spostiamo tra virgolette tra una pagina e l'altra, in realtà stiamo gestendo come JavaScript va a cambiare la nostra singola pagina per far credere all'utente che si sta spostando tra una pagina e l'altra, ok? Vedremo cosa sono gli observables. Gli observables potremmo definirli come delle promise avanzate, Quindi siamo noi che osserviamo letteralmente un dato cambiare e quando il dato cambia noi reagiamo, ok? Quindi c'è il nostro componente che sta lì tranquillo e cosa fa? Osserva. È lì che osserva quando succede qualcosa lui cambia, va bene? Prendela molto molto facile, però potete capire che lavorando con servizi e componenti che sono tutte cose distaccate, abbiamo bisogno che continuino a guardarsi l'un l'altro in cerca di eventi, situazioni e cose che succedono. Perciò gli observables sono fondamentali. Andremo poi a vedere cosa sono i form, perché in Angular non sono i classici form a cui siete abituati, in HTML e CSS sono molto più complessi, però sono molto belli da fare. Arriveremo poi al modulo HTTP, che è quel modulo di Angular che ci permette appunto di ricevere dati. Non andremo a creare un backend, utilizzeremo magari Firebase o dati fittizi, adesso vediamo come lo andrò a strutturare, però comunque andrò a spiegarvi come fare le chiamate get, put, post, delete, eccetera, eccetera, così siete pronti a poi mandare al backend, sia che lo facciate voi o meno, siete pronti a comunicare con degli API. Dopodiché andremo a vedere registrazione, login e logout facilmente, come possiamo gestirle in Angular. E poi ci sono degli extra, perché al momento non li ho ancora confermati, ma è mio interesse farlo sicuramente, come fare un deploy online semplice, quindi come passare dalla propria applicazione locale, che non serve a nessuno se non a noi, a meno che vogliamo utilizzarla per conto nostro, come fare un deploy online, dove farlo velocemente, che cosa dobbiamo sistemare di vari file, ci sono un po' di cose che vanno sistemate, e poi vorrei fare velocemente un'applicazione dashboard, niente di complesso, però voglio impostarvi il classico menu a sinistra, con i menu che possiamo cliccare, che apre le varie pagine, in queste varie pagine magari mettiamo dentro delle tabelle che si generano automaticamente, insomma, poi vedrò, non ho ancora ben definito l'esempio, però l'idea è, a fine corso, farvi vedere come impostare velocemente un'applicazione standard di quelle che potreste usare, la classica dashboard, non sarà niente di complesso, ma serve a darvi la struttura mentale per capire cosa potete fare, soprattutto vi dà il codice iniziale con cui potete poi andare a fare quello che vi serve, ve lo copiate ogni volta, avete sempre una dashboard nuova e potete creare quello che vi serve, finché poi imparerete a farlo autonomamente. Questo è quanto, questa è l'idea del corso, ripeto, 45 più episodi, spero che vi possa servire, era uno dei corsi più richiesti in assoluto sul canale. Per quanto riguarda i requisiti, non ho parlato di JavaScript e HTML, CSS, vabbè, se conoscete TypeScript, di base dovete conoscere JavaScript, HTML, CSS, se volete lavorare col web, sono la base. Sappiate che non do niente per scontato per quanto riguarda Angular, chiaramente immagino che è la prima volta che vediate Angular, magari non lo sentite per la prima volta, ma lo vediate, perciò non darò niente per scontato qua, ma qui darò tutto per scontato. Quindi se non sapete cosa sono i tipi di JavaScript, insomma non possiamo rispendere 26 ore in un corso che già sarà abbastanza lungo per queste cose qua. Quindi se non sapete queste cose, preparatevi, dopodiché guardate il corso, ok? Perché queste le darò per scontato. Va bene? Questo è quanto, noi ci vediamo nel prossimo episodio, dove cominciamo con una bella introduzione ad Angular, come installarlo, eccetera, eccetera. Sotto in descrizione trovate sempre tutte le solite cose per supportare il canale, il sito e quant'altro. Io vi ringrazio e alla prossima. Ciao, ciao! Episodio 1 del corso di Angular. Oggi vediamo che cos'è Angular, quindi breve introduzione, e poi quello che serve per installare tutto quanto ed effettivamente cominciare a lavorare in Angular. Allora, Angular è un framework JavaScript, ok? Che ci permette di creare single page application, ovvero applicazioni in singola pagina. Si tratta di applicazioni che a differenza dei siti normali, hanno tutto in un'unica pagina HTML e avviene tutto in questa pagina. Mi sposto un attimo su Node e vi faccio vedere che se premo, vedete che si aggiorna velocemente qua. Guardate qua in alto. Se cambio pagina, si aggiorna. Questo perché ogni volta, su questo sito costruito tradizionalmente, io mando la richiesta per una pagina nuova. Ma qua in Angular, vedete che se io premo, guardate, non si aggiorna mai questo. Perché? Perché a noi sembra un sito con più pagine. Ma in realtà è tutto singola pagina. Avviene tutto qua dentro e semplicemente JavaScript si sta occupando di gestire l'applicazione che io vedo. Perciò se io premo su Docs, qua dietro, JavaScript mi cambia questo. In realtà non sto mandando una richiesta alla pagina Docs. JavaScript mi ha cambiato qua in alto. E ha detto ad Angular, guarda che vuole cambiare pagina, tra virgolette. Quindi devi dargli un altro contenuto. E JavaScript mi nasconde queste cose qua, le vedete? Oppure le fa comparire. Quindi abbiamo diversi componenti che vengono mostrati in base a dove sono. Questa è una single page application. La maggior parte delle dashboard che utilizzate sono fatte con framework del genere. Quindi Angular, React o Vue. Non sono più quindi siti a cui facciamo richiesta ogni volta, ma è semplicemente una pagina con diversi componenti che vengono mostrati in base alle nostre esigenze. Che cos'è un framework? Un framework altro non è che vediamola come un insieme di codice aggiuntivo, strumenti, che ci vengono dati sopra JavaScript. Quindi abbiamo il JavaScript normale. E poi abbiamo Angular che ci dà un pacchetto per lavorare con JavaScript, ma per creare queste cose, perché noi potremmo farle a mano con JavaScript e basta. È un disastro. Farlo manualmente, anche solo una cosa del genere, è un disastro. Richiede veramente tanto codice. Angular ci impacchetta già tutto quello che ci serve per renderlo semplificato. Perciò possiamo non dedicarci a ciò che sta sotto, ma possiamo dedicarci semplicemente a creare le nostre applicazioni. Quindi i framework servono a questo. a risparmiarci tanto codice e tanta fatica su operazioni complesse e dedicarci a quella che è la programmazione dell'effettivo prodotto, va bene? In modo molto semplificato. Per poter cominciare a lavorare in Angular, dobbiamo scaricare Node. È fondamentale. Quindi scaricate Node, va bene, la corrente, indipendentemente dalla versione che avete. Una volta che avete scaricato Node, installatelo. Se avete bisogno c'è il video nel mio corso di Node, oppure un video che ho fatto da un minuto su come installare Node, quindi non preoccupatevi. Una volta che avete installato Node, ci spostiamo su angulario.cli.cli e dobbiamo installare appunto l'angular.cli.cli sta per Command Line Interface, ovvero, semplicemente il prompt dei comandi, però di Angular, in cui possiamo andare a fare questi tipi di comandi. Vedete, ngelp. ng sta per angular. A-N-G. Angular, ok? Dopodiché possiamo andare a creare un nuovo progetto, possiamo andare a creare nuovi componenti. Insomma, sarà veramente utile. e soprattutto ci serve per lavorare. Quindi, copiate questo, npm install-g bla bla bla, eccolo qua. Andate, qua in basso, e aprite, scrivete Node, vedete, Node Command Prompt, eccolo qua. Voi semplicemente copiate, fate invio, e aspettate che ve la installa. Una volta che avete finito, vi spostate su dove volete andare, io mi sposto su Desktop, CD, Corsi Sviluppo, benissimo. E qua dentro, andiamo a fare il nostro primo comando per creare il progetto. Vedete, quindi, ng new, e dobbiamo mettere il nome del progetto. In questo caso, io lo chiamo Corso underscore Angular. Non underscore, ma trattino, se no mi fa le storie. Quindi, ng new, nome del progetto, invio, perfetto, ci chiede, comincia a chiederci alcune cose. Volete aggiungere il routing? In realtà, al momento non ci serve, però, ve lo vorrò spiegare, perciò, anziché creare più avanti un altro progetto, facciamo direttamente yes. Benissimo. Adesso ci chiede, che formato di stylesheet, quindi di CSS, volete utilizzare? Volete utilizzare banali CSS, oppure volete utilizzare SCSS, SAS o less? Sono cose che ancora sul canale non abbiamo trattato, perciò io non ho motivo di portarlo in questo momento, oltre a fatto che banalmente non ci interessa, quindi possiamo utilizzare CSS. Adesso lo sta creando, vedete c'è un po' di roba che andrà a creare, molto probabilmente, io molto probabilmente taglierò fino a che ha finito. Perfetto, ha finito, quindi adesso ci spostiamo su cd corso angular, non siete obbligati a farlo da qua, chiaramente potete aprire la cartella, aprire il progetto, andare su Visual Studio Code, fare apri cartella e lo aprite, però siamo qua e lo facciamo, cd corso angular, e da qua, semplicemente scrivete code, se avete Visual Studio Code installato, chiaramente. Ed ecco qua, che abbiamo il nostro corso angular, questo qua non ci serve, perché era la traccia del video precedente, l'introduttivo, non salvare, ma questo è il nostro progetto angular. Adesso non lo vediamo, ma dobbiamo fare un'altra cosa prima, ovvero andare su estensioni, ecco qua, e scrivete angular. Perché? Perché dobbiamo installare, allora vedete qua, angular language service, angular snippets, va bene, se volete angular essentials, va bene, anzi facciamolo, non so perché non ce l'avevo installato, stupendo, lo sta facendo, poi possiamo scrivere yes lint, che non mi trova così, ma così dovrebbe trovarmelo, esatto qua, vedete, es lint, installatelo, dopodiché, possiamo andare a prendere, prettier, se sapessi scrivere, prettier, perfetto, vedete, prettier code formatter, installatelo, e così siamo a posto, quindi, abbiamo creato il nostro progetto, installato angular, tutto è andato con successo, altrimenti non ce l'avremmo fatta, nel prossimo episodio, dobbiamo far partire il progetto di prova, per vedere che cosa succede, ma soprattutto, dobbiamo andare a descrivere, tutta sta roba qua, perché potete vedere, che sono maledettamente, tanti file, sono tanti, e prima di cominciare, ve li devo spiegare, quindi, per oggi è veramente tutto, sotto in descrizione, trovate sempre i modi per supportare il canale, il mio sito, secondo canale, eccetera, eccetera, insomma, sapete voi cosa dovete fare, io vi ringrazio, e alla prossima, ciao ciao, episodio 2 del corso di Angular, oggi vediamo, tutti i file del progetto, e lanciamo il progetto effettivamente, per vederlo, su browser, nell'episodio precedente, appunto, abbiamo installato Node, Angular, abbiamo creato il progetto, adesso vediamo, che cos'è tutta sta roba, vediamola in ordine, innanzitutto, .git, questi sarebbero file nascosti, sia .vscode, che .git, perciò non preoccupatevi, ve li spiego velocemente, zoomiamo un pelino, ecco, allora, .git, è la cartella, per utilizzare git, quindi, si tratta del, software di versionamento, possiamo salvare il nostro codice, tornare indietro, possiamo recuperare, magari, le cose che abbiamo fatto, possiamo condividere il codice con colleghi, e quant'altro, se non conoscete git, ho fatto il corso, ma non entro nello specifico, perché potreste non averlo, potrebbe non interessarvi, ok, soprattutto queste due cartelle, voi potreste non vederle, perché non avete, abilitato, i file nascosti, ok, perciò, non preoccupatevi, Visual Studio Code, queste sono le impostazioni, di Visual Studio, non ci interessa, potreste avere, questa come prima cartella, Node Modules, allora, se non conoscete Node, e non è un problema, Node, ci dà la possibilità, sì, di lavorare con Angular, ma, di gestire i pacchetti, quindi, noi abbiamo installato Angular, come NPM, o quindi, NPM, è ciò che è utilizzato da Node, per gestire i pacchetti, sta per Node, Package Manager, quindi, il gestore dei pacchetti, di Node, quindi, vedete che qua, in Node Modules, abbiamo, la lista dei pacchetti, che abbiamo installato, vedete, abbiamo MP Project, Angular, Angular Dev Kit, ma abbiamo anche, Assembly Script, Babel, insomma, abbiamo tante cose, che sono state installate, tanti pacchetti, che ci permettono, di utilizzare Angular, e gli altri tool, che abbiamo dovuto installare, per creare, il nostro prodotto finale, quindi, ogni volta che noi andiamo a fare, un NPM, il pacchetto, verrà salvato qua dentro, quindi, questo è un insieme, di pacchetti, non preoccupatevi, se avete problemi, con i pacchetti, vi basterà poi, cancellare questo, e fare NPM install, vi sto dicendo cose così random, se mi seguite bene, se non mi seguite, su queste cose qua, non è un problema, sicuramente, sul mio corso Node, fatevi magari, un'infarinatura veloce, su NPM, o su altre cose, perché vi può aiutare, visto che stiamo lavorando, effettivamente, con Node, anche se, in background, possiamo anche, non rendercene conto, dopodiché abbiamo la cartella source, che vediamo a brevissimo, perché prima voglio togliermi, questi file, visto che la cartella source, ha tante sottocartelle, allora, cominciamo con browser list rc, apriamolo, e vedete, che cosa ci dice, che questo file, è utilizzato, dal sistema di build, quando poi andremo a buildare, la nostra applicazione, per aggiustare, il CSS, e il JS, quindi CSS e JavaScript, in base al supporto, dei vari browser, quindi qua abbiamo listati, le versioni, dei browser, che vogliamo andare, a supportare, ok, vedete, iOS major version, le ultime due, Safari le ultime due, Edge, le più, le versioni più importanti, le ultime due, semplicemente l'ultima versione, di Chrome, e Firefox, non c'è più, Internet Explorer, ok, quindi questo progetto, lista, come vogliamo andare a supportare, i vari browser, diciamo che, in questo corso, non entriamo nello specifico, non ci interessa, è già fatto di default, per ora, va bene così, perfetto, dopodiché andiamo su Editor Config, Editor Config, semplicemente, qua dentro possiamo andare, a specificare, delle regole, per l'editor, quindi vedete, MaxLine, Length, Off, piuttosto che, l'indentazione, quindi la size dell'indentazione, del tab, e via discorrendo, queste cose sono legate, al modo in cui noi andiamo, andiamo a scrivere, quindi semplicemente per, lo stile effettivo, del codice, anche qua, non abbiamo necessità particolari, perciò possiamo chiuderlo, dopodiché abbiamo, gitignore, gitignore, serve per dire, a git, che è questa cartella qua, che file vogliamo andare, a salvare, sul nostro repository, che file vogliamo ignorare, e via discorrendo, generalmente, una cosa importantissima, che non mandiamo, ad esempio, sono i Node Modules, che sono questi qua, perché? Perché se io faccio tasto destro, visualizzare e esplorare risorse, tasto destro, proprietà, vedete che sale, il conteggio, sono 248 mega, e ancora non abbiamo installato niente, abbiamo solo Angular, e i pacchetti base, che cosa si fa di solito? Generalmente, non continuiamo a spostare, 250 mega, di codice, e continuiamo a pusharlo, sui vari repository, ok? Tanto è molto semplice, abbiamo tutto salvato qua, come vedremo, tutti i vari pacchetti, ci basterà poi ogni volta, dire, npm install, e automaticamente, abbiamo la lista, dei pacchetti che ci servono, e verranno riscaricati, ogni volta, intendo, quando magari, cosa ne so, noi ci aggiungiamo a un progetto, dei colleghi, siamo nuovi, siamo appena arrivati, ciao devi lavorare su questo progetto, tirati pure giù il progetto, da github, gitlab, o quello che è, abbiamo git, lo tiriamo giù, non abbiamo questa cartella, node modules, ma senza questa cartella, tutto il resto non funziona, perché ci manca tutto, ci manca angular, bubble, colors, e via discorrendo, quindi dobbiamo andare ad installare i pacchetti, anziché passarceli, loro, certo sarebbe bello aver già tutto, ben gestito, eccetera, però, rischiamo ogni volta di dover spostare, adesso sono 250 mega, ho visto anche progetti, da 1, 2, 3, 5 giga, e voi capite che se dobbiamo essere abbastanza veloci, ogni volta dobbiamo spostarci, 5 giga solo di pacchetti, che possiamo tranquillamente reinstallare, diventa un problema, ok? Quindi, gitignore serve per dire, che file non vogliamo, che vengano pushati, ai colleghi, quindi quando poi abbiamo il nostro codice, ah io ho fatto queste cose, aspetta che te le push, o poi guardare le mie modifiche, questi file, vengono ignorati, ok? Quindi, adesso sapete, a cosa serve anche questo, vedete che automaticamente, viene tutto precompilato da angular, quindi, a certi livelli, poi chiaramente, quando avrete esperienza, e quando avrete certe necessità, metterete in mano, anche questi file potreste metterci in mano, diciamo che, al momento, il 99% di voi, nel 99% dei casi, non ne ha bisogno, però è importante sapere di cosa si sta parlando, apriamo angular.json, angular.json, chiaramente, è un json, il json serve per storare dei dati, abbiamo qua, una serie di dati, relativi ad angular, quindi cose che succedono, ad esempio, il polyfills, i vari assets, vedete, abbiamo qua la lista degli asset, ad esempio la favicon, non è che solo perché, è una single page application, e non un sito, ad esempio, non ha una favicon, dobbiamo comunque, dire dove, dove abbiamo i vari asset, le varie immagini, dobbiamo fare riferimento, allo stile css, quindi angular.json, è una cosa che, toccheremo, pian piano, chiudiamolo, chiudiamo anche qua, gitignore, andiamo avanti, e andiamo con karma, karma serve per i test, non sono una cosa che vedremo, adesso, perché i test sono, abbastanza complessi, perciò tutta la parte di testing, la saltiamo, però sappiate che, karma e jasmine, vengono utilizzati, per fare, tutta la parte, di testing, che a certi livelli, diventa importante, noi per capire come funziona angular, non ci interessa, però, adesso sapete che questa parte qua, è legata al testing, scendiamo, abbiamo il package lock json, e il package json, che sono entrambi legati appunto, a node, e ai vari pacchetti, non entriamo nel dettaglio, del package lock, perché era, l'ho spiegato meglio, in node, e non voglio caricarvi di informazioni, ma come vi ho detto, il package json, questo qua, diciamo che il package lock, è una versione un po' più avanzata, del package json, una volta che capite questo, poi vi basta andare, a vedere la documentazione su questo, e diventa tutto molto più facile, diciamo che in brevis, il package json, contiene, altri dettagli sul nostro progetto, mentre angular, contiene i dettagli appunto, effettivi legati ad angular, dove angular prende, le varie cose, qua invece, il package json, dà le informazioni, sul nostro progetto, ovvero, il nome, del progetto, lo vedete, corso angular, glielo ho dato io, magari zoomiamo, un pelino, la versione, certo, al momento è la 0 0 0, neanche la 0 0 1, vabbè, gli script, gli script, altro non sono, che, i comandi che andiamo a utilizzare, questi comandi, vedete qua, ng serve, che avremo utilizzato, a breve, tra pochi minuti, lo utilizziamo, possiamo scrivere, ng serve, oppure, possiamo utilizzare questo script, e avere magari, npm start, vedete, npm build, che equivale a scrivere, ng build, oppure faremo, npm watch, che equivale a scrivere, ng build, watch configuration development, quindi capite come qua dentro, possiamo dare delle parole chiave, dei comandi, andremo poi a scrivere, noi in console, vedrete, npm run build, oppure, npm run watch, che equivale a scrivere, tutta sta roba qua, ok, quindi, negli script, andiamo a renderci la vita, molto più semplice, e facciamo una lista dei comandi, così non dobbiamo nemmeno ricordarci, li sono qua, li possiamo vedere, e soprattutto, con delle semplici parole chiave, andiamo a risparmiarci, tutta sta roba qua, ok, questo è il concetto degli script, fatemi chiudere qua, poi, scendiamo, e abbiamo le dependencies, e le dev dependencies, ripeto, già spiegato nel corso di node, ma velocemente lo vediamo, le dependencies, sono le cosiddette dipendenze, ed è tutta sta roba qua, ovvero, il nostro progetto, dipende, da sta roba qua, il nostro progetto, non può, andare, se non c'è, tutta sta roba qua, voi mi direte, sì, ma Edo, sono giusto un pelo più cartelle, di quante sono riportate, qua dentro, assolutamente vero, ma qual è il fatto, che ogni dependencies, che abbiamo qua, si porta dietro, altre dependencies, a sua volta, ok, è tutto un grande ecosistema, dove se, la cartella, che all'inizio di tutto, esplode, c'è un errore, siamo tutti un po' nella merda, questo, è già successo, recentemente, e ha causato, non pochi problemi, era scoppiato, era stato tirato giù, un pacchetto, che era la base, di quasi tutto, e molte aziende, tecnologiche, da miliardi, hanno avuto, hanno avuto problemi, hanno dovuto, tirare giù server, controllare, insomma, togliere il pacchetto, eccetera, eccetera, è stato, è stato un problema, comunque si chiamano, appunto, dependencies, perché noi dipendiamo, da questi pacchetti qua, i pacchetti effettivi, che noi interessano, vedete, sono quasi tutti legati ad Angular, RxJS, ZoneJS, e TSLib, quindi, sono pacchetti, specifici, per Angular, se noi non abbiamo questi, Angular non funziona, tutti gli altri, che vedete qua dentro, vedete, c'è qua Angular, chiaramente, ma la maggior parte di questi, sono legati, a tutto il resto, può essere Karma, che abbiamo visto, node in generale, o pacchetti, che vengono utilizzati, da Angular, in background, senza che noi ce ne rendiamo conto, quindi, questo, node modules, è tutto, mentre invece, le dependencies, effettive, sono quelle di Angular, che abbiamo installato noi, per far funzionare Angular, ok? Dopo che abbiamo le dev dependencies, le dev dependencies, sono dipendenze, che utilizziamo, vedete qua, Karma, ve l'ho detto, oppure, la cli di Angular, sono delle dipendenze, che servono per il dev, per il developer, per lo sviluppatore, quindi, non sono dipendenze, che sono fondamentali, per Angular, ok? Ma sono dipendenze, che servono a noi, per programmare, quindi, che cosa succede? Il discorso è il seguente, quando poi, pushiamo, al server, la nostra applicazione finale, il server dice, ok, io devo installare sta roba, per far funzionare l'applicazione, non devo installare questa, perché? Perché queste robe qua, sono cose che usiamo noi, TypeScript, il server non se ne fa niente, perché noi scriviamo in TypeScript, ma il browser TypeScript, non lo legge, perché alla fine TypeScript, viene compilato, in JavaScript, quindi, questa cosa qua, è uno strumento, che utilizziamo noi, non interessa al server, non interessa all'utente, ok? Stessa cosa, Jasmine e Karma, servono a noi, per fare i test, il server, non deve testare, l'applicazione è già testata, ed è già stata mandata, in produzione, mentre invece, le dependencies sono fondamentali, quale è il discorso del package JSON, che vi dicevo, noi non ci pushiamo i node modules, ma avendo questo, ci basta fare, npm install, npm install, quando abbiamo un progetto, appena tirato giù, e automaticamente, npm install, va a dire, ok, npm deve installare roba, che cosa installa, quali sono le dependencies, quali sono le dependencies, e ci installa tutto, quindi questa cosa qua, è fondamentale, è come se fosse una lista della spesa, ok? Voi non avete bisogno, ogni volta, di trascinarvi tutto, vi basta, semplicemente, la lista della spesa, in base a questo, vedete cosa vi serve, ok? Non dovete portarvi, per forza, la farina che aveva la vostra madre, vi fate, casomai, la foto del, del pacchetto di farina, non dovete portarvi la farina, l'acqua eccetera, e le confrontate, è questa l'acqua, è questa la farina, sarebbero tipo i node modules, ok? Invece vi presentate, semplicemente con questo, e vedete, ok, mi serve angular animation, lo scarico, mi serve angular common, lo scarico, mi serve karma, lo scarico, va bene? Scendiamo, e possiamo andare a vedere, readme md, è il readme che viene creato, per farci vedere velocemente, come utilizzare angular, direi che possiamo, leggermente, schippare a sto giro, se volete vederlo, ma c'è anche la documentazione, quindi, non serve, sicuramente ci dice ng serve, ci manda su localhost 4200, ma ce lo dirà sotto anche in console, perciò non è un problema, chiudiamo, e dopodiché abbiamo, tre cose legate, a ts, che è typescript, quindi tsconfig app, e vedete, questa è la configurazione, di typescript, che ci dice che fa riferimento, vedete qua, a tsconfig json, fa riferimento, al main ts, come file, che vedremo qua, che è in source, e poi abbiamo tsconfig, json, che è effettivamente, la struttura, di dati, che servono, al compilatore, di typescript, e poi abbiamo, tsconfig, spec, e lo spec, come vedrete, qua, sono i file legati, al testing, quindi questa parte qua, è tutta legata, a typescript, va bene? Allora, tsconfig, serve, al compilatore, di typescript, per capire cosa fare, mentre invece, questi due file, sono uno, in versione, diciamo così, produzione, uno, in versione test, semplicemente, ci dicono, quali sono i file, a cui dobbiamo fare riferimento, vedete, per farla, in, in brevis, ok? Quali sono i file, che vogliamo compilare, quali sono i file, che vogliamo includere, eccetera, eccetera, quindi questa parte qua, è dedicata, a typescript, se avete seguito il mio corso typescript, non è niente di nuovo, forse lo spec, può, può essere qualcosa in aggiunta, però, qua avete già visto, che si tratta di, di, di testing, quindi, possiamo saltarlo, adesso, entriamo in, source, allora, ho aperto source, e c'è un po' di roba, è fino qua, vedete, test.ts, ok? Allora, apriamo innanzitutto, app, e abbiamo, dei file, ok? Li spiego velocemente, perché poi li vedremo anche nel prossimo video, app module, è semplicemente, un file di censimento, vedetelo così, quindi qua dentro c'è la lista di componenti che abbiamo, la lista dei moduli che vogliamo utilizzare, quindi li importiamo, e poi, diciamo che li stiamo utilizzando, e poi qua avremo, i services, vedete, app module come una sorta, appunto, di censimento, tutto ciò che utilizziamo in angular, deve passare, da qua, non perché abbiamo tre file dei componenti, che vedremo, eh, più avanti, quando parliamo appunto dei componenti, e poi abbiamo, l'up routing module, quindi un altro modulo, che vedete che però, era utilizzato qua dentro, lo vedete, app routing module, app routing module, vedete stesso nome, e questo modulo, non fa altro che gestire, il routing, il routing, altro non è che, il cambio delle pagine fittizio, non stiamo cambiando pagine, però cambia l'urli in alto, come gestito, dal routing, ok, lo vedremo più nel dettaglio, non preoccupatevi, e questa è l'app, dopodiché abbiamo, gli asset, al momento non abbiamo niente, ma noi qua dentro, metteremo, file che vogliamo utilizzare, immagini, pdf, qualsiasi cosa, come asset, che ci può interessare, lo metteremo qua dentro, dopodiché abbiamo, l'environment, l'environment, è l'ambiente, e questo è l'ambiente, di produzione, vedete l'environment prod, e l'ambiente di sviluppo, l'environment normale, qua dentro, andremo a mettere, delle variabili, quindi ci sono, sono delle variabili, che cambieranno, in base all'ambiente, automaticamente, quando andremo a fare, delle varie impostazioni, anche sul server di deploy, Angular sarà in grado, di capire, se siamo in produzione, o in test, dopodiché abbiamo, la favicon, niente di incredibile, dopodiché abbiamo, l'index html, da cui parte tutto, ok, quindi index html, e abbiamo qua, uproot, che è il componente, poi vedremo, dopodiché abbiamo, il main ts, il main ts, è il file, da cui parte, tutta l'applicazione, Angular, va bene, quindi mandiamo a schermo, l'index html, ma è da qua, che parte tutto, vedete, app module, ve lo ricordate, che è questo qua, quindi, il main ts, è, il file, iniziale, quindi, abbiamo, la nostra, l'environment, vedete, abbiamo il nostro environment, che viene ripreso, quindi sa, poi, se è in produzione o meno, abbiamo la nostra, app module, quindi, il nostro censimento di robe, da qua, parte tutto, ok, poi abbiamo il file di polyfills, che è per il supporto dei vari browser, al momento pazienza, abbiamo lo stile css globale, anche se poi avremo altri tipi di css legato ai componenti, e poi abbiamo file di test, punto typescript, che al momento non ci interessa, adesso, vi ho fatto vedere, a grandi, a grandi spanne, quelli che sono tutti i file, dovreste almeno capire, le varie differenze tra i file, anche se magari alcune cose non le sapete, magari non avete fatto typescript, siete venuti qua anche senza typescript, o non avete fatto ancora node, eccetera, o git, però almeno avete un'idea di cosa fa ogni file, anche se nel dettaglio non sapete cosa, dobbiamo lanciare l'applicazione, quindi facciamo control, ho accentata, eccola qua, siamo nel terminale, oppure terminale, nuovo terminale, da qua dentro scrivete, ng serve, fate invio, aspettiamo che parta il tutto, siamo già dentro il corso Angular, quindi non è un problema, così è stupendo lavorare, l'avremmo potuto fare tramite il cmd di node, che abbiamo aperto nell'episodio precedente, aspettiamo che venga generata tutta l'applicazione, eccola qua, vedete, e ci dice che il development server, ci sta ascoltando a localhost 4200, perciò aprite qua, così, localhost 4200, faccio invio, e questo è il boilerplate iniziale, che c'è stato creato da Angular, va bene? Quindi questo è ciò che abbiamo, da qua avete i link per la documentazione, se apro vedete, Angular Materia, insomma avete un po' di tutto, questa cosa qua la toglieremo, nel prossimo episodio, ma questo è la parte iniziale, perciò se poi andate a spulciare ciò che è stato fatto, tutta sta cosa qua si trova in App Component, HTML, ok? Potete spulciare da qua, e mentre aspettate il prossimo episodio, giocare l'area qua dentro, però questo è quanto, quindi con ng-serve, facciamo partire l'applicazione, se andiamo però a vedere in Package JSON, possiamo ottenere la stessa cosa con npm start, proviamo, quindi npm, run start sarebbe, ma start non ha bisogno di run, perché viene usato spesso ed è stato tolto il run, quindi npm start, vedete che viene lanciato ancora ng-serve, sta facendo ancora la stessa cosa, quindi va a generare l'applicazione, la va a buildare, e otteniamo lo stesso risultato. Questo è quanto, mi sono dilungato tanto, ma era importante, abbiamo dovuto spiegare praticamente tutto, nel prossimo episodio, parliamo dei componenti, quindi cominciamo a parlare dei componenti, perché sono appunto l'essenza di Angular, sotto in descrizione trovate i modi per supportare il canale, il mio sito, e il secondo canale, io vi ringrazio, e alla prossima. Ciao ciao, episodio 3 del corso di Angular, oggi parliamo dei componenti, vediamo cosa sono, e come possiamo creare dei nostri componenti personalizzati, fate molta attenzione a questa lezione, perché i componenti sono una parte fondamentale di Angular, quindi dovete capirla assolutamente, perché tutto il resto si va a agganciare chiaramente, al concetto dei componenti. Abbiamo già detto che questa è un'applicazione single page, quindi c'è solo questa pagina, il contenuto potrebbe cambiare, non al momento, perché questo è il boilerplate iniziale, però abbiamo questa singola pagina, e più avanti andrà a cambiare contenuto. Ora, che cosa sono i componenti? I componenti, ci arrivate, semplicemente dall'italiano, sono una parte più piccola, di un qualcosa di più grande, quindi abbiamo questo insieme grande, che si va a comporre di tante piccole cose. Ora, la bellezza dei componenti è che li andiamo a riutilizzare. Pensate a un normalissimo sito HTML, con anche semplicemente tre pagine. Che cosa vi aspettate? Vi aspettate una navbar, dove potete avere poi il menu, il logo, vi aspettate un footer, e vi aspettate magari un centro pagina, dove all'interno c'è del contenuto di vario genere. Se tutti voi avete fatto dei siti web con più pagine, scritti a mano in HTML, la prima cosa che avete notato, è che voi la navbar col menu, dovete copiarla in ogni singola pagina. Stessa cosa per il footer. E la prima cosa che vi siete chiesti è, ma seriamente devo farlo ogni volta? Perché se andate a cambiare un qualcosa, nel menu della home, dovete farlo anche per la pagina contatti, about e via discorrendo. Quindi questo problema vi ha fatto dire, cavolo, ma non si potrebbe astrarre, e averlo in un singolo file e richiamarlo in più punti. Questa cosa si può fare con PHP, con altre tecnologie, ma è proprio questo il concetto. Ovvero andare a creare una sorta di file a parte, molto più piccolo, che semplicemente richiamiamo in base alle necessità. La cosa bella però dei framework JavaScript, non parlo solo di Angular, ma anche di React e Vue, è che non solo possiamo creare questo componente che andiamo a buttare dentro dove ci serve, ma lo possiamo rendere anche personalizzato, quindi in base alle situazioni, se ti trovi in questa pagina fai così, se ti associo questo dato invece fai così, quindi non siamo obbligati ad avere sempre lo stesso componente uguale ovunque, ma possiamo andarlo a modificare. Pensate a questi bottoni. Questi bottoni hanno più o meno lo stesso comportamento, lo vedete? Potrebbe essere un componente a sé stante, potremmo avere il componente bottone, che andiamo a modificare, potremmo dire che se è, che se aggiungiamo il titolo ad esempio next step, dovranno avere il più qua, come icona, mentre invece, se è una risorsa, possiamo andare noi a mettere un'icona che vogliamo, ok? E in più avrà di default, vedete qua, la freccia che punta verso destra. In più possiamo andare a definire il titolo del bottone in modo dinamico. Quindi capite che abbiamo un solo bottone personalizzato, a cui poi ci basta dire, voglio, innanzitutto specifichiamo il tipo, se è una risorsa, aggiungiamo quest'icona, automaticamente poi prenderà il titolo che gli diamo, e metterà l'arrow, altrimenti se è un next step, gli diamo semplicemente il titolo, e automaticamente andrà a mettere il più. Non so se ho reso l'idea, ok? Quindi, componenti, piccole parti, che possiamo utilizzare ovunque, nella nostra applicazione. Un altro esempio, e cambio schermata giusto per, non annoiarvi su, quella pagina bianca, potrebbero essere le tabelle. Pensate a una classica dashboard, magari di un gestionale, avrà tante tabelle, avrà la tabella magari degli utenti, avrà la tabella dei clienti, avrà la tabella dei prodotti, eccetera. La tabella è una, è un componente tabella, punto component, che poi vedremo, ma i dati che gli passiamo dentro, sono diversi, non dobbiamo farla a mano. Noi mettiamo la struttura della tabella, come deve agire, quali sono le varie cose, se può ordinare, filtrare dati, eccetera, eccetera. Però, quello che facciamo dinamicamente, è inserirla in giro, dove ci serve, quindi nelle varie, tra virgolette, pagine, che abbiamo, ma soprattutto, gli andiamo a pushare, dei dati diversi ogni volta, ok? Questo è il concetto, al momento noi abbiamo, questo component, allora, riprendiamo app, abbiamo visto quelli che sono i file, allora abbiamo app module, che abbiamo detto che è, il file censimento, con tutto, in questo caso, va a dichiarare, un solo componente, app component. Lasciate perdere poi, app routing, che abbiamo visto, che il routing serve per le varie pagine, le chiamo pagine, anche se sapete che ormai, non sono pagine distinte, però dobbiamo distinguerle, in qualche modo, quindi sono pagine, togliamo questi due, e faccio un po' di pulizia generale, e restiamo con questi tre file, attenzione, abbiamo app.component, 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 .css, html, e typescript, allora, il fatto che si chiama app, è semplicemente, perché è il primo componente, che ci viene creato da angular, in modo predefinito, quindi lo va a chiamare app, in realtà, noi potremmo avere, tanti altri componenti, come vedrete, potremmo avere clienti.component, utenti.component, server.component, qualsiasi cosa ci serve, andiamo a creare, tabella.component, tabella clienti.component, qualsiasi cosa volete creare, lo potete fare, usiamo il .component, come uno standard, per capire che è un componente, perché più avanti avremo, .service, .pipe, .directive, e via discorrendo, quindi si utilizza per capire velocemente, che cosa sta succedendo, ok? Abbiamo però tre file, in realtà potrebbe essere dentro, tutto ts, in realtà, potremmo avere il css qua dentro, potremmo avere il template qua dentro, facciamo una cosa molto bella, che è, appunto, dividere i file, quindi, app.component.ts, è il cervello del componente, vi ho detto che sono componenti dinamici, spesso e volentieri, vi ricordate quei bottoni, che vi ho fatto vedere pochi minuti fa, questi bottoni, da come ve l'ho descritti, sembrano bottoni intelligenti, perché, in base alla categoria che io gli vado a dare, incredibilmente, mi possono accettare, un'icona aggiuntiva, e possono mandare a schermo, altre icone di default, vedete il più, e la freccia sono di default, quindi questa è l'icona aggiuntiva, e poi mi accettano un titolo, quindi capite che è un bottone, che cambia, ma per cambiare, devo usare javascript, perché il css non ha senso, html non può cambiare, quindi, sono componenti, tra virgolette, intelligenti, ma per essere intelligenti, hanno bisogno di javascript, in questo caso, stiamo usando typescript, perciò, hanno bisogno, di un file typescript, ed ecco qua, che abbiamo il nostro file ts, questo file ts, che cosa dice, beh, innanzitutto, abbiamo un import da angular core, che è il core, è il fulcro, di angular, quindi dalla libreria, fulcro di angular, importiamo il component, questo ci serve, per andare a dichiarare il componente, fin qua abbiamo una banalissima classe, che esportiamo, da poter usare in giro, quindi abbiamo una classe, che esportiamo, che si chiama app component, fin qua, nessun problema, il cui titolo, è il corso angular, stupendo, va bene, fin qua, niente di incredibile, questo qua, l'abbiamo visto in typescript, si chiama decorator, è un decoratore, i decoratori servono a decorare, quindi vanno a decorare, le classi in angular, quindi ci permette, di decorare una classe, specificando che cos'è, perché non è che se io metto, app component, improvvisamente angular, sa che è un componente, per fargli capire, che è un componente, io devo mettergli il decoratore, at component, in questo caso, facciamo così, sarebbe una cosa del genere, mi dà errore, perché chiaramente il componente, vuole più informazioni così, però messo così, è più un decoratore, qua invece sembrava, una minestra di qualcosa indefinito, così invece è un decoratore, vedete ho decorato la mia classe, con il decoratore, at component, così ha molto più senso, in realtà, questo component, ha bisogno di dati aggiuntivi, perciò viene tutta sta, sta roba di 5 righe, ok, quindi questo component, si importa questo, e siamo a posto, abbiamo creato una classe, che chiamiamo app component, per capirci qualcosa, che facciamo diventare un componente, grazie a component, che mettiamo qua, ok, fin qua ci siamo, ora, abbiamo tre cose qua dentro, abbiamo un selector, quindi un selettore, utilizziamo html, perciò, abbiamo bisogno di selettori, eccoli qua, vedete, abbiamo div, img, insomma abbiamo bisogno, dei nostri elementi, e in questo caso, se io vado su index html, vedete qua abbiamo il nostro selettore, uproot, ovvero stiamo dicendo che nel body, tu mi metti, uproot, che effettivamente, se io vado qua a vedere, uproot, è root e radice, quindi tutta la radice, della nostra applicazione, si trova qua dentro, nel body, grazie al component, up component, che andiamo a identificare, come uproot, così non ci confondiamo, e sappiamo che da qua, parte tutto, va bene? quindi questa è la base, il selettore è questo, quindi voi potete scegliere il selettore che volete, potete chiamarlo come volete, ma lo andrete a richiamare così, quando fate così, avete un componente, ora, abbiamo un template url, in questo caso, il nostro componente, dovrà avere un html, perché questo è l'html, per richiamarlo, ma all'interno, se noi vediamo qua dentro, non ci sono i bottoni, che voi vedete qua, dov'è tutta sta roba? qui non c'è, dov'è? è dentro appcomponent.html, quindi vedete che il template, del nostro app component, è in appcomponent.html, quindi il template, è l'html, lo stile, è il css, la mente, è il typescript, e il selettore, è ciò che ci serve per, richiamarlo, ok? con la stessa logica, se noi avessimo dei componenti a parte, per questi bottoni, noi potremmo avere, un selettore, così magari potrebbe essere, app, button, una cosa del genere, in realtà qua vedete che è tutto arcodato, con button, eccetera eccetera, ma noi potremmo avere questa cosa qua, e potremmo averne tre, facciamo che sono uno, due, tre, sono molti di più, potremmo avere il nostro app button, con il title, mettiamo il titolo, gli associamo l'icon, e via discorrendo, quindi vedete, che gli andiamo a prendere il selettore, gli associamo degli attributi, e poi queste cose qua, finiscono nell'app component, vengono gestite, e il risultato, è quello che poi vedete a schermo, non è così, ma noi lo possiamo fare più avanti, una volta che impariamo a farlo, lo possiamo sicuramente fare, dopo di che abbiamo lo style, lo style vedete che qua ha un array, non siamo obbligati ad averne solo uno, possiamo averne di più, infatti sono più url, vedete qua è singolo, qua sono multipli, e il nostro style css, eccolo qua, app component css, quindi un componente, si compone di, chiaramente essendo un componente, si compone di cosa? Di un template, di uno stile, di javascript, per renderlo dinamico, ok? E tutto ciò lo richiamiamo col suo selettore, perciò ricapitoliamo, abbiamo la mente, che è questo file, il template, che è l'html, lo stile, che è css, e dopodiché abbiamo il selettore, eccolo qua, per richiamarlo. Adesso che avete capito, che cos'è un componente, come lo richiamiamo, e da cos'è formato, è il momento, di provare a crearne uno nostro. Allora, se io vado qua, prendete il terminale, al momento abbiamo, Angular che sta andando, e noi vogliamo che continua ad andare, motivo per cui, andate qua sul più, se non ce l'avete, terminale, nuovo terminale, ok? Vi ha creato un nuovo terminale, vedete? Il primo è node, perché sta funzionando Angular, questo qua è un banale cmd al momento. Ora, vogliamo creare, un nuovo componente, e noi dobbiamo fare, ng, che vi ho detto che sta per, Angular, se tolgo, gular, e tolgo a, abbiamo, ng, ng sarebbe generate component, quindi, ng generate component, ma cosa possiamo fare? Possiamo fare tranquillamente, ng, g che sta per generate, c che sta per component, perché non avete voglia di scrivere ogni volta, ng generate component, quindi stiamo dicendo, Angular Cli, che abbiamo installato, vi ricordate ci serve per fare i comandi, Angular Cli per favore, generami un nuovo componente, ok? E come me lo chiami? Lo chiamiamo, prova, faccio invio, e sta succedendo qualcosa, allora, sono successe, un po' di situazioni, innanzitutto, qualcosa è andato a buon fine, ovvero, è stato creato, component.html, lo vedete? È stato creato, component.spec.ts, ma abbiamo già detto che lo spec, riguarda i file di testing, e al momento non li vediamo, perciò non ci servirà, è stato creato, component.ts, sempre prova.component, prova.component, quindi vedete come, automaticamente Angular utilizza lo stesso standard che ha usato qua per app.component, per dirci, guarda che ciò che hai creato è un componente, che si chiama prova, e ti ho creato i classici quattro file, ovvero, la mente, lo stile, il template, il testing. Dopodiché, ho fatto un'altra cosa, ha updateato, app.module.ts. Noi questa cosa, potevamo farla a mano, in più ci ha creato, vedete qua, la cartella di prova, con dentro tutti i file, noi eliminiamo, lo spec, che non ci interessa, ma che cosa ha fatto? Ha creato la cartella prova, ha creato dentro, i tre file, chiamiamoli tre, lasciamo perdere lo spec, ci ha aggiunto il punto component, per farci capire, di cosa stiamo parlando, e in più, automaticamente, ha aggiornato, app.module.ts, quindi se io apro, app.module.ts, se vi ricordate, a inizio lezione, c'era solo app.component, adesso c'è, prova.component, ok? Quindi, abbiamo, evitato di scrivere tutto a mano, e l'abbiamo fatto, perché non ve l'ho fatto scrivere a mano? Magari scriverlo a mano, vi sarebbe rimasto in testa? Non lo so, c'è ng.generate.component, che lo fa per voi, vi evita tutto sto problema, e vediamo, il codice standard, che ci ha creato, ora apriamo prova, uno, due, tre, perfetto, allora, css vuoto, al momento non ci interessa. Abbiamo il nostro ts, automaticamente ci ha importato component, ci ha importato anche on init, che non avevamo su app.component, ma ci arriveremo tra due episodi, ci ha fatto il nostro decoratore, e ci ha aggiunto cosa? Il selettore, quindi app.prova, perfetto, dopodiché ci ha tranquillamente connesso lui, il template, e il css, perfetto, e dopodiché ci ha creato, la nostra export class, prova component, che implementa già on init, che vedremo, e ha il costruttore, quindi la differenza, con l'app component, in realtà è il costruttore, e l'ng on init, ok? Però, se noi dovessimo togliere, 1, 2, di conseguenza questo import non ci serve più, è maledettamente uguale, a parte il title, che qua usava, per una questione di codice, iniziale, per mostrarci qualcosa a schermo, in realtà, tolto quello, sono esattamente uguali, in questo caso, ci ha fatto un'aggiunta, che noi non disdegniamo, perché ci servirà, sta roba, ok? Non ce l'ha aggiunta a caso, ce l'ha aggiunta, per un motivo, comunque sapete cos'è un costruttore, semplicemente, non sapete così, non sapete cos'è, ng on init, ng è angular, on è un evento, init sta per, initialization, ok? Inizializzazione, initialization, adesso che abbiamo, questo metodo qua, capite, che qua c'è un evento, di inizializzazione, ma lo vedremo appunto, tra due episodi, quindi abbiamo il costruttore, e un evento, che parte, all'inizializzazione, basta, per il resto, è roba che abbiamo già visto, se però, io vado a salvare, e apro un attimo, l'html, rispetto a tutto ciò, che c'era, prima qua, che è un po' uno schifo, ci ho messo, semplicemente, un p, con scritto, prova works, ovvero, se questa cosa, compara schermo, vuol dire che il componente prova, funziona, ok? Quindi, ricapitelliamo velocemente, se volete crearlo a mano, potete farlo, stoppare il video, in realtà, dovete creare, una cartella, col nome del componente, tre file, che sono, html, css, ets, stesso nome, punto component, dopodiché dovete, aggiornare, chiaramente, app module, nell'html, potete mettere quello che volete, e, mentre invece, nel prova, dovete creare, una class, col nome, che avete dato, più component, potete evitare, questa cosa qua, se lo volete fare a mano, chiaramente, poi dovete ricordarvi, qui il decoratore, potete prendere spunto, la cosa che mi interessa, se lo fate a mano, è che, riseguite i passaggi, che ha fatto, poi il contenuto, non ve lo potrete ricordare, a memoria adesso, non è un problema, altrimenti, fate esattamente, quello che ho fatto io, riprovate, prima di andare avanti, col video, a generare, un altro componente, generate un altro componente, di prova, così, a caso, date chiaramente, un altro nome, però, generatolo, quindi, ng, generate, component, nome del, nome del componente, perfetto, allora, adesso, puliamo, l'app component, per favore, che è uno schifo, e cosa facciamo, proviamo a richiamare, il nostro componente, prima guardiamo il risultato, abbiamo una pagina vuota, bianca praticamente, ok, perciò, noi ci mettiamo qua, e facciamo, app, vedete, incredibilmente, me l'ha già trovato, incredibilmente, è qua, perché, perché Angular, sa cosa deve cercare, perché noi siamo riusciti, a, far capire ad Angular, dichiarandolo qua dentro, tra i vari componenti, che prova component, è un componente, che esiste, che vogliamo usare, quindi, è in grado di aiutarci, perciò noi, salviamo, e se vado sulla pagina, abbiamo, prova works, ok, zoom un pochino, perfetto, al 300%, ma adesso, vi faccio vedere, perché così, sembra solo una pagina, e il componente, sembra sia tutto, in realtà, io comincio, a duplicare, salvo, e come vedete, abbiamo duplicato, i componenti, ora, se la mente, se la vostra mente, comincia ad esplodere, già voi capite che, le liste, potete generarla automaticamente, un insieme di card, potete generarla automaticamente, cioè, pensate magari, una playlist, di canzoni, mostrata su Spotify, generata dinamicamente, come componente, il componente, cos'è? la canzone, con l'immagine dell'album, il titolo, chi l'ha fatto, ok? Più il tasto play, chiaramente, oppure il tasto salva, il tasto metti nei preferiti, una lista di contatti, una lista di task da eseguire, generati tutti, dinamicamente, stesso component, abbiamo più liste, abbiamo, la lista, dei messaggi di chat, e la lista degli utenti, nella stessa pagina, se parlo di una chat, avremo il componente utente, che verrà moltiplicato, e poi avremo il componente messaggi, che sarà diverso come template, come stile, e anche come logica, e verrà comunque moltiplicato, due componenti separati, che però vanno a generare, delle liste abbastanza corpose di dati, ok? I dati poi verranno presi dall'esterno, verranno ingettati nel componente, che si moltiplicherà, in base a quelle che sono, chiaramente, le necessità dei nostri dati, non so se ho reso l'idea, e vi ho fatto capire, la potenza, perché letteralmente, adesso l'ho duplicato a mano, ma vi posso garantire, che ci sono più avanti, degli scamotage, che possiamo utilizzare, per avere semplicemente qua, un app prova, e incredibilmente dire, guarda, finché ci sono dati, tu continui, a produrmi app prova, all'infinito, ok? Quindi questa, è la base dei componenti, adesso sapete cos'è un componente, da cosa è composto, a livello pratico di file, in Angular, soprattutto, sapete inserirne uno nuovo, di componente, sia, sapete inserirlo, con il selettore, ma sapete anche crearlo, e vi ricordo, ng, g che sta per generate, c che sta per component, nome del componente, adesso sapete tutto, potete provare appunto, a creare un vostro componente, e inserirli, al momento, questo è, non vi spiego altro, nel prossimo episodio, dovremo andare ad inserire, Angular Material, perché ci serve, un framework CSS, che ci permette, di evitare, di scrivere il grosso, questo è quanto, sotto in iscrizione, trovate il link, per supportare il canale, secondo canale, sito, eccetera, eccetera, vi ringrazio, e alla prossima, ciao ciao, episodio 4 di Angular, oggi parliamo, di Angular Material Design, ovvero, un framework CSS, creato da Google, quindi Material Design, forse potreste già conoscerlo, in formato, però, ad hoc, per Angular, di cosa sto parlando, al momento abbiamo, i nostri componenti, il componente che abbiamo, però, è un banalissimo, prova works, senza alcun tipo di CSS, noi vorremmo, fare qualcosa, di un po' più complesso, magari dei badge, delle card, vogliamo mettere, dei form, chiaramente, tutte queste cose qua, vanno stilate, quindi, perché non utilizzare, dei framework CSS, che ci danno già, impacchettati, dei componenti, degli stili, e delle funzionalità, ecco perché, per Angular, c'è Angular Material, ce ne sono anche altri, ma Material Design, è fatto da Google, Angular è un progetto, creato da Google, di conseguenza, capite che le due cose, vanno facilmente a braccetto, potreste aggiungere Bootstrap, se volete, io preferisco, Angular Material, allora, questo qua è il sito, material.angular.io, ci tornerete spesso, perché dovete vedere, la documentazione, queste cose qua, non si imparano a memoria, sui vari componenti, eccetera, li prendete, da qua, se lo usate veramente tanto, potreste imparare qualcosa a memoria, ma sono qua, dovreste ogni volta vedere, gli API, come agganciarli, dovete vedere, sempre la documentazione, per alcuni esempi, quindi, ci passerete tanto tempo, torniamo qua dietro, intanto, e cominciamo con, get started, perché tutta sta cosa qua, dobbiamo installarla, allora, cominciamo con, install angular material, perciò noi prendiamo, e dobbiamo scrivere semplicemente, ngangularadd, vogliamo aggiungere qualcosa, angular material, quindi, torniamo, su visual studio, prendiamo, il terminale, che abbiamo usato prima, per creare il componente, ctrl v, facciamo invio, e adesso, comincerà l'installazione, di angular material, ci chiede, yes, voglio assolutamente procedere, let's go, e adesso, dobbiamo aspettare, che finisca l'installazione, in realtà, dobbiamo essere molto attivi, dovete guardare con me, perché, perché ci chiederà delle cose, tipo questa, che tema vogliamo, che tema vogliamo utilizzare, vogliamo utilizzare, un tema preimpostato, o qualcosa di custom, al momento, ci basta qualcosa di preimpostato, quindi, indigo, pink, va bene, vuoi settare, angular material, typography styles, facciamo sì, non è un problema, e adesso ci chiede, se vogliamo includere, anche le animazioni, noi includiamo, insomma, facciamo il pacchetto completo, non è un problema, quindi, fate invio, e adesso, finirà, e ha concluso, benissimo, adesso abbiamo il nostro angular material, l'abbiamo solo installato, quindi torniamo sulla dock, scendiamo, e dobbiamo mostrare un componente, quindi, per mostrare un componente, innanzitutto, dobbiamo importare, tale componente, vedete, mat slider module, per lo slider, dobbiamo importarlo dove? Nell'app module, quindi, visual studio, app module, da qua, chiaramente, dobbiamo importarlo, vedete, come se fosse un modulo, un componente, comunque, dobbiamo dire, al codice effettivo, da dove arriva, e poi, dobbiamo fare il censimento, per angular, in questo caso, è un modulo, vedete, mat slider module, quindi, va negli import, dove ci sono gli altri moduli, facciamo così, e siamo a posto, adesso, prendiamo, l'esempio, dello slider, andiamo, sul nostro componente di prova, e innanzitutto salviamo, andiamo sul nostro componente di prova, HTML, eccolo qua, e anziché, prova works, possiamo commentarlo, giusto così tanto per, andiamo sotto, incolliamo il nostro slider, salviamo, il risultato, al momento, è nullo, come potete vedere, non vediamo niente, in realtà, qua, sembra che ci sia uno slider, se io faccio tasto destro, ispeziona, andiamo a vedere, e vedete qua, abbiamo il mat slider, qual è il problema? Che dobbiamo, in realtà, riavviare il server, altrimenti, potrebbe non renderizzarlo, come in questo caso, perciò, tornate su qua, dove avete aperto, Angular, chiudete con ctrl c, e poi ancora, ng serve, fate invio, aspettate che, rebuildi tutto, e parta, benissimo, e adesso vedete, che abbiamo, zoom un pelino, vedete che abbiamo, il nostro slider, come componente, di Angular Material, noi non abbiamo fatto niente, abbiamo solo importato, il codice, per lo slider, e abbiamo detto, vogliamo utilizzare Angular Material, vogliamo utilizzare il modulo slider, e adesso utilizziamo, lo slider, questa cosa ci apre, tante possibilità, perché se io chiudo, Getting Starter, e vado su, componenti, vedete che abbiamo, tanta roba, abbiamo tanta roba, ad esempio, vediamo un po' i bottoni, possiamo aprire, i badge, apriamo magari, delle card, le chip, il date picker, perché no, quindi vediamo un po' che cosa abbiamo, bottoni, serie di bottoni, le avrete sicuramente visti, magari sulle app, questo genere di bottoni, bottoni sulle icone, bottoni raised, qua con l'outline attorno, flat, basic, quindi c'è tutto ciò, che ci può servire, per un'applicazione, o quasi tutto, alcune cose potremmo dovercele, fare custom, qua abbiamo i badge, magari per le notifiche, chiudiamoli, qua abbiamo le card, classico esempio di card, vedete che se andate su, scusatemi, abbiamo l'overview, dove ci parla un po' di tutto, il componente, come si fa, vedete, header, subtitle eccetera, quindi questa è la parte della documentazione, poi se andiamo su api, entra nello specifico, di ogni singola cosa che abbiamo, proprietà e metodi, che possiamo eventualmente avere, vedete, e soprattutto abbiamo la riga, di codice che ci serve per importare, le card, o in questo caso, il componente in particolare, perciò prendiamo card module, ci spostiamo su app, modulo app, andiamo qua, incolliamo, ops non questo, incolliamo qua, questo così, copiamo, facciamo così, ok, salviamo, torniamo qua, andiamo su examples, perché su examples c'è tanto da vedere, queste sono card semplici, questa è una card un po' più complessa, card con caricamento, vedete qua, altre card di vario genere, insomma, avete un po' di situazioni, per vedere il codice effettivo da copiare, perché comunque dobbiamo copiarlo, perché dobbiamo capire come si fa una cosa del genere, vi basta andare qua, vedete, view code, vedete qua, e poi potete togliere nel caso, view code, e abbiamo la parte html, la parte ts, ok, del componente, e la parte css, allora, in questo caso, prendiamo prima l'html, anzi, copiamolo da qua, scusatemi, perfetto, andiamo nel nostro prova component, togliamo tutto, salviamo, il risultato è il seguente, abbiamo dei problemi, perciò, dobbiamo andare sul css, copiamo anche questa parte, apriamo il css del nostro componente, incolliamo, salviamo, e verifichiamo il risultato, chiaramente è un po' grande, perché avevo zoomato tanto, fatemi tornare a uno zoom decente, ok, 100%, e questo è il nostro risultato, abbiamo un problema sui bottoni, immagino, ecco perché non abbiamo importato i bottoni, perciò, bottoni, API, vedete come sono tanti componenti separati, i bottoni fanno parte di un componente più grande, che è la card, così come di tanti altri componenti, quindi noi andiamo qua, andiamo in app module, ci mettiamo qua, tac, prendiamo, andiamo qua, e importiamo, salviamo, e vedete che adesso è già qualcosa di più simile a ciò che abbiamo visto qua, praticamente, ok, quindi di base vi rendete conto come potreste dover importare tutto, e qua vi faccio un piccolo disclaimer, la cosa migliore sarebbe, forse lo trovate anche su stack overflow, c'è qualcuno che ha già fatto lo sbatti, di prendere tutti i moduli, sia che dovete importare qua, che qua, e creare un modulo a parte, tipo up routing, vedete, ha fatto un file a parte, che potete tranquillamente copiare, o potreste farlo voi a mano, di solito anche sui progetti grossi lavoro così, ho un altro modulo che chiamo material, tipo materialdesign.module.ts, che poi, esattamente come questo qua, come l'up routing, che poi importo qua dentro, non ve lo faccio fare a sto giro, perché poi ci va a creare problemi, quando facciamo, ng, ng generate component, eccetera, perché, perché poi, ci trova l'altro modulo, come un possibile modulo simile, ad up module, quindi, l'applicazione non riesce a distinguere, dobbiamo andare a fare, ng generate component, nome del componente, che non è qua, scusatemi, ma qua sotto, e poi dei flag, riguardanti il modulo, eccetera, è roba un po' più avanzata, perciò non ve lo voglio far fare, sappiate che, best practice, è, vi create un modulo a parte, di angular material, ci buttate dentro, tutta sta roba qua, tutto quello che volete prendere, se volete farlo tutto, così non ci dovete pensare ogni volta, meglio, io faccio così, prendo tutti, prendo tutti i componenti di angular material, che mi interessano, li butto dentro, almeno io posso usare angular material, senza avere problemi, come quello dei bottoni, se avessimo già fatto tutto il lavoro prima, non avrei dovuto mettere i bottoni, poi dopo, chiaramente, ci dà questo problema, perciò potreste farlo direttamente qua dentro, vi verrà un app modulo abbastanza grosso, perché sono tanti i moduli, dei componenti di angular material, e poi si aggiungeranno gli altri moduli, dell'applicazione, questo è un piccolo disclaimer, se volete provare a farlo a parte, chiaramente poi dovete risolvere, quell'errore, motivo per cui vi dico, al momento, state così, quando poi, guadagnate fiducia in angular, e capite bene come funziona, non è un problema, anche avere dei moduli esterni, a cui far riferimento, ok, ora, se diamo un ultimo sguardo, angular material, vi faccio vedere magari le chips, che potreste aver visto sicuramente, utilizzando prodotti google, vedete, banalissime chips, ecco qua, vedete cose del genere, sicuramente le avrete già viste, degli esempi, eccole qua, se usate, se usate sistemi operativi android, android usa queste cose qua, alla fine, date picker, sicuramente l'avrete già visto, insomma, ci dà tanti bellissimi componenti, con le funzionalità già attaccate, vedete, cioè noi non dobbiamo praticamente far, far niente, la cosa bella, che poi abbiamo tante proprietà, che possiamo poi andare a definire, insomma, è molto, molto bello completo, come framework, perciò, è una cosa che sicuramente, utilizzeremo, anche perché, ad esempio, abbiamo le snack bar, le table, voglio far vedere altra cosa, le tab, vi voglio far vedere magari, il menu, vediamo un po', esempi di menu, ok, sembra niente, ma in realtà, c'è qualcosa di interessante, avete menu diversi, e soprattutto, la toolbar, ad esempio, classica toolbar, che avete visto sulle applicazioni, ma soprattutto, la side nav, side nav, vedete, che ci permette di dividere, si capisce poco da qua, ma ci permette di dividere, l'applicazione in due, quindi qua abbiamo il menu laterale, esattamente come in questo caso, quindi questa è una side nav, vedete, qua abbiamo, la navigazione side laterale, e qua abbiamo il resto del contenuto, vedete, tac, 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 questa è un'applicazione fatta in angular, quindi noi alla fine del corso, vogliamo fare una cosa del genere, quindi gestiamo il routing qua, abbiamo la nostra nav bar laterale, e dopodiché andiamo ad avere contenuti differenti, ok, e utilizzeremo appunto, questi componenti di angular material, snack bar, per farvi un esempio, facciamolo partire, vedete qua sotto, piccole notifiche, le table, che ci serviranno, vedete, possiamo utilizzare tabelle, gli buttiamo dentro i dati, possiamo gestirle come vogliamo, abbiamo tante possibilità, le tab, insomma, non dover scrivere tutta sta roba qua, è di un certo livello, vedete, c'è la possibilità semplicemente di prendere il codice, che non è neanche tanto, vedete, questa è solo la prima tab, non dobbiamo fare niente, qua abbiamo una riga di, cioè capite, dobbiamo semplicemente far così, chiaramente inserire gli API del modulo, e siamo a posto, le chips, ve l'ho già fatto vedere, il deadpeaker pure, ok, questo è quanto, nel prossimo episodio, vedremo quello che è il ciclo di vita, di un componente, perché adesso sappiamo, che ci sono i componenti, sappiamo che li possiamo modificarli, li possiamo abbellire, anche con il framework di Angular Material, però abbiamo visto ng on init, nell'episodio precedente, vi ho detto che, c'è un'inizializzazione, ma un'inizializzazione, presuppone che poi ci sia anche una distruzione, un caricamento, un check, e quant'altro, quindi, andremo a vedere il ciclo di vita, di un componente, sotto in descrizione trovate, il link per il mio secondo canale, sito, e come supportare il canale, io vi ringrazio, e alla prossima, ciao ciao, episodio 5 di Angular, oggi vediamo, il ciclo di vita, di un componente, allora, abbiamo detto che i componenti, possono essere, utilizzati, in più parti diverse, della nostra applicazione, ma soprattutto, vi ho detto di come, quando cambiamo pagina, tra virgolette, la classica pagina, fittizia, cambia il contenuto, quindi abbiamo dei componenti, che vengono creati, e distrutti, continuamente, quindi, già capite, come, nel modo più semplificato, il ciclo di vita, di un componente, è, quando ne ho bisogno, lo creo, quando non ne ho più bisogno, lo distruggo, quindi già potremmo avere, questo ciclo di vita, nasce, fa il suo mestiere, e muore, ok? In realtà, è un po' più complesso di così, e adesso lo vediamo, quindi vado su browser, e vi prendo, questo bellissimo schemino, che è stato fatto, come risposta, su stack overflow, vi faccio vedere, quello che è, il thread ufficiale, giusto per, questioni di, di source, è giusto dare, il merito, a Mansur, che, che l'ha fatto, molto bello, e rende molto l'idea, non aveva senso rifarlo, perché, ha, ha centrato in pieno, allora, questo è il ciclo di vita, di un componente, e adesso, lo, poi lo vediamo effettivamente, su, su Angular, ma questo è il discorso, allora, innanzitutto, abbiamo detto, che abbiamo, ng on init, come potete vedere, ng on init, l'abbiamo visto, c'era già stato creato, automaticamente, da Angular, non appena, abbiamo creato, il componente prova, con, l'angular cli, ok? Che cosa succede? Abbiamo visto che c'era anche il costruttore, quindi viene creato un nuovo componente, sì, che è una classe, perciò c'è il costruttore, come vedremo, dopodiché viene inizializzato, il componente, subito dopo essere inizializzato, il componente fa un controllo, quindi, do check, fare, controllo, poniamo il caso che non c'è niente in questo controllo, si passa a, ng after content init, che cos'è il content? Il content è di base, per intenderci, il test, tutto ciò che è all'interno, dei tag HTML, ok? Quindi si parla proprio di quel contenuto testuale, quindi non appena viene inizializzato, il contenuto della pagina, va bene? Dopodiché, come vedete, il contenuto viene checkato, viene controllato, quindi prima viene inizializzato, anche qua vedete, in g on init, e poi viene fatto il check, allora viene inizializzato il content, il contenuto del componente, e poi viene fatto un check, dopodiché, abbiamo la stessa cosa, per la view, la view, altro non è che la parte, effettiva, diciamo così, i componenti che noi vediamo, non è solo il testo, ma è tutto il resto della pagina, ok? Utilizzate questa divisione, dovrebbe risultare facile, quindi il testo è la prima cosa, che viene mandata a schermo, la view, è quello che è il risultato finale, ok? Dopodiché, la view, viene anch'essa, controllata, e il componente, sta lì, va bene? Il componente sta qua, fino a che noi non lo distruggiamo, magari cambiamo pagina, in questo caso viene distrutto, ritorniamo su questa pagina, si ripassa a fare lo stesso ciclo, quelli che vedete in rosso, vengono chiamati una volta sola, ovvero vengono chiamati, quando il componente, viene creato, va bene? Il componente viene creato, viene inizializzato, basta, mentre invece, quelli in verde, vengono chiamati, ogni volta che succede qualcosa, abbiamo, ng, on changes, on changes, vuol dire, durante i cambiamenti, perciò, il nostro componente, è sempre, alla ricerca, di cambiamenti, è sempre in ascolto, perché? Perché noi, come vedremo più avanti, possiamo interagire con i nostri componenti, e possiamo dire, guarda, questo componente adesso è così, ma adesso cambia, se prima questa lista, mi mandava a schermo, 5 card, come questa, magari, facciamo finta che è una chat, prima c'erano 5 card, che erano i messaggi, adesso ne è arrivato un altro, quindi il componente, ha subito un cambiamento, perciò, on changes, e on changes, cosa fai? Mi devi fare il controllo, per capire, cos'è cambiato effettivamente, dopodiché, mi devi fare un check, sul contenuto, per vedere se è cambiato qualcosa, e poi mi fai, il contenuto, sulla view, quindi sul risultato finale, e quindi, vedete come ogni volta, che succede qualcosa, subito dopo, viene chiamato, vedete, questo è sull'init particolare, questo è appena il contenuto, viene inizializzato, appena il contenuto, è stato controllato, appena la view, è stata inizializzata, appena il contenuto, è stato controllato, questo ciclo di vita, ci permette, di andare a fare, cose mirate, quando succedono, determinati eventi, quindi sui changes, possiamo andare a cambiare, qualcosa noi, manualmente, sull'init, vogliamo andare a prendere, i dati magari, sull'init, lo possiamo fare, possiamo andare a fare, qualcosa di specifico, appena il contenuto, è stato inizializzato, o appena la view, oppure possiamo fare qualcosa, subito dopo, i controlli, sia del content, che della view, oppure, possiamo fare qualcosa, sul destroy, magari il nostro componente, ha attivato, adesso ve la metto così, randomicamente, seguitemi senza paura, sta ascoltando, un observable, quindi ha fatto, quella che si chiama, una subscription, una sottoscrizione, come se fosse una sottoscrizione, a Netflix, il nostro componente, ha fatto una sottoscrizione, però se il componente, viene distrutto, noi vogliamo, toglierla questa sottoscrizione, ok, altrimenti, va in eterno, è come se, vi muore, qualcuno, che ha aperto, la sottoscrizione, con Netflix, la persona muore, e la sottoscrizione, continua ad andare avanti, all'infinito, no, vogliamo che qualcuno, si prenda carico, guardi, mi è morto il parente, potete non continuare, a scalarmi i soldi, dal conto bancario, tanto non lo guarda più nessuno, ok, stesso discorso, quindi, ad ogni punto, possiamo andare a vedere cosa sta succedendo, e fare cose specifiche, ok, quindi questo è il ciclo di vita, per ricapitolare, viene inizializzato il componente, dopodiché viene inizializzato il contenuto, viene inizializzato la view, e poi muore il componente, all'interno, ci sono tutti i vari check, ma soprattutto, siamo in attesa, sempre di cambiamenti, ogni volta che c'è un cambiamento, noi facciamo il controllo, va bene, e rifacciamo i controlli, su content e view, questo è quanto, adesso noi qua abbiamo il nostro componente, ma prendiamo angular, e cominciamo, effettivamente, a buttarci dentro, tutto quello che ci serve, per fare questi controlli, allora cominciamo con un bel console.log, e facciamo costruttore, benissimo, poi, console.log, e mettiamo on, anzi, facciamo direttamente ng, on init, qua, poi, chiaramente se avete bisogno, c'è la documentazione, su angular, vi basta scrivere angular, life cycle hook, questa è la pagina, e vedete che c'è tutta la documentazione, se avete problemi, potete sempre tornare, sulle, sulla documentazione, non preoccupatevi, ovviamente, mettiamoci qua, per implementare, le altre parti, del life cycle, quindi vogliamo intercettarle, scriviamo after, e vedete qua che abbiamo, after view init, after view checked, after content init, e after content checked, quindi, li prendiamo tutti, uno, due, ops, ho messo lo stesso, yes, andiamo a capo, after view checked, e poi prendiamo, after view init, e poi facciamo, do check, andiamo avanti, con, destroy, destroy, on destroy, ecco qua, ci dà errore, perché dobbiamo implementarli tutti, vedete, dobbiamo implementare, l'interfaccia, queste sono interfacce, mi raccomando, quindi ecco perché, ne stiamo implementando tante, non stiamo ereditando, ma stiamo implementando, quindi ci mettiamo qua, e andiamo sotto, correzione rapida, e implementiamo, tutte le interfacce, non implementate, vedete, quindi le abbiamo implementate tutte, non sono in ordine, non è un problema, noi adesso prendiamo qua, e sostituiamo, anzi, facciamo così, tac, sostituiamo tutte, bam, perfetto, adesso copio, le copiamo, tutte, e facciamo partire, il nostro, componente, e poi on destroy, che qua non vedremo, perché non andiamo su un'altra pagina, ma non è un problema, salviamo, e se io, prendo qua, vedete, attenzione, è successo qualcosa, vediamo un po', ecco qua, allora, abbiamo il nostro, life cycle del componente, apro benissimo, allora, il costruttore, viene chiamato una sola volta, ovvero, quando, prendiamo questo componente, se io vado su, app component, e moltiplico questo, salvo, vedete, che ci ha dato due costruttori, perché, perché è un costruttore, per ogni componente, quindi ogni componente, ha il suo life cycle, le due cose, non sono unite, puliamo, perché sennò ci confondiamo, togliamo, voglio solo farvelo vedere, come ogni volta, chiaramente, viene costruito, un componente, ex novo, perciò abbiamo, il costruttore, chiaramente, è una classe, il nostro componente, ha un costruttore, dopodiché, ng, on init, chiaramente, deve essere, inizializzato, il componente, dopodiché, al check, l'abbiamo visto, vedete, on init, do check, ovvero, fai vari controlli del caso, se per caso, abbiamo delle regole, sul check, le andrà a rispettare, in questo caso, non abbiamo niente, dopodiché, abbiamo, ng, after content, init, quindi, non appena il contenuto, è stato inizializzato, questo è il componente, in generale, questo è il contenuto, va bene, e il contenuto viene inizializzato, e poi viene controllato, e ogni volta, noi abbiamo, l'appiglio, look, l'amo, a cui possiamo agganciarci, non appena ha finito di fare queste cose, after vuol dire dopo, quindi, dopo che il contenuto, è stato inizializzato, dopo che il contenuto, è stato controllato, va bene, e qua, vi ritrovate, vedete, check, init, check del content, adesso dovremmo avere, view init, e view check, perciò andiamo qua, view init, e view checked, benissimo, dopodiché, non appena ha finito, il componente fa un altro controllo, perché i controlli, sono costanti, non appena succede qualcosa, quindi, ha finito tutto, ha finito di inizializzare tutto, si fa un altro check, va bene, quindi, ho fatto il check qua, in generale, allora devo farlo anche del content, e della view, perciò vado qua, ed effettivamente content, e view, succede qualcos'altro, per caso, ripeto, non l'abbiamo ancora fatto, ma andremo a scambiare dati, tra i vari componenti, in qualche modo, con eventi, service, eccetera, eccetera, il componente ogni volta, subirà dei cambiamenti, il nostro componente è sempre, all'ascolto per dei cambiamenti, perché funziona, funziona così le applicazioni single page, sono componenti, che stanno sempre allerta, ok, perché devono essere collegati, in qualche modo, quindi stanno sempre allerta, e continuano a ceccare, non appena c'è un cambiamento, può essere che ha finito, l'inizializzazione, in questo caso, controlla, perfetto, ho fatto il controllo generale, faccio il controllo del content, faccio il controllo della view, e adesso, è in attesa, dovessimo fare qualcos'altro, riparterebbe, ng do check, after view content, after view check, ok, da qua, se per caso ne avessimo, un menu, tipo quello di angular, che abbiamo visto, della documentazione, e ci spostassimo, su un'altra pagina, questo componente, verrebbe distrutto, di conseguenza, arriverebbe, ng on destroy, va bene? Quindi, questo è il ciclo di vita, del componente, voi ricordatevelo, come, un componente, nasce, cresce, muore, ma in realtà, nel frattempo, fa anche tanti controlli, e ogni volta che ricontrolla, ricontrolla, il content, e la view, e basta, voglio che vi portate a casa, questo macro concetto, perché, perché un componente, non è statico, non è lì e basta, un componente fa cose, sotto in background, di cui noi non ce ne rendiamo conto, ma che ci serviranno, perché, più avanti, vi renderete conto, come sull'init, faremo determinate cose, sul costruttore, faremo determinate cose, andremo a fare magari cose, after content init, o after view init, quindi non appena finito, di caricare tutta la view, andremo a fare qualcos'altro, quante volte magari, avete lavorato con javascript, o addirittura jquery, e avete aspettato, che tutta la pagina, tutto il document, abbia caricato, in questo caso, noi magari vogliamo aspettare, che tutto il componente, abbia caricato, per una qualsiasi motivazione, va bene, questo è quanto, nel prossimo video, cominciamo a parlare, del data binding, ovvero, il binding, è il collegamento, tenere collegate due cose, quindi andare a collegare, i dati, ad un componente, ok, per ora è tutto, maledettamente, arcodato, ma angolare bello, così come gli altri framework, javascript, sono belli, per la loro dinamicità, va bene, e per quanto, possono essere generici, durante l'utilizzo, quindi, impareremo, come si fa, pian piano, per oggi veramente tutto, sotto in descrizione, trovate il link, al secondo canale, sito, e come supportare il canale, io vi ringrazio, e alla prossima, ciao ciao, episodio 6 di Angular, oggi parliamo, di data binding, vediamo che cos'è, e quali sono, i tipi di data binding, mi sono permesso, di mettere i commenti, qua dentro, il componente di prova, giusto per non dimenticare niente, comunque possiamo andare, allora, se riprendiamo, il nostro componente di prova, che abbiamo, arricchito con, material design, quindi se vi ricordate, abbiamo preso la nostra card, da queste qua di prova, e abbiamo voluto, fare le cose, un po' in grande, anziché avere solo una scritta, per il componente, e quindi è ben detto, che il nostro componente, potrebbe rappresentare, delle card, come abbiamo visto, se io vado su, app component, posso andare, a duplicare, e se io salvo, chiaramente ho, lo stesso numero, di card, a schermo, questo è il concetto, quindi io posso utilizzare, questo componente, all'infinito, e questo componente, mi fa da stampino, il problema, è che al momento, questo stampino, è maledettamente, uguale per tutti, è la stessa card, dello stesso Shiba Inu, con le stesse informazioni, la stessa immagine, è molto improbabile, che noi, in un sito, in un'applicazione, possiamo voler avere, più di una card, o più di un componente, maledettamente, uguale, all'altro, ok? Molto probabilmente, avremo delle card, simili, con diversi tipi di cane, che mostra le razze, o diversi nomi di cane, magari sono due Shiba Inu, quasi uguali, ma non uguali, non con la stessa foto, con nomi diversi, descrizione diversa, il nome, la razza, quello che volete, avete capito il senso, quindi vogliamo andare a rappresentare, con lo stesso componente, che è questa card, che ha, l'avatar, il nome, la categoria, l'immagine, una descrizione, e questi due bottoni, noi vogliamo avere, questo stampo, per tutti i prossimi, altri cani, che aggiungiamo, ma chiaramente, devono cambiare, i dati all'interno, con Angular, è fattibile, e questa cosa, si fa attraverso, il data binding, data binding, to bind, dall'inglese, è legare, ok? data binding, stiamo legando, i dati, da dove arrivano questi dati, e soprattutto, cosa possono essere i dati, se noi prendiamo, i nostri componenti, vi ho già detto, che abbiamo, la parte logica, ok? che a livello di sviluppo, più avanzato, si chiama, model, ok? quindi il modello, dei dati, questa è la parte logica, mentre qua abbiamo, la view, che è la parte grafica, ok? quindi, il data binding, consiste nel collegare, quelli che sono, i dati presenti, nella parte logica, a ciò che l'utente, vede a schermo, e viceversa, possiamo, collegare, o bindare, quelli che sono, i componenti, che vediamo a schermo, con ciò che succede, dietro, ok? quindi, il data binding, altro non è che il collegamento, la comunicazione, tra ciò che l'utente vede, e ciò che succede a livello logico, nell'applicazione, perché io, adesso, non ho modo di dire, ad Angular, che io ho qua dentro, nel titolo della card, anziché Shiba Inu, voglio qualcos'altro, a meno che, lo scrivo a mano, posso scrivere Roger così, ma, non ho modo di diglielo, dinamicamente, posso farlo, col data binding, ok? Data binding, si scompone, questo è il data binding, data binding, si scompone, in due categorie, ok? come avete già, two way, abbiamo, il data binding, one way, non preoccupatevi per l'inglese, vi spiego tutto, e two way, ok? per chi non lo sapesse, one way, è una direzione, ok? Mentre invece, two way, è a doppia direzione, quindi pensate a una strada, a senso unico, one way, eccola qua, e pensate ad una strada, a doppio senso, ok? Two way, quindi cosa succede? Che, nel one way binding, stiamo portando i dati, dalla logica, al, al componente, alla view che abbiamo, oppure, dal componente grafico, alla logica, ok? Mentre invece, nel two way binding, stiamo, stiamo portando i dati, da una parte, e dall'altra, in contemporanea, ok? Quindi questa, è la divisione, di categorie, questi tre, sono, one way, questo qua, chiaramente, è two way, questo qua, è separato, sono tutti one way, finché non è spiegato, two way binding, ok? Queste cose qua, comunque, se vi confondono, non preoccupatevi, su tutti i termini, eccetera, non preoccupatevi, quello che vi ricorda, quello che dovete ricordare, è semplicemente, che esistono quattro modi, di fare data binding, ok? E li vedremo tutti, nei prossimi video, non preoccupatevi, il primo è string interpolation, quindi interpolazione, delle stringhe, ovvero, noi qua, avremo, dei dati, ad esempio, una variabile, const, nome cane, ok? E gli mettiamo qua, Roger, vi faccio vedere velocemente, ma che const, così, ok? Abbiamo nome cane, Roger, e cosa possiamo fare? Qua dentro, possiamo andarlo, ad inserire, lo faccio vedere velocemente, nome cane, vediamo se è corretto, perfetto, se io salvo, salvo qua, vado a vedere, vedete che me l'ha preso? Ok, non concentratevi molto su sta cosa qua, perché poi lo vediamo nel dettaglio, nei prossimi video, ma il discorso è che, come vedete, con string interpolation, io posso andare a prendere, dei dati, e buttarli, dentro, come contenuto string, lo vedete? Qua dentro, posso prendere dei dati, e mandarli a schermo, così, e questo è lo string interpolation, che ci serve per mandare a schermo, dei dati, il property binding, invece, è quel collegamento, che non è, con i dati, che mostriamo a schermo, ma può essere, con le proprietà, degli elementi html, nel senso, potrebbe essere una classe, noi possiamo avere, una classe, css, mostrata, in base a un tipo di dato, ad esempio, noi potremmo avere, che, il colore, del testo, lo facciamo, normale, se va tutto bene, o lo facciamo rosso, se c'è un errore, questa cosa, la utilizzeremo tanto nei form, quindi, andremo a, modificare, la classe, css, lo stile, css, oppure, scegliere una classe o l'altra, in base, a dei dati, ok, questi dati arrivano, dal typescript, ok, e poi, vengono mandati, alla view, al nostro componente, e li usiamo come proprietà, perché, chiaramente, lo stile, le varie classi, eccetera, sono proprietà degli elementi, ecco perché si chiama, property binding, quindi, le proprietà degli elementi html, potrebbe essere un bottone, disable, vedete qua, disabled, così, potremmo avere disabled, che è uguale a, true o false, in base a ciò che abbiamo, su typescript, quindi, se c'è, se sta succedendo qualcosa, mi blocchi il bottone, altrimenti, permette l'utente, di premerlo, avete capito il senso, quindi property binding, è legato, alle proprietà degli elementi, mentre invece, string interpolation, è legato effettivamente, a ciò che l'utente vede, a livello di dati, e questi qua, vanno, come abbiamo detto, dal typescript, quindi da qua, mandano roba, verso la view, ok? Mentre invece, possiamo avere le cose al contrario, possiamo avere event binding, ovvero, stiamo andando a legare, degli eventi, che compaiono qua, e li mandiamo dietro, a typescript, ad esempio, vedete qua, like and share, adesso non succede niente, ma più avanti, dovremo andare a bindare, letteralmente, il press, del bottone, quando clicco sui vari bottoni, qualcosa deve succedere, quindi se vado a premere like, dobbiamo mandare, un messaggio, a typescript, dietro, che va, a chiamare, quella parte di angular, che parla col back end, che si occupa di prendere like, lo salva nel database, e riaggiorna tutto, ok? Mentre invece, con lo share, si apre, ci dice, su cosa vuoi condividerlo, e ci permetterà di condividerlo, ma queste cose qua, i bottoni di default, cioè ciò che vediamo a schermo, non lo possono fare, serve una logica, che prima avremmo fatto, in javascript, se non stessimo usando angular, adesso lo facciamo in typescript, va bene? Quindi è la logica del component, questo discorso per dirvi che, le prime due, property binding, e string interpolation, servono per mandare qualcosa da typescript, allo schermo verso l'utente, mentre invece, event binding, serve per mandare qualcosa, dall'utente che sta facendo, dietro, a typescript, che dovrà poi eventualmente, fare cose, e molto spesso farà cose, in contatto con il back end, e il database, va bene? Ora per concludere, e questi sono tutti, one way binding, perché vedete che passa, da typescript, all'html, dall'html, a typescript, qua invece, è two way binding, two way binding, vuol dire che, possiamo avere, delle situazioni, in cui, ad esempio potrebbe essere, dei form, in cui, prendiamo, dei dati, da typescript, ma, se succede qualcosa, li andiamo comunque a cambiare, quindi poniamo il caso, che, non abbiamo qua, un form da mostrare, ma poniamo il caso, che noi, anziché, il nostro nome cane qua, non venga mostrato, nella card, ma abbiamo, un input, va bene? Quindi, abbiamo questo nome cane, che abbiamo, ripreso, magari siamo nel profilo privato, di facebook, di una persona, la persona ha già un nome, quindi, il dato, viene mandato a schermo, abbiamo il nostro input, con il nome, con già il nome, inserito, ok? Quindi, che cos'è? Property binding, quindi la proprietà, valore, la proprietà value, dell'input, è già stata compilata, va bene? Ma allo stesso modo, potremmo dire, che ogni volta, che qualcuno, va a scrivere, nell'input del nome, automaticamente, mi vai a cambiare, questa variabile, in tempo reale, ok? Quindi, questo potrebbe essere, two way binding, adesso potrebbe dirvi, poco, sicuramente, è meno facile da capire, il two way binding, rispetto agli altri tre, che sono un po' più semplici, però non preoccupatevi, che nei prossimi video, lo vediamo. Comunque, questo è il data binding, che è una parte fondamentale, di Angular, d'altronde continuo a dire, fondamentale in ogni video, perché stiamo vedendo, tutte le basi, ok? Quindi, data binding, ripeto, fondamentale, perché è ciò che ci permette, di avere roba dinamica, altrimenti, avremo solamente, delle card, con degli shiba inu, infinite, tutti uguali, e non ci servono, assolutamente, a niente, ok? Questo è il data binding, fateci una pensata, chiaramente non vi ho fatto vedere, esempi effettivi, di string interpolation, property binding, eccetera, perciò, se non avete capito questa parte, non moriteci, cercate di capire almeno, il concetto che dobbiamo passare dati, dalla logica, al componente, per mandarle a schermo, e dobbiamo anche prendere, gli eventi, dei click sui bottoni, i form, e quant'altro, che poi devono essere gestiti, in qualche modo, dal componente TS, perché se noi abbiamo un form, e poi dobbiamo fare qualcosa, con sti dati del form, dobbiamo prendere tutti i dati del form, e poi mandare al backend, non se ne occupa l'HTML, se ne occupa chiaramente, TypeScript, va bene? Questo è quanto, nel prossimo video, cominciamo a parlare di string interpolation, sotto in descrizione, trovate le solite cose, documentazione, secondo canale, sito, eccetera eccetera, io vi ringrazio, alla prossima, ciao ciao, episodio 7, cominciamo a vedere il data binding, nel dettaglio, e oggi parliamo di string interpolation, quindi l'interpolazione, delle string, allora prima di cominciare, vorrei che facessimo un po' di pulizia, di tutto qua, vorrei che portassimo, in app component, ad un solo prova, a schermo, e poi prendete ancora, material angular, e anziché aver l'immagine, che tanto non possiamo sostituirla al momento, possiamo andare a copiare, quella che è una card, un po' più tranquilla, vedete? Possiamo copiare il codice qua, oppure potete far saltare l'immagine, direttamente, dal codice che abbiamo già, assicuratevi di non dover inserire altro, questo CSS già ce l'avevamo, perciò io vado qua, prova component, noi prendiamo tutto, e facciamo così, se io salvo, qua dentro, c'è già fatto string interpolation, vedete? qua non me ne ero accorto, ecco qua, questo long text, l'ha preso da qua, direi che noi possiamo, per ora sostituirlo, perciò questo long text, per ora, va così, io salvo, non ci dà più errore, e ciò che abbiamo a schermo, è esattamente la card di prima, meno l'immagine, che abbiamo tolto, ok? Allora, abbiamo detto che con string interpolation, noi vogliamo mandare a schermo, dei dati, e la prima cosa che dovete sapere, è che string interpolation, ci permette appunto di, fare l'interpolazione, qua a schermo, con qualsiasi cosa che sia una stringa, quindi possiamo, inserire una stringa, possiamo inserire una proprietà, che richiama una stringa, oppure possiamo inserire qualsiasi metodo, che riporta una stringa, possiamo anche avere dei numeri, che però sono convertibili in stringa, quindi qualsiasi cosa che Angular, riesca a, buttare qua dentro, come stringa, questo è fondamentale, ecco perché si chiama string interpolation, ora, noi qua lavoreremo con, dei dati fittizi, ma, in un'applicazione più realistica, chiaramente i dati arriveranno, da un database, quindi abbiamo il nostro backend, che prende i dati dal database, e ce li manda, quindi come avevo già detto, pensate a più card, che automaticamente, qua hanno, il nome della razza, qua la categoria, quello che volete, una piccola descrizione, eccetera, eccetera, ok, questa cosa cambierà, come facciamo, per ora noi simuliamo, e lo facciamo tramite qua, il nostro prova component, perciò noi, da qua, andiamo a inserire magari, cani, facciamo così, cani, uguale, abbiamo un array di oggetti, perché ci dovrebbero arrivare più oggetti, di tipo cani, chiaramente, magari mettiamo un, facciamo un bel nome, due punti, e mettiamo, Roger, e poi mettiamo, razza, io non li conosco, mettiamo, golden, retriever, però scrivo solo golden, e poi come, descrizione, descrizione, vuole dire che possiamo mettere, questa qua, la togliamo bellamente, anzi la copiamo per ora, e la mettiamo, qua dentro, però dobbiamo fare un po' di pulizia, perciò possiamo andare a capo qua, a capo qua, e qui anziché usare, i singoli apici, per mantenere la formattazione, sulle, sulle tre righe che abbiamo, facciamo alt 96, per utilizzare i back tick, vedete che ci mantiene, le tre, le tre righe, ok, se facessi così, mi darebbe chiaramente, errore, vedete, quindi per mantenere, questa formattazione, back tick, perfetto, adesso che abbiamo il nostro, il nostro cane, potremmo averne altri, chiaramente, potremmo andare qua sotto, farne altri, eccetera eccetera, poniamo il caso che ce n'è arrivato solo uno, noi salviamo, e vogliamo prendere questi dati, che fittiziamente, ci sono arrivati dal database, col nome di questo cane, e vogliamo mandarli a schermo, nella nostra card, che è qua, e che chiaramente, viene ripresa qua, allora come facciamo, usiamo string interpolation, l'abbiamo già detto, ci basta mettere le doppie parentesi graffe, quindi vado qua, tolgo, metto doppie parentesi graffe, e qua dentro, posso usare una qualsiasi espressione, di TypeScript, quindi posso metterci dentro una funzione, posso richiamare, un valore, oppure posso usare, ternary operator, adesso vediamo un po' tutte queste cose qua, la prima cosa che potremmo fare, è mettere una stringa, io posso fare così, e me lo prende, perché abbiamo detto, vedete, che l'importante, zoom un pochino magari, abbiamo detto che l'importante, è che Angular possa mandare a schermo qualcosa, che alla fine sia una stringa, altrimenti la cosa che ci interessa in questo momento, è rimandare a schermo cosa, ci interessa il primo oggetto che abbiamo, quindi cani, zero, prendiamo il nome, per fare un attimo più facile, voglio far così, perché magari non riesce a starmi dietro, nome, Roger, quindi anziché tutta sta roba qua, voglio prendere solo nome, ed è molto semplice, salviamo, vado qua, anzi che cani scrivo nome, e vi mando a schermo, vedete che me l'ha preso, ok, ora un po' più realisticamente, vorrei prendere qualcosa che mi arriva, da dei dati, perciò, direi che possiamo, prendere cani, zero, chiaramente, perché in questo array, abbiamo solo un elemento, quindi zero, punto nome, noi ci mettiamo qua, e abbiamo cani, zero, punto, nome, se io salvo, e facciamo magari che, cambio qua, e scrivo, rogero, almeno si vede la differenza, vedete che il nome, è rogero, quindi che cosa stiamo facendo, stiamo rendendo dinamica, questa card, con dei dati, al momento lo stiamo facendo, noi a mano, con dei dati che abbiamo messo, noi a mano, qua andiamo a prendere l'array, noi a mano, l'index in realtà, sarà poi dinamico, andrà a prendere tutte le card, e genererà delle card, in base ai dati, però avete capito il senso, quindi sta prendendo dinamicamente, questo però è dinamico, scritto a mano da noi, questo indice, e questi dati, scritti da noi, ma il tutto è dinamico, perché io qua, non ho messo il nome rogero, gli ho detto, guarda, fammi così, fammi una string interpolation, e mi prendi, il nome, del primo cane che abbiamo, ok, quindi è tecnicamente dinamico, anche se la parte di dati, è arcodata, va bene, ora, con la string interpolation, potremmo fare altre cose, innanzitutto, potremmo andare, a prendere gli altri dati, quindi qua dentro, potremmo mettere cani, è zero, e buttiamo dentro, la razza, ma in realtà, voglio farvi vedere, che possiamo utilizzare, altre cose, ad esempio, qua in punto nome, potremmo avere, to upper case, non mi ricordo, se è maiuscolo o minuscolo, facciamo così, perfetto, e questo qua, è meglio metterci, qualcos'altro di prova, ok, quindi qua, cosa ho messo, letteralmente, un'espressione typescript, perché gli ho detto, non solo mi mandi a schermo, una proprietà, che io, ho qua, va bene, ma, in più, ci aggiungi, un metodo stringa, e cosa fai, tutto quello che hai qua, me lo metti come uppercase, in maiuscolo, ed effettivamente, vedete che me l'ha messo in maiuscolo, perché, perché comunque c'è tornato, qualcosa, che è comunque una stringa, una stringa, maiuscola, ok, un'altra cosa, che potremmo vedere, ah, una cosa importante, è che non potete fare, blocchi di codice, su più righe, quindi non potete fare if, non potete fare for, l'unica cosa che potete fare per gli if, è il ternary operator, se lo conoscete, ternary operator, ha la seguente sintassi, ovvero abbiamo la condizione, condizione, punto di domanda, la prima cosa da fare, ok, quindi se la condizione è vera, fai questo, altrimenti, col due punti, fai quest'altro, facciamo else, ok, quindi, condizione, fai questo, else, fai qualcos'altro, va bene, questo è il ternary operator, se lo conoscete, nessun problema, se non lo conoscete, vi consiglio, di andare a rivedere, o la documentazione javascript, velocemente, e fare qualche prova, oppure, il mio video di javascript, dove tratto gli if, dovrei, dovrebbe essere in fondo al video, comunque, togliamo sta cosa qua, e proviamoci velocemente, giusto per far vedere, a livello dimostrativo, ok, quindi, mettiamo che se 2, è minore di 5, mi mandi a schermo, qwerty, eccolo qua, altrimenti, mi mandi a schermo, poll, al contrario, di base ho fatto, quindi io salvo, e cosa vi aspettate, ci aspettiamo qwerty, ed effettivamente, vedete qua qwerty, ma se io faccio, magari un bel 6, chiaramente, abbiamo, l'altro risultato, tutto questo, per far vedere, come degli if, li possiamo avere, in modo molto semplificato, ma li possiamo avere, l'importante, che non avete blocchi di codice, su più righe, ok, quindi if, if specifici, while, switch, for, eccetera, non li potete fare, e ricapitolando, string interpolation, ci permette di fare, un po' di roba, perché, se ci pensate, tutti i dati, che manderemo a schermo, li mandiamo a schermo, così, li manderemo tutti, a schermo, così, prenderemo dei tag, e dentro, ci butteremo, quali sono i dati, che ci interessano, in modo più o meno dinamico, con varie, con varie differenze, varie casistiche, vedete come questo, cambia sostanzialmente, da questo, però quello che ci interessa, è sempre il risultato finale, e il risultato finale, non è quello che c'è scritto dietro, è sempre una stringa, che l'utente può vedere, e da cui può trarre, delle informazioni, perché alla fine, conta questo, ok, questa è la string interpolation, spero sia tutto chiaro, sono semplicemente, due parentesi, graffe, due da una parte, due dall'altra, dentro qualsiasi cosa, che possa essere convertito, in stringa, letteralmente, qualsiasi espressione, typescript, che possa essere, una stringa, fate delle prove, potete provare, a giocare qua, mettere più, mettere più cani, mettere più oggetti, quello che volete, provateli a richiamare, vedete un po' cosa succede, e provate a completare, una card, in modo pseudo dinamico, ok, e vedete, semplicemente, quello che sono le basi, di Angular, perché più avanti, lo andremo a fare, chiaramente, in modo dinamico, con dati presi, da database, ma soprattutto, andremo a generare, le card, in modo totalmente dinamico, questo è quanto, sotto in descrizione, trovate le solite cose, documentazione, sito, secondo canale, eccetera, eccetera, io vi ringrazio, alla prossima, ciao ciao, Episodio 8 di Angular, oggi parliamo, del property binding, ovvero, come legare, i dati che abbiamo, in TypeScript, a, il nostro componente, in HTML, allora, vi voglio far vedere, l'esempio, con un bottone, e poi, con un'immagine, intanto, per il cos'è abbiamo già visto, quindi, ripetiamo, consiste nel, collegare dei dati, che finora abbiamo collegato, esclusivamente, con la string interpolation, quindi, l'abbiamo mandato, effettivamente, a schermo, se vi ricordate, ho ripreso il componente, vedete che abbiamo mandato a schermo, questi dati qua, rispetto a ciò che avevamo prima, che era, Shiba Inu, e poi c'era scritto, Dog, Breed, qualcosa del genere, ok, col property binding, invece, non vogliamo mandare a schermo, direttamente, un dato, ma vogliamo, eventualmente, cambiare, può essere, un'immagine, può essere, la funzionalità di un bottone, può essere il CSS, la classe che gli assegniamo, e altre cose, ok, quindi, adesso, riprendete, la documentazione di Angular Material, e andate sui componenti, e voglio capirete i bottoni, e poi, le card, mi interessavano, cominciamo col bottone che è più facile, allora, bottone, l'avevamo già messi, sì, se non mi ricordo male, vediamo, da qua, andiamo sul modulo app, e abbiamo i bottoni, perfetto, quindi possiamo importarli, con facilità, andiamo su esempi, scegliete il bottone che volete, facciamola molto facile, in questo caso, prendiamo qua, e magari prendiamo, un button color primary, è rilevante il colore, onestamente è rilevante anche lo stile in generale, e direi che noi ci spostiamo sul nostro componente, possiamo togliere questa card che sostituiremo, e qua abbiamo il nostro bottone, se io faccio salva, come vedete abbiamo il nostro bottone, si capisce poco, perciò sarebbe meglio prendere la versione erased, vediamo un po', ecco qua, questo mi piace di più, facciamo così, sostituiamo, perfetto, e se ne andiamo a vedere, abbiamo il nostro bottone, ora, quello che vogliamo fare adesso, è provare, l'attributo disable, che probabilmente già conoscete da html, quindi vedete se io qua premo, funziona, ma se vado a mettere, disabled, togliamo qua un attimo, come vedete, il bottone è disabilitato, e io non posso usarlo, questa cosa qua potremmo, averla magari in un form, e io non ti faccio andare avanti, finché non completi tutto il form, e tutti i dati che mi servono, ha senso? Questo è un esempio realistico, che potrebbe assolutamente succedere, ora, se io vado qua, e aggiungo così, l'uguale e le virgolette, posso mettere sia true, che false, quindi se io metto false, vuol dire che non è disabilitato, e posso premere, se invece metto true, chiaramente ci aspettiamo l'opposto, perciò vedete che è ancora disabilitato, quindi, abbiamo sì, la possibilità di, scriverlo, in modo ridotto, ok, oppure possiamo associare, true o false, su questa cosa, voi capite, che noi vogliamo, far sì che, il bottone disabilitato, dipenda, o meno, da qualcosa che abbiamo, su TypeScript, quindi sulla logica, del nostro componente, intanto fatemi togliere, questo, che mi dà fastidio, ok, quindi noi vorremmo, che il nostro TypeScript, sia in grado, di controllare, o meno, in modo dinamico, se il bottone è disabilitato o meno, perché, adesso, metterlo, in modo, arcodato, non ce ne frega niente, cioè sappiamo, che vogliamo farlo cominciare, come false, come true, quindi deve essere disabilitato, però poi noi vogliamo, che quando, tutto il form, sia, completato, e corretto, senza errori, dinamicamente, questo bottone, diventi attivo, ok, quella parte, del bottone, che diventa attivo, quando il form, è completo, chiaramente, la gestisce JavaScript, se usassimo solo HTML, CSS e JavaScript, ma qua invece, abbiamo bisogno, della logica, del componente, quindi ci deve essere, della logica dietro, che automaticamente, va, a capire, cosa sta succedendo, e riabilitarci, il bottone. In questo caso, andiamo proprio a utilizzare, il property binding, quindi andiamo a legare, le proprietà di un elemento, in questo caso, per far diventare, una proprietà legata, a, una variabile di TypeScript, o un valore di TypeScript, innanzitutto, andiamo a mettere qua, is disabled, ok, quindi è disabilitato, lo faccio in inglese, perché è disabilitato, non posso scriverlo, con la accentata, quindi is disabled, true, vuol dire che è disabilitato, se fosse false, sarebbe attivo, ok, quindi questo qua, corrisponde a, è disabilitato, no, è disabilitato, sì, va bene? In questo caso, cominciamo con false, perfetto, io salvo di qua, vado di qui, e per collegare la cosa, io potrei provare a mettere qua, is disabled, false, salvo, e vedete che non succede assolutamente niente, perché è disabled, false, perciò noi ci aspetteremmo, qua c'è letteralmente, false, se ci avesse preso questa variabile, dall'altra parte, se fosse true, risulterebbe disabilitato, ma qua risulta disabilitato, per un altro motivo, ok? Quindi possiamo dire che sta variabile, non ce la sta prendendo, come facciamo a collegare, questa variabile, a, questa proprietà, è molto facile, ci basta usare le parentesi quadre, improvvisamente, guardate cosa è successo, questa era semplicemente una stringa, la vedete? è arancione, su visual studio, il mio tema, le stringhe, me le mostra in arancione, probabilmente anche sul vostro, se avete quello di default, nel momento in cui, vado a mettere le parentesi quadre, avete visto? Improvvisamente questa è diventata, azzurra, e cosa abbiamo da azzurro? Le variabili, vedete? Improvvisamente, ciò che non è direttamente una stringa, ma è qualcos'altro, diventa azzurro, se io salvo, il nostro bottone è attivo, stesso codice, semplicemente ho aggiunto, le parentesi quadre, da adesso, mi ha preso questo collegamento, quindi disabled false, è disabilitato, falso, quindi vuol dire che è attivo, se io adesso vado a mettere true, come potete ben vedere, è disabilitato, facciamo un esempio, un po' più nello specifico, andiamo a togliere, tutta sta roba qua, ok, facciamo così, e direi che possiamo togliere, tutta sta roba qua, perfetto, e qua dentro, in ng on init, andiamo a mettere un set, facciamo un set interval, set interval, e mettiamo una callback, ogni, due secondi magari, va bene? Quindi da qua, facciamo ogni due secondi, e io voglio fare una cosa, che ogni due secondi, mi va a mettere il pulsante, attivo, disattivato, attivo, disattivato, lo faccio semplicemente per mostrarvi, che cosa succede, perché in realtà, non avrebbe senso, fare una cosa del genere, attiva, disattiva, attiva, disattiva, ogni due secondi, a meno che state facendo un gioco, quello che vogliamo fare, è mettere che, is disabled, quindi, this is disabled, è uguale a se stesso negato, ok? Quindi cosa succede, che ogni due secondi, prende disabled, che è true, e lo nega, va bene? Quindi diventa false, dopo due secondi, prende disabled, che adesso è false, e lo nega, negazione più negazione, fa positivo, quindi, true, prende il true, dopo due secondi, lo nega, fa false, prende false, lo nega, fa true, avete capito il discorso? quindi se io adesso vado qua, guardate un po', aspettiamo due secondi, bam, vedete cosa sta succedendo? Ok? Quindi al di là di avere un albero di Natale, fatto con i, con i bottoni, avete visto come siamo riusciti, a collegare, la proprietà disabled, alla nostra, variabile che abbiamo, nella logica del componente, non solo, siamo anche riusciti, a, cambiarla, in modo dinamico, e noi non dobbiamo fare niente, qualsiasi cosa succeda qua dietro, automaticamente, per il fatto che è collegata, quindi disabled è collegata, a cosa? A is disabled, rivediamo questa sintassi, disabled, che è la proprietà del bottone, è collegata, la vedete col fatto che ci sono le parentesi quadre, è collegata con is disabled, che è questa qua, se per assurdo, togliamo sta cosa qua, del set interval, ma arrivano altri dati, e succede qualcos'altro, e magari il form che abbiamo, poi c'è un errore, la carta non va bene, il codice fiscale non va bene, o altro, il bottone si va a attivare, o disattivare, in base a quelli che sono gli errori, capite il discorso? Quindi questo è, il property binding, andiamo a fare un altro esempio, e stavolta lo facciamo, con un'immagine, se vi ricordate, quella dello Shiba Inu, quindi, andiamo qua, sulle card, andiamo su esempi, vogliamo questa card ancora, perciò ci mettiamo qua, copiamo tutto, perfetto, ci mettiamo qua, direi che possiamo commentare questo, e qua dietro mettiamo, vedete, la nostra math card, salvo, e questo è il risultato, fin qua, niente di incredibile, è un po' più grande, perché avevo zoomato, perfetto, mettiamo l'accento, adesso quello che voglio fare, è prendere due immagini diverse, e dire, guarda, se succede una cosa, fai così, se succede un'altra cosa, fai cosà, va bene? Quindi, vado su Google, ho scritto letteralmente, wallpaper, giusto di prova, ci serve un'immagine facile, qua, perfetto, copia indirizzo link, voglio andare qua su prova, e possiamo fare, immagine 1, è uguale a, questo, anche se è sbagliata, perché devo copiare, copia indirizzo dell'immagine, quindi possiamo sostituirlo, così, perfetto, e poi potremmo dire, che l'immagine 2, immagine 2, è uguale a, e potremmo prendere ciò che abbiamo già, che è il nostro, Shiba Inu, quindi facciamo così, qua non abbiamo niente, salviamo, andiamo qua, facciamo così, salviamo, e se andiamo a prendere il risultato, vedete che non c'è l'immagine, perché non c'è l'immagine, perché chiaramente, qua abbiamo lasciato vuoto, va bene, src abbiamo lasciato vuoto, ora, se noi volessimo collegarla, lo possiamo assolutamente fare, quindi noi prendiamo src, lo colleghiamo, e scriviamo, immagine 1, io salvo, e come potete vedere, ci ha preso l'immagine, ok, quindi la proprietà, src, l'abbiamo modificata, con un dato presente, nella logica, del nostro componente, va bene, e questa cosa, la userete spesso, quando dovrete fare voi altre card, mandare a schermo immagini, utilizzerete, questa sintassi, ma vi ho fatto vedere, che possiamo cambiare, perciò, cosa potremmo fare, beh, potremmo dire che, set, interval, benissimo, mettiamo una callback, facciamo così, e ogni secondo, giusto per diventare scemi, facciamo velocemente, un let counter, è uguale a 0, ok, counter, percentuale 2, quindi il resto, è 0, quindi se è un numero pari, fai qualcosa, else, fai qualcos'altro, a sto punto, non mettiamo più, immagine 1, ma colleghiamola, semplicemente, ad immagine, che adesso vado a sistemare, non preoccupatevi, quindi qua, ci mettiamo con, immagine, che al momento, è vuota, perfetto, quindi se il numero è pari, di counter, mettiamo dentro questa qua, anzi, teniamo immagine 1, immagine 2, semplicemente facciamo, che immagine, disimmagine, è uguale, disimmagine 1, else, disimmagine, è uguale, disimmagine 2, lasciate perdere, se è ottimizzato o meno, non ce ne frega niente, ci interessa il discorso, quindi abbiamo detto, che giustamente, poi dobbiamo aumentare, qua il counter, quindi facciamo counter, più più così, va bene, quindi io salvo, e se adesso andiamo a vedere il risultato, vedete che ogni secondo, ogni secondo, cambia l'immagine, perché? Perché abbiamo fatto appunto, il property binding, quindi esattamente quello che abbiamo fatto prima, l'abbiamo collegato stavolta, a un'immagine, e questa immagine, cambia, ogni secondo praticamente, abbiamo che, parte da 0, ogni interval, viene aumentato di 1, perciò, pari, dispari, pari, dispari, pari, dispari, e questa immagine, chiaramente, le prende da qua, e il risultato, come abbiamo già visto, è questa immagine, che continua a cambiare, ma al di là di questa cosa qua, quello che ci interessa, è la potenza di angular, che ci permette, di collegare letteralmente, l'SRC, semplicemente, ad una variabile, e questa variabile, può cambiare dinamicamente, nel tempo, e noi non dobbiamo far niente, a parte eventualmente, farla cambiare, se succede qualcosa, ma una volta che è successa, quella determinata situazione, e cambia, automaticamente, viene presa, ok? Questa è la bellezza, del property binding, quindi per ora abbiamo visto, la string interpolation, quindi come mandare a schermo, i dati, stringa, ma anche, come cominciare, a bindare, le varie proprietà, a, dei dati, che abbiamo appunto, dietro, nella logica del, del componente, nel prossimo video, vediamo come reagire invece, ad un evento, innescato dall'utente, quindi può essere, un click, l'on change di un input, e via discorrendo, sotto in descrizione, trovate le solite cose, per supportare il canale, secondo canale, mio sito, eccetera eccetera, io vi ringrazio, e alla prossima, ciao ciao, episodio 9 di Angular, oggi parliamo di, event binding, vediamo chiaramente cos'è, vedremo come reagire, al click del bottone, da parte di un utente, e poi, come prendere, il dato all'interno di un input, mentre, l'utente scrive, ok? Allora, event binding, l'abbiamo già detto, vuol dire, legare, ciò che succede, nel nostro componente, a livello utente, come ad esempio, il click di un bottone, vogliamo collegarlo, chiaramente, a qualcosa che deve succedere, in questo momento, se io in pur html, schiaccio, non succede niente, affinché succeda qualcosa, dobbiamo collegarlo, a javascript, in questo caso, typescript, in questo caso, alla logica, del nostro componente, che è qua dietro, ok? Quindi dobbiamo fare, queste cose, allora, prendiamo l'app component, tasto giro, perché non voglio lavorare, nel componente di prova, quindi andiamo qua, togliamo il nostro, app prova, prendiamo poi, angular material, eccoci qua, e aprite, due componenti, i bottoni, e gli input, eccoli qua, cominciamo col bottone, allora i bottoni, li abbiamo già installati, perciò non è un problema, e vogliamo andare a prendere, un bottone, raised, primary, eccolo qua, perfetto, ci spostiamo nell'app component, noi salviamo, e fin qua siamo a posto, e il risultato sarebbe il classico bottone, che noi schiacciamo, e non succede assolutamente nulla, vogliamo aggiungere, quello che è un evento, sappiamo, se conoscete bene javascript, che avremmo, onclick, onclick, vedete, e qua possiamo andare a mettere una funzione, altrimenti in javascript, potreste utilizzare gli event listener, se non sapete cosa sono, non diventateci scemi, perché non li usiamo qua, in verità Angular, ci dà qualcosa di suo, per gestire questi eventi, e la sintassi è la seguente, vedete, nel momento in cui, io ho aperto le parentesi tonde, abbiamo abort, ausclick, before copy, abbiamo blur, questo potreste conoscerlo, click, change, potreste conoscerlo, molti magari non li conoscete, però, vedete quanti tipi di eventi abbiamo, abbiamo copy, cut, doppio click, drag, drag leave, queste sono tutte le parti di drag and drop, drag and drop ha tanti eventi all'interno, ok, drag start, drop, quindi vedete come abbiamo una vagonata, di eventi, che Angular ci suggerisce, e che vengono gestiti molti di più, di quanti ne potremmo gestire, in puro javascript, in questo caso, ne vogliamo gestire il click, quindi facciamo così, e qua dentro, è bene, potremmo utilizzare un'espressione, typescript, ma è bene, chiamare un metodo, quindi potremmo chiamarlo banalmente, onclick, facciamo così, ci dà errore, perché ci dà errore, andiamolo a vedere, perché la proprietà onclick non esiste su app component, quindi, se noi siamo, chiudiamo un attimo tutta strada qua, se noi siamo qua su app component, che è la logica di app component HTML, qua non c'è un metodo onclick, quindi noi dobbiamo andare qua, fare onclick, apriamo, e se io salvo, vedete che qua, funziona, adesso non ci dà più problemi, ora cosa vogliamo fare, vogliamo scrivere console.log, e mettiamo, ho cliccato, molto semplice, riprendiamo poi Angular, zoom un pochino, e guardate un po' qua dove c'è la console, tac, vedete, ho cliccato, quindi siamo riusciti a prendere il click, chiaramente, questo è solo un console.log, ma già capite, che possiamo eventualmente, abbiamo già imparato, come possiamo gestire le proprietà, potremmo cambiare le proprietà dell'elemento, insomma abbiamo già imparato a fare qualcosina, perciò capite, che già possiamo fare qualcosa di dinamico, su un evento, sul click del bottone, potremmo appunto cambiare il CSS, possiamo cambiare altre proprietà, è una cosa che sappiamo già fare, ma adesso, il click, l'abbiamo visto, ed è semplicemente un click, vorremmo fare qualcosa di un po' più complesso, soprattutto vorremmo passare dei dati, per passare dei dati, non abbiamo molto a fare con un bottone, però vi voglio far vedere una cosa, possiamo passare due cose, allora se noi passiamo this, vedete, this, dobbiamo andare chiaramente a metterlo qua, facciamo, mettiamolo e banalmente, ok, ci dà un errore, perché l'elemento e non è di chiarare, non è tanto questo, ma è questo il parametro, che contiene implicitamente un tipo any, quindi vuole semplicemente che facciate così, se vi dà questo errore, dovete mettere due punti any, questo perché è TypeScript, e vuole che sia specificato, se volete modificare questa cosa qua, lo potete fare, poi dal tsconfig, dovrebbe essere, al momento a noi non ci dà fastidio, scrivere any, perciò se noi salviamo qua, e salviamo qua, non ci dà per errore, e ci spostiamo, io premo, non ci dà niente, sapete perché? Perché non ho mandato a schermo, la nostra e, quindi io salvo, torno qua, e vedete, che cosa mi arriva? this, mi arriva tutto il componente, vedete, questo, vedete, app component con il title, corso angular, questo è il componente, ed effettivamente è questo, lo vedete? Quindi con this, possiamo passare il componente, a volte potreste voler passare cose del genere, in realtà, quello che vogliamo andare a prendere, è l'evento, e ve lo faccio vedere con l'input, perché ha molto più senso, perciò possiamo commentare qua, torniamo su angular material, aprite l'input, chiaramente dobbiamo prima installarli, perciò voi prendete questo import, eccolo qua, dove dobbiamo andare? Faccio finta che mi consigliate voi, come Dora l'esploratrice, dove dobbiamo andare? Esatto, in app module, quindi andiamo qua in app module, andiamo a mettere qua il nostro input module, ci spostiamo giù, e chiaramente dobbiamo inserirlo nei vari import, mettete sempre la virgola finale, per non doverla mettere più avanti, alt maius che f, per la formattazione automatica, io salvo, e adesso dobbiamo tornare qua, e prenderci un esempio di input, vediamo un po' che cosa abbiamo, ok, questo mi piace, questo mi piace, basic inputs, ok, allora noi prendiamo tutto questo input, facciamo così, vediamo se non c'è qualcos'altro da aggiungere, CSS non ce ne frega, in typescript non c'è niente, perciò possiamo prendere il codice così com'è, copiatelo, e adesso ci spostiamo sull'app component, e lo incolliamo, allora possiamo togliere il form, possiamo togliere tutta sta parte qua, ok, teniamo solo questo field, ok, quindi vedete che abbiamo un mat form field, questo qua è di angular material, quindi è un campo di material form, abbiamo qua la nostra label, e abbiamo qua il nostro input, che è quello che ci interessa, se io salvo, al momento abbiamo semplicemente un campo di testo, con già dentro sushi inserito, niente di incredibile, è questo, vedete value sushi, possiamo anche toglierlo così, ora vogliamo andare a inserire, quello che è l'evento sul click, e noi possiamo fare ad esempio input, input è un buon evento, che possiamo utilizzare, e mettiamo on click, sempre utilizziamo l'altro evento, che abbiamo già creato, ok, quindi se noi chiudiamo, ci dà errore, perché si aspetta qualcosa, in questo caso un any, si aspetta un any, ma adesso andiamo a essere più specifici, quindi on click, e noi buttiamo dollaro event, vedete, prima ho preso this, adesso invece vado a prendere dollaro event, dollaro event, è una variabile particolare, che voi non potete usare, per conto vostro, e assegnare altre cose, è proprietaria di angular, e quindi la potete usare, negli eventi, e che cosa stiamo andando a prendere, stiamo andando a prendere, l'evento che viene generato, perché questo non è semplicemente, un on click, o un input, ok, anzi facciamo on input, perché sennò, non si capisce quando parlo, perfetto, on input, io vado qua, modifico, on input, ok, quindi questa variabile, viene generata, quando c'è l'evento, io sto scrivendo, l'input è quando effettivamente scrivo, ogni singola lettera, della tastiera, ok, ogni singolo carattere, e ogni volta che io scrivo, viene generato un evento, di input, che noi abbiamo preso con il click, ma in realtà, questo evento, genera dei dati, dov'è che state inserendo, qual è il valore, che state inserendo, qual è l'elemento, in cui viene inserito, qual è il css dell'elemento, quali sono i suoi parenti, e via discorrendo, c'è un'infinità di dati, che possiamo andare a prendere, durante un evento, come li prendiamo, con questo dollar event, se noi buttiamo, in un evento, questo, buttiamo come, variabile dollar event, Angular sa già, che noi vogliamo prendere, tutto quell'insieme di dati, che vengono generati, e li vogliamo prendere, per poi gestire in altro modo, quindi se io salvo, limitiamoci a questa cosa qua, al momento, pizza per davvero, vedete, ogni volta che io scrivo, compare qualcosa, e se ci fate caso, guardate qua velocemente, data, questo è il dato inserito, P, I, Z, Z, A, poi ho messo altre cose, di poco senso, però vedete come, ogni singolo, inserimento di carattere, dalla tastiera, succede qualcosa, e quel qualcosa che succede, è massivo, vedete qua, abbiamo un po' di roba, ok, abbiamo il dato, che abbiamo inserito, ma non solo, abbiamo l'elemento, e il target, e il target, ha una, il target è, effettivamente, questo elemento, abbiamo dentro, tante tante cose, se io vado avanti, quello che a noi interessa, è questo qua, è il value, lo vedete? se noi volessimo prendere, il valore, dell'input, dobbiamo andare su value, quindi sarebbe, event.target.value, adesso lo vediamo, quando potreste voler prendere, una cosa del genere, pensate magari, quando state facendo, una registrazione, anzi, quando state facendo, un filtro, stiamo cercando, favorite food, fate finta che questa, sia un'applicazione di cibo, ci sono qua, 1500 ricette, e anziché far fare poi, la ricerca, tipo premi, invio all'utente, ogni volta che lui scrive qualcosa, automaticamente, noi, andiamo, a fare la ricerca, quindi ogni volta che lui scrive qualcosa, noi facciamo la ricerca, scrivi solo w, io già ti cerco tutte le ricette con la w, scrivi we, io ti cerco quelle ricette con we, ok? Quindi anziché, far fare all'utente, invio, cerca, conferma, eccetera eccetera, rendiamo tutto dinamico, questo potrebbe essere un esempio, quindi ogni volta che noi, schiacciamo, andiamo a fare la ricerca, ma per fare la ricerca, dobbiamo prendere quello che è il valore del campo, in questo momento, va bene? Questo ha senso, oppure potrebbe essere l'utente, quando magari fate l'iscrizione a Twitch, YouTube, Gmail, o quello che è, vi controlla la mail, ad ogni stroke da tastiera, quindi ad ogni inserimento da tastiera, vi controlla l'utente, e vi dice, no, utente non disponibile, no, utente non disponibile, fino a che voi scrivete 600 cose, dice, utente disponibile, adesso siamo tutti contenti, perciò, vogliamo prendere però questo dato, perché vedete che qua, è un po' complesso, per prenderlo, ci basta fare, punto, target, l'abbiamo visto, punto, value, fin qua non ci dà problemi, però, questo any, non ci piace, non ci piace, perché è troppo generico, in realtà, noi sappiamo, che questa e che ci arriva, potete chiamarla come volete, eh, o event, va bene, ma questo event, di che tipo è, ce l'abbiamo un tipo per descriverlo, ed è un tipo, event, in questo momento, intanto fatemi sostituire qua la e con event, in questo momento, abbiamo messo il tipo giusto, ed è giusto utilizzare questi tipi, perché stiamo lavorando in typescript, che quindi è javascript con i tipi, se noi mettiamo tutto any, quando non serve, non serve typescript, perché usare typescript, se non sfruttiamo gli eventi, però adesso ci dà errore, ci dà errore, perché non capisce, e event target non riesce a capire, che c'è la proprietà value, che c'è il target, ora dobbiamo andare a fare un casting, il casting altro non è che la conversione, quindi noi apriamo le parentesi qua, tonde, non fateci caldo, allora queste parentesi tonde, sono le parentesi del casting, non sono queste parentesi, le sposto un pochino così, ok? Da qua, apriamo, e scriviamo, html, input, element, così, che cosa abbiamo appena fatto? Abbiamo detto, mi mandi a schermo, l'evento, il target dell'evento, e il valore del target dell'evento, ma non sapendo typescript, di che cosa stiamo parlando, sa che è un evento, ma noi vogliamo andare a prendere, un input html, c'è lato problemi, quindi noi andiamo a fare il casting, e diciamo, guarda che, questo event target, io ti dico, che è, un input element, quindi il target, l'evento, il target dell'evento, l'obiettivo dell'evento, che cos'è, è questo, questo che cos'è, è un input, questo input che cos'è, un elemento html, quindi, questo qua, elemento, input html, che è questo, e di cui noi poi prendiamo il value, se questa cosa vi confonde, non smattateci, fate un passo indietro, fate una cosa un po' più sporca, e semplicemente scrivete, any, non è la cosa migliore da fare, non è colice scritto giusto, però, state imparando, e io non voglio che vi fermiate, su un casting banalissimo, e non andate avanti, potete anche lasciarlo così, va bene, tanto il risultato è il medesimo, semplicemente è l'utilizzo, che facciamo, di typescript, così lo stiamo sfruttando, come si deve, mentre invece con solo any, potremmo passargli qualsiasi cosa, e lui andrebbe bene, in realtà noi vogliamo andare a fare un controllo, e vogliamo dirgli, guarda che, quello che ci interessa, è questo evento, e vogliamo prendere questo elemento, input html, ok? Quindi, una delle due scelte, se mi seguite, fate questa, se non mi seguite, fate l'altra, non è un problema, non è un problema, non cambia niente per Angular, salviamo, e se adesso guardate quello che scrivo, p, vedete che qua compare intanto, vedete, p, z, z, ah, vedete, mi ha scritto pizza, vado avanti, pizza alle quattro stagioni, vedete come ad ogni singolo, bella intanto la piramide, ad ogni singolo inserimento, da tastiera, lui mi prende quello che è il valore, al momento, e visto che adesso abbiamo questo valore, ogni singolo momento, quando poi impareremo, a mandare dati fuori, a richiedere dati, voi capite benissimo, che possiamo contattare il back end, o il server, chiamatelo come volete, e degli, guarda, devi fare una ricerca di tutto ciò, di tutte quelle ricette, che si chiamano pizza alle, va bene? E ti va a cercare pizza alle quattro stagioni, pizza alle banane, pizza alle pere, quello che volete, ma avete capito il senso, da qua pizza alle quattro, ce ne sarà solo una, se poi la volete completare, vi troverà chiaramente solo una, ma già qua, secondo me, pizza alle quattro, verdure forse, non lo so, è molto improbabile, avete capito però il senso, questo è, l'event winding, quindi andiamo a prendere, quello che è, il comportamento dell'utente, e andiamo a interagire con l'utente, l'utente interagisce con noi, e noi gli facciamo interagire, con la logica, dei componenti, e da qua poi andiamo a fare, altre cose, vedete com'è bello? quindi nel prossimo episodio, parliamo di two way binding, per ora abbiamo finito, tutti i binding singoli, quindi dall'evento, al typescript, oppure da typescript fuori nell'html, adesso vediamo, come andare a creare un collegamento, che sia da html a typescript, e da typescript all'html, sempre aperto, ok? sotto in descrizione trovate sempre le solite cose, secondo canale, sito, modi per supportare il canale, eccetera eccetera, io vi ringrazio, e alla prossima, ciao ciao! Episodio 10 di Angular, in cui oggi andiamo a parlare, del two way binding, andiamo a chiudere, quello che era, questo mini modulo, sul data binding, se vi ricordate, era string interpolation, property binding, event binding, e adesso chiudiamo, con two way binding, allora, il two way binding, consiste, nel, collegare, typescript, e il componente html, da entrambi i lati, quindi non abbiamo, solo dei dati, che da typescript, arrivano fuori, sull'html, ma abbiamo anche, degli eventi, in html, che vanno a cambiare, typescript, ok? Quindi andiamo a mettere insieme, property binding, e event binding, va bene? Allora, e con questo abbiamo visto, che cos'è? Facciamo un esempio, con l'input, se riprendiamo, quello che avevamo, negli episodi precedenti, avevamo qua, una banalissima input, in cui, scrivevamo cose, ok? Ora, prima di farvi vedere, il two way binding, voglio solo farvi vedere, come questa cosa qua, può andare a influenzare, altre parti, del componente, quindi se noi qua, in p, ci buttiamo dentro, una variabile, che adesso andiamo a vedere, allora qua, on input, fatemi vedere, on input, prendevamo, il value, ok? Il target value, anziché mandarlo, semplicemente a schermo, anzi, non solo, a schermo, potremmo far sì, che il title, che è corso angular, in realtà, viene cambiato, quindi title, uguale, ha il valore, va bene? Il console log, in realtà, non ci serve, possiamo salvare, in realtà, possiamo dire che qua dentro, noi ci buttiamo, title così, se io salvo, vediamo il risultato, abbiamo qua, il nostro corso angular, va bene? E abbiamo, favorite food, quindi l'input, che quando andiamo a scrivere, prende l'evento di input, e, andrà a cambiare, il title, perché se vedete, on input, this title, sarà esattamente, il target value, che quindi di conseguenza, verrà cambiato questo, e di conseguenza, verrà cambiato anche questo, se io scrivo pizza, ecco qua, vedete, pizza, margherita, sta cambiando, ma questo qua, non è two way binding, è semplicemente, event binding, perché, l'unica cosa che facciamo, è prendere l'input, all'interno del nostro campo, del nostro field, va bene? Questo input, come vi ho appena detto, va poi a cambiare, il title, e questo title, viene poi mostrato a schermo, con, la string interpolation, non è two way binding, attenzione, perché, questo è semplicemente, univoco, è un event binding, e questo, è uno string interpolation, certo ne usiamo due, ma non è two way, two way, è sullo stesso elemento, va bene? Quindi, fatto così, stiamo riutilizzando, ciò che noi andiamo a scrivere qua, tuttavia, se io faccio questo bottone, e faccio on click, e voglio passare l'event, vabbè, non ci serve l'event, però, faccio un on click, e sul click di questo bottone, io voglio andare, a cambiare, il titolo, in qualcos'altro, quindi, facciamo event, event, non serve a sto giro, non preoccupate, lo facciamo per completezza, facciamo così, e andiamo a mettere, dis.title, uguale a, anziché corso angolo, o altre cose, ho cliccato, sul bottone, perfetto, salviamo, salviamo di qua, e adesso cosa abbiamo? Abbiamo il nostro input, e se scriviamo pizza, vedete che viene cambiato, ma poi abbiamo il nostro bottone, e se vado a premere, vedete, ho cliccato sul bottone, si capisce subito, che, è tutto gestito, in, one way binding, quindi, univoco, perché? Perché noi, andiamo a modificare, il titolo, attraverso, l'evento dell'utente, e poi lo modifichiamo qua, ma questa modifica, non viene presa dentro l'input, se noi riprendiamo, vedete come, ho cliccato sul bottone, non ha inciso su questo, ora, noi vorremmo appunto, fare, two way binding, nel senso che, se noi qua andiamo a scrivere, va a modificare, la variabile, che stiamo usando, che è il titolo, ma se poi modifichiamo, la variabile titolo, in un altro modo, noi vogliamo che venga, aggiornata qua dentro, quindi l'input qua dentro, deve essere, two way binding, nel senso che, può essere modificato, dall'utente, event binding, oppure, può essere modificato, da cosa? Dal typescript, quindi typescript, che modifica, il titolo, che però poi, va a fare property binding, quindi il value, che è una proprietà, se vi ricordate, il value dell'input, cambia, questo è property binding, vogliamo cambiare, il value, sia noi a mano, e quindi cambia la variabile, ma anche se lo facciamo, in un altro modo, va effettivamente, aggiornare, il nostro campo, ok? Quindi, come possiamo fare? È molto semplice, dobbiamo connettere, insieme, quello che è, event binding, e property binding, in questo caso, noi facciamo così, perfetto, non possiamo usare input, ma dobbiamo usare, ng model, dobbiamo poi, sostituire, questo evento, perché vogliamo, che sia semplicemente, connesso a title, ma adesso ci arriviamo, perché prima voglio liberarmi, di questo errore, vedete? Questo errore, dice chiaramente, che ng model, non è, una proprietà conosciuta, dell'input, questo perché, ng model, noi lo prendiamo, da un altro modulo, di angular, quindi, app module, e dobbiamo importare, qualcos'altro, ovvero, dobbiamo importare, ecco qua, forms module, quindi angular, ci mette a disposizione, tutta una serie, di moduli, di metodi, che possiamo utilizzare, nei form, va bene? Quindi, in realtà, anziché qua, potremmo metterla qua in alto, perfetto, vedete che abbiamo diversi moduli, abbiamo il core, che è l'essenza di angular, abbiamo il platform browser, adesso stiamo aggiungendo forms, quindi da qua, form module, lo possiamo mettere, qua in alto, perfetto, facciamo così, salviamo, e se andiamo di qua, vedete che adesso, ce l'ha riconosciuto, quindi che cosa stiamo dicendo? Gli diciamo, ng model, che è una direttiva, e poi parliamo delle direttive, particolare, e gli stiamo dicendo, mi devi connettere, questo ng model, questo modello di angular, me lo devi connettere, sia in entrata, come evento, sull'input, quindi quando io utilizzo il mio input, è un evento, ma quando poi arriva qualcosa, direttamente la typescript, è una proprietà, quindi sto facendo property binding, quindi sto facendo sia un event binding, dall'html, dritto che vada dietro a typescript, ma sto anche facendo un property binding, che passa da typescript, quando cambia il titolo ad esempio in questo modo, e poi viene spedito direttamente qua, non ci serve più onclick o cose del genere, perché l'ng model, va direttamente a collegarsi a una variabile, perciò automaticamente, essendo già qua l'evento, ng model dice, è two way binding, e il two way binding è semplicemente in questo modo, è property binding e event binding, però ci dice, ok, so già che è un evento, so già che è un property binding, ma a cosa ti vuoi collegare, a che variabile ti vuoi collegare, mi voglio collegare a title, quindi vuol dire che, con ng model, soprattutto con l'evento, le parentesi tonde sono l'evento, se vi ricordate, vi basta vedere qua in alto, quando vado a schiacciare in input, e vado a scrivere, vado a modificare title, ma allo stesso modo, avendo le parentesi quadre, io sto facendo property binding, e gli dico, quando title cambia in typescript, ricordati di farmelo vedere, ok, quindi di andare a cambiare, quello che è il value del mio input, spero il discorso sia sensato, perché adesso vediamo cosa succede, allora abbiamo tutto, e adesso quello che voglio fare, è mettermi qua, vedete abbiamo corso angular, prima non avevamo niente, se vi ricordate, prima, se io tolgo ng model così, e non rimetto il click eccetera, tolgo solo questo, qua non c'era niente, vedete, adesso, con ng model, capisco che ng model può essere un po' astratto, in realtà va a prendere, il valore dell'input, ok, è strettamente collegato al valore dell'input, e a title, quindi se io salvo, automaticamente, il valore dell'input di default è, title, e title è, corso angular, guardate un po', se io vado a scrivere, cancelliamo, giustamente qua sotto, si toglie, perché, perché noi stiamo modificando title, con questo evento, ok, e title è questo, l'abbiamo già visto prima con input, l'evento input, perciò io lo modifico, scrivo, corso css, vedete come cambia, però vi ricordate che io, avevo il bottone, e il bottone, andava a fare un onclick, e che cosa faceva? Sull'onclick, prendeva questo title, che non è più corso angular, perché è cambiato, e lo fa diventare, ho cliccato sul bottone, ma prima non succedeva niente, con l'input, perché? Perché l'input, andava solo a cambiare il title, così, adesso, se io vado a premere, incredibile, avete visto? Quindi, questo è il two-way binding, noi possiamo modificare, il valore di title, sia da qua, dall'input, che, qua dentro, verrà modificato, come? Schiacciando qua, allora, chiaramente, qui e qui, sono due lati utente, ma quello che mi interessa, è che, lo possiamo modificare, sia scrivendo qua dentro, e quando scriviamo qua dentro, è un utente, quindi, event binding, ma, qua c'è un event binding, però, il title, non viene modificato qua, viene modificato direttamente da ts, quindi da typescript, e poi viene rimandato, dove? Viene rimandato qua, capite il concetto? Quindi, two-way binding, vuol dire che, c'è un evento, che cambia con la variabile, e comunque, la proprietà, di questo input, viene cambiata, anche direttamente, a typescript, ok? Giochiamo ancora qualche secondo, vi faccio vedere, ta ta ta, cambia, primary, viene ricambiato, ok? Questo, è il two-way binding, mi raccomando, cercate di capirlo, per bene, fate qualche prova, perché, è essenziale, lo useremo, in modo massivo, gli altri sono più facili da capire, string interpolation, da property binding, e event binding, questo è un po' più complesso, dategli qualche minuto, cercate di portarvelo a casa, e noi nel prossimo video, cominciamo a parlare, di cosa sono le direttive, ho buttato questa parola, così, nel nulla, nel prossimo episodio, vediamo di cosa si tratta, ecco qua, sotto in descrizione, trovate le solite cose, secondo canale, sito, supportare il canale, vi ringrazio, e alla prossima, ciao ciao, episodio 11 di Angular, oggi vediamo, che cosa sono le directives, o in italiano, direttive, vi dico sempre le cose in inglese, perché, potreste magari trovare, solo documentazione in inglese, perciò è giusto, che sappiate anche l'alternativa, in inglese, allora, oggi sarà una lezione, più che altro, teorica, giusto per introdurle, perché poi, nei prossimi video, a carrellata, ne vediamo alcune, perciò è importante capire, cosa sono, come si dividono, eccetera, eccetera, allora, le direttive, sono classi, esattamente come sono classi, i componenti, eccetera, quindi si tratta di, banali classi, che però, anziché come componenti, vengono identificati come, directive, come direttive, ok, e queste direttive, servono per essere messe, sugli elementi, quindi nel nostro, HTML, nel DOM, per andare a cambiare, il comportamento, appunto, degli elementi, in questo caso, vi ho detto che, ng model, come vedete qua, era una, direttiva, e ng model, non è un qualcosa, che ci arriva, da HTML, come poteva essere, un banale, value, come poteva essere, un disable, che abbiamo visto, eccetera, eccetera, ng model, è un qualcosa, che è stato aggiunto, da Angular, ma che cos'è, è una direttiva, perché ng model, è una direttiva, quindi una classe, che ci viene messa, a disposizione da Angular, per modificare, il comportamento, dell'elemento, ed è vero, perché il comportamento, cambia, prima noi, andavamo solo, a prenderci un evento, altrimenti, cosa potevamo fare, potevamo collegare, una proprietà, come poteva essere, disable, per il bottone, che abbiamo visto, con la variabile, ma adesso, con questa cosa strana, ng model, che non vuol dire niente, improvvisamente, il nostro input, è in grado, di collegarsi, a questa variabile, automaticamente, la modifica, e quando viene modificata, in TypeScript, mi aggiorna, il value, del mio input, quindi vedete, che è un comportamento, che non possiamo avere, in HTML, e JavaScript, in alcun modo, è un qualcosa di diverso, che è stato costruito a parte, quindi questa è una direttiva, come vedete, cambia il comportamento, dell'elemento, quindi ecco, cosa sono le direttive, non preoccupatevi, se non vi entra ancora, nello specifico, quando poi le vediamo, effettivamente a livello pratico, avrà molto più senso, però, per chi magari riesce, a portarsi a casa, ad assimilare questa lezione, è un vantaggio in più, se non vi resta in testa, non preoccupatevi, ci arriviamo con la parte pratica, se vi resta in testa, tanto meglio, perché vi dà già, quella visione, un po' più ampia, delle cose, soprattutto già vi mette ordine, nei vostri pensieri, invece, per chi ci arriva a livello pratico, deve poi farle, e poi capirle, qua invece, voglio prendere un altro approccio, si dividono in tre categorie, divino, divino, ok, si dividono in tre categorie, sono quelle built in, le attribute, e le strutturali, allora, le built in, e qua vedete che c'è ng model, indovinate un po', sono quelle built in, quindi costruite, built in, dentro, costruite già dentro angular, quindi sono quelle direttive, ad esempio ng model, vedremo più avanti anche ng class, ng style, che modificano il comportamento, di un elemento, eccolo qua, dimostrazione, altrimenti abbiamo le attribute, le attribute, potrebbero essere cose, molto semplici, così, potremmo avere la nostra, direttiva, ok, che buttiamo qua così, e fa semplicemente cose, oppure, evidenzia, elemento, nella documentazione, come vedremo più avanti, ci fa creare, una direttiva di prova, dove, evidenziamo l'elemento, con typescript, non con CSS, anche se lo potremmo fare con CSS, dove andiamo a evidenziare l'elemento, in base al mouse, che ci passa sopra, o meno, quindi, come vedete, è un attributo, che noi buttiamo qua, come potrebbe essere, per il bottone, disabled, è un attributo, ma questo qua, è già di HTML, questo qua, lo creiamo noi, e non è semplicemente, un attributo così, fa anche delle cose, quindi è poi collegato, alla classe, evidenzia elemento, che è la direttiva, che andrà a fare, determinate, operazioni, ok, quindi queste sono, le attribute, togliamo questa, quindi modifica, sia il comportamento, che l'apparenza, possiamo anche modificarne, lo stile, e dopodiché, ci sono quelle strutturali, quelle strutturali, sono scritte con, l'asterisco, quindi serve per indicare, che sono strutturali, e perché si chiamano strutturali, perché modificano la struttura, ma di cosa, del DOM, il DOM, per chi, non conoscesse nel dettaglio, JavaScript, eccetera, eventualmente vi consiglio, di cercarlo, nello specifico, JavaScript, HTML, cercate di imparare, il concetto di DOM, semplificato, è il nostro, foglio HTML, quindi tutta la sorgente, HTML, con tutti gli elementi, i text node, quindi il contenuto testo, eccetera, eccetera, con ngif, per farvela breve, noi possiamo avere, due bottoni, ok, posso avere un button, e un altro button, e avere un, ngif, non mi interessa la sintassi corretta, mi interessa far vedere il concetto, ngif, quindi voi capite, che cosa sto facendo, potrei avere che questo bottone, se is online, lo mostriamo, e questo bottone, se is online, no, quindi false, lo mostriamo, quindi vedete cosa sto facendo, sto modificando, la struttura, HTML, con, questa direttiva, quindi è una direttiva, strutturale, altrimenti, possiamo avere ad esempio, ngifor, quando vi dicevo, che più avanti, avremmo creato, le card, ve le ricordate, le card dei cani, avremmo creato, le card dei cani, in base al nostro array di cani, vi ho detto, che avremmo trovato qualcosa, che automaticamente, ci generava, i componenti, e noi, con ngifor, possiamo dirgli, guarda, mi prendi, con ngifor, dei dati, in questo caso, il nostro array di cani, e per ogni cane, mi vai, a creare il componente, quindi, anziché avere, app, cos'era, app prova, così, bam, e farlo 600 volte noi a mano, in realtà, noi avremo, un app prova, che sarà dentro, un ngifor, scritto non così ovviamente, ma questo ngifor, che sarà collegato, al nostro array di cani, quindi, per ogni cane, nell'array di cani, andrà a crearci, un array di prova, con, dei dati particolari, e se vi ricordate, avevamo messo tipo, cosa che era, cani, 0, punto, nome, che in realtà, non era qua dentro, però avete capito il senso, questo sarebbe, cani 1, eccetera, cosa stiamo facendo, in realtà, noi abbiamo semplicemente, un ngifor, con un solo app prova, lo vedremo meglio più avanti, e finché ci sono elementi nei cani, lui va, automaticamente a fare, boom, 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 e quindi, pian piano, il nostro documento, va a riempirsi di dati, ma noi, semplicemente, abbiamo un solo, componente, messo qua, e poi l'ngifor, che ci dice, per ogni dato, tu continua a buttare fuori elementi, quindi, con le strutturali, possiamo aggiungere, o rimuovere elementi, nel DOM, ok? Quindi, queste sono le direttive, sono molto potenti, se avete capito, ci permettono di fare, tante cose, dal prossimo episodio, cominciamo a vederne, una ad una, quindi, potrei essere molto sbrigativo, fare due, tre minuti, per ciascuna direttiva, in verità, voglio entrare nello specifico, perché voglio far vedere, un po' di casistiche, eccetera, eccetera, ecco qua, sotto in descrizione, trovate, secondo canale, sito, e come supportare il canale, io vi ringrazio, e alla prossima, ciao ciao, episodio 12 di Angular, oggi parliamo di NGIF, NGIF è la prima direttiva, che vediamo nello specifico, abbiamo parlato di NGmodel, velocemente, e in più, è la prima direttiva strutturale, che vediamo, strutturale, perché ha davanti, l'asterisco, vi ricordo, e vi ricordo che strutturale, significa che va, a cambiare, il DOM, quindi, va ad aggiungere, o rimuovere, degli elementi HTML, non è che sono nascosti, semplicemente, non esistono, vengono poi successivamente, aggiunti, o rimossi, allora, NGIF, se conoscete già, un minimo di programmazione, torto, Angular, questo è un banalissimo IF, quindi, quello che si desume faccia, ci permette di mostrare, o meno, un elemento, in base ad una condizione, semplice, facile, e veloce, ma andiamo per punti, allora, cominciamo con un banale, P, ciao, sono un paragrafo, eccomi qua, paragrafo, perfetto, e andiamo a mettere, un NG, IF, 4 minore di 5, quindi, se, 4 è minore di 5, mi mostri, P, giusto? giusto, salvo, ed ecco qua, vedete, ciao, sono un paragrafo, ma, se sei minore di 5, cosa che è falsa, cosa vi aspettate faccia, assolutamente niente, l'elemento, non c'è, apriamo un attimo, l'inspector, e andiamo a vedere, andiamo sul bottone, andiamo direttamente sul bottone, eccoci qua, e vedete che dopo il bottone, non c'è niente, non c'è l'elemento, se io faccio al contrario, 4 minore di 5, vedete che l'elemento c'è, ed è qua, prima c'era solo button, e poi non c'era P, potete andare indietro di qualche secondo, e ve ne rendete conto, quindi, NGIF, non fa un display, non, ma proprio, va a creare o meno, ho fatto sul bottone, scusatemi, va a creare o meno l'elemento, in base alla condizione, ok, spiegata questa cosa qua, direi che possiamo rendere le cose un po' più complesse, e farlo, con una variabile, quindi andiamo sul nostro component, TS, e scriviamo magari, is visible, o is online, facciamo is visible, uguale, true, io prendo, vado di qua, e metto che mi mostri P, se is visible è true, eccolo qua, mettiamo is visible false, e come vedete non c'è più, cambiamo un attimo, il concetto magari, is visible mettiamolo a 15, e mettiamo che me lo mostri, solo se is visible, maggiore di 10, ed eccolo qua, ok, questo per dirvi che, in NGIF, possiamo avere, tranquillamente, una variabile, e andiamo a fare quelle che sono, delle vere e proprie condizioni, le condizioni le conoscete, and, or, insomma abbiamo già parlato di tutte queste cose qua, in javascript, potete utilizzare le stesse, gli stessi principi, dentro l'NGIF, se volessimo fare un else, ma un else in modo abbastanza, veloce, potremmo fare, poniamo il caso che questo sia un boolean, ok, quindi is visible, e is visible è falso, ok, potremmo dire, è visibile, visible, vabbè, è visibile, e poi, non è visibile, perfetto, quindi, is visible sarà, true o false, true o false, ecco qua, al momento ci sarà un attimo errore, non preoccupatevi, e qui, io salvo, abbiamo che, se is visible è true, mi mostri questo, se is visible è il contrario, di true, mi mostri questo, ovviamente, ci mostra che è visibile, perché, perché qua è true, se mettessi false, chiaramente sarebbe, il contrario, questo non è angular, sono banali logiche, di javascript, se non mi seguite, eventualmente fate, un passo indietro, comunque, così potremmo fare, un banale, if else, in realtà, c'è un costrutto, molto più comodo, che possiamo utilizzare, e che adesso vi spiego, allora, cominciamo, con, magari un div, potremmo usare un div, dove mettiamo la condizione, oppure, quello che si chiama, ng template, eccolo qua, non vi ho ancora spiegato, che cos'è, ng template, per farla velocemente, è, un elemento, che, di base, vede solo angular, non ha alcun tipo, di, impatto vero e proprio, non è un p, e quindi non ha, del grassetto, come può essere un paragrafo, uno strong, non è, block, o in line, è semplicemente, una sorta di contenitore, un wrapper, che angular vede, ma che in realtà, il dom non sa, non sa cosa far, se ne viene solo interpretato, da angular, in questo caso, prenderci le cose facili, facciamo un div, e mettiamo, ng if, ng, if, eccoci qua, is visible, perfetto, quindi andiamo a prendere sempre, is visible, e andiamo a mettergli, un else, quindi else, e gli mettiamo magari, il blocco, di is visible, quindi, else, e mettiamo, blocco, else, seguitemi un attimo, allora, in questo div, facciamo così, anzi, per rendere le cose un po' più, semplici, facciamo p, allora, mettiamo qua il p, e mettiamo, sono visibile, ok, ma poi dobbiamo fare, teoricamente, un altro p, in cui mettiamo, non sono, visibile, e dobbiamo chiamarlo, blocco else, dobbiamo utilizzare, quella che si chiama, non ve l'ho ancora spiegata, una variabile template, un riferimento template, ok, template reference, quindi andiamo qua, usate l'hashtag, e mettete il blocco else, in questo caso, cosa stiamo dicendo, qua ci dà errore, non preoccupatevi, stiamo dicendo, ng if, is visible, mi mandi a schermo, questo qua, ok, altrimenti, mi mandi a schermo, quell'elemento, che si chiama, come variabile template, quindi, la variabile, che ha il cancelletto, davanti, blocco else, potete chiamarlo, pippo, come volete, non è un problema, ma questo è il discorso, ci dà problemi, perché, perché questa parte, non può essere un p, deve essere per forza, un ng template, e vedete che non ci dà più problemi, se volete averlo, effettivamente in un p, meglio fare così, tac, scusatemi, facciamo così, andiamo a capo, e mettiamo un p, e io salvo, vi faccio vedere, abbiamo sono visibile, e se io vado qua, e metto false, abbiamo non sono visibile, perciò prendiamo, vedete che abbiamo il nostro p, lo vedete, con dentro non sono visibile, ng template, come vedete, non è passato, perché vi ho detto, che nel DOM non ha effetto, viene solo visto da Angular, però è fondamentale, sarà fondamentale anche in altri punti, perché ci permetterà appunto, di creare una sorta di elemento, con della logica aggiuntiva, che Angular può percepire, e gli elementi invece non possono contenere, in questo caso, l'else, o più avanti andremo a usare più direttive strutturali, che non possono essere sullo stesso elemento, rivediamo tutto, perché può essere confusionario, allora, ngif, is visible, mi mandi a schermo, tutto questo elemento, punte virgola, else, altrimenti, mi mandi a schermo, quel blocco di codice, quell'elemento html, che si chiama blocco s, con la variabile template, non è una variabile che è qua dentro, più avanti vi mostrerò, come possiamo accedere, a un elemento chiamato così, da qua, ma non è quello che ci interessa, quello che ci interessa, è che Angular è in grado di trovare questo, qua dentro, grazie al nome, alla variabile template, che è questa, vedete l'hashtag, non può essere, su un elemento effettivo, p, span, eccetera, div e quant'altro, motivo per cui, dobbiamo utilizzare questo wrapper, particolare di Angular, che vi ho letto, ci serve per fare queste cose, che gli altri elementi, non possono gestire, ok, quindi l'else non può essere gestito, da questo p, allora noi semplicemente, lo racchiudiamo, dopodiché Angular se lo gestisce, e poi farà così, e eventualmente, ce lo manda a schermo, scusatemi, ce lo manda a schermo, col p, così, ok, molto semplice, ed è un banale, else, perché, forse è meglio questo, dell'altro, perché così ci permette di capire, vedete, è un blocco unico, se invece avessimo due ngif, così, non fate riferimento agli else, ok, fate solo riferimento a questo, dobbiamo capire, se questi due sono correlati, scritto così, è un pelino più lungo, però può aiutarvi a capire, a capirlo meglio, soprattutto ci diventa utile, perché, ne potremmo usare, adesso vi faccio vedere, il then, quindi non usiamo più, questo p qua, ma mettiamo, ngif, is visible, se è visibile, cosa fai, then, mi mandi a schermo, il blocco, if, che andiamo a creare, perciò facciamo, così, e questo è il blocco if, e mettiamo, sono, visibile, quindi se io salvo, abbiamo che non sono visibile, ma se io torno qua, e metto true, salvo, vedete che sono visibile, che cosa abbiamo appena fatto, ed è qua, abbiamo creato, questo elemento fittizio, che dice, guarda, ngif, is visible, mi mandi a schermo, il blocco if, che è questo, else, mi mandi a schermo, il blocco else, quindi questi due, sono i blocchi effettivamente visibili, in realtà, questo qua dentro, perché questo esterno, è semplicemente un wrapper, di angular, e questa qua, è pura logica, quindi non ci serve più, come elemento, e anche se io scrivessi qua, qualcosa, non ce lo manda comunque a schermo, quindi ci manderà a schermo, semplicemente questo, nel momento in cui abbiamo, then, questo elemento, viene ignorato, ci prenderà solo, questo qua, perciò se guardiamo, vedete, sono visibile, effettivamente true, ma questa parte non si vede, quindi ecco come potete, strutturarlo, altrimenti, se volete fare una cosa, un po' più sporca, dipende da come vi trovate, poi dipende anche molto, dalle situazioni, dipende molto dalle situazioni, se volete avere una cosa del genere, nessuno viene da avere il vostro, ngif, facciamo così, tipo, is visible, bam, e poi, is not visible, perfetto, è la stessa cosa, che scrivere tutta sta roba qua, qua è preferenza, qua capite subito, qua potreste avere molta più roba all'interno, un P con una card, eccetera, eccetera, quindi potreste avere, in questo P o div che sia, potreste avere, bam, 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 is visible, e poi per trovare, is not visible, avete un'altra vagonata di righe, in realtà così è molto più semplice, perché, perché leggete tutto qua, avete i blocchi, se facciamo così, vedete che me li mostra subito, perfetto, e li posso anche selezionare con control e click, e non importa se io qua ho vagonate di roba, vedete, non importa, perché io mi metto qua, e capisco quella che è subito la condizione da qua, perciò, ok, qual è il blocco else, tac, e me lo fa vedere, questo potrebbe essere un modo, un pelo più lungo, ma più pulito per voi, per capirci meglio successivamente, intanto sto facendo un po' di pulizia, ok, mentre invece, questo qua banale, che si usava agli inizi di Angular, può diventare, può essere comodo, se avete letteralmente, una riga di codice, cioè se avete solo un P, un altro P, o sufficiente un altro elemento, molto stringato, molto piccolo, allora può avere senso, altrimenti, una cosa un po' più pulita, diciamo, perché quello che ci interessa, è leggere questa riga velocemente, ha senso, poi dipende da quello che volete far voi, ripeto, dipende dalle casistiche, io direi che per oggi abbiamo concluso, ci vediamo nel prossimo episodio, dove parliamo di NG4, se conoscete il 4, potreste aver già intuito, cosa stiamo per andare a fare, sotto in descrizione trovate, il secondo canale, sito, e come supportare il canale, io vi ringrazio, alla prossima, ciao ciao, episodio 13 di Angular, oggi parliamo di NG4, quindi un'altra direttiva strutturale, che a sto giro, ci permette, se conoscete il 4, di ciclare, dei dati che abbiamo, e su questo, costruire degli elementi, mentre nell'IF, andavamo a costruire, o rimuovere degli elementi, in base a una condizione, qua, come vedremo, prenderemo un array, di dati, e li manderemo, a schermo, va bene? Quindi possiamo togliere, tutta sta roba, al momento che non ci interessa, questa qua commentiamola, per il momento potrebbe tornarci utile più avanti, quindi facciamo così, andiamo di qua, e andiamo a creare banalmente, un array di oggetti, molto semplice, che potrebbero essere, delle persone, quindi facciamo persone, uguale, array di cosa, di oggetti, e ogni persona, avrà un, facciamo un nome, tac, facciamo Luca, e poi un bel cognome, due punti, rossi, una cosa semplicissima, giusto per farvi capire, il concept, quindi abbiamo Luca, Marco, e Anna, passano gli anni, passano i corsi, io mi scrivo sempre i soliti nomi, Marco Verdi, e Anna Neri, ok, perfetto, quindi, abbiamo dei dati, ponete, ponete il caso che ci siano arrivati, dei dati, in realtà potrebbero essere un po' più grossi, e ogni oggetto potrebbe avere anche un po' più di proprietà, ma c'è arrivato, dal database, questo JSON, ce l'abbiamo qua, e adesso vogliamo andare a schermo, sta roba, in un'ottica, pensate di chat, potremmo avere che cosa, l'immagine, con il nome, ultimo login, eccetera, eccetera, molto semplificato, invece abbiamo solo questi dati, ok, spero che il passaggio non sia così complesso, una volta che pratichiamo questo, poi metterlo nell'ottica di, immagine, più stile, card, lista, non è un problema, dovete solo capire quello che è, il concetto dietro, ovvero come facciamo a costruire, una cosa dinamica, ed ecco come facciamo, allora, eccoci qua, siamo in persone, noi ci spostiamo qua, e facciamo la nostra UL, ok, quindi vi ricordate UL lì, banali, banali liste, con scritto 1, 2, 3, facciamo un ripassino veloce, banale lista, non devo spiegarvi niente, quello che vogliamo fare, vorremmo avere qua dentro magari, Luca Rossi, Marco Verdi, possono scriverlo tutti, mi capite? Sì, perfetto, vorremmo avere una cosa del genere, e questi dati devono arrivare direttamente dal nostro backend, che sono salvati qua dentro, eccetera, eccetera, non possiamo scriverli a mano, ovviamente, non sappiamo quanti sono, arrivano, e noi non possiamo programmarli, come facciamo? I dati arrivano sempre in modo diverso, ogni persona ha diversi contatti, non è possibile farlo runtime noi a mano, o scriverlo prima, ok? Dobbiamo farlo, appunto in modo dinamico, ma da soli, cioè noi non possiamo esserci lì, che scriviamo effettivamente le cose, il programma deve farlo da sé, andiamo quindi a utilizzare ng4, ng4 è una bellissima direttiva strutturale, che ci permette di creare un solo elemento, come stampino, e dopodiché di egli, guarda, per ogni volta che trovi un dato, mi ricrei lo stesso elemento, ma cambi dati all'interno, ok? Quindi, mettiamo lì, ng4, e che cosa facciamo? Perché for? Ve lo dico subito, ops, non fo, non fo, non foe, ok? ng4, e facciamo let, dobbiamo creare una variabile, persona, of, persone, chiaramente perché persone è questa, decidiamo che la persona è questa, ecco perché usiamo sempre il plurale, ok? Perché poi ha senso usare il singolare, ma potete chiamarlo anche pippo, e avere per, paperino, in, pippo, ok? Ripeto, faccio sempre questi esempi stupidi, perché le persone che cominciano ad imparare, a volte mi prendono alla lettera, e non si discosteranno mai da persone, anche se magari hanno a che fare con, cani, ok? Le chiamano piuttosto persone, perché l'hanno imparato così, va bene? Quindi tendo sempre a specificare questa cosa. Quindi abbiamo le nostre persone, ognuno di questi è una persona, quindi let persona, of persone, che è questo, ok? Che cosa andiamo a fare? Andiamo a creare il nostro li, e qua dentro possiamo mettere quello che è direttamente il dato, quindi qua dentro direi che possiamo fare, persona, punto, vedete che me l'ha già trovato? Perché? Perché lui fa riferimento a persone, adesso sa che ogni oggetto di persone si chiama persona, e da qua, quindi persone, scopre che questo è una persona, e facendo così capisce che ogni persona ha un nome e un cognome, se fate le cose fatte bene, ve le suggerisce in automatico, perciò vi metto persona, nome, e poi, staccato, facciamo anche così, giusto per far vedere che stiamo facendo qualcosa, persona, punto, cognome, io salvo, ed incredibile, avete visto? Generato automaticamente da Angular, andiamo a mettere ancora due dati aggiuntivi, per far vedere che è dinamico, quindi Anna, mettiamo Leonardo, e mettiamo Pannocchia, scusatemi, non ho idee, QWERTY, e Babbo, ok, Pannocchia Babbo, bel nome, salvo, come vedete è comparso, ora io qua li ho messi a mano, ma nessuno vi vede di farli arrivare dal database, non è assolutamente un problema, perciò voi capite che, non importa quanto sia lunga questa lista, noi possiamo, volendo, mandarle a schermo tutti, e vedete, che io qua ho semplicemente scritto il mio li, chiaramente ho la HUL, solo perché i li li contengo dentro la HUL, volete fare un div? facciamo un div, non è un problema, ci mettiamo qua, e facciamo semplicemente un div, o facciamo un P, facciamo un P, facciamo una cosa ancora più semplice, facciamo tac, 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 e poi qua dentro ci mettiamo, facciamo così, persona, nome, e magari il nome lo mettiamo dentro uno strong, giusto per gradire, giusto per fare le cose un po' diverse, qua dentro, e mettiamo solo il nome, e questo qua possiamo un attimo commentarlo, io salvo, e il risultato non cambia, come vedete, ci basta mettere in moto, ng4, prendiamo le nostre persone, la nostra variabile, i nostri dati, prendiamo la variabile singola, e specifichiamo l'elemento, questo è tutto l'elemento, perché lui cosa va a fare, non è che va a ripetere solo questo, ma ng4 vuol dire, che lui prende tutto questo, e mi dice, ok primo dato, lo creo, secondo dato, terzo dato, quarto dato, quinto dato, ovviamente senza, l'ng4 finale, ma questo è il risultato, e qua dentro chiaramente, solo il nome, e il cognome, va bene, di base, è così che andiamo a mandare a schermo, vagonate di dati in angular, e in realtà, facciamo così, facciamo le cose un po' più complesse, andiamo a mettere, facciamo fin da che una chat, is online, due punti, e poi magari due punti, facciamo così perché, ne approfitto poi per i prossimi, per i prossimi video, per aggiungerci roba, mettiamo qua un false, e mettiamo qua un false, e mettiamo qua un false, salviamo, voglio aggiungere qualcos'altro, possiamo togliere lo strong, e banalmente, se la persona è online, andiamo a mettere un pallino verde, ok? Quindi, ngif, ng, if, is, no scusatemi, non è is online, ma è persona.is online, eccolo qua, vedete, posso accederci direttamente, per il fatto che è qua dentro, se io provo a farlo fuori, ovviamente non posso farlo, vedete, ho problemi, finché sono qua dentro, posso accedere a tutto ciò che è di persona, va bene? Quindi cancello, e il nostro span, magari facciamo class cerchio, ok? Salviamo, usiamo velocemente il CSS, app component CSS, punto, cerchio, facciamo un 30, oh scusatemi, facciamo un bel width, 30 pixel, giusto dimostrativo, e potete non seguirmi, potete non scriverlo, tanto sapete fare CSS, e poi facciamo un background, color, green, salvo, ci tiene lo spazio dello span, ma non ci mostra la width, quindi per evitare problemi, e non andare per le lunghe, cerchiamo di rendere il tutto un po' più semplice, facciamo div così, e qua possiamo mettere un P, e qua abbiamo il nostro cerchio, facciamo così, tac, tac, possiamo metterlo qua sopra, e magari facciamolo un po' più piccolo, anziché 30, mettiamolo, 10, 10, salvo, mettiamolo come P, salviamo, ok, vedete? Quindi abbiamo che il nostro Luca Rossi, vedete questo è tutto Luca Rossi, poi abbiamo Marco Verdi che non è online, Anna Neri non è online, Querti sì, e Babbo no, facciamo la stessa cosa magari, con NGIF al contrario, quindi cerchio verde, e cerchio rosso, salviamo, facciamo cerchio verde così, allora cerchio verde, punto, cerchio rosso, e poi velocemente, tac, punto, cerchio rosso, tac, e poi, punto, cerchio verde, quindi qua, e qua invece, red, perfetto, andiamo a vedere, e come potete ben vedere, Luca Rossi è online, Marco Verdi no, Anna Neri no, Querti sì, e Babbo no, verifichiamo, e qua vediamo che abbiamo online solo esattamente, Querti, e Rossi, ok, quindi che cosa abbiamo fatto? Ricapitoliamo che abbiamo preso tutti i dati, li abbiamo mandati a schermo, e abbiamo utilizzato anche ngif, per creare qualcosa di un po' più complesso, vedete, prendendo sempre i dati, che abbiamo ricevuto, ok, adesso voglio farvi vedere, come possiamo prendere altre variabili del ciclo, quindi tutta sta roba al momento, possiamo anche toglierla, e voglio farvi vedere come possiamo prendere altri dati, ad esempio, potremmo prendere l'indice, potrebbe servirci, as i, quindi abbiamo il buon index, che è già dentro, ng for, e lo prendiamo come i, quindi io vi mostro che lo possiamo mandare a schermo, qua, abbiamo il nostro indice, salvo, ecco qua, vedete, e voi mi chiederete, perché dovrei avere l'indice? beh, perché magari volete fare appunto un p, ng if i maggiore di 2, cosa facciamo? Mettiamo ancora la class cerchio verde, quindi class cerchio verde, salvo, ed ecco qua, che compare solo dove l'indice è maggiore di 2, quindi vedete qua, aspettate, prendo l'elemento, ecco qua, vedete che è un unico elemento questo, che è l'indice 3 e l'indice 4, tra le altre variabili che potremmo voler prendere, abbiamo eventualmente il count, che prende tutta la lunghezza di persone, e il count in questo caso sarebbe 5, ok, quindi count as c, se volete, abbiamo first, as f, oppure is first, che ci permette di dire se è first o meno, vediamolo un po', is first, salvo, togliamo questo, non mi interessa, vedete questo è primo, è true, perché Luca Rossi è il first, allo stesso modo possiamo avere last, quindi l'ultimo, as is last, altrimenti una cosa molto bella, se dovete lavorare con pari e dispari, è even, pari, quindi even as, is, even, e poi abbiamo odd, as is, odd, perfetto, quindi qua, cosa possiamo fare, possiamo dire, is even, oppure, is, odd, mettiamo qua uno spazietto, e adesso vedete, come abbiamo true, false, perché, lo zero, viene considerato even, quindi, è even, è pari, ma non è dispari, l'uno, non è pari, ma è dispari, pari, dispari, pari, ok, quindi vedete che abbiamo un po' di variabili, che possiamo prendere, le trovate tutte sulla documentazione, alla fine alcune ve le ricorderete, even e odd, potrebbe servire abbastanza, first, cioè alla fine sono molto semplici, prendiamo, abbiamo le nostre variabili, che è la persona, abbiamo l'indice, primo e ultimo, pari e dispari, e count, ok, sono queste, alla lunga vi restano in testa, comunque questo è il for, come potete vedere, solo tra if e for, ci siamo già costruiti, un buon arsenale, di strumenti, per mandare a schermo roba, come vedete, possiamo già fare tante cose, ma veramente tante cose, nel prossimo video parliamo di ng switch, se non volete avere infiniti if, perché non usare uno switch, lo vediamo, l'ho usato poco nella mia vita, però, si può assolutamente usare, sotto in descrizione trovate, sito, secondo canale, e come supportare il canale, io vi ringrazio, e alla prossima, ciao ciao, episodio 14 di Angular, oggi parliamo di, ng switch, quindi ennesima direttiva, che possiamo usare, è molto facile, quindi la vediamo, velocemente, se conoscete lo switch, è facile, si tratta di un, banalissimo, blocco di codice, che ci permette di prendere, una variabile, ad esempio prova, e poi dentro verificare, quelli che sono i vari casi, quindi se prova è uguale a uno, facciamo qualcosa, se case, prova è uguale a due, facciamo qualcos'altro, e poi potremo avere, il nostro default, lo stesso concept, lo buttiamo sugli elementi, quindi potremmo avere, il nostro esempio div, che fa da switch, e poi i vari p, nelle casistiche, che abbiamo elencato, ok? Questo è il primo discorso, vediamo come farlo, effettivamente, a livello html, quindi, direi che noi possiamo creare, un div, e qua dentro, andiamo a mettere, ng switch, vedete, non è, come, direttiva strutturale, perché non è proprio, questo ng switch, a modificare, il dom, ma sollevare casistiche, e adesso lo vediamo, quindi ng switch, facciamo magari, una variabile num, anzi una variabile numero, chiamiamola numero, uguale a 5, anzi facciamo uguale a 3, per non andare troppo all'infinito, scendiamo, ng switch, facciamo riferimento a numero, vedete che ce l'ha trovato, e qua dentro, vogliamo avere diversi paragrafi, quindi un paragrafo, per ogni situazione, ed ecco qua, che abbiamo, ng, switch case, eccolo qua, vedete questa è la direttiva strutturale, che fa riferimento a questa direttiva, ma, è questa che va a cambiare gli elementi, perché questo div ci sarà sempre, mentre invece i p no, quindi andiamo a creare magari, 4 switch case, e poi magari un default, quindi, ng, default, ecco qua, switch default, allora, qui non ci serve, perché chiaramente è il default, qua dentro mettiamo, 1, 2, 3, 4, e poi, default, benissimo, e qua andiamo a mettere, le varie casistiche, quindi switch case, 1, 2, 3, 4, ovviamente, dopo proviamo magari con le string, salviamo, andiamo a vedere il risultato, abbiamo 3, ovviamente, perché, perché il numero, è uguale a, 3, quindi, prende il numero, è uguale a 3, ci manda schermo 3, va bene, proviamo a cambiare, mettiamo magari, stringa, e possiamo mettere, pippo, paperino, pluto, topolino, ok, ora andiamo qua, e mettiamo la nostra stringa, che sarà uguale, a, topolino, salviamo, nonostante qua sia tutto corretto, così ci dà errore, quindi dobbiamo metterlo tra virgolette, ups, tra virgolette, ecco qua, e anche questo, e anche questo, e anche questo, ora, vediamo che qui abbiamo, stringa, che è topolino, quindi stringa, topolino, ci aspettiamo a schermo, 4, io salvo, e come vedete, abbiamo, 4, ecco qua, quindi, ricapitoliamo, abbiamo, la nostra variabile, qua gli associamo, le varie casistiche, se è un numero, lo mettiamo direttamente così, se è una stringa, dobbiamo avere, gli apici, ok, qua abbiamo, i doppi apici, motivo per cui, qua dobbiamo usare, i singoli apici, cosa succede, ripeto, va a prendere il valore, lo confronta con tutti, e dopodiché, fa quello che deve fare, proviamo magari, a mettere una stringa, differente per mandare il default, salvo, e vedete che abbiamo default, perché, il buon, topolino, non è presente, qua dentro, quindi, questo è, ng switch, molto semplice, piuttosto che fare, una carrellata, di if, di ng if, continuamente, bam, 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 una cosa del genere, può sicuramente aiutare, per ng switch è tutto, video brevissimo, sotto in descrizione trovate, i modi per supportare il canale, secondo canale, e sito, noi ci vediamo nel prossimo video, dove parliamo di ng style, io vi ringrazio, e alla prossima, ciao ciao, episodio 15 di angular, arriviamo a parlare di ng style, si tratta di una direttiva, che ci permette di cambiare lo style, quindi lo stile css, di un elemento, in base a qualcosa, quindi in base a dei dati, che abbiamo all'interno, del nostro componente, intanto puliamo un attimo, qua, facciamo così, e voglio fare riferimento ancora, alle nostre persone, questo perché noi ci spostiamo qua, e andiamo a creare una hull, con un solo lì, come abbiamo già fatto, e voglio mettere, ng for, ng for, uguale, let persona, of persone, perfetto, e qua dentro, abbiamo banalmente, un p, con all'interno, persona, punto nome, e poi, persona, ops, non qua, ma qua, persona, punto, cognome, facciamo così, salviamo, e vedete che abbiamo, tutti i nostri, carissimi amici, una cosa che vorremmo in aggiunta, è magari, un div, che facesse da pallino, per dire se è online, o non è online, quindi, div, class, cerchio, dobbiamo andarla a sistemare forse, apriamo il css, ok, non abbiamo una classe cerchio, perciò facciamola, quindi cerchio, apriamo qua, questi sono quelli della volta scorsa, possiamo tenerli, non è un problema, e voglio fare, le stesse dimensioni, ma in aggiunta, giusto per fare un cerchio, un border radius, facciamo 50%, salvo, non si vede niente, perché manca il colore, e adesso ci mettiamo una pezza, qui mettiamo un bel background color blu a sto giro, e poi voglio aggiungere dello stile, seguitemi, allora lì, mettiamo margin bottom 10px, adesso vedrete perché, display flex, giusto un po' di stile aggiuntivo, per avere qualcosa di carino, e poi, align items center, e poi un'ultima cosa, lì, p, dobbiamo togliere il margin bottom, e mettere 0, come vedete, il risultato è il seguente, abbiamo, il nostro cerchio, che è questo qua blu, e vicino il nome, possiamo eventualmente mettere anche, un margin, di destra, di 10px, decisamente meglio, allora voglio che questo cerchio, abbia, colori diversi, di background, in base a cosa, in base allo stato della persona, perché sappiamo che una persona, può essere online, o non online, come facciamo, più avanti vedremo ng class, quindi andremo a cambiare direttamente, la classe, ma a sto giro, possiamo modificare direttamente, lo stile, quindi facciamolo, apriamo, perché facciamo property binding, e mettiamo ng style, quindi abbiamo, la nostra direttiva, a cui andiamo a fare il binding, di una proprietà della direttiva, ok, questa direttiva, ci permette di cambiare, lo stile css, dell'elemento, ha bisogno di un oggetto, eccolo qua, e all'interno, possiamo scrivere codice css, le varie proprietà css, potete scriverle, o così, tipo margin bottom, ok, e poi mettere il valore, ok, altrimenti, se volete usare, l'effettiva proprietà css, dovete usare però, le virgolette, perché dovete mettere, i dash qua, così vedete, margin bottom, e poi andate a specificare, ok, potete scegliere, non fa alcuna differenza, ricordatevi che se non mettete, le virgolette, dovete utilizzare, questo tipo di scrittura, ovvero, via il dash, e poi come il case, ok, così, è rilevante, fate come volete, quello che noi vogliamo, è il, background, quindi, background, al momento, mettiamo, semplicemente, red, salvo, e vedete, che è diventato rosso, allo stesso modo, possiamo collegarlo, a una variabile, come potrebbe essere questa, ad esempio, color, facciamo così, e scriviamo, green, io salvo, prendo il color, al momento qua è red, ma io ho messo il colore, salvo, e vedete che è green, ok, qual è il prossimo step, il prossimo step, è prendere il colore, direttamente, dallo stato, delle persone, quindi, isOnline, true, o false, proviamo, possiamo usare direttamente, il ternary operator, potreste anche avere, eventualmente, un metodo, ad esempio, get status color, get color, tipo una cosa del genere, get color, andiamola a fare anche di qua, e abbiamo, il nostro, get color, che fa un return, ad esempio, green, una cosa del genere, chiaramente, dentro ci mettete un po' più di logica, però potreste avere una cosa del genere, in realtà, non ci complichiamo la vita a sto giro, ma facciamo semplicemente, un ternary operator, if, persona, punto, isOnline, eccolo qua, è true, quindi non devo mettere nient'altro, mi scrivi green, else, mi scrivi, scusate, non mi scrivi red, mi metti red, oppure mi metti green, allora, prima di vedere il risultato finale, vediamo chi è online, e chi non è online, allora, gli online sono, Luca, il primo, e il penultimo, tutti gli altri sono rossi, va bene, apriamo, e vedete che effettivamente, ci dà che il primo, e il penultimo, sono online, sono verdi, in realtà, io dico sono online, perché, noi pensiamo che il verde, voglia dire, is online, effettivamente, il dato, è quello, is online, a livello utente, l'utente non lo sa, vede il colore, verde è online, rosso non è online, però avete visto come abbiamo trasformato, letteralmente, dei dati, anonimi, ci dice semplicemente nome, cognome, e lo stato, con l'NG4, abbiamo duplicato i dati, che abbiamo ricevuto, con la string interpolation, abbiamo andato a schermo i dati effettivi, quindi nome e cognome, ma con ng style, abbiamo letteralmente, cambiato, il colore, in base a quello che è, lo status, della, della persona, possiamo andare avanti, potremmo fare molto di più di così, ma capite, che, possiamo veramente, associare, a qualsiasi proprietà css, un valore, che arrivi, da, un operatore del genere, può arrivare come return, una funzione, può essere una cosa, che noi mettiamo, da una variabile, nulla ci vieta, di avere magari, una cosa, così, ad esempio, color, due punti, e mettere blu, facciamo una cosa del genere, fate vinta che, quel pallino lì, non è più, il online, o no, ma è semplicemente, il colore preferito, quindi mettiamo, a cavolo, qua i colori così, vabbè, facciamo, blu, red, yellow, green, e purple, ok, io salvo, vado qua, e anziché avere una cosa del genere, potremmo semplicemente avere, persona, punto, color, se ce l'abbiamo, perché no, ed eccoci qua, con i colori preferiti, delle persone, ok, capite quante cose, possiamo fare con ng style, perché in realtà, possiamo modificare, tutto lo stile css, e non solo limitarci, a dei colori, volete modificare, il font, padding, in generale, potete farlo, nel prossimo episodio, vediamo come possiamo, passare questa parte qua, che per certi aspetti, può essere, un po' lunga, quindi dover modificare, letteralmente tutto, background, dobbiamo passare il colore, oppure se, è così, fai così, altrimenti fai cosà, perché non assegnare, semplicemente, delle classi, quindi, abbiamo già la classe, cerchio rosso, e cerchio verde, che poi rivediamo velocemente, ma abbiamo tutta sta roba, e possiamo semplicemente, cambiare quella classe, perché non farlo, anzi, lo facciamo, nel prossimo video, sotto in descrizione, trovate il mio sito, secondo canale, e come supportare il canale, io vi ringrazio, e alla prossima, ciao ciao, episodio 16 di Angular, arriviamo a parlare, di ng class, ok, io qua ho fatto pulizia, prima avevamo ng style, ma vediamo come possiamo, direttamente cambiare, una classe, anziché cambiare, tutto lo stile a mano, semplicemente, assegniamo, delle classi, e basta, ok, quindi in questo caso, abbiamo il nostro cerchio, qua abbiamo degli errori, scusatemi, lo tolgo direttamente, facciamo così, salviamo, al momento abbiamo il nostro cerchio, e se vado a prendere, è una cosa del genere, scusate, fatemi togliere tutta questa roba qua, che non si capisce, facciamo questo, via, perfetto, allora abbiamo il nostro cerchio, background blu, io salvo, e l'avete visto il risultato, ora vorremmo cambiare, anziché tutto, perché poniamo il caso, che non abbiamo solo il background, ma abbiamo anche, altre cose che vogliamo cambiare, può essere il border radius, può essere il border, il colore del bordo, chissà quante cose possiamo voler cambiare, quindi, anziché cambiare tutto lo stile, a mano noi, con ng style, cambiamo semplicemente la classe, abbiamo delle classi ad hoc, va bene, facciamolo quindi, lo possiamo fare con ng class, prima di fare ciò, voglio andare a modificare leggermente, i nostri, i nostri cerchi, giusto per, dare un po' di pepe, quindi facciamo magari un bel 30-30, vediamo un po' cosa esce, ottimo, e qua dentro, vorrei aggiungerci qualcosina, magari un index, ce l'abbiamo, facciamolo no, index as i, qua dentro ci buttiamo i, salvo, perfetto, un po' non schifo, niente che non possiamo sistemare, con un banale, text align center, vediamo un po', perfetto, bruttino, nero, non si capisce, ma a noi va bene, allora vogliamo che quando una persona sia online, in questo caso Luca Rossi, diventi verde, e dentro, l'indice sia bianco, ok, quindi due stili, vogliamo invece che quando sia offline, sia rosso, e magari all'interno sia giallo, altri due stili, motivo per cui, andiamo a creare direttamente delle classi, punto, cerchio online, facciamo così, e qua dentro mettiamo, background color green, eccoci qua, e magari un color banale del text, perché no, white, dall'altra parte, vogliamo avere un cerchio offline, eccolo qua, con background color red, e un color orange, perfetto, ora vogliamo dare queste classi, in base appunto, allo stato delle persone, che è qua, il color, vabbè il color lo lasciamo, non preoccupatevi, in base allo stato vero, is online, true o false, spostiamoci di qua, e cominciamo a utilizzare ng style, anche qua dobbiamo, usare property binding, quindi ng, scusatemi ng class, non ng style, ng class, e qua dentro possiamo usare, una serie di cose, ok, la documentazione, è abbastanza complicata, credo, per chi si approccia, le prime volte ad angular, ok, quindi schippo, le prime cose che potreste non capire, ovvero il fatto che possiamo, sufficientemente aggiungere, delle classi qua, ve le faccio vedere, cerchio online, e potremmo avere, altre classi, come cerchio offline, così, eccoci qua, oppure, tolgo questo, semplicemente perché, non voglio che si sovrapponga, non vi faccio vedere il risultato, vedete, è diventato verde, ripeto, potete avere più classi, separate così, oppure, le potete avere, semplicemente, in un array, quindi potete avere qua, il nome di una classe, e il nome di un'altra, diciamo che al momento, non sono, non sono condizionate da niente, perciò questa parte qua, la salto, non c'è molto da dire in merito, non interessa la parte condizionale, poi, quando avrete più dimestichezza, eventualmente tornate indietro a vederlo, secondo me confonde tanto, ora, arriviamo alla parte condizionale, ed è la seguente, allora, aprite un oggetto, e mettete la classe che vi interessa, cerchio online, due punti, persona, punto, is online, quindi io salvo, e vedete che Luca Rossi, e Leonardo Querti, sono online, perciò viene modificato, se volessimo avere anche l'else, potremmo fare una cosa del genere, quindi, cerchio offline, due punti, abbiamo persona, punto, is, scusatemi, al contrario, è is online così, ma mettiamo questo, quindi salvo, e vedete che otteniamo il risultato che ci interessa, abbiamo cambiato più di uno stile, più del background, anche lo stile del testo, il colore del testo, e l'abbiamo fatto sempre riguardo allo stato online o meno di una persona, se volete aggiungere più classi sulla stessa condizione, vi basta fare come abbiamo fatto prima, quindi aggiungere qua magari altre classi, ok? Adesso ve lo dimostro, facciamo una classe prova, salvo, sposto qua il component, e mettiamo punto prova, e magari andiamo a mettere il border radius, facciamo border radius, due punti, 0%, salvo, e vedete che mi ha tolto, che mi ha aggiunto il border radius, 0%, quindi mi ha sovrascritto il border radius di prima, ma mi ha messo due classi qua, perché? Perché come vedete, io ho messo una classe e un'altra, senza separarle da virgola o niente, ho messo tutte le classi che voglio, con questa condizione, voi andate avanti così, e potete mettere infinite classi, e infinite condizioni, altrimenti, se non volete far così, potete fare una cosa un po' più ripetitiva, ovvero, prova, due punti, persona, punto is online, esattamente come abbiamo scritto prima, diciamo che però non conviene, perché si allunga per nessun motivo, ok? Serve solo la virgola finale qua, perfetto, vedete? Secondo me così non conviene, vi basta fare, come abbiamo fatto, pochi secondi fa, così mi sembra, un po' più pulito, altrimenti, potete usare, il ternary operator, lo abbiamo, perciò potremmo fare una cosa del genere, ovvero, persona, punto, is online, mi metti, cerchio online, altrimenti, che cosa fai? Mi metti, cerchio, così, offline, salviamo, vi diamo il risultato, è esattamente il medesimo, diciamo che, così, abbiamo, una sola condizione, vedete? Diciamo così, magari proviamo a mettere prova, salvo, vedete possiamo aggiungere tranquillamente più classi, ok? Però così, solo se abbiamo una condizione, mentre invece, quello che ho fatto prima, non è un problema, possiamo avere qualsiasi tipo di condizione, ovvero prova, lo togliamo, e possiamo mettere che prova, lo mettiamo esclusivamente se, prova, due punti, prendiamo qua, color, è blu, quindi vogliamo che Luca abbia anche prova, quindi abbia gli angoli non smussati, e ve lo dimostro, persona, punto, color, uguale, uguale, blu, vedete? Possiamo avere, veramente, tanti tipi, di condizioni, è rilevante, perché, ogni condizione, è a sé stante, mentre invece, nel ternary operator, abbiamo, il ternary operator, punto, questo qua, a me piace molto, se avete uno showdown, tipo, is online, o, is offline, potete usare tranquillamente, il ternary operator, così mi piace un po' di più, mi dà un po' più di pulizia, comunque vediamo il risultato, e vedete che Luca, è l'unico ad avere, chiaramente, entrambe le, le classi, ok, direi che per oggi, è veramente tutto, su ng class, io vi dico di fare, delle prove, fate delle prove, casomai, potete aggiungere, dei valori in più, e provare ad aggiungere, delle classi, in base a questi valori, che avete aggiunto, sulle, sulle persone, potete, anche, potete fare riferimento, tipo, grassetto, true o false, e andare a mettere, appunto, delle classi, aggiuntive, voglio semplicemente, che proviate a farlo da soli, e cominciate a prenderci la mano, su ng class, soprattutto, appunto, vi chiedo di utilizzare, il più possibile, questo tipo, perché, vedete come possiamo usare, tante condizioni, quindi, ognuna, è separata, e ve la gestite a parte, così, è veramente, molto bello, per oggi, appunto, abbiamo finito, sotto in descrizione, trovate, il link al secondo canale, sito, e come supportare il canale, io vi ringrazio, e alla prossima, ciao ciao, episodio 17 di Angular, oggi vediamo, come passare, dei dati, da un componente, parent, scusatemi, non l'ho scritto qua, parent, ad un child, che sarebbe il figlio, quindi, come passare da un componente, che tiene un altro componente, all'interno, in questo caso, se riprendiamo l'esempio, ho pulito un po' tutto, intanto, vedete, ho pulito tutti i componenti, ho ottenuto semplicemente, prova, come componente aggiuntivo, e poi qua ho ottenuto persone, perché ci serve, se non ce l'avete, buttateci dentro dei dati a caso, non è, non è importante, ai fini della lezione, il discorso è, noi vogliamo avere qua, l'app component, però abbiamo il nostro app prova, ok, abbiamo magari qua una variabile in app component, che è questa, persone, o title, quello che volete, e vogliamo passarla a prova, affinché prova, possa poi mandarla a schermo, quindi magari fate un p, e vorremmo mandare a schermo, ad esempio, persone, zero, punto, nome, ok, quindi è la stessa cosa che abbiamo fatto, su app component, prima se vi ricordate, togliamo un attimo questo, io salvo, qua non ci dà problemi, vedete, Luca, che è persone, zero, nome, ok, ma se io provo a farlo qua, ci dà problemi, ok, quindi come possiamo accedere, ad una variabile di un componente, che tiene un altro componente, vedete, questo è app component, ah scusate, provo a far così, app, prova, giustamente, salvo, mi dà comunque errore, com'è possibile che io ho qua il mio app prova, che è questo, e non posso accedere ad app component, se per caso arrivate dalla programmazione ad oggetti, potreste dire, eh ma scusatemi, diciamo che app prova, tra virgolette, deriva o è contenuto in app component, perciò non capisco perché non posso prenderlo, ok, questo perché dobbiamo passarlo in modo specifico, perché ogni componente pensa per sé, anche se voi lo mettete qua dentro, non vuol dire che prova deriva da app, non vuol dire, è contenuto a livello di template, ma non vuol dire niente, sono due cose totalmente diverse, totalmente separate, ok, non è che solo perché avete, ehm, due telefoni nello stesso marsupio, improvvisamente possono passarsi i dati, non vuol dire così, o avete il telefono vicino al computer, non collegandolo, potete passare i dati, ok, non ha senso, in questo caso dobbiamo proprio connetterli, come facciamo? allora cominciamo, andiamo su prova component, e utilizziamo un nuovo decoratore, che si chiama input, quindi at, input, fate così, abbiamo il nostro decoratore, se non ve lo importa automaticamente, dall'angular core, importate, input, ok, quindi input, chiamiamo una variabile, in questo caso potrebbero essere data, oppure persone, però persone ce le abbiamo già di là, perciò non voglio ripetermi, in questo caso facciamo data, è uguale, potete già dare un valore, un array vuoto, perché tanto è un array di oggetti, se già lo sapete, oppure, non date valore, chiaramente però c'è l'errore, perché dobbiamo quantomeno specificare il tipo, quindi in questo caso abbiamo creato, una variabile, come creare data così praticamente, ok, come creare una storia simile, vedete, abbiamo la nostra variabile data, semplicemente stiamo dicendo che questa variabile data, ha un decoratore, vedete che il decoratore è at, esattamente come component, come component ha il nome, in questo caso input, non ha tutti questi dati, perché non interessano questi dati all'input, ne potrebbe avere altri, vedete, ne potrebbe avere altri, che è il binding property name, e non riesco a passarci sopra, vedete, che però è opzionale, perché al punto di domanda non è necessario, perciò noi possiamo dire, come at component, apriamo le parentesi, e lo lasciamo così, senza inserirci niente, diciamo che è, questa variabile data, è di tipo any, quindi vuol dire che, questa variabile data, avrà il suo valore, legato a qualcosa che arriva dall'esterno, ok, perciò Angular sa che, il valore di data, arriva da fuori, va bene, ora, come facciamo a farlo arrivare, dobbiamo, di base, iniettarlo, direttamente dal componente che ha accesso, ok, quindi, se noi andiamo qua, ci posizioniamo, quindi sul componente, e facciamo che data, è uguale, a cosa? A persone, vedete che però, ce lo dà come stringa, quindi come facciamo, a collegare data, che è una proprietà, di prova, vedete, è una proprietà di prova, a persone, lo sapete, con il property, binding, perché noi vogliamo collegare, una proprietà, quindi proprietà, property, collegare, binding, perciò è property, binding, mettiamo tra parentesi quadre, e vedete che improvvisamente, persone viene riconosciuto, quindi adesso, Angular sa che, app prova, è il nostro componente, ha una proprietà, di tipo data, ed è vero, ed è questa, e sa che questa proprietà, viene collegata, property binding, tramite cosa? Tramite persone, che non è disponibile qua, è disponibile in app component, perciò possiamo farlo, dall'altra parte, stiamo dicendo, ehi, guarda che, questa proprietà, data, è collegata, ma non a qualcosa, che hai tu all'interno, come facevamo prima, banale property binding, ma è collegata a qualcosa, che arriva dall'esterno, perciò viene inserita, è un dato, in input, facendo così, se io salvo, andiamo su prova component, io improvvisamente, vado qua, e faccio un bel, console.log, this data, salvo, e vedete che abbiamo, il nostro array, vedete? Luca, Marco, Anna, Leonardo, e Pannocchia, abbiamo effettivamente, tutti i dati, ora vi chiederete, come possiamo accedere, al componente, mandare roba a schermo, esattamente come abbiamo, sempre fatto, quindi nessuno, ci viete di fare, un bel div, e mettere in pratica, ciò che abbiamo imparato, recentemente, quindi, ng4, uguale, let, persona, of, data, ho cambiato nome, sarebbe stato meglio, scrivere persone, ma volevo farvi vedere, che erano due variabili diverse, persona di components, e, data, di prova, quindi, siamo qua, facciamo un bel punto e virgola, facciamo così, e qua dentro andiamo a mettere, un P, con, il nome, perciò abbiamo, persona, punto, nome, e, dall'altra parte, persona, punto, cognome, chiudiamo, e se vogliamo, fare i fenomeni, e utilizzare, anche, ng style, perché non farlo, quindi, ng style, aprite, l'oggetto, vi ricordo, e qua mettiamo, color, lo potete mettere così, oppure, tra virgolette, quindi, color, e qua andiamo a mettere, persona, punto, color, questo perché, se io salvo, qua su app component, vi ricordate che avevamo messo anche il color, quindi ho messo che, il colore, del font, questo qua, di P, è uguale, al dato che riceviamo, quindi abbiamo utilizzato, un po' di cose che abbiamo già visto, l'ng for, ng style, string interpolation, questo è string interpolation, mi raccomando, questo è solo l'oggetto che ng style vuole, e se andiamo a vedere il risultato, vedete che abbiamo, fatemi zoomare un pelino, abbiamo i nomi, delle nostre persone, che sono qua, coi colori esatti, quindi vediamo il primo, è, Luca, rossi, colore blu, Luca rossi, colore blu, non potete sbagliare, quindi abbiamo passato, con successo, i dati, dall'app component, eccolo qua, a prova, prima non potevamo accedere, avete visto che prima non potevamo accedere, adesso, l'abbiamo fatto, abbiamo andato a schermo la roba, uno potrebbe chiedermi, ma perché, questi dati, li devo ricevere, in app component, e non, nel componente specifico, bella domanda, perché, giustamente, uno potrebbe mettere la logica, che i dati, di prova, quindi delle persone, se dobbiamo andare a schermo le persone, li richiede solo quando compare, il componente di prova, giustissimo, tuttavia, pensate a una banale dashboard, quindi un gestionale, dove magari, questi, queste persone, non ci servono solo in questo componente, ci servono in altre pagine, ci servono in altri componenti, quindi, noi li prendiamo, a livello applicazione, e classici dati, che quando ci colleghiamo, tiriamo giù, perché ci servono un po' in giro, e poi li distribuiamo, ok, quindi li passiamo, poi ai vari componenti, anziché scaricarli, poniamo il caso, che abbiamo prova e prova 2, entrambi hanno bisogno delle persone, anche se mandano a schermo dati diversi, magari una, sono delle card, le card con le varie persone, tipo tutti gli amici che hai, e la seconda invece, è la tabella delle persone, ok, sono due componenti diversi, magari hanno bisogno di alcune parti, di dati diverse di persone, però hanno comunque bisogno, dei dati delle persone, anziché, fagli scaricare, continuamente, roba su roba, ogni volta che ci spostiamo, di componente in componente, uno dice, guarda, io tiro giù questo, una volta sola, nel, quando mi logo, nella mia, nel mio app component, e poi li distribuisco, ai vari componenti, quando, quando si caricano, ok, facciamo meno chiamate, al, al server, allora, vi voglio far vedere però, un'ultima cosa, ovvero che, essendoci property binding, qua, quando cambiano i dati delle persone, chiaramente, cambia anche data, facciamolo subito, e andiamo a creare qua, un banale bottone, facciamo un button, e quindi andiamo a utilizzare, anche un event binding, perché no, e mettiamo un on click, che conoscete ormai, banalissimo, on click, dove sarà questa cosa qua, salviamo intanto, sarà su app component, perciò, on click, io faccio così, e, semplicemente, prendiamo la stessa cosa qua, e, e cambiamo nomi, ok, quindi facciamo un bel dispersone, quindi sull'on click del bottone, le persone che abbiamo, cambiano nome, ok, mettiamo qua dei numeri, qua mettiamo così, qua scriviamo, qwerty, qua mettiamo invece, delle cose accentate, ok, giusto per far vedere che stiamo cambiando, e qua mettiamo, dei trattini più il punto, ah, bella faccina, allora, teniamo la faccina, ok, se io salvo, vediamo un po', incredibilmente, qua avete il nostro, vedete il nostro bottone schifosissimo, ah, giusto, sarebbe meglio, quantomeno mettere la dicitura, cambia, non stiamo usando nemmeno material, material angola, ma chi se ne frega, torno qua, abbiamo cambia, bam, avete visto? improvvisamente, è cambiato, però non ci è rimanato a schermo la roba qua, perché? Perché questa cosa qua, l'abbiamo andata semplicemente a schermo, sul ng on init, e ora colleghiamo un'altra cosa che abbiamo imparato, ovvero, come facciamo a prendere i vari cambiamenti, ve lo ricordate, con, dobbiamo andare però sul prova component, col change, perciò noi implementiamo, changes, on changes, eccolo qua, vedete? on changes, ci dà errore, perché dobbiamo implementarlo, perché è un'interfaccia, correzione rapida, implementa on changes, magari lo spostiamo sotto, eccolo qua, benissimo, e se noi adesso mandiamo un bel console log, facciamo un bel console.log, di cosa dei vari changes, quindi i changes sono i cambiamenti, ma andiamo a schermo i cambiamenti, vediamo un po', al momento abbiamo l'ng on init, quindi ci sono i primi 5 che ci arrivano, Luca, Marco, Anna, Leonardo e Pannocchia come al solito, e abbiamo i changes, vediamo un po' i data, current values, abbiamo qua i soliti, va bene? Niente di che, se io vado a cambiare, faccio cambia, vedete che ci è arrivato on changes, che non l'abbiamo visto prima, nell'episodio del ciclo di vita dei componenti, ve ne ho parlato, ma non l'abbiamo visto in azione, perché? Perché l'ho ottenuto per questo episodio, improvvisamente i changes, vediamo un po', data, abbiamo il current value, vedete che è diverso dal previous value, previous vuol dire prima, current vuol dire corrente, quindi i dati di prima erano questi, e il current value è questo, quindi ci sta mostrando i cambiamenti, non ci rimostra tutto il componente, ci rimostra solo i valori che sono cambiati, quindi voi pensate un componente che continua a cambiare, noi abbiamo accesso a tutte queste cose, perché magari vi ho detto che utilizziamo le varie fasi del ciclo di vita del componente per far succedere cose, quindi on changes, fai succedere qualcosa, automaticamente qua cambia questo, però magari on changes, tipo se cambia un determinato valore, tipo da Luca a 213123, magari noi vogliamo fargli cambiare il layout HTML, non so, qualsiasi cosa volete fare, lo possiamo fare, ok? Quindi oggi era particolarmente legata a come passare dati, in realtà abbiamo messo insieme tanti pezzi del puzzle che avevamo visto, e li abbiamo messi in una situazione abbastanza pratica, e in più avete visto finalmente in movimento on changes, ok? Avete imparato tanto, al di là del passare i dati, avete imparato tanto, dovete essere orgogliosi, quello che vi dico, non c'è nessun esercizio da fare, in realtà dovete semplicemente cancellare tutto, quello che avete fatto, lasciate i componenti vuoti, e provate a riprodurlo, ok? Provate a rifare lo stesso giro, perché non ve l'ho fatto fare con la creazione del componente in sé, non vi ho fatto creare un componente a mano, vi ho fatto fare, se vi ricordate, ng, generate component, eccetera, perché è importante ricordarsi quel comando, però il comando si copia, banalmente, cioè se scrivete generate component, cli, angular cli, invece il comando lo copiate, non è un problema se non vi ricordate a memoria, però questo giro è importante, cioè ricordarsi che dobbiamo avere qua il componente, e poi gli facciamo il property binding, quindi dobbiamo creare la proprietà corretta, deve essere un input, e poi qua gli mettiamo la variabile che ci interessa, e poi accediamo finalmente ai dati, vedete che è un piccolo giro che dovete ricordarvi, angular è pieno di giri di queste cose, perché magari poi vogliamo portare i dati fuori da un componente all'altro, vorremmo utilizzare altre classi che si chiamano services, che hanno degli altri giri, le direttive hanno degli altri giri, quando poi chiameremo il back end facciamo degli altri giri, quindi angular è un grande ciclo continuo di cambiamenti eccetera, dove al suo interno ci sono tanti cicli, ad esempio uno dei cicli è il ciclo di vita dei componenti, quindi ci sono tante fasi circolari che noi dobbiamo ricordarci, che magari passano da un componente all'altro, da un file all'altro, dall'html al typescript al css, e tutte queste cose qua dobbiamo ricordarcele, quindi riprovate, cancellate tutto e riprovate a mandare a schermo le stesse cose, potete cambiare i dati, potete fare quello che volete, quello che mi interessa è che impariate che dovete mettere qua la variabile input, da qua nel componente, la legate col property binding ad una variabile che avete in app component, ok? L'importante è questo, chiaramente non fate solo app component prova, questa cosa qua potrebbe essere dentro prova, se dentro prova avete un altro componente lo potete fare, se qua in app component avete tre componenti diversi lo potete fare, ok? Questo è quanto, nel prossimo video vediamo invece come portare un valore che abbiamo dentro prova, quindi qua dentro, lo buttiamo fuori affinché app component possa utilizzarlo, va bene? Sotto in descrizione trovate il mio sito, il secondo canale e come supportare il canale, io vi ringrazio, alla prossima, ciao ciao! Episodio 18 di Angular, oggi proviamo al contrario rispetto all'episodio precedente, a passare dati da un componente child a un componente parent, quindi da un componente che si trova dentro un componente ad un altro, in questo caso app prova così, che si trova dentro app component, il nostro obiettivo è far uscire, scusatemi, è far uscire una variabile che abbiamo qua dentro, in questo caso potremmo avere nome uguale Luca, vogliamo buttare fuori questo Luca al fine di poterlo utilizzare dentro app component, perché vi faccio vedere, se io vado su prova.html, posso usare nome senza problemi, ecco qua, vedete, l'altronde sono nel componente prova.html, e lo prendo dal prova.component.ts, quindi niente di che, ma se vado invece, fatemi far così, se vado in app component.html e provo ad utilizzarlo qua fuori, ho problemi, perché? Perché non esiste qua. Ora, uno potrebbe dirmi, come abbiamo detto l'altra volta, ma scusatemi, ma app component tiene app prova, perché non è in grado di entrare e prendere i dati che gli interessa? Perché non può farlo? Ok, questa è la risposta, perché non può farlo? Ora, vediamo come possiamo quindi, noi dobbiamo farlo a mano, dobbiamo dirgli, guarda, da prova component, devi prendere questo nome e renderlo disponibile, ok? Lo faremo utilizzando un altro tipo di data binding che abbiamo visto, abbiamo visto quattro data binding, giusto? Abbiamo visto string interpolation, eccolo qua, che però non ci interessa, perché ci permette solo di prendere i dati che abbiamo qua dentro e mandarli a schermo, quindi nello stesso componente, perciò non ci interessa. Abbiamo visto property binding, quindi per passare da un componente all'altro, però da padre a figlio, quindi da app component a prova, abbiamo fatto una cosa del genere, se vi ricordate, nell'episodio precedente, dopodiché c'è il two-way binding, che però è un mischione tra property binding e event binding, che non ci interessa, quindi capite che ne resta uno, quello che faremo è utilizzare event binding, quindi avremo il nostro evento, che non sarà un evento tipo click, sarà un evento che andremo a fare noi, quindi un evento custom, perciò potremmo avere un evento manda dati fuori, ok? Scusatemi, non fuori, non fuoti, ma fuori. Faremo una cosa del genere, e app component sarà in attesa, ok? Quindi c'è il nostro componente figlio, che dice, guarda, adesso decido di mandarti fuori questi dati, tu stai in attesa per riceverli, va bene? Vi faccio una metafora, poniamo il caso che io abbia un portafoglio diviso in due sezioni, la prima sezione è aperta a tutti, ma potete solo depositare soldi, quindi io non ho problemi, se voi arrivate mi date 5 euro, 100 euro, 200 euro, sono contentissimo, chiunque può passare, per me non è un problema. Però se qualcuno mi dice, guarda che mi devi pagare, attenzione che tu non puoi prenderti i soldi dall'altra parte, a mano, lo devo fare io, quindi sarò io che tirerò fuori i soldi, e te li mando, come te li mando, con un evento, ok? Spero si sia capita la metafora, perché faremo esattamente così. Quindi, dobbiamo farli uscire, ricordatevi, uscire dal componente figlio, mentre prima li facevamo entrare dal componente parent, oggi li facciamo uscire dal componente figlio, perciò, se prima con entrare avevamo input, pensate un po' con uscire, avremo output, quindi io scrivo output, perfetto, il decoratore output, chiudete le parentesi, ricordatevi, e dobbiamo andare a chiamare il nostro evento, quindi sarà un evento che lanceremo, in questo caso si chiama, manda dati evento, ok? Molto semplice, è uguale a cosa? Quindi stiamo creando questo evento, che più avanti spareremo, attiveremo, ok? È come se noi creassimo un fuoco d'artificio, sta lì, finché noi non l'attiviamo, non viene sparato, ok? Quindi, che cosa andiamo a dire? Che questo, manda dati evento, è uguale a un new event, emitter, un qualcosa, che emette un evento, ok? Potremmo essere così generici, in realtà diciamo che facciamo passare una string, perché? Perché qua utilizziamo nome, ok? Che è una string, di conseguenza ben detto, che noi sul componente di prova, che è un figlio, stiamo facendo uscire, con un output, un evento, che si chiama, manda dati evento, che è cosa in realtà? Un event emitter, quindi qualcosa che è in grado di emettere, un evento, di base questo, ok? Quindi, poniamo il caso, che abbiamo un bottone, come nell'episodio precedente, con manda dati, quindi button, button, manda dati, al parente, e sapete che al bottone, facciamo un click, quindi click, e cosa facciamo? Manda dati, quindi, chiudiamo le parentesi, prendiamo, e chiaramente in prova component, dobbiamo andare, a creare la nostra funzione, perciò abbiamo il nostro manda dati, e manda dati cosa farà? Manda dati deve effettivamente sparare, accendere la miccia, usate la metafora che volete, ma deve sparare, manda dati evento, perciò essendo un event emitter, indovinate un po' cosa abbiamo, manda dati evento, scusatemi, this.manda dati evento, punto emit, eccolo qua, è come se accendessimo il fuoco d'artificio, in questo caso, vedete, emit, viene emesso l'evento, chiaramente, può avere un valore opzionale, se lo mettiamo, guardate un po', è una string, vedete, string, perché qua abbiamo messo string, in questo caso vogliamo passare nome, ok? Se mettessimo, scusatemi, this, nome, mi dimentico sempre il this, in questo caso, se mettessimo invece un number, non così, ma un number, vedete che ci darebbe problemi, quindi mi raccomando, alla coerenza dei tipi di dati. Ora, salviamo, salviamo anche qua, e non è abbastanza, perché abbiamo detto, che app component, deve essere in ascolto, perché al momento, app component non lo sa, sappiamo che app component, può cercare, per i click, possiamo dirglielo, è in attesa, ok? Ma dobbiamo sempre specificaglielo, soprattutto, non può essere in attesa, di un evento, che non conosce, non è registrato da nessuna parte, non l'abbiamo registrato, nell'app module, non possiamo nemmeno farlo, dobbiamo dirgli, da qualche parte, che deve restare, in attesa, di questo evento, Allora, dove lo possiamo fare? Lo facciamo, qua dentro, come vi ho fatto vedere prima, con, vedete che, ce l'ha dato, guardate qua, rivediamo, ho semplicemente aperto le parentesi, e ci ho già ceccato, vedete, manda dati evento, quindi, finiamo un attimo, e scriviamo, ricevi dati, evento, possiamo far così, oppure, se volete farla, classico in inglese, on, ricevi dati, oppure, on, manda dati, chiamatelo come volete, basta che utilizzate lo stesso tipo di nomenclatura, e vi capite voi, eventualmente, amici, colleghi, che lavorano con voi, quindi, sappiamo che, app component, ha dentro, un'app prova, e sappiamo che questo, app prova, ha un evento, che farà uscire, ok? Quindi stiamo ascoltando, per un evento, che è in uscita, da app prova, quando, ascoltiamo per questo evento, chiaramente sarà solo app component, perché è il parente, quando ascoltiamo questo evento, on, ricevi dati, e vi faccio vedere, che lo vado a mettere solo in app component, meglio se risposto, meglio se li metto vicini, file, app component, app component, prova, prova, guardate un po', solo in app component, eh, faccio la mia variabile, e qua dentro metto il console, log, così, chiaramente qua riceviamo un valore, che è il nome, quindi value, value, c'è un problema, perché? Perché non abbiamo preso niente, se vi ricordate utilizziamo dollaro, event, così, perfetto, salviamo, qua abbiamo una situazione, vedete, sempre implicitamente il tipo any, in questo caso sappiamo che è una string, quindi riceviamo il valore dell'evento, che è questo, a differenza dell'event, eh, che abbiamo visto con il click, che ha il puntatore del mouse, l'elemento, eccetera, qua l'evento l'abbiamo creato noi, è come se avessimo creato un onclick particolare, e gli abbiamo passato semplicemente una string, quindi non è un problema dire, che onricevi dati, il dollar event, di onricevi dati, la variabile evento, che viene creata, quando, manda dati evento, viene sparato, in realtà riceviamo semplicemente, una stringa, quindi, se noi adesso, andiamo a vedere, manda dati al parente, io apro, vedete che abbiamo ricevuto, Luca, e dove l'abbia ricevuto, guardate qua, zoom ancora un pochino, guardate su, app, component, ts, 19, quindi Luca, che in realtà, era dentro, prova component, qua, Luca, che cosa è successo? Abbiamo premuto sul pulsante, seguitemi, il pulsante, ha fatto partire, manda dati, ok? Quindi andiamo di qua, manda dati, ha sparato, avremmo potuto mettere, questo, qua, di logica, anziché, manda dati, però, generalmente, anziché averlo qua, si chiama, semplicemente una funzione, tipo, onclickbutton, o quello che volete, ok? Quindi abbiamo cliccato sul bottone, sul click del bottone, manda dati, per mandare i dati, devi sparare l'evento, quindi devi far partire l'evento, eccolo qua, a cosa abbiamo, a cosa abbiamo assegnato all'evento? Disnome, ok? Questo evento è stato percepito dove? Da qua, quindi c'era l'app component, che è il parente, che è l'unico che è in grado di ricevere questo, perché è l'unico che ha app prova con l'evento in uscita, ok? se non avessimo sistemato questo non l'avremmo ricevuto, quindi una volta che l'evento arriva, viene ricevuto, quando l'evento viene ricevuto, fai partire onricevi dati, mi prendi il valore, e onricevi dati, è qua dentro, prende il valore, lo manda a schermo, ok? Easy, facile, semplice, e veloce, va bene? Quindi è il contrario del parent to child, ricordatevi questa cosa, allora, da grande a piccolo, quindi da parente a child, usate il property binding, mentre invece, da child a parent, utilizzate l'event binding, basta, ricordatevi che string interpolation, non ci interessa, quindi sono quattro i metodi, string interpolation, non ci interessa, two way binding, è il mischione tra i due centrali, utilizziamo i due centrali, property binding, in entrata, con input, event binding, in uscita, con output, punto, dovete solo imparare il ciclo, come vi dicevo, nel video precedente, sono tante operazioni circolari, che dovete semplicemente imparare, ci sarà un modo per comunicare meglio, su larga scala, perché comunicare così, sarà complesso, perché capite che se abbiamo, magari qualche componente di mezzo, tra app component e prova, ad esempio magari abbiamo, app component, prova, prova 1 e prova 2, quindi prova 1 è dentro prova, e prova 2 è dentro prova 1, che è dentro prova, che è dentro app, se noi vogliamo prendere, il nome che si trova in prova 2, e farlo arrivare ad app component, dobbiamo fare un evento, che passa per prova 1, che passa per prova, che passa per app, ok? Così non conviene, e vi spiegherò più avanti, un modo distaccato, per comunicare, va bene? Però al momento abbiamo questo, che però è una matrioska, letteralmente, perché passiamo da un componente, all'altro, sia in input, che in output, se vogliamo passare dal più piccolo, al più grande, dobbiamo passare per tutti gli altri, non conviene, ma tenetevi a mente, questo problema, detto questo, voglio che come per il video precedente, cancelliate tutto questo, quello che avete fatto, e vi chiedo, di mandare a schermo qualcosa, provate a mandare a schermo, un oggetto, vi scrivete qua, un oggetto, oppure un numero, non cambia niente, cercate di essere il più specifici possibile, quindi se è un number, è un number, però perché ve lo chiedo, perché anziché scrivere un banale, any, anziché essere generici, o non specificare niente, queste cose qua, potreste dimenticarvene, quindi se per caso, c'è un problema, perché magari, vi siete dimenticati, che number, non può andare qua, qua è una stringa, eccetera eccetera, e questi problemi, vi fanno pensare, e una volta che pensate, risolvete i problemi, la soluzione vi resta in testa, questo è fondamentale, dicevo, fate quello, e noi ci vediamo, nel prossimo video, sotto in descrizione, trovate il link, al mio secondo canale, sito, e come supportare il canale, io vi ringrazio, e alla prossima, ciao ciao, episodio 19 di Angular, oggi vediamo, come possiamo prendere, la variabile template, quindi il riferimento, all'elemento, che abbiamo creato, sull'html, se vi ricordate, nel video dell'if, quando abbiamo fatto, else, ed en, avevamo poi creato, ng template, con scritto, una cosa del genere, else block, quindi abbiamo creato, un template ref, template variable, chiamatela come volete, quindi una variabile, di template html, per indicare, all'if, che avrebbe dovuto, far vedere, questo blocco di codice, solo se, la condizione, non era verificata, e quindi doveva attivare, l'else, giusto? Questa qui, è una variabile template, quindi come vedete, abbiamo creato, un riferimento, variabile, in realtà, in javascript, questa cosa non esiste, è puramente, di angular, che ci aiuta, ma vi ho detto, come saremmo riusciti, ad utilizzare, queste variabili, per poi, prenderle, dentro typescript, quindi oggi vi spiego, questo, va bene? Quindi togliamo, questa cosa qua, uno potrebbe dirmi, dove potrebbe tornarmi utile, una cosa del genere, quando vedremo i form, questo sarà, un metodo, che utilizzeremo, per puntare, al form, e adesso cominciate a, a capirci un po' di più, non vi faccio vedere i form, perché sono un po' più complessi, però una volta che capite il discorso, per un elemento, capite come potete utilizzarlo, a cascata, allora, cominciamo creando un input, ok? Abbiamo un input, e abbiamo un value, di ciao, io salvo, il risultato, è banalmente questo, ok? La domanda è, come faccio io a prendere, questo elemento, e utilizzarlo, qua dentro? Abbiamo visto, come possiamo utilizzare, il property binding, quindi potremmo, connettere, value, potremmo connettere, value, con una variabile, che è qua dentro, quindi valore, creiamo il nostro valore, andiamo qua, e facciamo che, valore, è vuota all'inizio, tanto uguale a ciao, salviamo, perfetto, abbiamo qua, il nostro ciao, quindi abbiamo connesso, la proprietà valore, del nostro input, a ciò che abbiamo, su typescript, giusto? Altrimenti, se vi ricordate, c'era anche, ng model, che potevamo, utilizzare, però così stiamo collegando, direttamente, il nostro valore, input, ok, il nostro value, a una variabile qua dentro, noi potremmo volerlo non fare, vogliamo semplicemente, che questi valori, li andiamo a pescare, tipo, sul click, quindi sul click, siamo in grado di prendere, il riferimento, senza aver collegare per forza, una variabile, ok, non abbiamo necessità, quindi, se non vogliamo collegare per forza, una variabile, noi potremmo avere, il nostro value, che li mettiamo, a ciao, e poi mettiamo, un riferimento di template, quindi una variabile, di template, in questo caso, ne facciamo così, e chiamiamo, input, saluti, ok, quindi abbiamo il nostro, input saluti, va bene, quindi noi, salviamo, ma al momento, non sappiamo come prenderla, vi dico io, come possiamo prenderla, allora, utilizzando, un altro, decoratore, che in questo caso, è view, child, quindi, aprite così, e qua dentro lo mettiamo, valore, input, ok, allora, definiamo due cose, innanzitutto, c'è bisogno di un nome, quindi dobbiamo dire, al view child, il nome, in questo caso, se io vado qua, e scrivo, esattamente, input saluti, copiatelo, perché non dovrebbe prendervelo, input, infatti non ve lo prende, non ve lo suggerisce, quindi input saluti, così, e soprattutto, che cos'è questo view child? è un decoratore, che ci dice che c'è un figlio, nella view, che cosa vuol dire? Noi abbiamo il nostro component, giusto? Il nostro component, ha una view, e l'abbiamo visto con, after view init, check view init, e via discorrendo, e abbiamo detto che la view, è tutto ciò che abbiamo a schermo, il contenuto è semplicemente la parte testo, ma la view è tutto, sono i bottoni, gli input, e quant'altro, quindi, view child, stiamo parlando di, un qualcosa, di un elemento, visibile all'utente, che è dentro il componente, il componente è il tutto, le view, sono i singoli pezzi, quindi abbiamo un figlio, della view, che si chiama, input saluti, quindi questo è un figlio, della view globale, vero, e si chiama, input saluti, vero, quindi, l'abbiamo preso, e gli abbiamo detto, che si chiama valore input, in questo caso, perché andiamo a prendere, semplicemente, il valore input, se volete, potete chiamarlo, comunque, input saluti, gestitela come volete, sappiate che però, qua dentro, questo input saluti, è un input, in cui andiamo a mettere, in questo caso, saluti, ciao, buonasera, e quant'altro, quindi, a livello nomenclatura, fate quello che volete, però il discorso è questo, quindi abbiamo identificato, un child, un figlio, all'interno della nostra view, che si chiama, input saluti, perché abbiamo messo, la variabile di template, eccola qua, o riferimento, e l'abbiamo preso, ora, ci da un problema, potremmo metterlo, any, così, possiamo metterlo, any, e non darebbe fastidio, ma se vogliamo essere specifici, utilizziamo una cosa, che si chiama, element ref, eccola qua, adesso vi faccio vedere, qual è, la differenza, abbiamo un altro problema, perché al momento, non viene inizializzata, quindi lui ci rogna, vedete, vuole mettere, l'asserzione di assegnazione, parolone, per dire che, non essendo, assegnata, al momento, typescript, non è sicuro, che questa cosa qua, abbia effettivamente, un valore, possa essere, anche null, o undefined, perché mi dice, ah, guarda, tu mi hai messo, un viewcell di input saluti, ma lui non è in grado, di verificare, ed effettivamente, potrebbe non esserci niente, e ci darebbe lo stesso errore, quindi lui ci dice, attenzione, o gli dai un valore, di qualche tipo, ma noi non glielo diamo, oppure, lo dobbiamo assicurare, che questo valore, non sarà mai null, o undefined, e lo facciamo così, vedete, col punto esclamativo, quindi in questo caso, lui dice, ah, ok, non sarà mai null, e ci ha preso in parola, anche se qua, in realtà, non c'è niente, questo è puro typescript, questo è puro typescript, ma non preoccupatevi, quindi noi stiamo dicendo, ti ho messo un viewchild, input saluti, che si chiama input saluti, ed è un element ref, essendo un element ref, lui mi dice, sì, attenzione però, rifacciamo vedere, sì, attenzione, perché questo element ref, questo riferimento input saluti, potrebbe, non esistere, potresti essertene dimenticato, ok, io potrebbe essere stato rimosso, con un ngif, e via discorrendo, noi diciamo, no, no, guarda, siamo sicuri che è qua dentro, quindi su queste cose qua, dovete essere molto attenti, scusatemi, dovete essere molto attenti, in questo caso, gli diciamo, siamo convinti, va bene? Adesso abbiamo riferimento ad input saluti, quindi, possiamo andarlo a chiamare, vediamo un po', se noi facessimo, on init, e lo rubiamo da qua, ng on init, andiamo a verificare, quindi ng on init, e poi magari, dobbiamo importarlo, chiaramente, implements on init, ok, proviamo a fare un bel console.log, di, this.input saluti, salvo, abbiamo un problema, abbiamo undefined, come mai abbiamo undefined? è qua, perché se vi ricordate, nel ciclo di vita di un componente, ng on init, è l'inizio di tutto, il componente viene inizializzato, non c'è ancora niente, quindi è normale che sia undefined, quando è che abbiamo accesso alla view, e di conseguenza a un view child? Beh, after view init, ok, quindi successivamente, che la view è stata inizializzata, allora abbiamo accesso, quindi ne facciamo ng, after, anzi non da qua, importiamolo prima, che diventa più facile, quindi, after, after view init, eccolo qua, non il content, ma serve proprio la view, importiamo, correzione rapida, tac tac, prendiamo il nostro, after view init, lo buttiamo qua, e facciamo esattamente, la stessa cosa, solo che a sto giro, duplichiamo i console.log, e qua dentro, mettiamo, ng on init, ok, mentre invece, qua ho duplicato la cosa sbagliata, non è un problema, facciamo così, togliamo questo, e qua dentro mettiamo, ng after view init, e in questo caso, vedete come cambia, la musica, esattamente, non abbiamo musica, nelle nostre orecchie, però vedete come, ng on init, ci da undefined, ng after view init, ci da il nostro element ref, quindi ci da il nostro, riferimento all'elemento, va bene, quindi torniamo indietro, abbiamo appena visto, effettivamente, dove serve, after view init, un esempio, è con, view child, quindi molte volte, si fa degli errori, da principianti, non è un modo di dire, ma è quello che è, sono errori che si fanno da principianti, perché uno cerca di accedere, al view child, quando, on init, e non è possibile, perché la view non è stata ancora, eh, inizializzata, chiamiamo così, quindi il componente sì, ma la view totale, no, adesso, lo sappiamo fare, benissimo, ora, cosa vorremmo fare, vorremmo però prendere, questo valore, vi ho detto che potevamo usare, ng model, potevamo usare property binding, potevamo usare tante cose, però in realtà vogliamo prendere, solo quando ci serve, perché? Perché non vogliamo creare, 600 variabili, ponete il caso che abbiamo, un form, con dentro 10 input, nome, cognome, età, codice fiscale, sesso, colori preferiti, quello che volete, cosa andiamo a fare, andiamo a riempire, qua, con, tutto, un ng model per ciascuno, no, non conviene, semplicemente andremo a creare, un'unica variabile, viewchild, un modo in cui possiamo farlo, mi raccomando, ce ne sono altri, andiamo a creare, un'unica variabile, che va a prendere cosa? Tutto il form, e tutto il form, che cosa avrà? Avrà dentro poi, tutti i vari input, e da lì possiamo entrare, a vedere, questo perché, io adesso vi dimostro come, andiamo a creare un bel bottone prima, quindi un bel bottone, button, mettiamo un click, e qua dentro, sull'on click, facciamo on click, classico metodo di, di fallback, che utilizzo spesso, non avendo idee, salvo, mi dà problemi, non è un problema, facciamo on click così, e noi cosa vogliamo andare a schermo, vogliamo sempre mandare a schermo, this input, saluti, e va bene, quindi salviamo, vediamo un po', questo è il nostro bottone, salvo, vedete, ci ha mandato a schermo, ancora una volta, element ref, andiamo a vedere questo element ref, allora, element ref è chiaramente, un riferimento dell'elemento, apriamo, quindi questo riferimento dell'elemento, in realtà porta con sé, un native element, un elemento nativo, quindi un qualcosa di effettivo, questo è un riferimento, ma riferimento, a cosa fa riferimento? A un elemento vero, che è questo qua, quindi apriamo, e dentro abbiamo cose che avete già visto, le abbiamo già viste, quindi abbiamo, gli attributi, abbiamo i child, abbiamo le classi, abbiamo, eventuali form, quindi se fa riferimento, a un form, inner html, inner text, ma quello che interessa a noi, è, se scendiamo, value, che avete già visto, con, se vi ricordate, event, value, target, quando abbiamo fatto l'on change, oppure on input, sui vari, appunto, sui vari campi input, ve lo ricordate, con, l'event binding, e noi scendiamo, e abbiamo, il nostro value, dov'è? Eccolo qua, value, ciao, ok, rifacciamolo ancora, cancelliamo qua, io vado qua avanti, scrivo queste cose qua, invio, andiamo a prendere ancora il nostro value, scendiamo, devo aprire fino all'ultimo, ok, e vedete che è cambiato il value, quindi, il nostro riferimento, fa riferimento in tempo reale, ad un native element, che in realtà è l'elemento nativo di, di html, ok, è esattamente questo, quindi, per prendere, sto maledettissimo, valore, cosa dobbiamo fare, dobbiamo fare, disinput saluti, punto, e ce lo suggerisce, vedete, native element, punto, qua non ce lo suggerisce più, ma non preoccupatevi, value così, andiamo a rivedere, e se io vado qua, vedete, tac tac tac, scrivo qualcos'altro, perfetto, quindi vedete come lo prende, in tempo reale, ok, e così possiamo, chiaramente, andare a prendere tutto quello che vogliamo, perché vi dicevo, in un'ottica form, in un'ottica form, il nostro native element, sarà un form, che all'interno avrà degli input, e potremo andare a prendere tutti i vari input, quindi, anziché, come vi dicevo, riempire, il typescript di, ng model, con tutte le varie variabili, che cosa facciamo, prendiamo semplicemente, l'element ref, al form, dopodiché, prendiamo i campi che ci interessano, dopodiché, ce li gestiamo, e li mandiamo da qualche altra parte, ok, così ha senso, non è ancora finita la lezione, perché, perché voglio giustificarvi, questo element ref, a prescindere da questo, che ce l'ha chiesto, per essere sicuro, ma perché element ref, e non any, se avete visto, ce l'ha dato, input saluti, punto native element, ce l'ho proprio suggerito, ok, mentre invece, adesso che ho cambiato in any, guardate un po', any, ok, faccio punto, non mi suggerisce niente, perché, perché il type any, non ha un native element, mentre invece, se vi ricordate, un element ref, ha un native element, scusatemi, da qua, element ref, ha un native element, perché l'abbiamo visto, col console log, ci mandava a schermo, element ref, e dentro aveva, un, native element, però perché non ci dà il value, è molto semplice, perché non ci dà il value, perché il native element, può essere un input, può essere un div, può essere una select, quindi, lui non sa bene, cosa consigliarci, perché dice, guarda, qua c'è un elemento html, io però, più di questo, non so niente, vedete qua, element ref, any, quindi, sa che è un elemento, sa che è un riferimento, a un elemento html, ma non sa quale, nello specifico, ok, quindi in questo caso, non ce lo può suggerire, la cosa cambia, però, se andiamo a essere ancora più specifici, quindi, element ref, anziché avere, un banale, element ref, any, andiamo a specificare, che vogliamo cosa, un html, e vedete che si apre un po' di roba, body, button, collection, eccetera, diciamo che vogliamo, un input, element, ecco qua, quindi, typescript, in generale, e angular, in questo caso, più siamo specifici, più ci aiuta, e noi vogliamo essere specifici, se le cose le sappiamo, facciamole, perché ci aiuta, quindi se io scendo adesso, torniamo qua, abbiamo input saluti, che è un element ref, perciò sa che è un native element, ma se poi faccio punto, guardate qua, nel momento in cui si rende conto, che questo riferimento, che questo element ref, è in realtà un input element, attenzione, è un input element, beh, allora, hai il value, hai il focus, checked, attribute, insomma, abbiamo un po' di cose aggiuntive, vedete, ci vengono date un po' di cose aggiuntive, quello che ci interessa, è il value, il risultato, è il medesimo, scriver così, scriver così, e scriver così, è la stessa cosa, solo che così, è quanto più generici, possiamo essere, così siamo un po' più specifici, così siamo, o maledettamente specifici, e essere specifici, ci aiuta, perché, perché, perché Visual Studio, è in grado di aiutarci, è in grado di darci, dei consigli, su cosa scrivere, quindi se ci dimentichiamo, ad esempio, Native Element, è una cosa che io mi dimentico, spesso e volentieri, ma quando faccio le cose fatte bene, con Element Ref, improvvisamente, Native Element è già qua, perfetto, non mi devo neanche ricordare, è veglio, anzi, ah sì, Native Element, quelle poche volte, che magari non tocco Angular, da mesi, e per essere un po' pigro, metto Any, le cose non funzionano, dico, ah com'era sta roba qua, perché non va al value, perché mi dimenticavo, di mettere Native Element, è successo, ve lo posso garantire, ok? Questo è quanto, spero che il discorso, sia chiaro, io vi chiedo, di provare, a cancellare tutto, e riprendere voi, di ViewChild, fatelo anche su componenti diversi, non seguite esattamente, quello che ho fatto, in realtà, l'operazione è la stessa, ma il fatto che siete nuovi, su sta cosa qua, il solo fatto di cambiare, il componente, potrebbe mandarvi, in confusione, quello che dovete fare, è uscire appunto, semplicemente da questa confusione, di inesperienza, sotto in descrizione, trovate il link al mio, secondo canale, sito, e come supportare il canale, io vi ringrazio, e alla prossima, ciao ciao, episodio 20 di Angular, oggi vediamo, come creare, una nostra direttiva, e voi potreste dirmi, se avete seguito, tutto il corso, ed ho mai parlato, delle direttive, tipo, tre, quattro episodi fa, no? Perché non ce l'hai fatto prima? Perché andiamo ad utilizzare, cose come input, che abbiamo visto, fortunatamente, due episodi fa, se ve l'avessi fatto, nel modo tradizionale, in cui anche solo, la documentazione di Angular è scritto, se non mi sbaglio, input arriverebbe dopo, e non capireste, di base che cosa stiamo facendo, andresta a perdere i pezzi, quindi ho voluto anticipare, delle parti, che non sono fondamentali, cioè vanno scritte, altrimenti non funziona, però non è il core, di come fare, una direttiva, ma ho preferito anticiparvele, in modo che tutto quello che andremo a fare, sarà già spiegato, oppure spiegato sul momento, perché è parte integrante della lezione, ok? Così non lascio niente al caso, va bene? Quindi mi raccomando, è una lezione abbastanza complessa, perché vedremo come creare una direttiva semplice, come passare i dati alla direttiva, e come aggiungere eventualmente una seconda proprietà. Questa è una cosa extra extra, questa è una cosa che succede spesso e volentieri, questa è la super norma, ok? Quindi direi che possiamo cominciare, aprite una nuova finestra, da qua, oppure terminale, nuovo terminale, oppure dovrebbe essere, control, maius, o, ok? Eccoci qua, e voglio che andate a fare, un comando di AngularClip, ng, generate, generate, directive, e poi il nome della directive, ok? Ma io vi ho insegnato che possiamo usare ng, g che sta per generate, di che sta per directive, e la chiamiamo highlight. In questo caso, sto seguendo la documentazione di Angular, perché? Perché è un giro abbastanza lungo, su come creare le direttive, e voglio che abbiate un riferimento, la documentazione di Angular la spiega discretamente bene, ok? Andrò poi a fare una versione in italiano, che l'hanno legata a questa lezione, quindi spiegata come la spiego io, sul mio sito, però ho voluto far riferimento, alla documentazione di Angular, se scrivete, Angular create directives, o attribute directives, vi esce la documentazione, ok? Quindi, andiamo a far così, e sta andando a creare la nostra direttiva, vedete? Semplicemente con D, fa, sa che è una direttiva, perciò vedete che abbiamo, highlight, directive, highlight, directive, ok? Quindi di base, andiamo a creare, direttiva, che andiamo ad applicare su un elemento, ok? Quando passiamo sopra l'elemento, ce lo highlight, quindi ce lo evidenzia con un colore. Una persona potrebbe dirmi, che non ha esperienza in Angular, e non sa cosa possiamo fare con le direttive, sì, ma non lo posso fare con il CSS, vero. Quello che risulta poi, bello con Angular, quando poi andremo a passare, dei dati alla direttiva, è che sarà dinamica, possiamo cambiare dinamicamente i colori, ok? In realtà, col solo fatto che è TypeScript già qua, possiamo creare cose, belle e divertenti. Però quindi capite che non è un semplice, sopra, me lo mostri. Potremmo fare tante altre cose, se passi sopra, poi mi chiamerai, altri componenti che voi non conoscete, e potresti mostrarmi, la parte ingrandita, ok? Oppure puoi mostrarmi un altro componente, pensate a dei giochi di carte, no? Pensate a dei giochi di carte online, quando passate sopra le carte, che si chiama Magic, Yu-Gi-Oh! o Pokémon, quando passate, vi mostra poi a lato la carta ingrandita, con tutte le varie cose, potremmo raggiungere così, un risultato, se creassimo un gioco, in Angular, ok? Quindi non perdiamo tempo, e andiamo avanti, vediamo che cosa ci ha creato. Ci ha creato qua, in, src app, highlight directive, eccola qua, noi avremmo potuto fare, tranquillamente, e la facciamo, una cartella, direttive, ok? Magari ne avremmo di più, e dentro direttive, facciamo, highlight, così, perfetto, e qua dentro, togliete la spec, che non ci interessa, prendete la direttiva, anzi, in realtà, non dobbiamo nemmeno far così, perché abbiamo un solo file, aggiorna sempre, le istruzioni di import, automaticamente, e cancelliamo questa cartella, scusatemi, quindi abbiamo creato, semplicemente una cartella, con tutte le direttive, e dentro abbiamo il nostro file, perché tanto è unico, non è, non sono tre, come i componenti, ok? Se andiamo a vedere su app module, vedete qua, abbiamo le direttive, highlight, facciamo così, ed è tutto in check, quindi che cosa ha fatto? Automaticamente, ci ha creato l'import qui, ce l'ha aggiornato con le direttive, poi non è riuscito ad aggiornare, il doppio passaggio che ho fatto, ma non è un problema, e soprattutto nelle dichiarazioni, come vedete, le direttive sono sullo stesso, piano, dei componenti, ok? Stiamo dicendo ad Angular, che esiste una direttiva, altre parti vedete che non esiste, va bene? Qua abbiamo i moduli, qua abbiamo i componenti, qua più avanti, vedrete che avremo qualcos'altro, ok? Quindi app module possiamo chiuderlo, siamo a posto, ora abbiamo la nostra direttiva, e siamo super contenti, togliamo anche prova, che a sto giro non ci serve, abbiamo la nostra direttiva, e la nostra direttiva che cosa fa? Al momento niente, abbiamo un import della direttiva, ok? Abbiamo la nostra classe, highlight directive, e il costruttore, sembra un banale componente, ha anche il selettore, simile a un componente, che cosa gli manca rispetto al componente, il template, e lo style, cambia il tipo di selettore, vedete che qua non ha niente, qua ha le parentesi, ok? Ma poi cambia il decoratore, qua specifica che è una direttiva, perché solo questo, non vuol dire che è una direttiva, vuol dire che è semplicemente una class, che si chiama highlight directive, questo qua, fa sì che, questa classe, venga riconosciuta come, direttiva, va bene? Classiche cose, di cui abbiamo già parlato, e riparlato, adesso, che cosa vogliamo fare? La direttiva viene associata, ad un elemento, ok? Quindi, questo elemento, dobbiamo prendere a riferimento, dell'elemento, facciamolo, nel costruttore, andiamo a mettere, un private element, che è un, element ref, l'abbiamo già imparato, quindi vedete perché ve l'ho già spiegato, queste cose, è un element ref, ok? E sappiamo, che, al nostro, element ref, vogliamo cambiare, this.element.nativeelement, punto, dobbiamo scriverlo noi a mano, perché non abbiamo specificato altro, style, eccolo qua, punto, background color, vi ricordate come si scrive in questo caso, perché non è tra virgolette, background color, si scrive così, e lo mettiamo, yellow, perfetto, ora, dobbiamo andare ad applicare questa direttiva, come facciamo? semplicemente, abbiamo il nostro, paragrafo, con, ciao, sono, un, paragrafo, gli andiamo a mettere la direttiva, come si mette la direttiva? Andando a scrivere, app highlight, vedete che ce l'ha già trovato, app highlight, è, questo, ok? Perfetto, non fa una piega, e direi che noi possiamo, salvare, vedete che qua, possiamo anche chiudere, non ci serve più questo, si è aggiornato, e avendo applicato la direttiva, vedete, che è, automaticamente, evidenziato, se noi andiamo qua a vedere, vedete, background color, yellow, è stato applicato direttamente, qua sull'elemento, app highlight, ha applicato, uno stile background color, yellow, che cos'è successo? abbiamo il nostro p, e abbiamo app highlight, che è la nostra direttiva, ok? La nostra direttiva, viene creata, nel momento in cui viene creato l'elemento, ma per il semplice fatto, che è, sull'elemento, automaticamente, ha già accesso, all'elemento, lo vedete, element, element ref, e che cosa abbiamo detto? Non appena, vieni creata, mi prendi, questo elemento, che è un element ref, perciò devi fare riferimento, al native element, vero, al paragrafo, mi prendi il suo stile, mi prendi il background color, e uno metti giallo, ok? Quindi al momento, siamo abbastanza lontani, da avere, la nostra direttiva, che cambia, in base al mouse, però abbiamo fatto, metà del lavoro, ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo gestire, il passaggio del mouse, ok? Quindi, per gestire, il passaggio del mouse, dobbiamo farlo, con una cosa che si chiama, host listener, quindi va ad, ascoltare, quello che è, l'host in questo caso, va ad ascoltare, il nostro paragrafo, ok? Quindi cerca di capire, quando sul nostro paragrafo, passiamo, col mouse, va bene? Perciò dobbiamo andare a creare, dei metodi, quindi, hat, host, listener, eccolo qua, vedete? È un altro decoratore, e vuole fare, riferimento a cosa? Dobbiamo mettere, l'event name, che tipo di evento? In questo caso, abbiamo, mouse enter, che entra, e mouse leave, se già avete lavorato con javascript, non è niente di nuovo, se non avete mai lavorato con javascript, a, consiglio di andare, a imparare velocemente, javascript, e b, stiamo mettendo, un evento, che cerca di capire, quando il mouse, entra, sull'elemento, entrato, mouse leave, uscito, entrato, mouse enter, uscito, mouse leave, ok? Quindi, scriviamo, mouse enter, con la doppia e, mi raccomando, e poi a sto punto, creiamone già un altro, che è, mouse leave, perfetto, facciamo qualche spazietto, non abbiamo ancora finito, perché? Perché dobbiamo scrivere, il nome dell'evento, quindi, on, mouse, enter, lo chiamiamo così, perfetto, e mettiamo, il corpo, della nostra funzione, e facciamo la stessa cosa qua, on, mouse leave, benissimo, adesso, apriamo qua, e cosa vogliamo fare? Potremmo andare, a settare, direttamente, così, mouse enter, yellow, mouse leave, potremmo fare, transparent, vediamo, salviamo, ecco qua, vedete? Abbiamo già l'effetto, che ci interessa, ma, possiamo, ottimizzarlo, in vista dei prossimi step, e dire, che cambiamo, il colore, quindi potremmo creare, highlight, highlight, oppure, cambia colore, cambia colore, possiamo fare così, e qua dentro, vogliamo capire, qual è il colore, quindi accettiamo, un colore in entrata, che è una stringa, perciò per noi, diventa molto facile, anziché riscrivere, tutta sta roba, cosa ci basta fare? Ci basta chiamare, this.cambia colore, e gli passiamo, transparent, perfetto, e facciamo la stessa cosa, ops, facciamo la stessa cosa, qua in alto, e gli diciamo, che lo vogliamo, yellow, molto bene, qua sotto, indovinate un po', ci basta riprendere, tutta quella riga, lunghissima, quindi, this.element.nativeelement.style.background.color, e nominate un po', di che tipo lo mettiamo, lo mettiamo di colore, ok? In questo caso, abbiamo esattamente la stessa cosa, cambiamo qua red, e cambiamo qua blue, e vi dimostro che non cambia niente, abbiamo lo stesso risultato, vedete? Perfetto. Di conseguenza, abbiamo creato, la nostra prima, e semplice, direttiva, ok? Rivediamola, abbiamo quindi creato una direttiva, con ng, generate, directive, nome della direttiva, l'abbiamo buttata in una cartella direttive, abbiamo assegnato, il selettore, al nostro elemento, siamo andati sulla nostra direttiva, gli abbiamo detto, guarda, per il semplice fatto, che se è una direttiva, hai accesso all'elemento, all'element 3f, io voglio che me lo prendi, dopodiché abbiamo detto, su questo elemento, vogliamo gestire degli eventi, e vogliamo gestire l'evento, mouse enter, e vogliamo gestire l'evento, mouse leave, perfetto, su questi eventi, vogliamo gestire una funzione, che abbiamo creato noi, che è cambia colore, e a questo cambia colore, vogliamo passare, dei valori, facciamo tornare, transparent, e yellow, perfetto, di conseguenza, cambia colore, ci prende questo elemento, native element, ci prende lo stile, ci prende il background color, e lo mette nel colore, che gli abbiamo passato, punto, potevamo farlo più statico, come abbiamo fatto prima, copiavamo qua, yellow transparent, così l'abbiamo reso più dinamico, adesso, vediamo come possiamo passare dati, alla direttiva, quindi vogliamo customizzarla, perché al momento, i dati non glieli passiamo, i colori, sono qua dentro, sono yellow, e sono transparent, punto, ma se ne volessimo fare qualcosa di più, lo possiamo fare, ma vi ricordate, che per passare, dei dati da fuori a dentro, abbiamo bisogno di, indovinate un po', input, che è il motivo per cui ve l'ho spiegato, in precedenza, eccolo qua, quindi il nostro input, e lo chiamiamo, colore highlight, va bene? Colore highlight, potevamo chiamarlo solo colore, ma già qua l'abbiamo chiamato colore, perciò, non voglio strafare, colore highlight, e all'inizio, lo mettiamo, così, vuoto, abbiamo un problema, dobbiamo importarlo, quindi correzione rapida, importa, vedete che ce l'ha importato, input, e siamo a posto, al momento però non succede niente, quello che vogliamo fare, è passare, il colore, da dove? Chiaramente, da ciò che è in grado di passaglielo, da dov'è l'input? Dal parente, qual è il parente? App component, perciò adesso, che cosa possiamo fare? Ci basta andare a fare il property binding, eccolo qua, e mettiamo, una variabile, che è colore così, ci dà un errore, ci dà un errore, e adesso dobbiamo ragionare, qual è l'errore? Ci dice che, can't bind, app highlight, perché non è una proprietà conosciuta su P, che cosa vuol dire? Questo è un errore che si potrebbe far spesso, perché è leggermente diverso con le direttive, abbiamo appena, fatto il property binding, di app highlight, ok? Ma noi, lo stiamo passando dove? Alla direttiva, ma noi abbiamo colore highlight, che cosa succede? E ve lo correggo automaticamente, che cosa succede se io faccio così? Improvvisamente questo errore scompare, qua abbiamo questo errore, perché su app component non c'è nessun colore, ma adesso ve lo metto, metto qua, colore, uguale purple, e cambiamo un po', e vedete che qua, il problema è sparito, ma qual è la soluzione? Lasciate perdere che colore è il dato che passiamo, ma cos'è questa cosa? Questa è la direttiva, ma è essa stessa la proprietà, avendo una proprietà che passiamo, è essa stessa la direttiva, capite? Quindi stiamo prendendo in input, app highlight, che è esattamente il selettore, vedete che questo selettore, è esattamente questo, perché questo selettore, è essa stessa, è esso stesso, al maschile scusate, la proprietà di cui abbiamo bisogno, no proprietà è femminile, vabbè avete capito, quindi questo, è esattamente questo, di conseguenza noi non possiamo mettere a casaccio, un nome, dobbiamo per forza richiamare, app highlight, quindi, se noi adesso andiamo a vedere, guardiamo un po', abbiamo ancora problemi, perché? Perché non abbiamo settato qua dentro, che app highlight, è in realtà, ciò che noi vogliamo qua, giusto? Quindi, this cambia colore, sarà, this, punto, app highlight, ok? Mentre invece, come cambia colore, in uscita, mettiamo transparent, fisso, ok? Quindi possiamo far così, salviamo, e vedete, che abbiamo purple, ma questo purple, arriva ad app component, adesso cominciate a capire, cominciate a capire che, che cosa potremmo fare? Potremmo cambiare, il colore, noi potremmo, cambiare il colore, su app component, che va a cambiare, direttamente qua sulla direttiva, pensate magari a una cosa come word, avete presente word? Voi su word, potete selezionare, il tipo di colore, dalla barra sopra, che è un altro componente, e poi andate sul testo, e lo cambiate, potremmo fare una cosa del genere, ok? Quindi come possiamo andare a selezionare il colore? Facciamolo, e andiamo semplicemente a creare, dei radio, e scriviamo un bel H2, scegli il colore dell'evidenziatore, eccolo qua, ci buttiamo dentro un div, e a sua volta ci buttiamo dentro tre input, ok? Che sono di type radio, e hanno dei nomi, chiaramente il nome essendo unico, sapete che il radio button, se abbiamo più bottoni, ma vogliamo fare riferimento ad un solo valore, deve essere lo stesso, quindi colore, benissimo, oppure colore evidenziatore, mi piace di più, colore evidenziatore, facciamo così, moltiplichiamo per tre, dobbiamo andare a mettergli una label, al nostro radio button, altrimenti non sappiamo cos'è, potremmo mettere rosso, rosa, viola, colore, anzi, rosso, rosa e viola, ok, sono soddisfatto, quindi ci manca qualcosa, ovvero dobbiamo andare a modificare, con questo type radio, dobbiamo modificare cosa? Ve lo sposto qua vicino, questo colore, perciò noi facciamo on click, possiamo farlo qua, potremmo dire che colore è uguale a, e lo specifichiamo, comodo da qua, altrimenti se volete essere più ordinati, facciamo un bel cambia colore, evidenziatore, facciamo così, andiamo qua, andiamo in app, e lo mettiamo qui, molto bene, andiamo a moltiplicare questa cosa tre volte, scusatemi, altre due, e qua dentro mettiamo il valore, in questo caso rosso è red, ci dà errore perché non prende parametri su ts, non preoccupatevi, qua abbiamo pink, pinku in giapponese, e poi abbiamo purple, molto bene, questo errore come si sistema, guardate un po', qua non c'è niente, perciò noi prendiamo colore, che è una string, e diciamo che, this colore, quindi questo colore qua in alto, è uguale al colore che ci arriva direttamente da qua, ok? Quindi salviamo, salviamo, adesso non abbiamo errori, vediamo il risultato, scegli il colore dell'evidenziatore, al momento è purple, perché è di default, vedete qua è purple, facciamo che di default è blu, che non è niente che abbiamo selezionato qua, perché se vi ricordate qua abbiamo rosso, rosa e viola, andiamo qua, non è rosso né rosa né viola, premiamo rosso, attenzione, premiamo rosa, attenzione, premiamo viola, attenzione, ok? Quindi come potete ben vedere, siamo riusciti dinamicamente, tramite l'app component, perché questa è roba sull'app component, a cambiare l'evidenziazione, di un altro elemento, che è il p, quindi dentro il componente, siamo riusciti a cambiare i vari elementi, facciamo un giro veloce, ricapitoliamo, allora, e partiamo dalla direttiva, abbiamo il nostro p, che ha la direttiva app highlight, ok? A cui abbiamo fatto il property binding di colore, che colore si trova su app component, eccolo qua, colore cambia, quando, quando facciamo la funzione, cambia colore evidenziatore, questa funzione la facciamo dove? Quando andiamo a premere sui vari radio button, ok? Quindi cambia quel colore, questo colore modifica questo colore, che è bindato ad app highlight, app highlight, come vedete, è questo, in input, ed è esattamente il background dell'elemento, ma questo background dell'elemento, viene cambiato, quando chiamiamo cambia colore, che viene chiamato su mouse enter, e mouse leave, ok? E l'elemento lo prendiamo sul constructor, quando vi dicevo, tutti gli episodi precedenti, che Angular è una serie di cicli di operazioni, intendevo esattamente questo, sono una serie di cose che dobbiamo fare, funzioni che chiamano altre funzioni, che chiamano altre funzioni, che chiamano altre funzioni, alcune funzioni prendono degli elementi di riferimento, altri prendono degli host listener, altri prendono degli input, degli output, eccetera, quindi dovete capire tutto il giro del fumo, alcune cose vi resteranno in testa, a memoria, altre cose non vi resteranno a memoria, dipende quanto ci lavorate con Angular, se lavorate con Angular, ma poi vi spostate su React, non è un problema se vi dimenticate, riaprite la documentazione e riguardate, ma una volta che capite come funziona, legger la documentazione, è come rileggere l'alfabeto, potreste non saperlo dire a memoria l'alfabeto, ma se lo guardate, cazzo, la B, è la B, la X, è la X, cioè, non è poi difficile leggerla alfabeto, però magari non vi ricordate dove va la X, la Y e la W, che possono essere lettere difficili, ok? Questo è il discorso, facciamo velocemente, perché stiamo andando per le lunghe, e poi ho paura di confondervi, se al momento volete stoppare il video, fatelo e provate voi a ricreare da zero questa cosa, apritevi la documentazione vicino di Angular, e eventualmente aiutatevi, cercate di aiutarvi il meno possibile, ok? Cercate di aiutarvi il meno possibile. Adesso andiamo avanti, per chi già ha capito, o se siete tornati, vediamo come aggiungere una seconda proprietà, ovvero, un valore di default, nel caso. Come possiamo fare? Il nostro valore di default, potremmo non volerlo prendere da qua, ma volerlo assegnare direttamente qua, quindi potremmo avere dei paragrafi, che hanno un valore di default diverso, ok? Come lo andiamo a creare? Innanzitutto è un altro input, quindi sappiamo che è un altro input, quindi ci mettiamo qua, duplichiamo, e chiamiamo default color. Abbiamo il nostro valore di default, che è vuoto, ok? Però attenzione, mouse enter, ci dice, guarda, se c'è un colore associato, bene. Altrimenti, che cosa usi? Usi, this, default color. Altrimenti, potremmo mettere un'aggiunta, se questo valore non c'è, puoi mettere purple, come avevamo fatto, ad esempio qua, perché magari non c'è un valore iniziale di colore, se non l'abbiamo selezionato, ok? Oppure semplicemente, noi non vogliamo selezionare discolore, va bene? Potremmo fare una cosa del genere così, facciamo magari qua una string, perfetto, non mettiamo niente, e siamo a posto, salviamo, qua ho sbagliato, dobbiamo metterlo tra virgolette, ok? Perché è un colore, è una string, quindi stiamo dicendo che abbiamo, questo default color, che è un input, noi andiamo qua, ma questo default color, è un colore che noi mettiamo a mano, non prendiamo da nessun'altra parte qua, vedete, sul P, lo andiamo a mettere di default qua, quindi default color, vedete che ce l'ha dato, default color, potremmo aggiungerlo a qualcosa, ad esempio potremmo legarlo, ad un'altra variabile qua dentro, quindi avere degli altri input, e mettere il default color, quindi potremmo uscire il default color, altrimenti questo, noi non vogliamo farlo, e vogliamo semplicemente dirgli, guarda, che se apply it non ha colore, il default color, mi metti, blu, ok? Salvo, qua non c'è niente, lo vedete? Qua non c'è colore, qua non l'abbiamo ancora selezionato, quindi il colore, arriva da questo colore, che è questo, ma se non è settato, mi prendi questo, ok? Quindi, noi andiamo qua, e vedete che abbiamo blu, vi sorprendo, ve lo faccio vedere black, non è un problema, eccolo qua, vedete, come ci ha preso, la seconda proprietà che abbiamo aggiunto, ma la seconda proprietà non è come la prima, la prima è il nome stesso del selettore, la seconda che viene subito dopo, la potete chiamare come volete, in questo caso, e vi dimostro che possiamo avere cose diverse, quindi, black è il primo, grey è il secondo, green è il terzo, quindi avranno tre default color diversi, ma, l'app highlight, se lo andiamo a cambiare, sarà uguale per tutti, chiaramente, perché fa riferimento a colore, ok, quindi andiamo a vedere, non c'è nessun elemento selezionato, lo vedete, il primo è nero, il secondo è grigio, il terzo è verde, se io seleziono rosso, 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 ok, quindi, questo è quanto, siamo andati maledettamente per le lunghe, ma abbiamo visto, veramente, tanta roba, abbiamo visto, veramente, tanta roba, rifate il giro, cercate di capirlo bene, e noi andiamo al prossimo video, sotto in descrizione trovate il link al mio sito, al mio secondo canale, e come supportare il canale, vi ringrazio, e alla prossima, ciao ciao! Episodio 21 di Angular, oggi parliamo delle pipes, cosa sono le pipes? Le pipe sono delle funzioni, che possiamo utilizzare, all'interno delle espressioni string, di base, quando andiamo a fare string interpolation, ok, quindi se vi ricordate, abbiamo il nostro P, in cui scriviamo delle cose, ciao, e ta ta ta, e poi dentro possiamo mettere, se ce l'abbiamo, ad esempio, il nome, in questo caso qua, non ce l'abbiamo, io ho creato numero, prima di cominciare, per scrivere una cosa, tipo, ciao, mi devi, e poi il numero, ok, sarebbe, mi devi 5, perché? Perché qua useremo ad esempio la currency type, che è per le valute, quindi dollari, euro, e quant'altro, per cominciare, facciamo una cosa un po' più semplice, ah, utilizziamo il title, ce l'abbiamo qua, e mettiamo, ciao, benvenuti, al, e qua dentro ci buttiamo il title, ovvero, corso angular, salviamo anche qua, e questo al momento è il risultato, togliamo qua, con le pipe, cosa possiamo fare? innanzitutto come la mettiamo? Questa è una pipe, ok, questo vuol dire, questa stanghetta che è vicino all'1, è quella a sinistra dell'1, il primo tasto in assoluto sotto esc della tastiera, questa è una pipe, e vuol dire che adesso possiamo andare effettivamente a mettere delle funzioni pipe, cominciamo a dare più semplici, per farvi capire direttamente il funzionamento, ce ne sono alcune che sono così, senza altri tipi di parametri che possiamo aggiungere, vedete, uppercase me lo da già, se io salvo, abbiamo la stessa cosa di prima, ma scritta tutto in uppercase, quindi che cosa fa questo uppercase? andiamo a vedere, questo uppercase vedete che è una pipe, che implementa pipe transform, quindi va a fare una trasformazione, e di base voi vedete tutta sta roba qua, ma in soldoni, prende quello che c'è qua dentro, e ce lo mette completamente in uppercase, un altro modo che potevamo fare, era banalmente uno span, a cui però avremmo dovuto associare una classe, o quello che è, e avremmo dovuto mettere, ad esempio, type transform, tipo qua uno style, avremmo messo un text transform, uppercase, una cosa del genere, adesso qua ho sbagliato, avremmo fatto uppercase così, e sarebbe stata la stessa cosa, solo che scrivere questo, o magari mettere la classe qua, uppercase, class uppercase, può essere un po' una rogna, vedete, insomma, è una rogna rispetto a fare banalmente, un title slash uppercase, così, non è slash my pipe uppercase, e poi questo è solo un esempio, l'uppercase lo possiamo fare col CSS, le currency no, ok, quindi abbiamo determinate cose, che non possiamo fare in CSS, perciò capite che, questo è un caso, come potrebbe essere l'highlight, la direttiva dell'highlight, che si può fare col CSS, ma se vogliamo fare roba più complessa di così, voi capite che, non è la stessa cosa, oltre al fatto che le pipe si usano anche, ad esempio, per le traduzioni, quindi potreste avere, ciao benvenuto al title, e poi potremmo avere, quale pipe per le traduzioni, quindi avere, anziché title ita, potremmo avere title hang, quindi potremmo usare, anziché tutta questa cosa qua, potremmo avere tutta la frase, in benvenuto, in inglese, ok, classico esempio in cui si può utilizzare, se avete più lingue, comunque, uppercase, lowercase, vi faccio vedere le più comuni, ce ne sono altre tre o quattro, oltre a queste, già built in, potete costruirvi le vostre, non vediamo come costruirle, secondo me non è essenziale, per questo corso, la possibilità che andrete a creare, una vostra pipe, finito questo corso, è molto bassa, andrete a fare altre cose, perciò evito di darvi, troppe info, però quello che voglio fare, è vedere, almeno queste, quindi uppercase, lowercase, abbastanza banali, andiamo invece, sulle date, ok, qui abbiamo la date pipe, che ci permette, di formattare la data, in diversi modi, in questo caso, potremmo anche scriverlo a mano direttamente, però facciamolo, prendiamo una data, e facciamo che today, quindi oggi, anzi scriviamo in italiano, oggi, è uguale a date.now, quindi adesso, ok, io salvo, mandiamo a schermo, oggi, senza scrivere benvenuti al, togliamo qua, salviamo, e questo è il now, in timestamp, ok, quindi ovvero, quanti secondi sono passati, se non mi sbaglio, dal primo gennaio, 1970, che è, quando timestamp, comincia a contare, quindi quanti secondi, sono passati da quel momento, facendo il conto, se sono passati così tanti secondi, chiaramente siamo nel, ve lo dico subito, oggi è l'8 agosto, tipo, quindi siamo all'8 agosto, a tot ore, probabilmente quasi le 5 di pomeriggio, ok, ora però, questa cosa qua, è abbastanza illegibile, io lo so, perché, chiaramente so, quando sto registrando, ma chi è che si metta a contare, obiettivamente, nessuno, quindi vogliamo formattarla, un modo facile per formattarlo, uno potrebbe dire, beh, ma fai una funzione che lo formatta, perché fare una funzione qua dietro, che mi formatta questo, tipo, eh, oggi, formatato, e andiamo a fare tutte le varie cose, quando abbiamo una banale pipe, ci teniamo, il dato grezzo, che è quello che ci interessa, semplicemente nelle varie casistiche, qua lo formatiamo con, eh, giorno, mese, anno, qua sotto invece lo formatiamo solo con l'anno, oppure lo formattiamo con lunedì, virgola, eccetera, eccetera, ok? Quindi giusto per farvi capire, in questo caso, facciamo date, salviamo, e questo è il risultato, eh, banale, ok? Quindi agosto 8, 2022, possiamo utilizzare altri tipi, di, di pipe, quindi possiamo aggiungere dei valori, in questo caso potremmo scrivere, medium, e avremmo, agosto 15, 2022, con, l'orario dovrebbe essere, eccolo qua, perfetto, abbiamo anche, short time, ad esempio, che ci fa vedere solo l'ora, oppure possiamo anche formattarlo direttamente con, minuti e secondi, salviamo, e vedete che abbiamo questo risultato, ovvero, minuti e secondi, facciamo qualcosa di un po' più, azzardato, mettiamo le ore, due punti, e vi posso garantire, che è corretto, per quanto riguarda la formattazione, fate riferimento, alla documentazione, delle date pipe, se cercate angular date pipe, vi esce tutta la documentazione, con scritto, come potete trovare, la data completa, la data lunga, come prendere il singolo giorno, come prendere, il giorno col nome, insomma, sono veramente qualcosa come, un centinaio forse di righe, di documentazione, non ne vale la pena, vediamo quella che potrebbe essere, una data classica, magari una data short, molte sono già sotto questo nominativo, short, medium, eccetera, perché, perché sono alcune tra le più usate, questo però non vuol dire, che voi non potete, mischiare, adesso vi faccio vedere, short, ci dà questo, vedete, giorno, mese, anno, in realtà è, mese, giorno, perché è in americano, dovreste metterla in locale, praticamente, con l'ora, ma nessuno ci vieta, di fare una cosa del genere, ad esempio, day, slash, m, oppure, m, m, per avere, il nome del mese, ok, slash, facciamo così per l'anno, facciamo l'anno lungo, e poi mettiamo, virgola, no, possiamo fare anche altro, possiamo mettere un trattino banale, potete fare quello che volete, lì, e andiamo a mettere, ora, minuti, e secondi, salvo, e il risultato è il seguente, 8 agosto, 2022, chiaramente queste qua le ho messe io, potreste non averle, giustamente, ok, facciamo così, e se salvo, ho un qualcosa di un po' più leggibile, ok, quindi per le date fate riferimento alla documentazione, perché c'è sempre tanta roba, alcune cose le imparerete a memoria, a volte ve le dimenticherete, non è un problema, andiamo avanti, altre facili sono decimal pipe e percentage pipe, come potreste immaginare, la decimal pipe, cosa fa? ci permette di mettere i decimali, in questo caso abbiamo numero, che è 5, perciò potremmo fare così, e qua ci spariamo, un bel number, così, perfetto, salviamo, e abbiamo il nostro numero, ma i parametri che possiamo andare a settare in aggiunta, sono due punti, apriamo, possiamo mettere quanti numeri per gli interi, minimo, ok, in questo caso 2 eventualmente, punto, e mettiamo 2, trattino 4, facciamo così, salvo, e che cosa è successo? Abbiamo due numeri interi, se ci fate caso, che è questo, portiamolo a 1, e vedete che cambia, quindi, minimo 1, se non c'è un altro decimale, non ce l'aggiunge, ok, se fosse 10 avrebbe messo 10, ma prima che hanno messo 2, ci ha messo lo 0 davanti, non siamo obbligati, ma io l'ho fatto, questo qua dietro, chiaramente, è il decimale, e possiamo scegliere, possiamo dirgli, minimo un decimale, oppure minimo due decimali, massimo 4 decimali, quindi un pi greco, arriverebbe a essere eventualmente, fino a 4, ok, se io salvo, ho questo risultato, che è 2, proviamo a mettere 0, chiaramente 5, non ha nessun decimale, perciò non ha niente, ma se vado qua, a mettere un bel punto, ta 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 ta, si fermerà al quarto, quindi dovrebbe essere, 93, ce lo dovrebbe anche arrotondare a 94, vediamo, ed è esattamente quello che ha fatto, ok, quindi la bellezza delle pipe, che ci permette di gestire velocemente, questo genere di cose, e vi ripeto, potete farli anche voi a mano, potete crearvi le vostre pipe, per la percentuale, non c'è molto da dire, ci basta mettere percent, potremmo mettere solo percent, oppure possiamo fare le stesse cose, quindi quanti interi, minimo decimale, massimo decimale, salviamo, è esattamente la stessa cosa, non cambia assolutamente niente, perfetto, quindi siamo a posto, arriviamo alla currency pipe, che può essere interessante, e la currency pipe si utilizza con currency, senza niente, perfetto, salvo, questo è il risultato, 5 dollari ce li mette di default, anzi in realtà 5,49, scusatemi, qua c'è un po' di roba, mettiamo solo 5 così, il risultato è un banale 5, ma ci mette anche i decimali, chiaramente perché ci sono anche i centesimi, ora noi vorremmo magari metterlo in euro, come facciamo, allora ci mettiamo qua, due punti, e cominciamo a specificare, che cosa vogliamo, cominciamo a dire che vogliamo eur, quindi salvo, e vedete che siamo passati da dollaro a euro, ok, poi un'altra cosa che potremmo fare, vi rimando la documentazione per tutte queste cose, perché sono tante, ok, un'altra cosa, è dire magari se vogliamo il codice euro, o il simbolo, quindi cosa potremmo dire, potremmo dire, code, e ci scrive eur, se non metto niente, metto il simbolo, altrimenti potremmo mettere simbolo, e ci mette chiaramente il simbolo, e lo specifichiamo, eccolo qua, altrimenti potremmo usare anche simbol narrow, poi come altro parametro, possiamo anche qua specificare, che cosa, i soliti numeri, quanti interi, potrebbe essere minimo due interi, possiamo specificare quanti decimali, minimo tre decimali, quanti decimali al massimo, mettiamo cinque, io salvo, e vedete che abbiamo questo risultato, questa parte qua, l'abbiamo già vista, di base con decimal pipe, e percentage pipe, l'ho fatta apposta prima, in modo che fosse abbastanza chiaro, in realtà c'è un'altra proprietà, che possiamo utilizzare, che è appunto la locale, ok, l'ho già chiamato, che non è la polizia, ma il locale, vuol dire che possiamo fare un giro abbastanza ampio, non ve lo faccio vedere adesso, perché è molto lungo, ma noi possiamo dire alla nostra applicazione, di prendere tutte quelle impostazioni locali, ovvero dice, ah ok, sei posizionato in Italia, allora ti metto la currency italiana, che è l'euro, ti metto la data in formato italiano, quindi giorno, mese, anno, e non mese, giorno, anno, eccetera, eccetera, per quanto riguarda il locale, quando parlo di locale, intendo appunto questa cosa qua, quindi dire all'applicazione, di prendere quello che è il valore locale, dell'utente, ok, non lo vediamo, è roba avanzata, sappiate che eventualmente è un'opzione, quindi anziché fare voi le cose a mano, anche le date, eccetera, potete dire a un certo punto, guarda, prendile tu automaticamente, ok, semplicemente non le vediamo, queste sono le pipe, ripeto, queste sono alcune delle built-in, ce ne sono tipo tre o quattro aggiuntive, che non valeva la pena vedere, e le potete generare voi le pipe, sappiate che le potete costruire, non ve lo faccio vedere, perché ripeto, mi sembra una cosa abbastanza inutile, al momento, non vi serve, in primis, e in secondo luogo, vi va ad aggiungere troppa, troppe informazioni al momento, le cose su cui, vi conviene concentrarvi, sono le cose fondamentali, per cominciare a fare applicazioni, come si deve, cominciare a divertirvi, quando poi avrete abbastanza dimestichezza, potete andare ad imparare, quelli che sono i dettagli finali, e migliorare la vostra, la vostra conoscenza, questo è quanto, sotto in descrizione trovate, link al secondo canale, sito, e come supportare il canale, io vi ringrazio, e alla prossima, ciao ciao, episodio 22 di Angular, oggi parliamo, dei services, ok, quindi, che cos'è, un service, vedremo come crearne uno, e poi effettivamente, come utilizzarlo, per aiutarvi a capire, perché usiamo, i service, voglio prendere un attimo paint, e fare uno schifo di presentazione, e voglio fare una cosa del genere, allora, questa è la nostra applicazione, giusto, quindi questo è l'app component, al momento, e abbiamo utilizzato, altri componenti, tipo il componente di prova qua, altri componenti di prova, però potremmo avere un componente qua così, e altri componenti così, allora, abbiamo imparato come, innanzitutto, dialogare dal nostro app component, quindi dal nostro app component, far passare i dati all'interno, ok, e abbiamo visto anche come prendere i dati da dentro, e buttarli fuori al componente parent, abbiamo detto anche che se avessimo, più componenti all'interno, e volessimo portarli da qua, all'app component, dobbiamo fare così, e poi così, va bene, e viceversa, se da qua vogliamo portarli a questo ultimo componente, utilizzando child parent, child parent, dobbiamo partire dal parent, buttare nel primo child, che è il parent di questo qua, e poi parent a child, però quindi già complesso, matriosca, e in secondo luogo, non vi ho spiegato come comunicare, tra siblings, quindi tra componenti fratelli, oppure tra componenti, diametralmente opposti, tipo da questo, a questo qua, ok, quindi già, abbiamo dei problemi di comunicazione, A, vengono cose troppo complicate, vedete quanti schizzi ho fatto, e B, alcuni tipi di comunicazione, non possiamo nemmeno farli, perché non ci sono dei metodi, per comunicare, tra componenti, che non hanno una relazione, padre figlio, ok, quindi questo è, il primo problema, i service ci permettono, faccio un altro bel quadrato, i service che sono qua, non si vedono nell'applicazione, sono qualcosa che sta, al di fuori, trasversale, ci permettono di comunicare, con qualsiasi cosa, vedete, è come se fossero, una nuvola, un cloud, stanno qua, e possono permettersi, di comunicare con chiunque, in modo trasversale, quindi già così, è comodo, la seconda motivazione, intanto tolgo questo, non salvo, la seconda motivazione, per cui, usiamo i service, è che, i componenti, in realtà, devono limitarsi, semplicemente, a mostrare a schermo roba, quindi, il componente, a certi livelli di programmazione, per come sono pensati i service, non devono, avere logica all'interno, e parlo di logica, che può essere tranquillamente delegata, ai service, mi spiego, nel senso che noi potremmo avere, un app component, ok, già vedete qua abbiamo dei dati, non avrebbe senso che stiano qua dentro, soprattutto dati così che potremmo usare, trasversalmente in tutta l'applicazione, magari se è il titolo, del componente singolo, ok, se è qualcosa di particolare, ok, diciamo che, in linea di massima, i dati, quelli importanti, non dovrebbero essere salvati nei componenti, e soprattutto, non vogliamo utilizzare troppa logica nei componenti, quando abbiamo parlato delle pipe, ad esempio, vi ho detto che, anziché fare tutti i giri, la riformattazione, eccetera, delle currency, oppure, delle date, non aveva senso scrivere così tanto codice, quando avevamo le pipe, nel senso che non vogliamo continuare a scrivere logica, e codice, nei nostri componenti, l'obiettivo ultimo del componente, è semplicemente, mandare a schermo roba, ok, quindi la parte HTML, è supportata da TypeScript, ma l'ultimo obiettivo, è semplicemente, essere un componente, che fa cose, potrebbe essere una tabella, certo, ha la funzionalità, di filtra, ha la funzionalità, quindi, ha effettivamente, dei metodi qua dentro, potrebbe essere, filtra così, se premiamo sul pulsante di filtro, potrebbe essere, ordina colonna, quindi c'è un minimo di interazione, e di logica, però, l'obiettivo è, ok, ordina colonna, vuol dire che prendi i dati, che stiamo prendendo, da un service, va bene, e, richiedi gli stessi dati, quindi dal service, richiede, eh, i dati ordinati, in questo modo, va bene, il service li rimanda, e quindi, qua i dati ci arrivano ordinati, vengono poi ordinati, a schermo, è questo il giro, che vogliamo fare, il componente, si limita a gestire, solo la parte visiva, tutto il resto, viene richiesto, ogni volta, ai vari service, ok, quindi questa, è la logica di base, può aver senso, per alcuni di voi, dipende dall'esperienza, che avete in programmazione, può aver senso, se magari, siete un po' più portati, alla programmazione, anche se siete novizi, cioè nel senso che, sapete ragionare, in modo astratto, non è facile, se invece, state avendo difficoltà, non preoccupatevi, non è facile, eh, astrarre a questo livello, senza avere chiaramente, l'esperienza, se avete l'esperienza, è facile astrarre, perché in realtà, l'avete già fatto, quindi è una cosa pratica, se non l'avete mai fatto, è veramente, è veramente dura, più che altro, perché è dura anche a livello pratico, da spiegare, quindi vediamolo, nello specifico, non è che dobbiamo parlare, in astratto, all'infinito, quindi, andiamo a creare un nuovo terminale, e, andiamo ad utilizzare, un nuovo comando, che vi spiego, in realtà è sempre, ng generate, quindi, ng generate, con la g, e utilizziamo service, che però, riduciamo a s, quindi, ng, g, s, ng generate service, e chiamiamo il nome del servizio, in questo caso, vogliamo fare un servizio, di prova, perciò scriviamo, servizio, prova, facciamo così, tac, vedete che la cli, ha generato due file, c'è il solito spec, che non ci interessa, che possiamo rimuovere, e poi c'è il nostro servizio prova, punto service, perché come al solito, Angular utilizza, punto component, component per i componenti, abbiamo punto module, punto service, punto directive, e quant'altro, sono cose che ormai, abbiamo già visto, perciò niente di nuovo, possiamo andare a creare, una cartella, services, se volete, io qua però l'ho fatto, direttiva in italiano, perciò potremmo fare, servizi così, ok, insomma ogni tanto, mischio in italiano e inglese, ma non è un problema, l'importante è che siete consistenti, io qua non lo sono, però chi se ne frega, adesso abbiamo il nostro servizio, andiamo a vedere, nel dettaglio, cerchiamo di capire, che cos'è successo, allora ci ha creato due file, di cui lo spec, non ce ne frega niente, perché? perché è di testing, e adesso non trattiamo, il testing, perciò l'abbiamo rimosso, ci ha creato, servizioprova, punto service, punto ts, niente di nuovo, cambia semplicemente, il fatto che è un service, e che cosa abbiamo qua? allora abbiamo un import, injectable, from angular core, se sapete l'inglese, injectable, già capite che è, dovrebbe essere, iniettabile, può essere raga, su certe cose, ho perso totalmente l'utilizzo dell'italiano, iniettabile, pensate comunque alla seringa, è la stessa cosa, ok? quindi, injectable, vuol dire che possiamo, iniettare, il nostro service, in giro, questo perché, il nostro servizio, viene appunto, inserito, all'interno, dei vari componenti, e, di conseguenza, è possibile, utilizzarlo, ok? non siamo in realtà, noi che chiamiamo il servizio, fuori, come se fossero, come se fosse in cloud, ma è il nostro service, che viene, letteralmente, iniettato, in tutta l'applicazione, o solo in parti, dipende dove vogliamo farlo, e di conseguenza, quelle parti in cui è stato iniettato, ha chiaramente, accesso, riprendendo il discorso, della siringa, se mi viene, iniettata, una medicina, sarà disponibile, solo nel mio corpo, che in questo caso, sarà il mio component, ok? e non sarà disponibile, nel vostro, quindi nel vostro component, va bene? quindi utilizzate, più o meno questa, questa metafora. una volta che abbiamo utilizzato, injectable, che cosa abbiamo? Abbiamo questo decoratore, quindi questo decorator, che è, injectable, quindi non ci interessa dire, che è un service, perché in realtà, un service, è banalmente, una classe, quello che ci interessa, è dire che è, injectable, quindi può essere, iniettato, in giro, provide in, dove è stato, messo a disposizione, è stato messo a disposizione, nella root, quindi vuol dire, che in realtà, chiunque, qualsiasi componente, ha accesso, a questo service, chiunque può chiamarlo, va bene? Avremmo potuto utilizzare, provide in, e renderlo specifico, esclusivamente, in certi componenti, va bene? Quindi, in questo caso, vedete, provided in root, la root è la radice di tutto, di conseguenza, sarà disponibile, in tutta l'applicazione, basterà semplicemente, richiamarlo. Qua abbiamo un banale, export class, nome della classe, c'è il service, ma sapete che, non fa differenza, anche se ci fosse scritto Pippo, la cosa importante è questo. È una banalissima classe, che però improvvisamente diventa un service, per il solo fatto che viene iniettato. Ok? Quindi, questo è un service. Non l'abbiamo ancora finito, perché voglio far vedere questa cosa, potremmo avere, app module, vedete, providers, e incredibilmente, questa parola, è maledettamente simile, a provided in, ovvero, dove è stato messo a disposizione, e, tutto ciò che è stato messo a disposizione, potremmo, avere, i services, direttamente scritti qua. Quindi, cominciamo a vedere, qua nelle dichiarazioni, abbiamo i componenti, le direttive, le pipe, eccetera, quindi, i building block, i mattoncini della nostra applicazione. Negli import, abbiamo i moduli, che ci servono per lavorare, e nei providers, avremmo, i services, ok? Però in questo caso, root, è la stessa cosa di app module, perciò, angular, scrivere così, è la stessa cosa, che mettere, qua dentro, il service, quindi sarebbe, servizio, prova, così, vedete? Non mi dà problemi, se provo a metterlo qua, invece, mi dà errore, questo vi fa capire, che questo qua, è il posto in cui vanno, i servizi, quindi, i providers, sono tutti quei servizi, che appunto, vengono messi a disposizione, dell'intera applicazione, perché siamo in app module, noi utilizziamo la scorciatoia, di conseguenza, abbiamo, qua, provided in root, non entro nello specifico, di dove potremmo andare a mettere, direttamente, il service, sappiate che potreste avere, altri moduli, perché potremmo divider l'applicazione, in moduli differenti, e utilizzare, altri moduli, oppure, essere specifici, con altri service, diciamo che, avete appena preso Angular in mano, sappiate che c'è la possibilità, di fare il provide, del service, in diversi posti, noi in realtà, per questo corso, saremo, maledettamente generici, e lo mettiamo a disposizione, di tutta l'applicazione, ok? Poi semplicemente, lo richiamiamo, per necessità, quindi, abbiamo visto, cosa sono? Abbiamo visto come crearne uno, vediamo come utilizzarlo, questo servizio, questo servizio di prova, in realtà, è il servizio che si occupa, di tenere tutte le persone, quindi io tolgo questo, perché, se vi ricordate, dallo schemino paint, bruttissimo, che avevo fatto, sette minuti fa, o quello che è, vi ho detto, di come, passare i dati, da un componente all'altro, lo si può fare, ma è una matriosca, quindi ogni volta, dobbiamo passare di qua, di là, di su, di giù, eccetera, e noi invece, vorremmo chiamarlo direttamente, come avremmo sempre pensato, ah, le persone sono in app component, e allora, io chiamo semplicemente, tipo, app component, punto persone, non è fattibile, dobbiamo passarlo, con, il property binding, e poi stare attenti, all'event binding, eccetera, eccetera, invece, con i services, è maledettamente facile, semplicemente, richiamare il service, una volta che noi richiamiamo il service, prendiamo accesso ai dati, e allora quello, è il comportamento, che noi ci aspetteremmo, dal componente, che non lo fa, ma lo fa il service, quindi capite come il service, è una sorta di cervello generale, che si occupa di avere tutta la logica, chiaramente non avremo, un unico service, avremo più service, quindi potremo avere il service, che si occupa, di gestire tutta la parte di login, avremo il service, che si occupa di prendere, i dati magari, dei clienti, il service, che si occupa di prendere, i dati, di modificare, eccetera, delle fatture, se sto parlando di un gestionale, in generale, oppure se è un qualcosa di più, di più scolastico, il service che si occupa di gestire, gli insegnanti, sono grandi cervelli, che si occupano della logica, dell'applicazione, e fanno cose diverse, ok? La cosa che possiamo pensare, spesso e volentieri, è il login, l'autenticazione, la registrazione, e poi eventualmente, tutta la parte di interazione, con il back end, il database, quindi mandare dati, ricevere, modificare, e quant'altro, nessuno vi vieta, di avere i service, per altre cose, purché utilizzate sempre, questa logica, di comunicazione facile, quindi il service, può comunicare facilmente, con tutti, adesso lo vediamo, e soprattutto, andare ad astrarre, una funzionalità, che appunto, vogliamo utilizzare, in tutta l'applicazione, o in più posti, se già volete utilizzarlo, in due o più componenti, molto probabilmente, ha senso fare, un service, ok? Quindi, cominciamo a mettere qua dentro, le persone, benissimo, quindi qua, abbiamo, le persone, come facciamo ad accedere, le persone, in modo brutale, ve lo dico subito, allora, noi prendiamo, il nostro prova component, eccolo qua, e abbiamo un po' di schifo, precedente, non è un problema, facciamo così, salviamo, prendiamo l'html, salviamo qua, molto bene, dobbiamo inserire, sto app prova, quindi app prova, eccoci qua, e magari, potremmo mettere, giusto un html, semplice, quindi il classico prova works, ve lo ricordate, quando creiamo, un nuovo componente, dalla cli, e questo è il risultato, un banale prova works, quindi siamo nella nostra applicazione, abbiamo inserito, un componente di prova, adesso, voglio farvi vedere, come prendere, i dati dal nostro service, quindi come possiamo richiamare, il service dentro prova component, e in realtà, anche come possiamo richiamarli, in app component, e io vi dimostro, che è facilissimo, accedere da più componenti, agli stessi dati, rispetto come abbiamo fatto, prima, quindi, prova component, noi ci mettiamo nel construct, nel constructor, e andiamo ad iniettare, il nostro servizio, quindi pensate al componente, come se fosse ad esempio, il braccio, questo componente, è il nostro braccio, e andiamo ad iniettare, il, la medicina, solo nel braccio, oppure l'anestesia, ok, che ha più senso, l'anestesia, l'applichiamo solo al braccio, oppure l'applichiamo al dente, oppure l'applichiamo al piede, in questo caso, abbiamo il nostro prova component, è il braccio, e noi andiamo a inserire, il componente, lo inseriamo nel constructor, perché, se avete visto il mio corso, precedente di, di TypeScript, quello introduttivo, questa sintassi, non vi sarà nuova, perciò noi andiamo a scrivere, servizio, prova, non siamo obbligati a scriverlo così, ma vogliamo far riferimento, facilmente al servizio prova, perciò va bene, o anche servizio prova, service così, però in realtà, non ha senso ripetere tutto, però servizio prova, che cos'è, di che tipo è, dobbiamo specificarlo, è servizio prova, service, e io ho sbagliato qua a scrivere, devo mettere il due punti, ora, ci dà problemi, non è stato trovato, correzione rapida, aggiungiamo l'import, vedete, automaticamente ce l'ha importato, da dove? Sopra, di uno, servizi, servizio prova, noi siamo in prova, che è qua, quindi sono qua dentro, sopra di uno, vado in app, ho servizi, servizio prova, service, ok? Non sto molto, non ci sto molto sull'import, credo sia una cosa che, possiate capire velocemente, quindi io salvo, che cosa abbiamo appena fatto? nel costruttore abbiamo definito direttamente questo service, ok? Quindi è stato iniettato, ma questo costrutto, perché non abbiamo fatto la variabile esterna qua, e poi l'abbiamo assegnata qua, tipo, dis, punto, servizio prova, uguale, qualcosa che passavamo nel costruttore, questo è ciò che ho spiegato su TypeScript, quindi è un bellissimo modo che TypeScript ci mette a disposizione, una bella shortcut, che abbiamo per fare le cose velocemente, e il motivo per cui ho deciso di fare TypeScript prima di Angular, è proprio per andare a spiegare questo genere di cose, perché uno potrebbe dire, ah, non capisco cos'è sta sintassi, in primis, e B, probabilmente è una cosa di Angular, no, non è una cosa di Angular, ma è una cosa di TypeScript, che potete utilizzare anche su altri framework che usano TypeScript, o semplicemente su TypeScript, se lavorate solo con TypeScript, e B, è molto comoda, e soprattutto adesso capite, che stiamo facendo la stessa cosa, ad avere qua un servizio prova, e poi questo servizio prova viene modificato, quindi dis.servizio prova, così, dis.servizio prova, uguale servizio prova, ok? Anziché fare sta roba qua, abbiamo semplicemente questa, e così, possiamo anche definire, public così, vedete, possiamo fare una cosa del genere, anziché scrivere qua, public servizio prova, abbiamo fatto la stessa cosa, in modo molto più veloce, chiaramente se non avete la base di TypeScript, diventa illegibile, o semplicemente, come facevo io, quando ho cominciato, lo fate, senza sapere il motivo, non lo capite, e poi diventa difficile riprodurlo, perché non ve lo ricordate, non sapendo il perché lo fate, quando poi dovete aggiungere un altro services, o ve lo ricordate a memoria, oppure dovete ogni volta andare a ricapire, dove va messo il service all'interno del componente, ok, quindi adesso lo sapete, e possiamo utilizzarlo, adesso che abbiamo il nostro servizio di prova, io ho un nginit, voglio fare un bel servizio prova, perché tanto accediamo dal costruttore, scusatemi non è questo, ma è, dis.servizio prova, punto, ah scusatemi, console.log, dis.servizio prova, punto, persone, ecco qua, ci manca una cosa, che è specificare che è private, perché non possiamo lasciarlo di default, vedete, torno indietro, prima vi ho fatto vedere con public, ecco qua, e mi sono un po' dimenticato invece di mettere private, quindi noi mettiamo private, specifichiamo, e adesso non ci dà più problemi, finché voi non mettete qua niente, lui non lo sta creando, ok, per lui è semplicemente un parametro del costruttore, nel momento in cui mettete voi private, allora fa la stessa cosa che vi ho detto, quindi è come scrivere private qua, servizio prova, e poi andare qua dentro, e specificare le altre cose, ok, fondamentale, e quindi c'era un piccolo errore di distrazione, adesso, vediamo un po' cosa succede, e se apriamo il console, guardate qua, abbiamo l'array con tutti i vari dati, vedete, vi dimostro che arriva da qua, scrivendo banalmente, siamo in prova component, ecco qua, e vedete, prova component, abbiamo i dati, questi dati, sono quelli del service, vedete, di servizio prova, è questo, se io apro, c'è persone, ok, facciamo la stessa cosa su app component, e provate a farlo anche voi, magari stoppando il video, provate ad inserire, provate ad iniettare il componente, abbiamo il constructor, e mettiamo dentro un private, servizio prova, due punti, servizio prova service, eccolo qua, facciamo così, e poi in ng on init, quindi implements on init, ecco qua, andiamo a correggere e implementare, bam, andiamo qua sotto, e noi, semplicemente, un bel console.log, che cosa? mandiamo a schermo app component, facciamo un bello spazietto magari, una virgola, e poi, dis.servizio prova, punto persone, io salvo, e il risultato, è maledettamente lo stesso, da due componenti diversi, ora, tutto lo sbatti che avevamo fatto prima, da componente a componente, sali su, torna indietro, eccetera eccetera, viene completamente saltato, con i service, ora, questo non vuol dire, che non utilizzeremo più, il property binding, che non utilizzeremo più, two way binding, event binding, eccetera, significa semplicemente, che se abbiamo bisogno, di costruire della logica, di salvare dei dati nell'applicazione, e di distribuirli, su più componenti, anziché salvarli in un componente, e poi farli scendere, che cosa possiamo fare? Li possiamo dare con un service, quindi cercate di capire la differenza, se abbiamo una variabile, che è ad esempio, il titolo, questo titolo, va bene, o qualche altra piccola variabile, che deve stare sul componente, non è un problema passarlo, ok? Non è assolutamente un problema passarlo, se vogliamo creare, un evento da emettere, un qualsiasi tipo di evento, da emettere, perché vogliamo che un componente, stia attento ad un particolare evento, lo possiamo fare, possiamo mischiare queste cose, quello che voglio farvi capire, è che un servizio del genere, ci permette di gestire molto meglio la logica, anche perché qua dentro, andiamo a scrivere tutta la logica, ma veramente tutta, perché è l'unica cosa che deve fare, non manda a schermo niente, perciò non abbiamo altre cose, il costruttore, ng on init, i template e quant'altro, deve solo fare una cosa, gestirsi tutta la logica, riprendere i dati, eccetera eccetera, concludiamo, facendovi vedere come, anziché persone così, possiamo andarci a creare dei metodi, quindi non cambia assolutamente niente, get persone, noi facciamo così, get persone, e facciamo un bel return, this.persone, non fa differenza, io salvo, vado qua in prova, this servizio prova, punto, get persone, facciamo così, salvo, magari facciamolo anche su app component, punto, get, ups, ho fatto un casino, get persone, tac, salvo, e il risultato è lo stesso, questo per dimostrarvi come, non dobbiamo per forza accedere ai dati direttamente, possiamo anche proteggerli con private, eccetera eccetera, e avremo poi tutti i vari metodi che possiamo richiamare, quindi potreste avere anche un service che magari non ha dati, ha solo tanti metodi che volete utilizzare, va bene? Quindi questi sono i service, quello che vi chiedo è, cancellate tutto, oppure semplicemente create un nuovo service, in realtà potreste usare, ng-generate service che è più veloce, se volete provare così, oppure vi basta creare un nuovo file, ma ricordatevi che al di là di tutta sta roba extra, che abbiamo aggiunto, vi serve cosa? Injectable, una classe con dentro injectable, punto, e mettete un costruttore vuoto, basta, quindi potete farlo sia a mano, che ng-generate, io preferisco ng-generate, semplicemente ricordatevi, dovete capire più che altro questa parte qua, è fondamentale, e poi provate a chiamarlo in giro, vedete che non sono niente di che, sti service, sono veramente qualcosa di utile, detto questo, sotto in descrizione trovate i soliti link, e noi ci vediamo alla prossima, ciao ciao, episodio 23 di Angular, oggi vediamo che cos'è il routing, vedremo quindi cos'è, come creare il modulo di routing, e come creare le varie routes, allora, cominciamo dal principio, che cos'è il routing? Il routing è di base l'instradamento, la capacità che abbiamo in Angular, di spostarci da una pagina all'altra, o di spostarci da un componente all'altro, o all'interno stesso di componenti, di mostrare un componente, anziché un altro, che cosa vuol dire tutta sta cosa qua? Allora, innanzitutto, pensate effettivamente, quello che può essere un sito, abbiamo il sito, e noi vogliamo passare dalla pagina home, quindi home page index.html, alla pagina contact.html, o about.html, avremo il nostro link, href, clicchiamo, viene aggiornata la pagina, perché? Perché noi andiamo a chiedere un'altra pagina al server, gli chiediamo la pagina about.html, ci viene mandata, e noi la vediamo. Vogliamo tornare indietro? Dobbiamo chiedere la pagina home page, ci viene rimandata, e noi siamo nella pagina home page, o index.html. Ok, però abbiamo detto che, le applicazioni single page, non hanno pagina, perché? Perché sono sempre nell'index, noi abbiamo un solo html effettivo, che è sto index, ma se abbiamo un solo index html, come facciamo a spostarci di pagina? Non abbiamo altre pagine, eppure avete visto, nell'applicazione single page, che ci spostiamo di pagina, qui in schiavere applicazione.com, slash clienti, andiamo in slash clienti 56, quindi vediamo il cliente numero 56, oppure abbiamo slash fatture, o ci spostiamo in slash ordini. Com'è possibile questa cosa qua? Questa cosa qua non è altro che il routing, quindi Angular fa finta di passare da clienti, al momento non funziona, vedete, ci dà un problema, quindi automaticamente, noi andiamo a creare questi finti collegamenti, Angular va a cambiare l'url che abbiamo qua in alto, e lo tratta come se fosse effettivamente una nuova pagina, ma in realtà non è una nuova pagina, è come se avessimo in html, scusatemi, in javascript, nascosto un componente mostrato un altro, va bene? Di base fa questa cosa qua, quindi il routing altro non è che, questa sorta di gestione di pagine, che in realtà non esistono, quindi virtualmente creiamo delle pagine, e le organizziamo, detto così può voler dire poco e niente, ma adesso lo capiamo, perciò spostiamoci, e vediamo un po', allora, innanzitutto, quando vi ho fatto aprire il progetto, vi ho detto di mettere routing, sì, nel caso non mi abbiate seguito, non preoccupatevi, potete generare automaticamente un modulo di routing, che è questo qua, non lo vedo, eccolo qua, vedete, app routing module, adesso ne parliamo, potete generarlo, se non ce l'avete, e facciamo, ng, generate, module, ok, o m, app, routing, ok, e mettiamo flat, nel senso che non vogliamo la sua cartella ad hoc di routing, lo lasciamo così in source, vedete, flat così vuol dire che è qua dentro, in source, se invece non mettete flat, in source viene creato up routing, e poi dentro c'è il modulo up routing, va bene, dopodiché dobbiamo specificare, in che modulo deve essere inserito, perché questo è un modulo, a sé stante, che però deve fare riferimento, guardate un po', in app module, vedete qua, siamo in app module.ts, e c'è up routing, come facciamo a inserirlo automaticamente, ci basta mettere, dash dash, module, e poi mettiamo, app, facendo così, automaticamente viene generato, lo stesso file che ho io, che abbiamo generato, all'inizio della creazione del progetto, va bene, quindi, adesso che abbiamo il nostro file, andiamolo a vedere, qua vedete che è stato inserito intanto, in app module, quindi possiamo toglierlo, e andiamo a vedere quello che è questo file, allora, innanzitutto vediamo gli import, abbiamo un ng module, quindi è un modulo, effettivamente, proprio come app module, semplicemente questo è, il modulo principale di tutta l'applicazione, questo è un sottomodulo, come vi ho detto negli episodi precedenti, non mi ricordo se è il precedente, o due precedenti, vi ho detto che possiamo dividere l'applicazione, in più moduli, è qualcosa di più avanzato, ma per ora abbiamo visti potenzialmente due di moduli extra, up routing, che lo stiamo vedendo adesso, e poi vi avevo citato, se vi ricordate, un mega modulone, che avremmo potuto fare, di angular material, quindi anziché avere, qua, tutti i moduli importati, per angular material, potremmo avere, un material module, fatto da noi, material module, con dentro, tutta sta roba qua, e tutti gli altri componenti, ok, al momento abbiamo visto, questi tipi di moduli esterni, e sono quelli che ci bastano per ora, quindi chiudiamo questo, e andiamo a vedere, allora, ng module, quindi un decoratore, questa è una banalissima classe, che si chiama semplicemente, up routing module, non vuol dire niente, ha senso per noi, ma per angular, non vuol dire niente, è una banale classe, con un nome generico, diventa un modulo, nel momento in cui abbiamo, il decoratore, ng module, il decoratore ng module, prende dentro, un oggetto, e qua dentro, ha degli import, e degli export, che cosa prende, innanzitutto, prende il router module, ok, che è ciò che abbiamo preso, da angular, vedete, sono cose, angular gestisce tutta la parte, dei router, altrimenti non sapremmo gestire, non possiamo farla tutta noi a mano, viene gestita, da angular, lo prendiamo, questo modulo, che ci permette di lavorare, con i router, e come for root, roots, che sono tutte le varie pagine, che andremo a inserire, quindi sta dicendo, guarda, mi prendi il router module, di angular, for root, se vi ricordate, la root è, questa, va bene, e mi dici che, in tutta la radice, della mia applicazione, utilizzando il router module, mi butti dentro, le root, che io andrò, a definire, va bene, qua tipo routes, routes, ok, fin qua, niente di che, quindi come importiamo la roba, la esportiamo, sarebbe stato lo stesso metodo, simile, che avremmo fatto, anche con angular material module, se avessimo fatto appunto, quel modulo esterno, avremmo avuto l'import, per utilizzarlo qua dentro, e l'export, per utilizzarlo poi, qua, e richiamarlo effettivamente, ok, molto semplice, cioè, in realtà molto semplice, potrebbe essere un pelo complicato, ma arriviamo alla parte interessante, non mi aspetto che capiate, tutto quello che sto dicendo, però, ve lo dico perché magari, tra, qualche ora, di programmazione in angular, magari tornate su questo video, e delle cose hanno più senso, di prima, comunque come potete vedere, anche se vi butto, dei termini magari, io ve li butto lì, affinché il vostro cervello, si ritenga in pancia, voi non ci fate molto caso, se non vi dicono niente, lo sapete che per me non è un problema, le cose su cui vi stresso, sono quelle che dovete imparare, perché anche se non conoscete tutta la teoria, non è mai un problema, si può recuperare dopo, l'importante, è riuscire a fare le cose, perché grazie alla pratica, poi possiamo anche imparare la teoria, semplicemente dalla teoria, difficilmente poi, si riesce a metterla, in pratica, ora, cominciamo a creare le prime, le prime routes, e allora, andiamo a creare, è un array di oggetti, praticamente, è un array di oggetti, che tiene un path, vedete qua, il path è il percorso, benissimo, adesso lo mettiamo vuoto, e poi, virgola, il componente, quindi vuol dire che, le pagine, sono definite dai componenti, va bene, andiamo a creare, dei componenti nuovi, quindi andiamo qua in app, creiamo una sottocartella, componenti, componenti, e voglio creare, dei nuovi componenti, possiamo lasciare prova qua, possiamo cancellarlo, possiamo cancellarlo, non è un problema, benissimo, abbiamo cancellato prova, abbiamo i nostri componenti, e voglio generare, due nuovi componenti, ok, quindi ng, generate, component, e potremmo fare, primo, componente, ok, quindi potremmo generare, il primo, e poi il secondo, oppure per farla un po' più, da sito, così mi seguite, potremmo avere, about, ng, generate, component, ho sbagliato, ho sbagliato, perché l'ho fatto qua fuori, cancelliamo, perfetto, rifacciamo, e mettiamo, componenti, così vi spiego qualcosa di nuovo, slash about, vedete, quando prima ho fatto solo about, me l'ha creato nell'SRC, se io metto componenti, mi cerca la cartella componenti, in SRC, scusatemi, in app, in app, mi cerca componenti, e mi butta dentro about, quindi facciamo così, molto bene, me l'ha creato, se io vado, vedete qua abbiamo about, e poi facciamo la stessa cosa, e facciamo contact, contact, perfetto, quindi se io apro la cartella componenti, vedete che abbiamo about, e contact, togliamo questo file, perché comunque sono già tanti file, quindi adesso avere cose che non ci servono, non serve a niente, abbiamo due componenti, giusto? Quindi se io salvo qua, abbiamo degli errori, quello che mi interessa al momento, è, nascondere un attimo questo, che ci torniamo, quindi salvo, ma voglio far vedere i due nuovi componenti, app prova, chiaramente da problemi, perché l'abbiamo rimosso, proviamo a importare app about, e ci da problemi, vedete sicuramente abbiamo una situazione nell'app module, e poi qua sotto facciamo anche app contact, e vogliamo poi togliere l'errore, salviamoci l'errore, andiamo a vedere qua, non è un problema, ci spostiamo sull'app module, e vedete che abbiamo dei problemi con i componenti, allora, prova component, non c'è più, non me l'ha tolto, ok, non è un problema, quindi prova component, via, prendiamo poi about component, non ce l'ha ricreato, perché prima l'avevamo creato, e poi l'ha, l'abbiamo rimosso, quindi dobbiamo semplicemente sostituirlo, con slash componenti, about about, vedete che non dà più problemi, e questi componenti, li portiamo su, perché li voglio vicino ad app component, ok, possiamo anche fare tutta la prima sezione componenti, poi vari moduli, eccetera, se volete essere più precisi, abbiamo risolto gli errori, quindi mi raccomando, controllate sempre gli import, ma avete visto che abbiamo rosso ovunque, vi dice tutto, quindi non preoccupatevi, buono, e adesso dovremo avere le nostre cose, se io vado sulla home page, vedete che abbiamo about works, e contact works, perfetto, quindi torniamo a noi, abbiamo il nostro app component, che si trova in index, che gestisce tutto qua, ok, quindi uproot, è il nostro gestore globale, e qua dentro non andremo, non andremo a scriverci quasi niente, a livello di, a livello di template, semplicemente, ci farà da contenitore, questo contenitore, gestirà poi le diverse pagine, ok, più avanti avremo, guardate qua, Visual Studio, avremo una cosa molto simile, più avanti nel corso, avremo la nostra barra laterale, quindi, in uproot, in questo html, avremo qua il nostro menu, laterale, che sarà un componente, ok, facciamo così, avremo il nostro menu laterale, e poi qua avremo, l'area di lavoro, ok, adesso ve la spiego, area, lavoro, quest'area lavoro, vedete che qua, ha le varie tab, oppure potrebbe avere altre cose, altre visualizzazioni, qua dentro, in base alle necessità, avrà, up about, se siamo in about, oppure, up contact, se siamo in contact, ok, poi sapete che potremmo avere qualcosa laterale, eccolo qua, potremmo avere una cosa del genere, e, e via discorrendo, ecco così, un'altra balla laterale, tutte queste cose qua, potrebbero essere qua, quindi potremmo avere un altro component, che si chiama, barra laterale, e io adoro vsc, perché vsc, fa proprio al caso nostro, perché ha lo stesso tipo di layout, quindi barra laterale, quindi capite come nell'app component, che è tutto questo praticamente, andremo poi a mettere altri tipi di componenti, menu, eccetera, ma la parte che cambierà effettivamente, sarà questa, quindi qua avremo, up contact, up component, in realtà non avremo contact about, avremo magari, sezione clienti, con la tabella cliente, avremo la tabella, avremo il component apposta, con la tabella fatture, avremo una tabella dove possiamo vedere tutti i contatti, eccetera, eccetera, questo sarà il discorso, al momento il menu non ce l'abbiamo, perciò lo possiamo togliere, scusatemi, il menu lo togliamo, perciò lo possiamo togliere, la barra laterale la possiamo togliere, e quest'area lavoro, adesso ci arriviamo, quindi cominciamo a far così, e adesso vi spiego come passare in modo grezzo, dal primo componente all'altro, dunque, avete visto che se metto, up about, e up contact, e up contact, sono tutte insieme, praticamente, ok, sì, io vado qua, sono tutte insieme, sì, potrei nascondere uno e l'altro, eccetera, però io vorrei fare una cosa del genere, se sono magari in slash about, mi fa vedere about, se sono in slash contact, mi fa vedere contact, e se sono qua così, mi fa vedere magari la dashboard iniziale, la home page classica, ok, quindi adesso che ci penso, potremmo fare anche un ng generate, componenti, facciamo home page, oppure la banale dashboard, quella iniziale, ok, chiamiamola come volete, chiamiamola home, invio, perfetto, facciamo un test che funzioni, up home, ok, funziona tutto, chiudiamo un attimo, perfetto, non abbiamo problemi, quindi vogliamo andare a settare quelli che sono gli url, i path, perché abbiamo i componenti, abbiamo le pagine fittizie, ma Angular non li sa ancora gestire, dove li gestiamo? Nell'up routing module, quindi noi andiamo qua, e ripeschiamo il nostro path, eccolo qui, e quindi abbiamo path, slash, che è per tutti, home, component, togliete qua questo, e mettete vuoto, al momento vuoto vuol dire la home page, io vado qua, dovremmo trovare solo l'home component, e invece c'è la madonna, com'è possibile? Perché? Perché non abbiamo definito, qua dentro, quella che è l'area di lavoro, ve lo ricordate che vi ho fatto area di lavoro, e dentro questi cosi qua si alternavano, perfetto, andiamola a fare, quindi come facciamo quest'area di lavoro, si chiama router outlet, vedete? Router outlet, che non sono i village di sconti, dove andiamo a comprare i vestiti, gli outlet, ma è semplicemente, l'output, il risultato, quindi dove possiamo vedere, il router, il router è, questa parte qua, vedete? Queste sono le routes, quindi quando noi vogliamo vedere, app, home component, verrà visto, qua dentro, questo, router outlet, che vi ho fatto vedere, andrà poi a fare una cosa del genere, sotto sotto, farà una cosa del genere, ok? Quando poi andiamo a cambiare, farà, così, quindi questo router outlet, altro non è che, l'area di lavoro, che vi ho fatto prima, ok? Ve l'ho chiamato area lavoro, per farvelo capire, in realtà, è il router outlet, torniamo indietro, 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 io sto continuando a fare, niente, praticamente, ok? Perfetto, quindi salviamo, e improvvisamente, eccoci qua, home works, ok? Ecco dove siamo, continuiamo, perché la magia non è finita, vogliamo replicare questa cosa, qua, altre due volte, fate perciò virgola, tac tac, e lo fate con alt, maius e freccetta giù, ok? E andiamo a mettere, about e contact, chiaramente vogliamo cambiare, vogliamo avere about component, ecco qua che lo importa automaticamente, e poi contact component, quindi contact component, io salvo, andiamo a vedere, slash about, vedete? About works, ok? Andiamo su contact, quindi contact, contact works, incredibile, ma avete visto come con tre semplici oggetti con path e component, siamo in grado di cambiare da un componente all'altro, da una pagina all'altra, e questa è la base, se prendo la documentazione di Angular e vi faccio vedere, guardate qua, vorrei creare qualcosa di simile più avanti, qua abbiamo la sidebar, e qua abbiamo il nostro router outlet, guardate un po', getting started, anzi mi sa qualcosa di un po' più facile così, componenti, bam, 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 la barra resta uguale, guardate qua in alto, come cambia, vedete? Cambia costantemente il route finale, e cambia il componente qua dentro, qua sopra uguale, qua sopra uguale, la pagina non viene mai caricata, guardate, la pagina è sempre la stessa, semplicemente viene aggiornato qua in alto, qua in alto, e quello che c'è qua dentro, è la stessa cosa che abbiamo fatto noi, ok? Semplicemente abbiamo messo solo questi che cambiano, non abbiamo aggiunto magari questa parte qua in alto, e questa parte qua in alto, quello che ho chiamato prima menu, e barra laterale, ok? Quindi, stiamo andando nella direzione giusta, quello che mi manca è far vedere come possiamo creare un menu rudimentale, quindi facciamo una cosa del genere, e mettiamo qua un A, per ora, ok? Facciamo così, tac, tac, e mettiamo home, e poi mettiamo about, e poi mettiamo contact, perfetto, contact, quello che non possiamo mettere è href, perché l'href ragiona, come sappiamo, con l'html, quindi ci richiede un'altra pagina, che cosa possiamo utilizzare? Router, indovinate un po', non potete indovinarlo, ma eccolo qua, vedete ho scritto router, quindi indoviniamo utilizzando router, io scrivo router, e improvvisamente abbiamo router link, router link active, e dopodiché abbiamo le stesse proprietà bindate, queste due non ci interessano al momento, ma abbiamo router link, e router link active, active lo vedremo più avanti, ma router link, facciamo una prova, e possiamo andare su vuoto, ok? Oppure slash, e basta, che è la home, e se andiamo a fare la stessa cosa qua sotto, vediamo un po', mettiamo about, adesso non mi ricordo se lo mette davanti lo slash o meno, e poi contact, salviamo, vediamo il risultato, ops, sarebbe stato meglio mettere magari, uno stile, fatemi mettere uno stile velocemente per capirci qualcosa, style, margin, right, 10, pixel, giusto velocemente, potete schippare se non volete farlo, tac, 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 vediamo un po', ok, abbiamo una sorta di menu, vedete, home, about, contact, avete visto? home, about, contact, è la stessa cosa, nella documentazione angola, che vi ho fatto vedere, cambia qua in alto, il menu resta lo stesso, e cambia il componente che abbiamo sotto, o a lato, guardate bam 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 bam, ok, quindi questa è una base del routing, cominciate a capire come stiamo avendo quasi tutti i pezzi, come creare dei menu, come mostrare i componenti, sappiamo come mandare a schermo roba dei componenti, abbiamo visto come passarci i dati, abbiamo visto come i services possono mandarci i dati, quindi potremmo avere dei dati fittizi, e mandarli in giro per l'applicazione, più avanti aggiungeremo come richiedere i dati all'esterno, eccetera, ma pian piano, i vari pezzi cominciano a connettersi, qua seguato sotto in descrizione avete i soliti link, per canale, sito, eccetera, eccetera, noi ci vediamo alla prossima, ciao ciao, episodio 24 di Angular, adesso vediamo come fare il routing, però con i parametri, routing con parametri, significa che se noi vogliamo andare ad uno specifico URL, vedete qua ho già scritto contatti, anziché contatti in questo caso non ce l'ho, però vorrei avere contatti, e poi altri parametri, in questo caso vedete qua metterei l'ID del contatto, qual è il discorso? Che noi potremmo avere la lista contatti, ma poi vogliamo cliccare su uno specifico, e quindi vogliamo andare su la nostra applicazione, slash contatti, slash l'ID del contatto, e vedere solo il profilo di quel contatto, l'esempio più palese è YouTube, se prendo il mio secondo canale, vedete qua in alto che c'è youtube.com, slash channel, e poi c'è il mio ID, se voi cambiate questo ID, vi manda chiaramente su un altro canale, e questo è un parametro, quindi channel è uguale per tutti, mentre invece questo è il parametro specifico, noi facciamo una cosa simile, ma leggermente diversa, perché non è che se scrivete channel, e basta su YouTube vi compaiono tutti i canali, in questo caso noi andremo a avere la pagina contatti, dove ci sono tutti i contatti, ma se poi mettiamo solo il contatto specifico, o clicchiamo su un solo contatto, vogliamo vedere il profilo di quella persona, ok? Io ho modificato leggermente l'applicazione off camera, per avere una partenza, quindi allora, createvi semplicemente un componente contatti, quindi ng generate component ng g c, e lo chiamate contatti dentro la cartella componenti, quindi ng, facciamo così, ng g c, componenti, slash, contatti, cancellate pure tutti gli altri componenti che avevamo, tipo prova, oppure about, contact, o quant'altro, quindi facciamo contatti, dopodiché dovreste averlo automaticamente nell'app module, verificate che funzioni, spostiamoci poi sull'app component, dove avevamo quella sorta di menu, andiamo a crearlo qua, e facciamo non slash ma contatti, e mettiamo qua contatti così, perfetto, salviamo, e ora andiamo in up routing, e andiamo a duplicare questo, e mettiamo contatti così, e qua dentro mettiamo contatti component, ok? Allora questo è quanto, e dovremmo avere il seguente risultato, quindi home o contatti, vedete? Home contatti, home contatti, perfetto, adesso cominciamo a passarci dei dati, qui ne abbiamo il nostro service, abbiamo qua tutte le persone, aggiungete eventualmente qua get persona, abbiamo get persone che ritornava persone, e poi get persona, e facciamo ritornare dis persone con l'index che gli passiamo, ok? Potete stoppare e copiare, se avete già tanta dimestichezza con javascript, non è un problema ritornare solo un indice in modo dinamico, detto questo, andiamo qua su contatti, e in ng on init, vogliamo andare a prendere i dati dal service, quindi nel constructor mettiamo private servizio prova, due punti, dovrebbe essere servizio prova service, ecco qua, e qua dentro facciamo che vogliamo prendere dis.servizio prova punto, get persone, dove lo mettiamo però perché poi vogliamo mandarlo a schermo con un ng4, quindi potremmo salvarlo in un persone così, ok? Facciamo un any, banale, se vi da problemi qua, nonostante avete messo any, andate su tsconfig, e aggiungete questa, questa riga, quindi strict property initialization, basta che cominciate a scrivere, vi faccio vedere strict, strict property initialization, lo vedete? Lo mettete come false, in questo modo, anche se andate a specificare così, ma potrebbe risultare null, typescript non vi dà problemi, è giusto usare typescript, è giusto usare i tipi di typescript, però typescript a volte, è veramente appunto strict, che in italiano vuol dire abbastanza stretto, ha tanti limiti, quindi ogni tanto allentare qualche limite, può aiutarci, soprattutto in questo caso, dove stiamo facendo un'applicazione di prova, quindi persone, e mettiamo che dis.persone, è uguale a ciò che prendiamo dal servizio prova, quindi ci spostiamo poi sul componenti qua, anziché contatti works, facciamo contatti, oppure lista contatti, e qua dentro facciamo un banale di con ng4, che sapete fare, se volete anticiparmi, vogliamo andare semplicemente a schermo, le persone, nome e cognome, e basta, quindi div ng4, benissimo, e qua dentro facciamo let persona of persone, ok, e qua dentro un banale p, con tac 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 tac, spazio tac 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 tac, e mettiamo persona punto cognome, e qua chiaramente persona punto nome, basta abbiamo finito, sistemiamo, io salvo, e il risultato è il seguente, ok, abbiamo la nostra lista contatti, un po' bruttino così, facciamo qualcosa di un po' più umano, allora, lista contatti, direi che possiamo fare un style, text transform uppercase, benissimo, e per ora va bene così, text transform uppercase, mi piace, eventualmente un margin, non margin, ma margin top di 50 pixel, niente di che, ok, quindi abbiamo tutta la nostra lista contatti, e se vado su contatti, voi vedete che abbiamo tutti i contatti, 50 sono troppi di pixel, dopo li togliamo, questi sono tutti i nostri contatti, se però io volesse andare su uno specifico contatto, che è lo 0, mi aspetterei di avere Luca Rossi, perché Luca Rossi è 0, quindi voglio fare una cosa dove clicco, e mi manda sullo 0, prima di fare il click, vediamo di mettere in check, come andare, semplicemente scrivendo qua in alto, quindi, per aggiungere il parametro, intanto togliamo il margin top, e mettiamo magari, 10 pixel, salvo, ah è così, è così grande, perché giustamente ho zoomato, giustamente ho zoomato, vabbè, comunque torniamo su up routing module, e andiamo a duplicare questo, perché? perché vogliamo arrivare sia su contatti, ma anche su contatti più parametro, quindi se io faccio così, slash id, gli sto dicendo, guarda possiamo andare su contatti, ma possiamo avere anche contatti, slash parametro, se io non salvo questo parametro, l'ho nominato io id, non è obbligatorio che sia id, chiaramente ha senso averlo id, perché è l'id, quindi comunque contatti, vi faccio vedere senza salvare, se vado su contatti, mi manda su contatti, ma se faccio contatti, slash un id, vedete che non sa come gestirlo, e mi rimanda alla home, quindi se noi adesso salviamo, improvvisamente, vado su contatti, ma poi vado su contatti, slash zero, e vedete che me lo salva, quindi adesso Angular è in grado di gestire, anche questo parametro, quello che vogliamo fare però, è riuscire a prenderlo, per prenderlo, dobbiamo gestirlo dove? nel componente, quindi in questo caso, in contatti, eccoci qua, e dobbiamo andare a lavorare con le route, ma soprattutto con activated route, quindi la route attiva la strada, che è attiva in questo momento, che sarà contatti, due punti id, perciò dobbiamo andare ad importare, private route, due punti, activated, activated route, eccola qua, e adesso vogliamo andarla a chiamare, quindi, dis.route.snapshot, quindi, è come se avesse fatto, uno screenshot, della situazione attuale, del route, va bene, perché nel momento in cui noi facciamo invio, la situazione è costante, quindi c'è, contatti, slash, l'id, quindi c'è uno snapshot, come se avesse fatto uno screen, potremmo anche chiamarlo anche screenshot, giusto per far capire, poi abbiamo paramap, vedete, quindi l'insieme dei parametri, quindi la mappa di tutti i parametri, punto get, e che cosa dobbiamo prendere qua dentro? Beh, dobbiamo prendere il nome che abbiamo dato, qua dentro, in questo caso id, pensate che noi potremmo avere anche così, nome, tac, codice, eccetera, eccetera, quindi potremmo averne molti di più, in questo caso abbiamo solo l'id, ups, ho fatto il casino, salvo, e qua, quindi andiamo a prendere id, tutta questa cosa qua, la mettiamo in un console log, per farvi vedere, che siamo riusciti a prenderlo, quindi facciamo così, io salvo, e se apriamo il console log, vedete che qua abbiamo zero, rifacciamo, allora andiamo solo su contatti normale, vedete che ci dà null, vedete contatti home, non ci dà niente, contatti ci dà ancora null, perché? Perché non ho messo nessun, nessun indice, se io faccio slash 3244, 3244, ok? Quindi questo è il discorso, siamo riusciti a prendere questo parametro, adesso, cosa vogliamo fare? Vogliamo andare a mostrare qualcosa di diverso, in base al parametro, quindi se il parametro è null, mi mandi a schermo la lista contatti, se invece il parametro non è null, vuol dire che vogliamo vedere il profilo del contatto, ok? Come facciamo? Possiamo fare una cosa del genere, tipo is profile, e lo mettiamo come boolean, facciamo dis.isProfile, è uguale a, se questo è null, quindi non c'è l'id, vuol dire che isProfile è false, vuol dire che non siamo in un profilo contatto, se invece qua abbiamo un id, vuol dire che abbiamo selezionato un profilo, perciò isProfile è true, ok? Quindi noi prendiamo questo, andiamo qua, mettiamo il punto esclamativo per negare, quindi se non ci dà un numero, dobbiamo mettere isProfile false, ok? Quindi false così, else mettiamo true, ripeto, se questo qua non ci dà un numero, quindi punto esclamativo più tutta sta roba qua, se non ci dà un numero, metti false, se invece ci dà un numero, metti true, perché vuol dire che siamo in un profilo, io ve lo dimostro con un bel console.log di quello, plus dis.isProfile, salviamo, e il risultato è il seguente, vedete? Siamo nel profilo 9 teoricamente, eccolo qua, profilo 9, quindi isProfile true, se io invece vado solo su contatti, vedete? Mi dà null, perciò non sono in un profilo, ed è false. Questa variabile, ah, e mi attacco ad una cosa, vedete come possiamo avere delle variabili all'interno dei componenti, è giusto che i componenti abbiano delle variabili, e magari queste variabili, ad esempio isProfile, magari lo possiamo passare ad un sottocomponente, col property binding, eccetera, eccetera, va bene, quindi non è che quando vi ho spiegato i services improvvisamente, soli i services hanno variabili, e i componenti non ne hanno più, ci sono delle variabili, dei dati che noi teniamo semplicemente nei nostri componenti, e che possiamo tranquillamente far girare nei sottocomponenti, oppure nei parent, ok? Ve lo volevo spiegare perché mi ha dato proprio l'occasione per farvelo, per farvelo vedere, più che altro perché sono tante cose una dentro l'altra, che non è possibile spiegare tutte in un video, a meno che faccio un corso letteralmente da 4-5 ore, completo, unico, senza dividerlo in capitoli, ma se lo divido in capitoli, queste cose si vanno ad integrare insieme, in un momento magari un po' più avanti, rispetto a quando lo spiegate, quindi per dimostrarvi la validità, a volte ripunto su, su queste cose. Detto questo, spostiamoci qua, e ne cosa vogliamo fare? Vogliamo che lista contatti più contatti, compaia semplicemente se is profile è false, ovvero è lista contatti, perciò lo sappiamo fare, e come lo sappiamo fare? Beh, possiamo avere, o mettiamo un div, oppure possiamo usare un ng template, fate come volete, uh, cos'è tutta sta roba, facciamo ng template così, e qua dentro, poi dipende da come reagisce il CSS, eccetera, quindi se poi vi da problemi ng template, potete mettere un banale div, vedete poi se ng template vi fa saltare il template del componente, eccetera, in questo caso cerchiamo di essere molto sbrigativi, facciamo un bel ng if, ng if, eccoci qua, is profile, però no, dobbiamo negare, quindi se is profile false, mi mostra il lista contatti, altrimenti, else, possiamo fare così, due punti, else, profilo, contatto, ok, l'abbiamo imparato, perciò possiamo metterci qua sotto e fare ng template, altrimenti potevamo avere qua sotto un ng if, su questo ng template, ng if, is profile true, ok, però volevo mettere in pratica questo che abbiamo visto un po' più complesso, quindi ng template, ci mettiamo qua, e gli diamo il nome di, profilo, contatto, molto bene, vedete che non ci dà problemi, e qua dentro vogliamo avere, la singola persona, perciò mettiamo, magari, una descrizione, banale, profilo, di, al momento non abbiamo, la singola persona, perciò dobbiamo andare, più avanti a sistemare sta cosa qua, però profilo di, e mettiamo, un nome a caso, qwerty, giusto per far capire che sta roba qua, è uscita, quindi io salvo, contatti, non ci dà niente, attenzione, c'è un errorino, mentre invece se vado su zero, ok, profilo di qwerty, fatemi vedere, secondo me il problema, è qua su ng template, qua ci dà problemi, qua no invece, proviamo a salvare, vediamo un po', quindi contatti, zero profilo qwerty, invece qua, ok, lista contatti, era ng template, che dava, che dava problemi, quindi ricordatevi che, potete usare, ng template, sui secondi blocchi, potrebbe essere un den, banalmente, ma qua, ng template, ci dà problemi, quindi, proseguiamo, e adesso abbiamo, sia la lista, che il profilo, però al momento, non riusciamo a prendere, il profilo, che ci interessa, quindi andiamo qua, in contatti, allora abbiamo l'id, perché abbiamo questo, potremmo anche salvarlo, quello che vogliamo però, è, dispersone, in questo caso, dispersone, se, siamo nella lista contatti, dispersone, sarà, maggiore, maggiore di zero, probabilmente, noi qua facciamo ng for, e mandiamo a schermo tutte le persone, se qua invece, noi andiamo a prendere, il solo contatto, dispersone, dovrebbe essere, uno, quindi, dovrebbe essere di lunghezza uno, e dovrebbe avere perciò, l'indice zero, quindi potremmo andare a prendere, direttamente, quello, e far sì che, persone, viene sostituito, con una singola persona, oppure, potremmo andare a creare, è il banalissimo, if, quindi, if, this, route, snapshot, eccetera, andiamo a fare qualcosa, else, quindi, se non ha, se non abbiamo l'id, facciamo qualcos'altro, quindi, potremmo dire che, this profile, potrebbe essere, in questo caso, true, vado a fare la stessa cosa, qua dentro, perché, perché tanto dobbiamo fare altre cose, quindi, ne approfitto, this.isProfile, uguale false, commento questo, e quello che voglio fare, è che, this persone, ups, non volevo rimuoverlo, volevo solo copiarlo, this persone, se abbiamo l'id, lo saltiamo un attimo, ma se non abbiamo l'id, vogliamo avere tutte le persone, altrimenti, se, abbiamo l'id, vuol dire che siamo in un profilo, this persone, è uguale, non a get persone, ma a get persona, così, dobbiamo mettere dentro, l'indice, dobbiamo metterlo, per forza, quindi, cosa andiamo a mettere dentro, andiamo a mettere dentro, questo qua, così, qua ci da problemi, perché stiamo passando, string null, a qualcosa che invece, vuole il parametro, perciò noi dobbiamo fare, un bel parse, int, così, e siamo sicuri, che gli manderà, un numero, però attenzione, perché qua potrebbe essere null, quindi dobbiamo dirgli, guarda che sono sicuro, che non mi arrivi null, in questo caso, perché tu entri qua dentro, esclusivamente, se abbiamo l'id, e l'id, non potrà essere, null, va bene? chiaramente avremo problemi, se poi metteremo un'altra, una stringa diversa dal, dal numero, e adesso lo vediamo, quindi salviamo, dobbiamo andare qua su contatti, e qui dobbiamo mettere profilo di, semplicemente persona 0, quindi prendiamo, persone, persone 0, punto, nome, ma sappiamo che se siamo nel profilo, vedete, se siamo nel profilo, sappiamo che persone, ha uno e un solo oggetto, che è all'indice 0, che è la nostra persona, che ci interessa, quindi profilo di, nome, e poi cognome, salviamo, vediamo il risultato, andiamo su contatti, slash, 0, abbiamo un problema, non riesce a leggere nome, perciò andiamo a vedere, e mandiamo a schermo, un bel console, punto log, dis, persone, magari, questi due, non ci interessano, per ora, e poi vorremmo, mandare a schermo, il nostro id, così, ok, quindi facciamo, tutta sta roba qua, vediamo un attimo, ce l'ha preso, vedete, ci arriva lo 0, e ci arriva la persona, quindi, dov'è l'errore, con tanti component, html, 8, ah ok, semplicemente ci è tornato, un oggetto, fateci caso, noi qua stiamo prendendo, l'array, mentre invece qua, non abbiamo un array, con dentro una sola persona, come avevo fatto io al ragionamento, ma abbiamo semplicemente, l'oggetto, giusto, 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 ok, quindi possiamo fare semplicemente, persone, nome, in realtà, arrivando così, potevamo fare, eh, persona, direttamente, quindi facciamolo, che ha più senso, facciamo persona, punto nome, persona, punto cognome, salvo, ci dà problemi, e qua dentro, potremmo fare, dis persone, qua invece, dis persona, così, qua andiamo a mettere, persone, e, persona, due punti, un banale, any, ok, adesso dovremmo essere a posto, cancelliamo qua, possiamo cancellare qua, e possiamo cancellare questo, molto bene, salviamo, ok, abbiamo il profilo di Luca Rossi, torniamo indietro sui contatti, proviamo a mettere il 2, che è Anna Neri, 2, perfetto, profilo di Anna Neri, per andare a completare il tutto, voglio rendere cliccabile, questi componenti qua che abbiamo, quindi questi P, devono essere cliccabili, perciò facciamolo, andiamo a mettere qua su P, un A, sappiamo già che dovevo mettere, il router link, però adesso lo usiamo, in un modo diverso, che non vi ho ancora spiegato, quindi A, router link, e qua dentro mettiamo, slash, contatti, slash, 0, in questo caso di prova, benissimo, e se io schiaccio, vedete che ci manda su Luca Rossi, chiaramente ci manda anche su Marco Verdi, ancora su Luca Rossi, perché ho messo lo 0, proviamo perciò a renderlo dinamico, prendendo l'indice, index, as, i, e qua dentro, ci buttiamo, il nostro, i così, salvo, e vedete che ci ha mandato su Luca Rossi, qua su Marco Verdi, Leonardo Querti, e Pannocchia Babbo, ecco qua, ci sarebbe un'altra versione, che possiamo utilizzare, per il router link, che al momento non vi spiego, che vuol dire utilizzare l'array, e qua dentro avremmo, slash, contatti, e poi, qua potremmo usare, i vari parametri, però non voglio entrare nel dettaglio, quindi per ora utilizziamo, questa versione, che comunque, funziona, però, per introdurre il prossimo video, vedete che qua, andiamo su, letteralmente un altro profilo, il componente è lo stesso, ma vediamo cose diverse, a noi piacerebbe, e appunto, mi serve per dirvi il prossimo video, quando parleremo, del routing, però coi figli, quindi in contatti, noi vogliamo far apparire Luca Rossi, qua, fate vinda che questa è la sidebar, e qua compare il profilo di Luca Rossi, ok, quindi anziché andare a sovrascrivere tutto qua, vogliamo avere ancora tutti i nostri contatti, e qua, il profilo, eh, laterale, va bene? Questo è quanto, sotto in descrizione trovate sempre le solite cose, sito, canale, e come supportare il canale, io vi ringrazio, e alla prossima, ciao ciao! Episodio 25 di Angular, partiamo da dove eravamo arrivati la volta scorsa, e oggi introduciamo, il routing con i children, il routing quindi con i figli, abbiamo impostato tutta sta cosa qua, perché vogliamo, dai contatti, poter selezionare il contatto, ma non vogliamo andare direttamente nel profilo, vogliamo che si apra qua a lato, il profilo effettivo, così da non uscire mai dalla pagina, perché se dovessi fare Luca Rossi, poi devo tornare indietro, Marco Verdi devo tornare indietro, invece così, io voglio schiacciare, e far sì che compaia qua a lato, fate finta, bam, Luca Rossi, bam, Marco Verdi, bam, Anna Neri, ok? Quindi tutto si andrà a svolgere dentro contatti, ma, andremo a caricare un altro componente, che è il singolo contatto, ok? oppure contatto profilo, chiamatelo come volete, e andrà quindi qua dentro, ora, cominciamo a creare innanzitutto il nostro componente contatto singolo, quindi, così, andiamo qua sotto, e facciamo ng generate component, componenti, e poi slash contatto, perfetto, l'abbiamo generato, eccolo qua, molto bene, quindi contatto, togliamo lo spec, e adesso quello che voglio fare qua in contatti, qua in contatti, è se c'è l'NG template, voglio mandare a schermo, non tanto questa cosa qua arcodata, ma il nostro contatto, quindi app, contatto così, molto bene, e, anzi, salviamo, se vado a schiacciare su Luca Rossi, vedete che contatto works, ora, voglio andare a rendere dinamica questa cosa qua, quindi voglio dire che il contatto, in realtà deve contenere questa dicitura profilo con, nome e cognome, ma in realtà anche più info, quindi come andiamo a fare, andiamo su contatto, html, togliamo questa parte qua, inseriamo questo, ci da problemi perché non abbiamo la persona, ma già sappiamo inserirlo, nel frattempo inseriamo cose di prova, quindi vorrei avere profilo di, quindi profilo di nome e cognome, profilo di nome e cognome, e poi avevamo anche il colore, giusto, se andiamo su il nostro servizio, dovremmo avere color, ok, quindi mettiamo colore preferito, e mettiamo il colore, giusto per, potremmo avere la descrizione, l'immagine di copertina, eccetera, facciamo le cose con quello che abbiamo, profilo di nome e cognome, e poi qua sotto, colore preferito, colore preferito, due punti, blu, non blu così, ma blu così, salviamo, salviamo qua, andiamo a vedere, a prescindere da dove clicco, vedete, profilo di nome e cognome, colore preferito, blu, eccellente, quindi, siamo andati, ad inserire, sempre in contatti, questo, sotto componente, quindi abbiamo già, un figlio di un figlio, perché contatti, è in app, e contatto, è in contatti, che è in app, adesso, come facciamo a mandare a schermo, queste cose qua, cioè vogliamo persona nome, e persona cognome, allora ci mettiamo qua, e a sto punto, mettiamo anche, persona, punto, colore dovrebbe essere, vediamo un attimo, color, scusatemi, persona, color, tolgo questo, e non abbiamo, persona, io salvo, mi da errore, apriamo quindi il ts qua dietro, e andiamo a creare una persona, andiamo a creare una persona, che al momento, è uguale a, nome, due punti, Luca, giusto per vedere che non è il solito rossi, e poi anziché rossi, mettiamo, qwerty, e poi, come color, andiamo a mettere, red, perfetto, qua non ho messo il cognome, scusatemi, quindi, cognome, due punti, ok, se vi faccio invio, e vado su Luca Rossi, vedete, abbiamo qua, Luca, qwerty, red, il problema che è uguale, su tutti, a noi questa cosa, non piace, quindi, come facciamo a passare, da contatti, che siamo qua, ad un children, lo sapete, lo sapete, perché l'abbiamo già fatto, ovvero, prendiamo questo, e facciamo che, persona, persona, che è questa qua, ok, quindi possiamo anche togliere, questo, mettiamolo come enia, sto giro, questa persona, sarà uguale a ciò che ricevo, in input, quindi, questa persona, property binding, è uguale a, persona, ma che persona, questa, persona, vedete, quindi questa, this persona, quella di contatti, questa qua, ci manca un ultimo pezzo, dobbiamo andare qua, a mettere, vi ricordate, at, input, così, l'errore, è scomparso, qua l'errore, è scomparso, qua l'errore, è scomparso, quindi rivediamo il giro, swap contatto, abbiamo fatto, il property binding, di persona, di contatto, se volete, lo chiamiamo, persona contatto, giusto per far vedere, dove va, quindi, persona contatto, è questa, è quando avremmo, persona contatto, ma adesso lo riporto, allo stato naturale, questo persona, invece, è la persona, dei contatti, ok, quindi torniamo indietro, persona contatto, non ci interessa, qua è tutto a posto, e qua è tutto a posto, lo portiamo dentro con un input, e se ne andiamo a vedere il risultato, andiamo su contatti, Luca Rossi, preferito blu, Marco Verdi, preferito red, Anna Neri, preferito yellow, andiamo a verificare, lo facciamo da qua, Luca Rossi, blu, Marco Verdi, red, Anna Neri, yellow, ok, quindi, tutto funziona come deve funzionare, l'unica cosa è che io non voglio continuare a switchare, voglio avere la mia lista a lato, e voglio avere i profili dall'altra parte, in modo, in modo abbastanza veloce, quindi, come facciamo? Andiamo su app routing, eccolo qua, e questo qua, lo togliamo un attimo, perché dobbiamo andare su contatti, ad inserire una nuova proprietà, che si chiama children, vado qua, e scrivo children, children è un array, quindi è un array di altri path, ve lo faccio vedere, così, quindi qua avevamo i path normali, e qua possiamo avere un array di queste cose qua, io vado qua dentro a mettere non slash contatti, perché non serve più, ma vado semplicemente a mettere id, quindi questo diventa un figlio, automaticamente prende slash contatti più id, scrivere questa cosa qua, è uguale a scrivere questa cosa qua, però sullo stesso livello, senza avere il children, se avete già lavorato con node, con il routing di node, potrebbe sicuramente aiutarvi, perché l'avevamo visto, e anche se avete fatto il mio corso sul sito, dove facciamo gli API, abbiamo utilizzato una cosa simile, quindi vedete che essendo figlio, automaticamente prende i contatti, però cosa vogliamo? Vogliamo che, se andiamo su contatti slash id, non vogliamo prendere più contatti component, ma vogliamo contatto component, ok? Vediamo il risultato che non è completo, siamo qua, Luca Rossi, non sta succedendo niente, qua in alto cambia, cambia, vedete? Ma qua? No. Quindi cosa possiamo andare a fare? Manca un pezzo, quindi noi ci spostiamo, ma in realtà questo componente non viene caricato, il componente però dove dovrebbe essere caricato? A lato, qui. Però, abbiamo ciò che ci permette di mandarlo a schermo? No, perché se ci pensate, questi qua, questi componenti vanno a schermo, perché sono all'interno di un router outlet, ma è un router outlet, che è all'interno di app component, se sono qua in contatti e siamo sempre in contatti e voglio mandare a schermo qua, ma io non ho un router outlet, come faccio? Non posso, quindi se vogliamo avere un children, dobbiamo avere un router outlet, quindi andiamo e ci spostiamo su contatti component, questa parte qua non ci interessa più, quindi per ora la commentiamo, andiamo qua e mettiamo router outlet, quindi salvo, possiamo togliere l'else, che non ci serve, mettiamo qua le virgolette, se no dà errore, e vediamo un po', abbiamo, tac, 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 ci dà errore, perché non riesce a prendere il nome, quindi contatto, component HTML, ci dà problemi, perché? Perché avendo tolto questo, noi non passiamo più app contatto di persona a persona, giusto? Non lo facciamo più, e allora cosa possiamo fare? Beh, questa parte qua che avevamo in contatti, questa parte qua degli ID, non ci serve più qua, perché noi il check, non lo facciamo più qua, nonostante ci sia tutto sto check qua, vi faccio vedere, se io riabilito anche sta cosa qua, e salvo, il check, vedete che non me lo fa più, mi dà errore, ma non mi mostra più tutto il profilo, perché noi abbiamo messo l'ID collegato a un altro componente, non è più legato a contatti, perciò non è più in grado di eseguire quell'else, questo check quindi, togliamoci di qua, questo check, dobbiamo perciò andarlo a fare altrove, quindi in ng on init, this persone, noi lo prendiamo sempre, perfetto, questa parte qua, in realtà non ci interessa nemmeno più, this profile non ci interessa più, e cosa possiamo fare? Prendiamo tutta sta roba qua, andiamo in contatto, ricordatevi che poi dobbiamo prendere anche il activated route, andiamo quindi in contatto, in ng on init facciamo sto check, chiaramente ci dà problemi, quindi private route, due punti, activated route, virgola, adesso sto solo facendo la roba, quindi poi andiamo a rivedere tutto il giro del fumo, non preoccupatevi, e poi un bel private servizio prova, è uguale a servizio prova service, molto bene, abbiamo tutto quello che ci serve, possiamo togliere l'input, e possiamo dire che dis persona è esattamente sta roba qua, is profile non ci interessa più qui, quindi possiamo fare così, benissimo, salviamo, qua dovrebbe essere tutto in check, anzi sta roba qua non ci interessa, questa cosa qua non ci interessa più, il servizio prova ci interessa per prendere tutte le persone, mentre invece nel singolo componente prendiamo la singola persona, andiamo a vedere, aggiorniamo contatti, vado qua, premo profilo di Marco Verdi, tuttavia, se continuo a schiacciare, vedete che mi dà problemi, quindi è riuscito a caricare il profilo di Marco Verdi, che vogliamo teoricamente fosse a lato, dobbiamo quindi risolvere questo problema, il motivo per cui non riesce a capire il cambiamento del parametro, vedete, non capisce, prima quando eravamo sulla stessa pagina lo capiva, quindi router link andava e cambiava il parametro, ma adesso siamo sempre sullo stesso componente, semplicemente cambia solo il parametro, che cosa vuol dire? che dobbiamo dire al componente qua sotto di aggiornarsi, quindi il componente qua sotto deve essere attento ai cambiamenti del parametro, perché vedete che io se cambio, aggiorno, scusatemi, io aggiorno, cambio la prima volta come abbiamo sempre fatto e me lo dà, ok? Perfetto, prima volta esattamente come quando siamo andati sul profilo normale, ma se io continuo a schiacciare, non va più su slash contatti, cambia solo l'id, quindi non è più un altro route come avevamo prima, non è più un altro route qua sullo stesso livello, ma è sotto, quindi il contatto component deve essere attento al cambiamento di dd, perciò dobbiamo fare quello che si chiama il subscribe, come se facessimo la sottoscrizione a Netflix, dobbiamo dirgli guarda contatto component normale, togliamo l'html, per favore stai attento ai cambiamenti, va bene? Devi stare assolutamente attento, quindi noi possiamo andare qua, e dobbiamo dirgli, innanzitutto ci conviene avere id, che è un number, e di conseguenza associamo questo a disid, quindi dis.id è uguale a questo, ci dà problemi per vari motivi, questo è uno, questo è due, e questo è tre, l'ho appena convertito in numero, facendo così, però mi dà il problema che potrebbe essere null, e così tolgo, fare questo è la stessa cosa che fare questo, parse int praticamente, è un modo un po' più figo, va bene? Voglio fare più figo, voglio fare il figo, perciò scrivo più, quindi stiamo prendendo il parametro che otteniamo, che è una stringa, ci assicuriamo che non sia null, va bene? Facciamo così, potete togliere anche ste regole da TypeScript nel caso, se vi dà fastidio far tutta sta roba qua, sul controllo del null, per toglierlo ci basta andare qua sotto, in tsconfig.json, e mettere strict null checks, mettiamo false, se non vogliamo avere punti esclamativi ovunque, guardate qua, non ci dà più problemi, ok? Quindi questo id poi lo possiamo usare qua dentro, eccolo qua, perfetto, this id, e qua siamo in check, se io salvo, il primo risultato è sempre lo stesso, l'avete già visto, vediamo su contatti, Luca Rossi, e compare, se vado avanti non succede niente, resta sempre Luca Rossi, però adesso abbiamo questa variabile che possiamo riutilizzare, quindi, in realtà questo non ci serviva nemmeno, questo if non ci serviva nemmeno, avremmo semplicemente avuto questa cosa qua, togliamola un attimo, e facciamo, this.route.parammap.subscribe, quindi andiamo a iscriverci, andiamo a fare una bella funzione, qua dentro andiamo a fare una funzione anonima, e cosa mettiamo dentro? prendiamo params, quindi sono i parametri che è di tipo param map, e qua dentro vogliamo dire che this.id è uguale a sempre un numero, params.get è questo params, che sarebbe questo param, che sarebbe lo snapshot, ok? in questo caso non utilizziamo più lo snapshot, perché ci sottoscriviamo, ho detto che lo snapshot è come uno screenshot, tuttavia sottoscrivendoci cambia costantemente, quindi andiamo a far così, togliamo questo id, abbiamo questa cosa qua, get.id, e adesso mettiamo che, this.persona, this.servizio.persona, this.id, salviamo, vediamo il risultato, andiamo su contatti normali, e vediamo Luca Rossi, Marco Verdi, Anna Neri, Leonardo Querti, Pannocchia Babbo. Completiamo velocemente però qua su, su contatti component, perché questa cosa qua io voglio metterla dentro un div unico, scusatemi, voglio fare un div così, ah scusate ho sbagliato, ok non è qua, ma è qua dentro, quindi tutti quelli che sono qua dentro devono essere un unico div, ok? quindi facciamo tac, tac, possiamo far così, e un'altra cosa che possiamo fare è un altro div così, questo perché allora era giusto, questo perché voglio avere display flex, facciamo così, perfetto salviamo, andiamo a vedere il risultato, è esattamente come prima, ma stavolta, se io vado qua, e metto che app contatti, display flex, perfetto, quindi abbiamo questa sorta di sidebar, ok? quindi abbiamo il nostro componente che si vede a lato della lista contatti, quindi se io vado qua, Luca Rossi, Marco Verdi, Anna Neri, Leonardo Querti, e Pannocchia Babbo, ok? quindi adesso rivediamo un attimo il giro, intanto vi lascio la consegna delle cose, delle cose da fare, potete aggiungere più roba alle persone, se volete mettere le persone con più dati qua dentro, potete farlo, se volete mettere Angular Material, che abbiamo già importato nel progetto, e volete fare le cose un po' più carine, potete usare Luca Rossi, potete usare le card, mettere eventualmente delle immagini fittizie, abbiamo già imparato come si fa, mettete i link direttamente dai place order di internet nell'oggetto, e li richiamate, mettete il pallino se è online e offline, e fate qualcosa comunque di carino qua, e qualcosa di carino qua, se volete mettere una descrizione o altro, questo è il lavoro che potreste fare, ma soprattutto, adesso andiamo a vedere il giro del fumo, quindi, ricapitoliamo, partiamo da contatti, Allora, contatti, abbiamo che in contatti, persona non ci serve nemmeno più, benissimo, in contatti, noi prendiamo, dis persone, da servizio prova persone, e nel nostro contatti component, lasciate perdere tutto sto giro qua, ma abbiamo qua, dis persone, le mandiamo a schermo, con scritto, nome e cognome, con il contatto che abbiamo visto prima, dopodiché, gli mettiamo il router link, e facciamo il link a contatti, più lead, come abbiamo sempre fatto, Questa volta però, abbiamo messo il router outlet, come abbiamo già visto, per app component, ovvero, questo qua, vedete, ogni volta che in un componente, volete caricare un altro componente, ma in modo dinamico, quindi non sapete se avete quel componente, o qualcos'altro, volete avere un router outlet, non solo, lo mettete quando avete dei child, quindi quando avete dei router child, cosa sono? Sono questi, in questo caso ne abbiamo contatti, perfetto, quindi contatti, siamo nella pagina contatti component, ma se poi cominciamo a andare su contatti, slash, zero, carichiamo contatti component, da una parte, e qua dentro, quindi questo è contatti component, questo è tutto contatti component, ma qua dentro, carichiamo cosa? Contatto component, e contatto component, che cos'è? Andiamo a vedere, contatto component, è semplicemente, il contatto specifico, con tutto il suo profilo, ok? Quindi qua cosa andiamo a fare? Ci andiamo a iscrivere, andiamo a sottoscrivere un abbonamento, alla mappa di parametri del route, quindi questo qua in alto, quando cambia, qua è tornato normale, perché abbiamo aggiornato, non l'ho fatto, l'avevo fatto qua su console, ok? Non preoccupatevi, potete farlo voi, niente di incredibile, quando cambia, non essendo più su un altro route, ma su un child route, dobbiamo per forza iscriverci, perché altrimenti, non cambia quello che è, di base lo snapshot del route, vi ricordate che avevamo lo snapshot, lo snapshot è sempre fisso, è slash contatti, ma qua cambia in modo dinamico, quindi facciamo la sottoscrizione, quando facciamo la sottoscrizione, andiamo semplicemente a riprendere il nostro parametro, e lo riassegniamo, potevamo buttarlo qua dentro in realtà, semplicemente vogliamo fare le cose fatte bene, più che altro ben visibili, dopodiché diciamo dis persona, ovvero dis servizio get persona, è uguale all'id, punto, e viene mandato a schermo, questo è quanto, vi ho già detto cosa fare per migliorare l'applicazione, potete farlo perché ce l'avete nelle corde, e niente, fatelo, sistematela, tutta la struttura è già, l'abbiamo già messa in place, l'abbiamo già messa a posto, adesso dovete solo andare a sistemare le piccole cose di stile, se volete aggiungere qualcos'altro, farla un po' più carina, e basta, e noi ci vediamo nel prossimo episodio, ciao ciao, episodio 26 di Angular, continuiamo la parte dedicata al routing, dovrebbe essere il penultimo episodio questo, e andiamo a parlare della gestione degli errori, e eventuali redirect, quindi, potremmo avere il famoso 404, che è la pagina non trovata, andiamolo a creare, e poi il redirect, quindi se compare 404, possiamo automaticamente poi fare il redirect, da qualche parte, ok, questo concept qua, potete comunque utilizzarlo, il redirect, anche su altri path, non siete obbligati ad utilizzarlo, solo in caso di errore, potreste anche fare, fatemi prendere qua, una home page specifica, in questo caso, e rimandare, faccio un esempio, ogni volta che andate su, vuoto, non si scrive proprio così, bisogna aggiungere delle cose aggiuntive, ma potreste poi fare il redirect, quindi qua scrivereste, poi redirect, e poi vi faccio vedere, vedete qua redirect, tu, ok, dopo lo facciamo vedere, cominciamo con l'errore, intanto, partiamo da qua, e andiamo a mettere l'errore, la prima cosa che vogliamo fare, è aggiungere un nuovo path, che non è un children di contatti, perciò non ha niente a che vedere, e abbiamo path, no, non patch, ma path, due punti, e mettiamo 404, quindi 404, che ci dà come component, non lo sappiamo ancora, perché non l'ho ancora creato, quindi andiamo qua sotto, e facciamo ng, generate component, componenti, not found, perfetto, così, molto bene, è stato creato, e noi qua ci mettiamo, il not found component, ecco qua, salviamo, togliamo qua un attimo, contatti, contatti, contatto, contatto, il servizio, chi se ne frega, andiamo qua sotto, apriamo il not found, cancelliamo lo spec, che non ci interessa, e qua dentro, mettiamo, errore, 404, ok, facciamo una cosa del genere, salviamo, e se prendiamo, la nostra applicazione, e scriviamo qualcosa, che non esiste, al momento non ci dà niente, ok, se invece andiamo qua, e scriviamo 404, vedete che ci dà, errore, 404, perfetto, adesso dobbiamo far sì, che ogni volta, che ci sia, un errore, che scriviamo qualcosa, che non è presente, venga reindirizzato, quindi, in fondo, e non lo mettiamo prima, perché vi renderete conto, che altrimenti, ci va a prendere tutti i path, facciamo path, e mettiamo, gli asterischi, due asterischi vanno bene, per indicare, qualsiasi path, che non sia tra questi, ok, e ogni volta, che andiamo a trovare, un altro url, che non è specificato qua, facciamo un redirect to, e qua dentro, tra virgolette, mettiamo, altri path, che abbiamo già specificato, in questo caso, 404, vedete, quindi se è qualcosa, che non è specificato, mi mandi su, not found component, vediamo, proviamo ad andare su, ad esempio, about, e vedete che ci rimanda, su 404, ok, se proviamo ad andare, su clienti, non ci fa andare, se andiamo su contatti, ci manda contatti, questa è la cosa che abbiamo fatto, home, è tutto a posto, ok, quindi questa, è la super base, per gestire gli errori, che può essere 404, oppure, qualsiasi altra cosa, potreste aggiungerne altre, se volete mostrare a schermo, altri errori, potete assolutamente farlo, per riprendere il discorso, di prima della home, vi faccio vedere, noi potremmo avere qua, home page, home page, e qua in alto, sul vuoto, dobbiamo andare a dire, che se è vuoto, mi fa il redirect, direttamente, sull'home page, ok, è una cosa, che possiamo fare, al momento a noi non serve, perché abbiamo strutturato, l'applicazione, però ve lo faccio vedere, perché quando diventeranno grandi, quando avete magari, certi tipi di progetti, potrebbe servirvi, perciò ve lo faccio vedere, perché non ci costa nulla, facciamo slash, dovrebbe essere home page, salviamo, manca solo un pezzo, che è il path match, path match, vuol dire che, il path, che è questo qua, che scriviamo, deve coincidere, con vuoto, quindi deve essere solo, la nostra applicazione, tipo punto com, o quello che è, altrimenti a volte angular, in certe situazioni, potrebbe prenderci, anche altre cose, potrebbero essere i parametri, che non abbiamo gestito, o altre situazioni, in questo caso, mettiamo full, perfetto, andiamo quindi, a fare un controllo, e se io vado, su qualcosa, che non esiste, mi manda su 404, ma se vado, sul nulla, mi rimanda, sul home page, va bene, questo, è quanto, non è niente di che, lezione, molto breve, fate la vostra, provate a rifarlo da zero, non c'è niente di che, mi raccomando, non mettete, questo qua, vi faccio vedere, davanti, altrimenti abbiamo un problema, salvo, perfetto, vedete, anche se siamo in home, non mi fa andare, perché, perché qualsiasi cosa, me lo prende come un redirect, al 404, quindi mi raccomando, utilizzate i due asterischi, come ultima spiaggia, deve essere proprio, l'ultimo path, altrimenti, qualsiasi cosa avete, coincide, se lo mettete davanti, coincide con questo, questo è quanto, sotto in iscrizione, trovate link al secondo canale, sito, e come supportare il canale, io vi ringrazio, alla prossima, ciao ciao, episodio 27 di Angular, oggi vediamo, come possiamo proteggere, i vari route, che abbiamo creato, allora, abbiamo home, e contatti, se vi ricordate, e qua dentro, io posso navigare, tranquillamente, e vedere qualsiasi cosa, posso stare, sia nell'home page, che nei contatti, che andare sotto, e vedere i vari dati, quello che ci interessa, è capire, come possiamo, in questo caso, avendo solo la home, e i contatti, bloccare contatti, nel senso che, finché non sei, tra virgolette, loggato, ok, faremo una cosa, molto fittizia, non puoi accedere, ai contatti, questo concept, è sì, per i login, ma potrete farlo, su altri, tipi, di situazioni, pensate, se avete, un gestionario, una dashboard, non potete andare, in certe situazioni, o non potete vedere, magari i dati, cliccando qua, del child, se non avete, un particolare tipo, di ruolo, ok, quindi, le applicazioni, sono effettivamente, di più di quello, che vi faccio vedere, ma rende molto l'idea, il login, perciò andiamo a vederlo, quindi, la prima cosa, che dobbiamo fare, è creare, un out service, quindi andiamo a creare, un servizio, di authorization, authorization, ecco perché si chiama out, lo vedrete in giro, spesso e volentieri, out token, out service, sarà tutto out, va bene, quindi ci mettiamo qua, e facciamo ng generate service, e potremmo creare, una sottocartella, che è out, possiamo farla, non è un problema, crea cartella, out, comunque vedete, già quante, quante cose, che si vanno a creare, in un'applicazione angular, come vedete, abbiamo un servizio, con cartella direttive, con cartella componenti, abbiamo quattro componenti, di cui uno è un child, tra l'altro, insomma c'è, veramente un po' di roba, come potete vedere, quindi le applicazioni angular, diventano velocemente, piene di cartelle, di file, e quant'altro, abituatevi, e soprattutto, cercate di essere, il più precisi possibile, con i nomi, se qualcosa è un service, mi raccomando, chiamatelo service, chiamatelo col nome giusto, è un service di passaggio dati, dei clienti, delle fatture, che cos'è, cercate di essere specifici, a riguardo per la vostra sanità mentale, quindi, ng generate service, out, e si chiama out, ok banalmente, quindi facciamo yes, in realtà, potevate metterlo anche, nei services, ma tendenzialmente, si cerca di avere, tutta la parte di autorizzazione, vicina, ok, quindi abbiamo qua, il nostro servizio di login, stiamo letteralmente, facendo finta, che andiamo a prendere, i dati per, per il login, ma non lo faremo ancora, lo faremo più avanti nel corso, al momento, facciamo finta, e facciamo che il risultato, is logged in, al momento, può essere false, dopo lo metteremo true, e andiamo a creare, un metodo fittizio, che è, is authenticated, authenticated, ups, authenticated, ecco qua, io apro, e fa semplicemente, il return, di this, punto, is logged in, in realtà, in una situazione, vera, useremo, probabilmente, le stesse cose, ma, nel mezzo, c'è effettivamente, la verifica, del login, ok, quindi, questa è la prima parte, abbiamo creato, l'out service, quello che ci interessa, è appunto, il ritorno, quindi faremo finta, di essere loggati, o meno, adesso arriviamo a creare, la guard, effettiva, quindi la guard, che sarebbe la guardia, andiamo a farlo prima, ng, generate, guard, non vi dico di fare g, ng, g, g, a perché non si capisce niente, e b perché non sono sicuro, che guard, g solo venga preso, probabilmente sì, ma non sono sicuro, se volete testarla, io non lo faccio, giusto per non rovinare il video, sempre in out, e noi andiamo ancora a premere out, quindi abbiamo fatto la stessa cosa, abbiamo solo cambiato una g con una s, ok, allora, che interfaccia, vogliamo andare ad implementare, ci chiede, vedete, a noi interessa, can activate, poi abbiamo altre cose, si può essere caricato, si può essere disattivato, activate child, visto che abbiamo anche il child, di contatti, in questo caso noi banalmente, can activate, perfetto, andiamo a togliere lo spec, e vedete che abbiamo out guard, eccola qua, allora, out guard, come potete vedere, ci dà un po' di roba, allora, il ritorno, della funzione, a noi non interessa, in questo caso possiamo saltare, non è un problema, abbiamo una cosa del genere, vi faccio rivedere, scusatemi, questo è il tipo di ritorno, della funzione, vedete, quindi qua vi dice che, can activate, ritorna una cosa, che è un observable, boolean, oppure urtree, oppure una promise, eccetera, eccetera, visto che è troppo lungo, noi a sto giro lo leviamo, e basta, ok, quindi che cosa abbiamo, abbiamo un injectable, ok, quindi può essere ingettato, come un banale service, andiamo qua ad implementare, altra roba, in questo caso qui, non ci serve, questo non ci serve, andiamo ad importare, cose importanti, per quanto riguarda, i route, ok, tra cui, can activate, quindi è una banale classe, che abbiamo chiamato outgar, che implementa, can activate, can activate, ha il suo metodo, e va a prendere, il, lo snapshot, della route, attiva, e dopodiché abbiamo, router state snapshot, quindi abbiamo la route effettiva, e lo stato, in essere, del, della route, ok, dopodiché, ritorna true, quello che vogliamo fare, in realtà, è importare, nel costruttore, il nostro servizio, quindi constructor, noi non abbiamo mai importato, un service in un service, però non è diverso, da, da importarlo in un, in un componente, ecco perché non ve l'ho mai spiegato a parte, quindi, facciamo così, facciamo out, service, vedete, niente di, niente di incomprensibile, e adesso, dobbiamo avere qua, il nostro corpo della funzione, e siamo a posto, quello che vogliamo fare, è, qua, dove c'è, return true, in realtà, vogliamo, ritornare, se is authenticated, ok, quindi vogliamo ritornare, return, this.outservice.isauthenticated, così, perfetto, quindi va a prendere il login, e ci fa sapere, se, è effettivamente, connesso, chiaramente sarà, un po' più complesso, quando andremo a creare un'applicazione, pseudo realistica, però, al momento, va bene così, quindi noi salviamo, adesso, ci spostiamo, sul routing, e andiamo su contatti, dove andiamo, ad inserire, qua, prima di children, eccoci qua, andiamo a mettere, can activate, eccolo qua, can activate, accetta, che cosa? accetta un array, vedete qua, can activate, accetta un array, quindi noi andiamo a mettere, l'array, e qua dentro, andiamo a mettere, out, dov'è? out, guard, così, quindi gli stiamo dicendo, che questo componente, si può attivare, solo se out guard, ci restituisce true, quindi noi salviamo, ci spostiamo qua, proviamo ad andare su contatti, e vedete che non mi fa andare, su contatti, va bene? non posso proprio, cioè posso cliccarlo, ma non mi fa andare su contatti, viceversa, nel momento in cui, io faccio passare, sul service, il login, come true, facciamo così, abbiamo che posso andare, su contatti, ok, e ho accesso, a tutto, va bene? facciamo adesso un'aggiunta, e magari aggiungiamo un ruolo, per vedere o meno, i contatti, li possiamo vedere tutti, se siamo loggati, e adesso siamo loggati, ok, vedete che mi posso spostare, ma voglio far sì, che possiamo vedere, solo il child, del, del nostro componente, esclusivamente, se abbiamo un ruolo aggiuntivo, perciò, noi torniamo qua, su outguard, e facciamo virgola, can activate child, molto bene, dobbiamo implementarlo, quindi correzione rapida, implementa, prendiamo can activate child, che mettiamo sotto, giusto per una questione mentale, perfetto, sistemiamo, e abbiamo un po' di roba, come ritorno, a noi non interessa, lo sapete, a sto giro non interessa, questo non ci interessa, e andiamo a fare un bel return, di, this out service, punto, in realtà andiamo a mettere un ruolo, quindi su out service, andiamo a creare, is, admin, ok, quindi apriamo qua, e facciamo return, this is, admin, che non c'è ancora, perciò lo creiamo, is, admin, uguale, false, molto bene, e io ho sbagliato qua, perché ho messo due volte lo stesso nome, e potremmo fare, is, role, admin, così ci ritorna, is, admin, va bene, noi salviamo, e qua, return this out service, is, role, admin, quindi ce lo ritorna, noi siamo contenti, e adesso, can activate child, funziona solo se, il role è admin, quindi è true, perciò noi andiamo su, qua, up routing, e qua sotto, andiamo a mettere, can activate child, eccolo qua, e che cosa mettiamo, andiamo a mettere, out guard, e noi, dovremmo essere, a posto, perciò salviamo, andiamo a vedere, possiamo andare in contatti, ma, non ci fa vedere, chiaramente, i profili, dei contatti, perché? perché non siamo admin, quindi, cosa potremmo fare, possiamo andare a prendere, il nostro out guard, scusatemi, il nostro out service, e dire che siamo, admin, perfetto, torniamo qua, e improvvisamente, torniamo indietro qua così, ed improvvisamente, vedete che posso, vederli, ok? Questa cosa, può avere molto senso, perché magari, potremmo gestire la cosa, in due modi, nel senso che, potremmo avere, nel component contatti, aspettate che lo prendo, component contatti, potremmo avere una cosa, del tipo che, oppure, scusatemi, in component contatto, potremmo andare a prendere, tramite un service, il ruolo, dell'utente, e se il ruolo è admin, o meno, togli i bottoni, di modifiche e quant'altro, però magari noi non vogliamo nemmeno far vedere i dati, vogliamo far vedere a tutti la lista, in questo caso questa, ma non vogliamo far vedere i dati, quindi un modo che possiamo fare è, o nascondere il componente, se il ruolo è admin, e basta, lo facciamo proprio nel componente, oppure, ce l'abbiamo, possiamo farlo appunto, tramite il routing, perfetto, quindi, questo è quanto, lezione breve, ma non, trascuratela, perché è importante, rivediamo velocemente il giro, quindi, fatemi togliere tutto qua, allora abbiamo il nostro out service, che è banalissimo a sto giro, facciamo finta che abbiamo preso, la persona, abbiamo fatto il login, e quindi una volta che è autenticato, ci dice che è autenticato, e non solo, è in grado di trovare, il se admin o meno, quindi, prendiamo l'utente, facciamo il login, se admin sì, se è loggato sì, ok, perfetto, abbiamo i metodi per recuperarle, queste informazioni, non è un problema, in realtà sono pubbliche, quindi potevamo farlo, però, cominciamo a programmare come si deve, e utilizziamo i metodi relativi, a sto giro, abbiamo creato poi un out guard, che implementa, che è una banalissima classe, che può essere ingettata, vedete, banalissima classe, anzi un service, in cui implementiamo due interfacce, canactivate e canactivate child, se non vi serve canactivate child, potete toglierlo, canactivate, ci permette, di attivare, un particolare, una particolare route, esclusivamente, se ritorna true, quindi voi potete avere, un po' di logica, e poi dentro, true, in questo caso, is authenticated, allo stesso modo, andiamo a prendere, is role, admin, tutto sto guard, dove lo andiamo a buttare, lo andiamo a buttare, sul routing, e diciamo, guarda, mi puoi attivare, questo route, solo se, out guard, canactivate, non c'è bisogno, che lo specifichiamo, perché qua, canactivate, canactivate, angular è in grado di capirlo da solo, ok? Mentre invece qua, out guard, canactivate child, se io apro, c'è, canactivate child, ok? Quindi, angular fa da solo, fa tutto, e poi avete visto, che ci dà più o meno, più o meno, i permessi, in base al nostro stato. Questo è quanto, sotto in descrizione, trovate sempre, le solite cose, per supportare il canale, eccetera, mi raccomando, fate delle prove, cioè provate a cancellare, tutto quello che ho fatto, in questa lezione, e provate a farlo da solo, per il principio, che vi ho detto un'altra volta, che angular, è un insieme di operazioni, da fare su più file diversi, quindi volete mettere out guard, perfetto, sono almeno, un file, out guard, probabilmente dei dati, che arrivano da un service, due file, andare poi a modificare, un altro file, che è l'up routing, che dovete mettere, qualcosina, quindi imparate sempre, il giro del fumo, imparatelo, più volte lo farete, più vi resterà in testa, chiaramente fatto adesso, in pratica, molte più cose da tenere in considerazione, però almeno cominciate, a stamparvelo in mente, questo è quanto, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao, episodio 28 di angular, oggi parliamo degli observables, che cosa sono, perché, vediamo come crearne uno, eccetera, in realtà, diciamo che, a questo livello che siete, potrebbe non interessarvi, ma ne approfitto, perché in realtà, l'abbiamo visti, l'abbiamo già visti, e ci stavamo lavorando, motivo per cui, fare una digressione, non è un problema, se la cosa, fa fatica ad starvi in testa, è uno di quegli argomenti, che potete saltare, però quantomeno provateci, se noi andiamo su, contatto component, abbiamo fatto il subscribe, e abbiamo fatto il subscribe, a qualcosa, cioè abbiamo fatto una sottoscrizione, a qualcosa, che deve ancora avvenire, o che avviene, ogni tot, in questo caso, il cambio, di parametro, nelle applicazioni, slash contatti, slash, l'id, ok, però, che cosa stiamo aspettando, cioè stiamo, osservando qualcosa, e ci stiamo sottoscrivendo, al cambio, se noi andiamo qua, su param map, guardate un po', abbiamo un observable, che ci restituisce, una, param map, quindi in realtà, quello che stiamo facendo, è, sottoscrivere, un abbonamento, come vi dicevo, a Netflix, e dire, ok, io adesso mi sottoscrivo, a questo observable, e l'observable, sta lì, aspetta, che cosa fa, osserva, d'altronde, tu observa, vuol dire, osservare, quindi sta lì, osserva, e ogni volta, che succede qualcosa, ci restituisce, la param map, giusto, sì, perché è questa, da cui poi possiamo prenderli, di, quindi, è come se noi, andassimo, in un bar, ci sottoscriviamo, all'ordinazione, quindi facciamo, l'ordinazione, e, sottoscriviamo, restiamo lì, quando poi arriva, sappiamo che arriva, un dato di tipo, ordinazione, che può essere dentro, qua, il parametro può cambiare, può essere 0, 2, 3, da noi invece, il parametro che arriva, può essere un caffè, un cappuccino, una brioche, e quant'altro, non so se, se ho reso l'idea, quindi, andiamo in, app component, e andiamo a creare, un esempio, di, observable, quindi lo facciamo, in due modi diversi, prima utilizziamo interval, che ci aiuta tanto, e poi lo creiamo noi da zero, allora, la prima cosa che vogliamo fare, è utilizzare interval, e vedete che interval, ci parla di, rxjs, non so se, vedete qua so, vedete, non riesco a passare sopra col mouse, perché passa oltre, anzi qua, qua si vede, rxjs, quindi gli observable, non ci vengono dati da typescript, o da javascript, ma ci vengono messe a disposizione, da rxjs, che è una libreria, fatta apposta, costruita su, su javascript, che ci permette di avere, questo genere di, di funzionalità, e rxjs, è implementata poi in angular, e la useremo in modo massivo, quindi, se io faccio interval, di rxjs, guardate un po', viene importato da rxjs, automaticamente, angular, lo sa già, quindi ne facciamo interval, e qua dentro, buttiamo, un periodo di tempo, quindi ogni quanto, vogliamo che faccia qualcosa, in questo caso, mille, millisecondi, quindi mille millisecondi, sono un secondo, e che cosa otteniamo? Otteniamo un observable number, quindi vedete, se noi, otteniamo un observable, che cosa possiamo fare a questo observable? possiamo tranquillamente, sottoscriverlo, ma prima, voglio farvi vedere, il nostro console.log, voglio farvi vedere, che cosa ci arriva da questo, che cos'è questo interval, quindi facciamo così, facciamo in, facciamo salva, e se apriamo, vedete qua, ho un observable, quindi apro, posso sottoscrivere, tra virgolette, l'abbonamento, di cui vi parlavo, ma, oltre questo, non abbiamo, poi, il risultato, che ci aspettiamo, questo perché è l'observable, è così, finché non restituisce qualcosa, quindi, cosa possiamo andare a fare? Possiamo andare a fare il subscribe, quindi ci iscriviamo, perciò, appunto, subscribe, abbiamo detto, che ci ritorna, un number, vedete qua, ci ritorna un number, perciò sappiamo, che ci ritorna, un numero, in questo caso, e noi, andiamo, a mandarlo a schermo, quindi console.log, e mandiamo a schermo, il nostro numero, ok? La cosa che abbiamo fatto qua, non è diversa, da quello che abbiamo fatto qua, fateci caso, qua abbiamo una riga in più, ma avevamo, il nostro observable, ok? Abbiamo fatto il subscribe, abbiamo preso un parametro, e in questo caso, quando lo mandiamo a schermo, qua sì, non c'è differenza, quindi salviamo, e guardate un po', 0, 1, 2, arriva sempre dal nostro observable, perché interval, è una funzione di RxJS, che, ogni secondo, in questo caso, ci ritorna il numero, e va a fare un count, quindi parte da 0, 1, 2, 3, e ci dice, quante volte, ha ripetuto l'intervallo, ok? Molto semplice, ora però, voglio andare a, crearne uno da 0, quindi questo interval, in realtà, come funziona? Perché ci restituisce, un observable, ma come si crea, un observable, in realtà? Proviamoci, allora commentiamo questo, e proviamo a creare, la stessa cosa, in puro javascript, con quello che abbiamo, a nostra disposizione, facciamo new, observable, ecco qua, e qua dentro, andiamo a creare, il nostro observable, innanzitutto mettiamo, un observer, observer, eccolo qua, e qua dentro, apriamo, creiamo, il conteggio, quindi let count, che abbiamo visto prima, perfetto, e adesso dobbiamo settare, l'intervallo, ma lo settiamo, con ciò che abbiamo, in javascript, perciò set interval, facciamo così, e se io vado qua, apro, e qua dentro, vado a fare, observer, punto, next, questo observer, è ciò che effettivamente, osserva, ed è ciò che ti dice, ok vai avanti, ok stoppati, ok passa la prossima iterazione, non so se ho reso bene l'idea, è una cosa abbastanza astratta, a questo livello, comunque l'observer, è ciò che tiene, in realtà, il conteggio di tutto, ci dice, ok c'è un nuovo evento, fai partire un nuovo evento, vai avanti, stoppati, blocca tutto, ok quindi in questo caso, abbiamo fatto next, perché vogliamo andare avanti, una volta che facciamo next, stiamo buttando fuori, sta di base buttando fuori, il valore, ok diciamo next, passa alla prossima iterazione, e butta fuori il valore, in questo caso però, vogliamo anche aumentare il valore, perciò count, plus plus, è ben detto che lo facciamo, ogni mille secondi, questo è un observable, però dovremmo, tecnicamente, sottoscrivere, perciò, facciamo la stessa cosa qua, prendiamo subscribe, facciamo così, e io tolgo qua i commenti, sistemiamo, e vediamo se abbiamo la stessa cosa, vedete che qua è commentato, perciò arriverà solo da qua, il console log, salviamo, e vedete, che otteniamo, la stessa cosa, quindi, setinterval, è già, una funzione, che restituisce un observable, qua l'abbiamo creato noi, abbiamo creato, un observable, e gli abbiamo detto, guarda mi crei, un nuovo observable, questo è l'observer, ed è questo, a cui ci sottoscriviamo, è lui che dice, ok, manda fuori il valore, ok, passa la prossima iterazione, ok, stoppati, ok, c'è un errore, va bene, è lui che si occupa di tutto, è questo observer, qua abbiamo fatto, il setting interval, normalissimo, e ogni secondo, facciamo next, quindi vai avanti, e mi butti fuori il valore, ok, qua semplicemente, stiamo tenendo il conteggio, appunto, e qua abbiamo fatto, la sottoscrizione, parliamo di unsubscribe, perché sorge un problema, per far vedere questo problema, mi tocca però, cambiare la collocazione, del nostro observable, e qua in app, non va bene, devo farvela vedere, in un componente, che continua a cambiare, l'home component, secondo me, va più che bene, quindi togliamo questo, e io vado qua in home component, facciamo così, e faccio la stessa cosa, anziché prendere, l'observable che abbiamo fatto noi, prendiamo l'interval, e spostiamoci, dove c'è, l'home component, inseriamolo qua, togliamo il commento, salviamo, e vediamo cosa succede, qua innanzitutto abbiamo un problema, non è, che risolviamo con correzione rapida, facciamo un import da RGJS, e vediamo il risultato, così capiamo il problema, ed ecco qua, vedete che io sono in home, e parte l'observable, sull'interval, fin qua, nessun problema, io però mi sposto in contatti, e l'observable va avanti, però io non sono più in home, quindi teoricamente, non avrei più bisogno, di dell'observable, non sono più in home, vabbè, torno indietro, e vediamo cosa succede, ne parte un altro, com'è possibile, a me ne serviva uno, che fosse solo quando sono in home, adesso questo qua parte, anche quando resta attivo, anche quando sono in contatti, e in più ne è partito un altro, vallo su contatti, torno indietro, ne parte un terzo, questa cosa qua, è, un problema di ottimizzazione, ed è uno dei motivi, per cui potreste prosciugare, letteralmente, le risorse che avete a disposizione, e di conseguenza, abbiamo un problema di performance, nella nostra applicazione, e quindi non possiamo lasciare, delle cose a cui siamo sottoscritti, così, senza poi, annullare l'abbonamento, è come se noi, ci dimenticassimo di Netflix, e lasciassimo Netflix andare, per il resto della nostra vita, dobbiamo controllare, ogni mese, sì, ok, è partito l'abbonamento a Netflix, ma sappiamo, che è attivo, e diciamo, ok, lo facciamo andare avanti un altro mese, ok, lo facciamo andare avanti un altro anno, ma lo sappiamo noi, ogni volta lo controlliamo, non che ce ne dimentichiamo, e tra dieci anni, abbiamo speso, diecimila euro di Netflix, credo, senza averlo mai visto, perché ce ne siamo dimenticati, quindi, quello che vogliamo fare, è l'unsubscribe, però, io non posso fare l'unsubscribe, qua, ho bisogno di salvare, questo riferimento, da qualche parte, lo salviamo in una variabile, quindi potremmo fare, sottoscrizione, sottoscrizione, perfetto, che mettiamo di tipo, any, per ora, potreste mettere, observable, chiaramente, potreste mettere, observable, perché c'è, però in questo caso, mettiamo any, e qua andiamo a dire, che dis.sottoscrizione, è uguale all'interval, e adesso, possiamo andare a fare, l'unsubscribe, ma dove lo facciamo, lo facciamo, quando usciamo dal componente, ma quando usciamo dal componente, tanto guardate qua, che continua a andare il, il conteggio, usciamo dal componente, quando cambiamo pagina, quindi, sul ng on destroy, quindi ng on destroy, che non troverò qua, se non l'importo, quindi implements on destroy, eccolo qua, noi lo importiamo, benissimo, lo prendiamo da qua, togliamo così, lo mettiamo qua, e noi sull'on destroy, vogliamo prendere dis.sottoscrizione, e fare punto, unsubscribe, non ce lo, non ce lo segnala, perché abbiamo fatto any, capite che any, non è in grado di percepirlo, perciò any, per lui è tutto, se avessimo messo observable, sarebbe stato in grado di, di aiutarci, quindi se avete l'observable, poi vi da lui unsubscribe, a questo giro abbiamo dovuto mettere a mano noi, per il fatto che abbiamo any, quindi, salvo, vediamo un po' il risultato, sono in home, parte, 0, 1, 2, 3, vado in contatti, finisce, torno in home, riprende, perfetto, vado in contatti, finisce, qual è il fatto? Che se creiamo noi, qualcosa che dà un observable, e vogliamo, poi passare oltre nei vari componenti, dobbiamo tenere a mente questa cosa, dobbiamo fare l'unsubscribe, fortunatamente per situazioni come, qua a contatto, non abbiamo fatto l'unsubscribe, perché? Perché in realtà, essendo, eh, impacchettato direttamente con Angular, Angular tiene già in considerazione questa cosa, quindi ci risparmia questo problema, altrimenti avremmo dovuto fare una cosa del genere, avere qua, dis, sottoscrizione, sottoscrizione, fatemi scrivere a caso, non è un problema, dis, sottoscrizione, e poi qua engine destroy, ma tanto è una cosa che Angular ci mette a disposizione, perciò se ne occupa lei in background. Quindi, questa era un'introduzione all'observable, ve l'ho fatta non tanto per farvi creare i vostri observable, che al momento potreste non necessitare, ma più che altro perché l'abbiamo visti, qua, l'abbiamo visti, quindi gli observable esistono, e volevo darvi una spiegazione su cosa fossero, in realtà potevate già intuirlo, perché abbiamo un observable, e facciamo la sottoscrizione, sapreste usarlo anche senza capire che cos'è, però quando le cose si fanno un po' più complesse, se dovete creare qualcosa di vostro, almeno adesso avete la conoscenza per farlo, poi magari dovete rivedere la documentazione, perché vi sarà passato di mente, se non lo utilizziamo, però quantomeno è lì, quando poi ripasserete, ah ok, questa cosa la sapevo già, va bene? Questo è quanto, sotto in descrizione trovate link al secondo canale, sito e come supportare il canale, le solite cose, io vi ringrazio, alla prossima, ciao ciao! Episodio 29 di Angular, oggi cominciamo a parlare dei form, e lo facciamo parlando di template driven form, quei form che vengono gestiti tutti a livello template, abbiamo poi possibilità di lavorarci anche con TypeScript, ma di base il form viene costruito e gestito a livello template, ovvero nell'HTML, mentre invece nel prossimo episodio vedremo i reactive form, che sono form che vengono prevalentemente costruiti e gestiti lato TypeScript, va bene? Quindi sono due tipi diversi, non fatevi fregare, potete usarli entrambi, ok? Semplicemente partiamo da questo. Allora, obiettivo numero uno, creare un form, ma noi per questo motivo andiamo a rubarli da Angular Material, quindi piuttosto che fare quello schifo di form basico che abbiamo, perché non utilizzare Angular Material che abbiamo già installato, se voi andate su Form Field, ecco qua, andate su API, e prendete Mat Form Field Module, passiamo di qua, apriamo App Module e lo mettete qua sotto, vedete? Sotto. E poi prendetevi anche i Mat Select Module, li prendete entrambi e li sbattete qua, vedete? Avevamo già gli input, button card, eccetera, se poi vi mancano dei pezzi, tornate su Angular Material, prendete il componente che vi serve, API, importate e importate qua dentro, quindi abbiamo preso Form Field e eventualmente anche la Select, ok? Quindi API Select. Torniamo su Form Field e andiamo a copiare qualcosa, giusto per cominciare. Questo qua mi piace, Simple Form Field, vediamo un po', bello il codice, possiamo copiarlo, a livello TS non c'è niente, mentre a livello CSS dobbiamo semplicemente prendere una base per averlo in display flex column, va bene, perciò noi andiamo su, possiamo chiudere anche questo onestamente, andiamo su Home Component, facciamo così, abbiamo il nostro form lato HTML, copiamo poi la parte CSS, io mi dimentico sempre che posso fare così, mannaggia me, vedete qua che già intanto sta comparendo, zoom un pelino, giusto per far vedere un po' di più, e poi CSS, incollate e siamo a posto, ok? Quindi abbiamo la nostra base, se però andiamo a vedere quello che è il codice, manca effettivamente il tag form, abbiamo il matformfield, ok? C'è il campo, ma non abbiamo il form, quindi cominciamo mettendo il form qua, e andandolo a chiudere qua sotto, per ora abbiamo un banalissimo form, il fatto che noi vorremmo innanzitutto comunque fare il submit, quindi ci manca un bottone di submit, potreste avere qua il button, potreste mettere qua un input type submit, eccolo qua, oppure possiamo far così, torniamo su angular material, andiamo su buttons, ne scegliamo uno che ci può piacere, raised primary, mi piace, è sempre lui, quindi qua sotto, raised primary, eccolo qua, andiamo nel componente, facciamo così, e poi in type, mettiamo submit, salviamo, scriviamo anche qua submit, anzi facciamo invia in italiano, salva, e il risultato è il seguente, adesso ci da problemi, perché? Perché abbiamo rovinato il tutto con il tag form, eccolo qua, vedete? ci basta prendere questo display flex, ci basta semplicemente andare qua e mettere display flex, con flex direction column, eccolo qua, copiate sta roba qui, in realtà non c'è nemmeno bisogno, andiamo qua su home css, potete fare semplicemente anziché host, facciamo form, ok, stesso risultato, yes, stesso risultato, perfetto, non serviva tutto quel giro, casomai potremmo dargli del margin laterale, del padding se volete un po' più al centro, ma non è un problema per quello che dobbiamo fare, allora se andiamo qua su console, abbiamo degli input, scriviamo roba, selezioniamo prima opzione, seconda opzione, scriviamo qua, faccio invio, non succede assolutamente niente, come mai? proviamo a tornare su home component html, proviamo a mettere input type submit, magari abbiamo sbagliato nel qualcosa, quindi facciamo così, proviamo a far così, e se noi torniamo qua, tac tac tac, tac tac tac, tac tac tac, non cambia assolutamente niente, cosa sta succedendo? sta succedendo che noi avevamo fatto già giusto in principio, semplicemente il nostro form non è collegato a nessuna azione, se ci pensate, non ha neanche un method, ma sono cose che qua non ci interessano su Angular, perché non è più il classico form html che viene inviato automaticamente ad una pagina, se vi ricordate, i form sono così, form action method, ok? qua non ci interessa, perché qua il form viene trattato semplicemente per quello che è un form, quando poi andiamo a inviare, i dati noi li salviamo qua dentro, cioè li prendiamo qua dentro, e da qua fate finta che abbiamo on submit, che faremo per davvero, on submit, andremo poi a prendere il nostro service che manda i dati, quindi service punto manda, adesso ho preso service worker, non preoccupatevi, manda dati, quindi noi prenderemo i dati, prendi dati form, e questi dati form, così, prendi dati form, e questi dati form, poi li mandi con il service al back end, ok? questo è il giro del fumo, perciò tutta quella parte là a noi non ci interessa assolutamente, ed è importante cominciare a capire su quanti livelli lavoriamo, perché pensate che è puro, puro javascript come stiamo lavorando, abbiamo il form, va bene, abbiamo il form, lo metto qua sotto mentre parlo, giusto per farvi vedere, sì abbiamo il form, ma il form non è effettivamente collegato ad una pagina, non manda ad una pagina, un form è solo un form, noi mettiamo dentro i dati, dopodiché facciamo invia, prendiamo questi dati, chiamiamo il service che manda poi effettivamente i dati, gli ributtiamo nel service, il service chiamerà tramite un modulo che impareremo breve che è l'http, manda poi i dati al back end, il back end li lavora, li salva, ci restituisce indietro la risposta, questo è il giro del fumo, cosa che è leggermente diversa in pur html, perché generalmente si lavora subito con php, quindi abbiamo il form che manda ad una pagina php, che risiede nello stesso posto della pagina html, è sempre nello stesso server, qua invece abbiamo due applicazioni totalmente diverse, abbiamo l'applicazione front end e l'applicazione back end, quindi leggermente diverso rispetto ai classici siti web, e se arrivate proprio da quel mondo, bisogna fare un po' di fatica ad abituarsi, in realtà ci vuole poco, detto questo abbiamo il nostro form e l'abbiamo creato, dobbiamo mettere qua dice riferimenti ng, sono stato abbastanza vago, ma ng cosa vuol dire? Se vi ricordate vuol dire angular, perché al momento questo form lo vedete è quasi un banale form html, che però non fa niente del form html, e in più non fa niente a livello angular, come facciamo a renderlo effettivamente utilizzabile? Innanzitutto diamogli un nome a questo form con la variabile template, io vi ho detto qualche video fa che saremmo arrivati a questo punto, che avremmo utilizzato le variabili template, i riferimenti per far cosa? Per andare a dare dei nomi a questi maledettissimi form, che poi avremmo potuto richiamare, potete richiamarli col view child, ma li richiameremo qua dentro nel template, perciò facciamolo, e lo chiamiamo magari, siamo qua in home component, potremmo chiamarlo home form, potete chiamarlo anche semplicemente f form, fate come volete, voglio essere un po' più lungo, quindi home form, e basterebbe così, se non fosse che dobbiamo digli ad angular, che è un tipo, che questo home form è un form di angular, quindi facciamo una cosa che non abbiamo mai fatto, ovvero assegnare un valore a questa variabile template, quindi questa variabile template non è più solo tutto sto form, ma in realtà gli stiamo dicendo che questo form, in realtà è un, state pronti, è un ng form, la cosa sta sfuggendo di mano, però vedete che non ci dà errore, quindi è ben detto, questo form si chiama home form, con la variabile template, ed è in realtà un ng form, quindi un angular form, chi l'avrebbe mai detto è un angular form, il fatto di definirlo come ng form, sottobanco, ci apre a tantissime opzioni, ad esempio, all'opzione di dire, guarda, aggiungiamo un ng, guardate, ng submit, incredibile, possiamo aggiungere un ng submit, quindi un submit del form, interamente legato ad angular, quindi cosa succede? Intanto mettiamo on submit, perfetto, quindi noi diciamo, questo form, si chiama home form, ed è un ng form, che ha la possibilità di avere un evento, che è ng submit, quindi è angular che lo submitta a se stesso, va bene, e va a chiamare dal componente on submit, che adesso noi mettiamo, però voi potreste dirmi, ma perché si fa tutto lì in alto, cos'è che succede in realtà? Succede che questo form comprende anche il bottone, quindi noi stiamo andando a dare tutte le informazioni, che ci servono al form, che tanto è il contenitore, ha senso questa cosa qua, quindi tutto il form sa sta roba, esattamente come dicevamo, action, sapeva dove andare, e method era il form che sapeva queste cose, poi il submit effettivo lo facevamo col button, ed è vero, ma anche qua noi andiamo qua su type submit, perciò quando clicchiamo, essendo dentro dice, ah ok, type submit, allora io submitto tutto il form, grazie a questo evento, e utilizzo questo metodo, ok? Quindi cosa succede? Proviamo a salvare, qua c'è l'errore, non è un problema, salviamo, e io vado qua e vi dimostro, che sul click del bottone, console.log, eccomi, salvo, e se io premo, eccoci qua, vedete? Al momento siamo riusciti a, inviare il form, tuttavia non abbiamo accesso, a niente, come facciamo a richiamare questo form? Beh, è molto semplice, abbiamo questa variabile, abbiamo usato veramente poco, le variabili template in giro, le abbiamo utilizzate negli endif, else, eccetera, ma adesso cominciamo a utilizzarle, in modo totalmente diverso, e ho aspettato, perché avreste capito molto con questo tipi di esempi, quindi noi prendiamo home form, che è effettivamente una variabile, che si basa su tutta sta roba qua, perciò noi cosa facciamo? Mettiamo home form, ci dà errore perché, ci dà errore perché qua non c'è alcun valore, noi allora chiamiamo form, e di tipo per ora, any, perché ho bisogno che facciamo le cose, volta per volta, salviamo, e noi prendiamo il form, e vediamo che cosa arriva, io salvo, inviamo, e ci arriva un ng form, quindi, non è sbagliato dire, che ciò che arriva qua, è un ng form, ok? Per ora teniamo any, perché vi voglio far vedere, cosa succede, se io, da qua, tolgo ng form, faccio così, posso ancora fare il summit, perché il summit, è una direttiva, che arriva altrove, ok? però ho cambiato, quindi anziché mettere la variabile template, e definirla come un ng form, è semplicemente un form, normalissimo, vediamo cosa succede, io invio, e abbiamo effettivamente il form, giustamente perché, la variabile che io ho messo, andiamo a vedere qua sopra, io qua ho messo la variabile, form, se vi ricordate, qua sopra, l'ho chiamato, on form, ed effettivamente, qua si chiama on form, ma col fatto che io non lo definisco un ng form, angular, mi passa l'elemento, non mi passa, la creazione logica, di cui angular tiene conto, ok? quindi andandolo a chiamare, come un ng form, angular mi dice, ok, quando io ti passo, allora questo on form, tu non vuoi l'elemento in sé, tu vuoi ciò che sta sotto, tu vuoi tutto quell'oggetto, perché angular va a creare, un bello oggettone, che va a definire, lo stato del form, e adesso lo vedete, quindi io salvo qua, torno qua, any a noi non serve più, faccio ng form, per essere specifico, e vi mando a schermo il form, io apro, tolgo qua dalla console, puliamo, e se io faccio invio, anzi sporchiamo un attimo, scriviamo input, ciao, mettiamo select, first option, e textarea, qwerty, buongiorno, bob giorno, va bene, va bene, bob giorino, ok, quindi io faccio invia, e ci arriva l'oggetto di prima, che è un ng form, vediamolo insieme, allora, partiamo dalle cose facili, qua sotto c'è un po' di roba, e ci dice, dirty, è sporco, false, disabled, false, enabled, true, ci sono errori, null, è invalid, false, quindi vuol dire che non è invalido, vuol dire perciò che è valido, true, valori, object, ha dei valori, in realtà non ha ancora niente, perché manca ancora una cosa, però vediamo che ha dei controlli, object, non ha ancora niente, e adesso andiamo a mettere, come vedete, il buon angular, ci ha creato, un mega oggettone, con tutte, le situazioni, legate, al nostro form, vedete, ci dice, il form com'è, e adesso, andiamo a gestire anche, i singoli campi, quindi noi, ci spostiamo qua, e andiamo dove c'è input, magari lo chiamiamo un nome, perfetto, potremmo togliere la text area, che non mi piace, ok, possiamo fare nome, potremmo dire, campo email, ma per essere sicuri, che utilizziamo al meglio, angular material, torniamo sulla documentazione, e prendiamoci, un campo email, fatto da loro, eccolo qua, vediamo se c'è qualche differenza, qua niente, qua niente, ok, allora è un, matform field, placeholder, ok, form control email, non ci interessa, quindi in realtà possiamo usare, un banalissimo, un banalissimo input field, quindi torniamo qua, prendiamo, l'input field così, e qua mettiamo, email, il nostro input, avrà type, email, ok, qua mettiamo come type, text, sfruttiamo tutte le varie cose, che abbiamo, e poi qua sotto abbiamo una select, e nella select, mettiamo, colori, ok, mettiamo due colori, che sono magari, il rosso, e il blu, come colore preferito, giusto, se vi ricordate le persone, che avevamo, quindi rosso blu, qua scriviamo, rosso, e blu, faccio fatica, perché cerco di usare l'italiano, per chi eventualmente ha difficoltà, no, con l'inglese, però leggendo le cose in inglese, nel mio cervello giustamente ragiona l'inglese, e a volte mi viene spesso da scrivere, ad esempio, blu, o red, eccetera, comunque, abbiamo qua i nostri campi, tuttavia, abbiamo detto che il nostro ng form, non ce li riconosce ancora, la prima cosa che dobbiamo fare, è mettergli il name, classico name, quindi name, qua è nome, ok, e poi qua sotto, il name, che nome sarà, sarà l'email, giusto, quindi name uguale email, ma questa è la base di HTML, allo stesso modo qua su mat select, andiamo a mettere un name, name, potete chiamarlo come colore preferito, o solo colore, colore va bene, cambiamo anche qua, però non basta, dobbiamo fare un'aggiunta, e andiamo a prendere una vecchia conoscenza, ng model, e lo piazziamo così, il solo fatto di mettere un ng model, qua dentro in un ng form, adesso fatemi finire e ve lo dico, va a creare quelli che sono i controlli, quindi stiamo dicendo che il nostro ng form, ha dei modelli di dati, quindi ng, sempre angular model, prende il nostro name, quindi dice che è ng model, nome, ng model, email, che fa parte del form, home form, che è un ng form, quindi noi salviamo, ci spostiamo di qua, come nome mettiamo Luca, come email mettiamo Luca, at rossi.com, va benissimo, e come colore mettiamo rosso, io faccio invio, andiamo a vedere il risultato, vi ricordate che avevamo values, qua abbiamo value, e incredibilmente, guardate un po', ci dà già i valori, di tutti i campi che abbiamo registrato, perché li abbiamo registrati, con un name, e con un ng model, quindi devono esserci entrambi, grazie al name, ha dato il name effettivo, qua, e poi ng model, ci ha permesso di averlo, qua dentro, quindi capite, noi come, con un semplice submit, emettendo i vari, i vari ng model, e i name, riusciamo a pescare, tutti i valori del form, direttamente, in, in typescript, così velocemente, e poi abbiamo anche i controls, e guardate un po', sono la stessa cosa, qua abbiamo l'accesso diretto, a tutti i valori, ok, qua invece abbiamo l'accesso, a tutti i campi, in versione completa, e vedete che sarà molto simile, a ciò che abbiamo qua, guardate qua, abbiamo dirty, disabled, enabled, invalid, tutte cose che abbiamo già visto, untouched, valid, cose che abbiamo già visto, per il form, quindi, riesco a prendere, la palla al balzo, e parlarvi degli stati, del form, un form, ha diversi stati, ok, e la cosa, si attacca, soprattutto, con la validazione, e adesso ci arriviamo, prima però, vi voglio far vedere, che possiamo accedere, alla stessa cosa, quindi al form, che abbiamo visto, ng form, anche lato typescript, velocemente, quindi non solo qua dentro, ma lo possiamo fare, in un altro modo, anzi non così, scusatemi, ma potremmo noi prendere, visto che abbiamo la variabile, di template, potremmo fare, un view child, view child, e qua dentro mettiamo, home form, così, e lo chiamiamo, home form, perché non c'è un problema, che è un ng form, e improvvisamente, se io mando a schermo, anziché, console.log form, mando a schermo, home form, magari con un dis davanti, edo, perfetto, se io salvo, ottengo, lo stesso risultato, va bene? adesso i valori saranno vuoti, ma ottengo lo stesso risultato, facciamo rivedere così, tac tac, bam, vediamo i valori, ottengo lo stesso risultato, questo perché, come abbiamo già imparato, il solo fatto di avere, la variabile template, ci permette, di prenderla anche, view child, da qua, quindi volete lavorare, direttamente qua dietro? non è un problema, lo potete fare, la cosa comoda, in questo caso, è che utilizziamo questa variabile, e ce la portiamo in giro nel template, e dopodiché, la portiamo in typescript, all'occorrenza, va bene? allora, torniamo qua dietro, quindi questo, volevo farvelo vedere, e ora possiamo tornare, alla questione, degli stati, e, della validazione, che è, quindi queste due cose qua, fatemi portare, questo qua avanti, perfetto, allora, stati del form, e, validazione, torniamo sul browser, e io vi faccio vedere, certe cose, apriamo qua, prendo il form, vado sull'input, possibilmente, ecco, l'unica cosa di Angular Materia, è che mette tanta roba sopra, questo è bruttino, ma se io comincio ad aprire, così mi piace, c'è un po' di roba, guardate, guardate in class, abbiamo, ng untouched, quindi vuol dire, che non è mai stato toccato, vero? ng valid, tecnicamente, è valido, perché non abbiamo messo, altre condizioni, che ci dicono, che non è valido, allo stesso modo, il form intero, è untouched, pristine, e valid, allora, cominciamo a mettere dentro, cominciamo a fare così, bam, è già cambiato qualcosa, adesso scrivo, tac, e vedete, che, ng valid, guardate tutto il form, poi guardiamo il singolo input, tutto il form, ng valid, perché effettivamente, non abbiamo detto, non abbiamo messo, un limite, che dobbiamo effettivamente, compilare la roba, non abbiamo messo, dei campi obbligatori, non abbiamo messo nient'altro, perciò tecnicamente, il form è valido, è dirty, perché l'abbiamo sporcato, ci abbiamo scritto dentro, effettivamente roba, e poi è stato toccato, perché effettivamente, siamo entrati, a toccare roba, togliamo, ecco qua, ed è comunque dirty, touched, e qua submit, perché mi sa che ho fatto invio, erroneamente, aggiorniamo, facciamo così, tac, e poi facciamo così, perfetto, quindi vedete, adesso è sempre touched, è dirty, ed è comunque valid, la stessa cosa, l'abbiamo per i singoli componenti, quindi se noi andiamo a prendere, il singolo input, chiaramente, questo qua è stato toccato, è stato sporcato, è valido, perché non abbiamo messo, dei limiti, mentre invece, questo input, no, fatemi vedere, non questo, ma, il campo email, se ne apriamo qua, vedete che è, untouched, quindi, il form, in generale, ha uno stato, i singoli campi, hanno uno stato, nello specifico, e adesso ci arriviamo, il nome, è obbligatorio, l'ha inserito, sì, no, se l'abbiamo inserito, o meno, avremo delle situazioni diverse, potrebbe essere, valid, o invalid, un esempio, la mail, l'hai toccato, è dirty il campo, sì, c'è qualcosa dentro, ma è valido, no, perché non hai messo un email, hai messo un numero di telefono, stessa cosa, il colore, l'hai selezionato, ok, perfetto, nell'insieme, il form, è compilato completamente, sì, ma è valido, no, perché un campo, non è valido, capite il discorso, quindi abbiamo la validazione, su ogni singolo campo, e sull'intero form, messa così, è roba logica, che abbiamo, che probabilmente avete visto e rivisto, non solo da un punto di vista, magari, di programmazione, ma anche in un banale form, se vi provate a mandare un form, e non completate tutte le cose, che devono essere completate, o le completate nel modo sbagliato, vi dà problemi, quindi ogni singolo campo, vi può dar problemi, e il form, in generale, vi può dar problemi, quindi, come vedete, queste sono classi, queste sono classi, perché se io faccio così, tac, dovrebbe darmi, ng, invalid, ma non lo fa, perché non gli abbiamo detto, che è una mail, abbiamo utilizzato, type, email, html, ma non basta, quindi noi ci mettiamo qua, e cominciamo, a dare dei limiti, quindi, una cosa che potremmo fare, è required, che arriva dall'html, ma che possiamo utilizzare, anche in angular, quindi facciamo require, require anche per l'email, e qua aggiungiamo email, vedete, lo possiamo aggiungere, e questa, è una cosa che ci viene data da angular, questo è html, type email, questo invece, ci viene dato da angular, abbiamo aggiunto due limiti, quindi required, e email, adesso facciamo un'altra cosa, andiamo a dire al bottone, che se il form, non è valido, nel complesso, noi non possiamo fare invia, quindi, andiamo a mettere un bel disable, e dobbiamo collegare, la proprietà disable, del bottone, a cosa? a home form, punto, is valid, quindi, punto, valid, però deve essere al contrario, quindi è disabilitato, è disabilitato, chiaramente, se non è valido, e viceversa, è abilitato, se è valido, proviamo a fare un invio, e vedete che è disabilitato, e sarà, perennemente disabilitato, finché io non completo, queste due cose, nel modo corretto, quindi scriviamo Luca, ok, mettiamo l'email, Luca, ma non è ancora valido, vedete che intanto, mi dà già errore, qua siamo fortunati, perché ci aiuta, Angular Material, in realtà possiamo fare, anche noi, queste cose, adesso vi faccio vedere, Luca, at, Rossi, attenzione, me lo dà, punto, com, perfetto, e io adesso posso mandarlo a schermo, non ci ha trovato il punto com, ma non è un problema, potremmo andare ad aggiungerlo noi, come validazione successiva, adesso posso inviarlo, e posso vedere, lo stato, e i valori, vediamo un po', ecco qua, i valori, possiamo andare ad aggiungere questo, non è un problema, ora, vi voglio far vedere, come sfruttare le classi, che vengono assegnate, perché se noi andiamo a vedere qua, sul form eccetera, riapriamo qua, div, div, input, guardate le classi, nelle classi abbiamo, ng, valid, ok, quindi sfruttiamo questo, ng valid, oppure, ng, invalid, facciamo così, perfetto, vedete che qua è rosso, come mai qua è rosso, andiamo a vedere insieme, vediamo un po', eccolo qua, Angular Material, sotto sotto, fa più o meno la stessa cosa, che vogliamo fare noi, però Angular Material ha qualche livello in più, noi semplicemente, vogliamo andare a prendere, questa, classe, vedete qua, ng, invalid, ed è una classe, quindi lo possiamo fare, perciò, noi possiamo andare sul CSS, ecco qua, di home component, e dire che ogni input, che è, anche, ng, invalid, proviamo a mettere, magari un background color red, vediamo se riusciamo a sovrascriverlo, rispetto all'angular material, è un po' più lungo di così a volte, però, proviamoci, e poi, ng, valid, potremmo provare, un background color, green, vediamo un po', se ce lo prende subito, vedete, come pur essendo bruttissimo, ci ha già dato il rosso, perché tecnicamente, è un input invalido, vedete qua l'input, se noi andiamo sulle classi, a ng, invalid, ma perché è invalid, fin da subito, perché, è required, ma noi non l'abbiamo completato, per fare una cosa del genere, se è required, e, invalid, chiaramente dovremmo andare a vedere, se è anche untouched, quindi noi vogliamo che sia solo, touched, e invalid, perciò potremmo mettere, ng, touched, touched, punto, ng, invalid, salviamo, se io lo tocco, ed esco, vedete, l'ho toccato, e in più me ne sono andato, le classi sono, ng, invalid, e, ng, touched, adesso proviamo a sistemare, lo vedete, è valido, perciò me l'ha messo verde, stessa cosa, email, non me lo da verde, finché io non faccio, perfetto, avete visto? Molto bene, adesso posso anche inviare il form, quindi, questo è, l'introduzione, a il template driven form, come vedete, facciamo tutto, lato, template, non siamo mai stati, scusatemi, non qua, ma di qua, non siamo praticamente mai stati, in TypeScript, nel prossimo video, vediamo i reactive form, che, invece, a differenza dei template driven, si basano, quasi totalmente, qua su TypeScript, ok? Sotto in iscrizione, trovate le solite cose, secondo canale, sito, supportare il canale, vi ringrazio, e alla prossima, ciao ciao, episodio 30 di Angular, adesso, arriviamo a parlare, dei reactive form, abbiamo visto, nell'episodio precedente, come fare, dei form, completamente, basati, nel template, oggi, appunto, vediamo reactive form, ovvero, form gestiti, interamente, ripeto, gestiti, nel TypeScript, però, come potete vedere, io ho pulito, il form, dalle cose che avevamo fatto prima, quindi, ng model, ng submit, la variabile, template, però, ho lasciato il form, questo, perché, comunque, un form di base, serve, ma tutta la gestione, non sarà più template, e poi passata, a TypeScript, ma sarà direttamente, TypeScript, e eventualmente, la useremo, nel template, adesso potrebbe avere, potrebbe avere un po' più senso, mentre lo vediamo, quindi, abbiamo visto, cosa sono, prima cosa importante, però, è andare su, app module, e mi dovete, inserire questo, reactive forms module, altrimenti, avrete problemi, fidatevi, una volta fatto quello, andiamo a creare, un form group, quindi, noi andiamo qua, e andiamo a creare, comunque, il nostro, home form, come già si chiamava, due punti, è un form group, eccolo qua, questo perché, un form, altro non è che, un insieme di, controlli, di form control, adesso avrà senso, ogni campo, che avete, è un control, questo perché, tecnicamente, è una parte, del form, che possiamo controllare, in vari modi, con le validazioni, eccetera, eccetera, quindi, ogni campo, è un form control, tanti form control, fanno un form group, ok, quindi un form, è in realtà, un form group, detto questo, abbiamo il nostro form group, cosa dobbiamo fare però, andiamo in, ng, on init, e cominciamo a settare, il nostro form, quindi, home form, this home form, è uguale a, new form group, chi l'avrebbe mai detto, new form group, eccolo qua, e dentro, apriamo, un bello gettone, da passare, e dentro questo gettone, ci saranno, tutti i vari controlli, che vogliamo aggiungere, quindi cominciamo ad aggiungere, sappiamo, che abbiamo, il nome, email, e colore, non ci interessa più, il name, a sto giro, lo tengo io, per leggere velocemente, vedete come ho trovato, velocemente, i campi, altrimenti sarei dovuto andare qua, colore, email, e nome, faccio prima a leggere qua, sarò, sarò strano io, però li ho tenuti per questo motivo, quindi abbiamo, nome, che è un bel, due punti, se dovesse darvi problemi, potete tranquillamente metterlo, tra le virgolette, come se fosse stringa, io però, sono fiducioso, che non darà problemi, e vi ho detto che è un form control, quindi se io ho messo, new form group, indovinate un po', questo sarà un new form control, eccolo qua, e dentro possiamo passare, un valore iniziale, se volete, non siamo obbligati, però possiamo farlo, in questo caso, io voglio aggiungere Luca, giusto per farvi vedere, quando poi andremo a connettere, il form, dopodiché abbiamo cognome, quindi cognome, new form control, e dentro ci buttiamo null, perché tanto non ci interessa, possiamo lasciarlo anche vuoto, presumo, e dopodiché andiamo a mettere, colore, che è un new form control, facciamo così, e siamo a posto, adesso, cosa vogliamo fare, vogliamo salvare, andare a vedere il risultato, ma il risultato, è esattamente quello che c'era, pre creazione del form group, vedete qua, io volevo Luca come nome, ma Luca non me l'ha messo, quindi vuol dire che non è connesso, come facciamo a sincronizzarlo, quindi siamo qua, creo form group, aggiungo il form control per i campi, fatto, sincronizzare la parte html, noi ci mettiamo qua, e andiamo a mettere che il form group, eccolo qua, quindi property binding, form group è home form, improvvisamente questo form, ha una proprietà, form group, e la bindiamo a cosa? a home form, che è questo, quindi, da adesso, angular prenderà tutto ciò che c'è qua dentro, dobbiamo ancora fare delle piccole modifiche sui controlli, però, a livello logico, prende tutto questo, e ce lo va a mappare con cosa? con questo, con questo, quindi, salviamo, non succede ancora niente perché? perché dobbiamo aggiungere sempre nella sincronizzazione i controlli, allo stesso modo possiamo andare a fare un bel form, control name, eccoci qua, e che nome gli diamo? è come se fosse la stessa cosa qua con il name, ok? quindi form control name, lo chiamiamo nome, e poi prendiamo qua, copiamo, andiamo qua, e facciamo le stesse cose, quindi mat select, qua sarà colore, e qua invece sarà cognome, salvo, ed improvvisamente, vedete che ci ha riportato il verde, e il verde l'avevamo fatto come classe, nell'episodio precedente, perciò che era valido, prima non ce lo dava perché non c'era un form sotto, c'era solo il form html, ma non c'era la parte angular, adesso se guardate le classi, ng valid, ng valid, input ng valid, vuol dire green important, ok? soprattutto ci ha messo qua dentro Luca, che è ciò che io ho voluto che fosse automatico, qua vedete? Luca, perfetto, quindi siamo riusciti anche a sincronizzare la parte html, ora dobbiamo fare il submit, per il submit io ho lasciato on submit, questo perché lo utilizzeremo, perciò andiamo qua sotto, e possiamo scrivere anche qua ng submit, tanto è un form angular, perciò possiamo comunque utilizzare questo evento, quindi ng submit diventa on submit, facciamo così, però a sto giro non dobbiamo passare niente, perché tanto non dobbiamo utilizzare una variabile di template, non ce l'abbiamo, ma cosa abbiamo qua? Abbiamo già riferimento al form, e se ci fate caso è console.log, indovinate un po', dis.homeform, se io salvo, vado in console, faccio invia, abbiamo il nostro form group, che è diverso da ng form, ma in realtà fa la stessa cosa, quindi vedete qua, abbiamo i nostri controlli, eccoli qua, con le loro situazioni, is dirty, disabled, enable, cose che abbiamo già visto, ma per arrivare velocemente a ciò che mi interessa, sono i valori, guardate qua, cognome, null, colore, null, nome, Luca, ok? E anche il form è dirty, disabled, eccetera, eccetera. Se proviamo a cambiare due valori, magari proviamo a mettere blu qua, e come email mettiamo qwerty at qwerty.com, perfetto, faccio invio, vedete che automaticamente ci ha già preso tutti i valori, abbiamo Luca, qwerty, e colore blu, perfetto, quindi abbiamo già connesso entrambe le parti, quello che dobbiamo fare successivamente, è aggiungere la validazione, quindi come possiamo aggiungere la validazione, dobbiamo farlo per forza qua dietro, perché stiamo gestendo tutto qua, se noi andiamo qua a vedere sul nostro form control, fammi prendere, perfetto, vedete come abbiamo il valore, ma poi possiamo avere anche delle opzioni di validazione, quindi noi andiamo qua e facciamo un bel validators, punto, required, e poi andiamo qua e vogliamo mettere due validazioni, vogliamo mettere che è required e vogliamo mettere che è email, scusatemi, questo è cognome, però voglio farvi vedere che è email, perché è cognome qua? Era cognome, ma ho scritto email, fuori di testa sta roba, fuori di testa, allora andiamo qui, scusatemi, no è tutto email, però control, oh mamma mia, email non è più cognome, mi sono confuso, allora, email, qua salviamo e qua andiamo con email, perfetto, quindi dobbiamo mettere null perché non voglio niente per cominciare, ma poi dobbiamo mettere i validatori, ma i validatori, se è singolo non è un problema, se sono di più è un array, quindi array di validatori, di validators, e quindi facciamo validators, punto, required, e poi un bel validators, punto, email, eccolo qua, potete avere max length, min length, potete avere quello che volete, pattern, se volete usare le regex, potreste fare i vostri validatori, quindi potreste creare qua sotto delle funzioni, che potete richiamare come validatori, non lo vediamo in questo corso, roba più avanzata, quando avrete abbastanza di mistichezza, potrete tornarci, eventualmente sarà un'aggiunta che farò successivamente, al momento non ci interessa, per quello che stiamo facendo, quindi qua siamo a posto, su colore non ci interessa niente, e io voglio farvi vedere, che adesso abbiamo le validazioni, come mai abbiamo le validazioni, ve ne rendete conto, se io comincio a togliere questo, diventa rosso, prima, se provo a togliervi qua, require sul nome, non c'è, quindi faccio così, salvo, non è required, quindi se dentro non c'è niente, non mi dà problemi, e me lo dà ancora verde, ok? Torniamo, e rimettiamo tutto, ci spostiamo per l'ennesima volta, sul browser, e quindi compiliamo con l'email, mettiamo una mail finta, usciamo, ci dà problemi, molto bene, andiamo di qua, completiamo l'email, e abbiamo verde, va bene, adesso però, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo provare ad accedere, ai controlli in html, questo perché, vogliamo assolutamente, come abbiamo già fatto, bloccare il bottone, se il form è invalid, giusto? Quindi noi potremmo fare, un bel disabled, eccolo qua, se e solo se, come prendiamo la variabile? vedete qua, ce l'abbiamo qua, direttamente la typescript, quindi potremmo dire, homeform.valid, in questo caso, dobbiamo però farlo al contrario, ok? Perché abbiamo già visto che non deve essere, valido, quindi salviamo, e vedete che è, disabilitato, se vedo qua, scrivo la mail, per ora non mi dà niente, la completo, me lo dà, e siamo a posto, se tolgo Luca, me lo va a disabilitare, va bene? E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo semplicemente preso, la classica variabile, come abbiamo sempre fatto in altri componenti, direttamente da qua, quindi noi accediamo a questa variabile, che è in realtà questa, e ha i propri controlli, quindi possiamo proseguire, potremmo fare un'altra cosa, ovvero prendere accesso al controllo specifico, quindi potremmo mettere una cosa, tipo un messaggio qua, giusto una cosina veloce, e potremmo dire che, questo pin non si vede, ng if, se, ma cosa c'è scritto? inserisci un nome, ok? E quindi vogliamo fare, che deve uscire il messaggio, se non è valido, ok? E, se è stato toccato, quindi se il form, è all'inizio, lo dà come valido, ma se noi lo tocchiamo, e non mettiamo il nome, quindi è invalido, ci dà un problema, ci dà il messaggio, quindi possiamo, innanzitutto, magari togliamo qua Luca, e mettiamo null, eccolo qua, facciamo null così, salviamo, e qua invece mettiamo, ng if, homeform.get, che cosa vogliamo prendere? Vogliamo prendere il controllo, quale controllo vogliamo prendere? Vogliamo prendere nome.valid, ma abbiamo detto che deve essere al contrario, and homeform.get nome.touched, touched, molto bene, vediamo il risultato, salviamo, per ora non ci dà problemi, se io tocco ed esco, vedete, inserisci un nome, perché è invalid, o non è valid, come abbiamo scritto noi, e poi è stato toccato, va bene? Nel momento in cui noi lo andiamo a toccare, se è invalid, ci dà problemi, se invece poi diventa valido, non ci dà più problemi, ok? Quindi, questa era, un'introduzione, ai reactive form, ma adesso avete in mano tanti strumenti per cominciare a creare qualcosa di interessante, ripeto, potreste andare più nel dettaglio, perché questi form potremmo raggrupparli, questi controlli potremmo raggrupparli, e quindi avere form group, ma andare a creare più form group all'interno dello stesso form, va bene? sono cose che però ritengo, ripeto, troppo complesse, per chi sta cominciando, cominciate a imparare con quello che avete, fate i vostri form con quello che avete, se poi volete approfondire in modo autonomo, avete la conoscenza per farla, basica, altrimenti, più avanti, ripeto, andrò ad integrare io, per i form abbiamo concluso, dal prossimo video cominciamo a parlare di HTTP, quindi come fare richieste sotto in descrizione, secondo canale, sito e come supportare il canale, io vi ringrazio, bella prossima, ciao ciao, episodio 31 di Angular, lasciamo alle spalle i form, e cominciamo ad introdurre questo sottomodulo per lavorare con dati esterni, chiamato dati esterni, in realtà cominciamo a lavorare con dei dati che non abbiamo su Angular, perché finora abbiamo utilizzato, se vi ricordate, la variabile persone, ma prima o poi vi ho detto che questi dati li avremmo presi da un database esterno, quindi è il momento di cominciare a lavorare nei prossimi video in quest'ottica, cominciamo a vedere come facciamo a lavorare con dati esterni, poi vedremo come importare il modulo che ci serve e impostare il DB ed il backend, allora come facciamo? devo fare una piccola spiegazione perché? perché magari non tutti conoscono la struttura che c'è dietro ad un'applicazione Angular, sulla realtà applicazione frontend che potete fare anche con Vue, React, altri framework, è irrilevante, quello che conta è che capiate il concetto, cominciamo a parlare dai siti web, i siti web voi di solito siete abituati, salvo casi particolari, ad avere il vostro sito con HTML, CSS, JavaScript e dei file PHP, quindi è tutto insieme, il vostro progetto qua avrebbe HTML, CSS, JavaScript e poi PHP, quindi tutto in un'unica soluzione, da HTML o da JS che sia poi andiamo a chiamare PHP e ci ritorna indietro i dati, è come se frontend e backend fossero nello stesso progetto, ok? è leggermente diverso lavorando frontend ma con Angular, quindi quando facciamo applicazioni single page, ma questa cosa vi capiterà anche con le desktop app o con le mobile application, generalmente la struttura è la seguente, c'è la nostra applicazione e per applicazione intendo anche applicazione Angular web, la nostra applicazione prende i dati ad esempio dal form, l'abbiamo fatto ok? quindi prende i dati dal form, ma abbiamo visto che non li manda subito da qualche parte, non c'è un form action, si ritiene in pancia fino a che usiamo, in questo caso su Angular, un service HTTP che manderà la richiesta ad un backend, il backend potrebbe essere scritto, allora tolgo un attimo qua form, può essere scritto in Angular, Vue, React, eccetera, che è comunque JavaScript, il backend è un'altra applicazione, ok? in questo caso sono degli API, è un'altra applicazione deployata altrove, può essere sullo stesso server, su altri server, non entriamo nello specifico, ma è un'altra applicazione, e può essere scritta in Java, Python, può essere scritta in PHP, può essere scritta in JavaScript, se utilizziamo Node, ok? E Node lo stiamo utilizzando sotto sotto per usare anche Angular, quindi possiamo utilizzare JavaScript, e in questo caso andare a creare l'applicazione frontend e backend, con lo stesso linguaggio di programmazione, ma non è questo il discorso, il discorso è che l'applicazione fa la richiesta al backend, ok? ad un specifico endpoint, adesso lo vediamo, e potrebbe essere l'IP del backend, quindi ipbackend, faccio .com, slash API, slash clienti, ok? Quindi vogliamo andare a prendere i clienti, oppure vogliamo prendere un cliente specifico, 01, va bene, questo concetto l'abbiamo già visto nel routing, e se vi ricordate vi ho detto che chi arrivava già da Node, avrebbe capito Node, o altri tipi di API, perché questi endpoint, che sono simili a ciò che abbiamo fatto nel routing, se ci fate caso, vedete contatti e poi contatti con l'ID, è maledettamente uguale ad avere clienti, e poi clienti con l'ID, ok? Quindi questi sono gli endpoint classici, quindi noi da Angular, chiamiamo questo endpoint, ad esempio, il backend capisce che vogliamo il cliente numero uno, lo chiede al database, quindi lo chiede al DB, a sua volta il DB lo manda indietro al backend, perfetto, e il backend ci impacchetta la risposta, che arriva su Angular, e una volta che abbiamo i dati come le persone che abbiamo qua, ci arriva così, e noi da qua le distribuiamo nell'applicazione, ok? Quindi questo è il giro del fumo, ed è importante perché cambia veramente tanto rispetto al sito web, ok? Cambia veramente tanto perché in questo caso abbiamo che HTML, CSS e PHP tutto insieme, chiamiamo il DB, e ci torna la risposta, capite? Mentre invece qua è diversa la struttura, in questo caso stiamo creando degli API, quest'API, questo backend, anzi, riformulo, questo endpoint, hip.com, slash, API, clienti, poi potete scrivere come volete, ok? Quindi clienti, slash, zero, uno, se avete questo endpoint, lo potete chiamare dall'applicazione Angular Web, lo potete chiamare dalla vostra applicazione per Android, lo potete chiamare dalla vostra applicazione per iOS, lo potete chiamare dalla vostra applicazione per desktop, non fa differenza, se l'avete strutturata così, voi capite che avete un unico, chiamiamolo così, porto, abbiamo un porto, che riceve le chiamate in entrata, sempre agli stessi endpoint, ma da navi, tra virgolette, diverse, che sono tutte le varie applicazioni che abbiamo in giro, ok? Quindi scriviamo una sola volta il porto che gestisce tutti i vari dati, va bene? Che è collegato ad un unico database, per farla breve, e poi le richieste vengono rimandate alle diverse app, va bene? Questo è il giro del fumo, pieghiamo una chiamata HTTP effettivamente com'è, una chiamata HTTP avrà un metodo, quindi potrebbe essere una get, una post, ad esempio potrebbe essere put o patch, put, patch sono leggermente diverse, delete, questo metodo serve per far capire al server che cosa deve fare effettivamente, ok? Quindi stai dicendo get, che è prendere, vogliamo prendere dei dati, post, vogliamo inserire dei dati, e molto spesso vogliamo anche passare un body, ma adesso ci arriviamo, put e patch, vogliamo modificare dei dati, delete, vogliamo eliminare dei dati, quindi questo è il metodo, l'endpoint l'abbiamo visto, l'endpoint è il nostro IP, slash API, non c'è bisogno che abbiate API, però generalmente potreste usare API, perché poi avete altri endpoint di vario genere, API, clienti, ta ta ta, ok? Dopodiché abbiamo gli header, scusatemi, dopodiché abbiamo gli header, gli header sono delle, chiamiamo così, delle firme aggiuntive, dei metadati che aggiungiamo alla nostra richiesta, dove diciamo varie cose, ad esempio i tipi di dati che passiamo sono di tipo JSON, ci aspettiamo una risposta del genere, insomma ci sono una serie di aggiunte che, andiamo a fare, per aiutare la nostra chiamata a essere più specifica possibile, ok? Giusto per essere molto semplificativo, e poi abbiamo il body, il body, che non avremo mai nel get, ma avremo magari qua, serve per dire, ok, tutta sta chiamata, voglio fare una post a clienti, è di tipo JSON, però, cosa mi devi inserire nel cliente? Mi devi inserire effettivamente il cliente, quindi l'id del cliente è lo 01, mi devi inserire il nome, mi devi inserire il cognome, eccetera, eccetera, quindi il body è il dato effettivo che vogliamo inserire, nell'headers abbiamo ad esempio il tipo di dato che passiamo, questo è l'endpoint, e questo è il metodo, ok? Quindi questo molto semplificato. Adesso andiamo ad importare un modulo che è fondamentale, quindi andiamo su app module, da qua importiamo import, apriamo, http client module, eccolo qua, from at angular slash common slash http, eccolo qua, perfetto, ce l'abbiamo, adesso prendiamo il nostro http client module, ci spostiamo qua sotto, e bam, abbiamo il nostro modulo, perfetto, ora, quello che dobbiamo fare, è preparare il nostro backend, utilizzeremo Firebase, che è un servizio gratuito, in realtà fino a un certo punto, ma per quello che serve noi è gratuito, che è un backend già impostato da Google, utilizzeremo un database in real time, perciò noi andiamo a crearci un backend, che è fuori dagli scopi di questo corso, se già lo sapete fare, potete mettervelo in piedi velocemente, ho un corso sul mio sito, codegrime.it, dove faccio vedere come mettere su degli API online, potreste farvelo anche in locale, spiego come farlo prima in locale, poi metterlo online, se per caso volete vederlo, potete passare prima da lì, vi mettete in piedi il vostro backend, e poi continuate il corso, tanto più o meno è uguale, cambia poco o niente Firebase o qualcosa nel locale. Andiamo avanti quindi, e apriamo Firebase, vi basta scrivere Firebase, aprite, eccoci qua, fate get started, io sono già qua, crea un progetto, e inserisci il nome del progetto, corso angular, bel font, confermo che utilizzerò Firebase per scopi relativi a settore, attività, mestiere, yes, assolutamente, è di mia competenza, abilità Google Analytics non mi interessa, sì, facciamo crea progetto, sta creando il mio progettino angular, probabilmente sta facendo la stessa cosa anche per voi, ed ecco qua, possiamo fare continua, e abbiamo il nostro progettino, adesso, dobbiamo scendere, su Cloud Firestore, e quello che ci interessa, da qua, scendiamo, e dovrebbe esserci, visualizza tutte le funzionalità, Real Time Database, eccolo qua, a noi interessa questo, possiamo fare, crea database, come posizione, è irrilevante, facciamo Belgio, va più che bene, avanti, regole di sicurezza, modalità test, mi raccomando, perché dobbiamo poter, scrivere, se noi andiamo su modalità di blocco, vedete che non possiamo, né scrivere, né leggere, in questo caso, modalità di test, le consiglio comunque, per riferimento, bla bla bla, chi se ne frega, ok, per meno di 30 giorni, va bene, quindi ho fino all'11 settembre, faccio attiva, e abbiamo, il nostro database, in real time, eccolo qua, quindi, abbiamo fatto, tutte le, situazioni del caso, abbiamo preparato tutto, vi ho fatto un'introduzione, abbiamo installato il nostro modulo, abbiamo creato il nostro database, in real time, su firebase, firebase, è un back end, con database, il back end, il back end, è firebase, ok, che prenderà le chiamate, eccetera, il database, è quello lì, ok, l'abbiamo appena, creato, nel prossimo video, cominciamo ad inserire, con http post, generalmente, si legge prima, dei dati, ma non li abbiamo, non voglio metterli fittizi, quindi prima, li inseriamo, poi li leggiamo, li modifichiamo, e li cancelliamo, ecco qua, sotto in descrizione, trovate il link al mio sito, secondo canale, e come supportare il canale, io vi ringrazio, e alla prossima, ciao ciao, episodio 32 di angular, riprendiamo, il modulo http, che abbiamo introdotto precedentemente, e adesso cominciamo, ad inserire i dati, abbiamo già, il nostro database in real time, su firebase, eccolo qua, e noi copiamo, questo endpoint, a cui aggiungeremo, le varie tabelle, quindi, dobbiamo fare, un po' di passaggi, il primo passaggio, allora, in realtà, potremmo qua, nell'home component, su ng on init, già fare la richiesta, l'inserimento, quindi andiamo a mettere, dei dati fittizi, all'inizio, poi in realtà, potremmo farlo, o noi, o ve lo faccio fare a voi, prendete i dati, dal form, e li mandate, potremmo farlo direttamente, da qua, ma la cosa a cui, voglio farvi subito abituare, è il concetto di utilizzare, un service a parte, quindi abbiamo, un service, che parla direttamente, con il backend, e va a fare certe chiamate, probabilmente, li dividerete, appunto per tabelle, se avete la tabella clienti, la tabella fattura, eccetera, avrete, diversi service, ok, che parlano tutti, col database, ma vanno a fare, cose diverse, ok, altrimenti potreste avere, un service, ancora più generico, unico, che va a fare, tutte le varie chiamate, ma in modo generico, per ciò che, per tutte le varie tabelle, che vi serve, sono due alternative, diverse, in base alle situazioni, in base a come vi volete, organizzare voi, quindi procediamo, lo sapete fare, perché lo sapete fare, andiamo a creare un service, e facciamo, ng, generate, service, servizi, io qua ne avevo fatto, uno di prova, prima di registrare la lezione, e abbiamo, Firebase, perché non chiamarlo Firebase, facciamolo, quindi, Firebase, non Firebase, ma Firebase, perfetto, quindi ci va a creare, il servizio, eccolo qua, vedete, cancelliamo lo spec, e abbiamo, il nostro classico, servizio, allora, quello che vogliamo fare, è utilizzare il modulo HTTP, perciò, dobbiamo andare a fare, un bel, private, HTTP, HTTP, e prendiamo, HTTP client, perfetto, automaticamente viene importato, e adesso possiamo, utilizzarlo, il prossimo passo, è andare a creare, un metodo, per, l'inserimento, quindi potremmo fare, insert, o potrebbe essere, insert, cliente, insert, persona, per quello che vi dico, che potreste avere, diversi service, differenti, qua, è Firebase, però potreste avere, persone, service, o persona, service, avete, insert persona, insert persone, get persona, get persone, quindi capite, che andreste a fare, un file, con tutti i vari metodi, per le persone, però se poi ci aggiungete, clienti, fatture, ordine, quant'altro, rischiate di avere, veramente troppa roba, motivo per cui, secondo me, potreste suddividerlo, in base appunto, alla grandezza del, del progetto, scegliete cosa fare, qui abbiamo insert persona, facciamo così, e andiamo, semplicemente, a fare, il seguente, this.http, punto, vedete che abbiamo, dei metodi, delete, get, patch, post, put, vi ne ho già parlato, ne abbiamo parlato, nell'episodio precedente, noi utilizziamo post, perché vogliamo, inserire dei dati, quindi stiamo dicendo, ehi, mi prendi, http, e mi fai una post, mi fai una chiamata, post, dove la fai questa chiamata, post, la fai, ad un url, specifico, che ti darò, quindi per ora mettiamo, url, poi cambieremo, anzi, mettiamo per ora, vuoto, e che cosa mi vai a inserire, mi va a inserire, un body, vedete qua, che me lo sta, evidenziando, mi va a inserire un body, e il body, al momento, sarà un oggetto, vuoto, qual è il fatto, che, dobbiamo farli passare, come parametri, quindi la cosa migliore, che possiamo fare, è avere url, qua, e andiamo a mettere, url, due punti, string così, e poi vogliamo passare un oggetto, in questo caso sarà appunto, il body, o potresti chiamarlo data, fate un po' quello che volete, io sto giro lo chiamo, body, di tipo oggetto, e qua dentro, noi passiamo, il body, ora, che cosa vogliamo andare a fare, vogliamo, da home component, in ng on init, perché lo facciamo automaticamente, al momento, vogliamo andare a riprendere, il nostro service, quindi, è un service nuovo, dobbiamo perciò importarlo, private, fire, eh no, ancora fira, firebase, si va bene così, private, firebase, due punti, firebase service, eccolo qua, e noi facciamo, this, punto, firebase, punto, insert persona, e qua dentro, dobbiamo andare ad inserire, l'url, e il body, ok, quindi, mettiamo prima l'url, facciamo così, e qua dentro mettiamo ciò che abbiamo copiato, tuttavia, questo è, l'url al database, e basta, vogliamo, andare a, prendere un endpoint specifico, in questo caso, per la tabella persone, quindi ne facciamo, persone, così, molto bene, e poi, andiamo a mettere, un body, in questo caso, come body, fatemi andare a capo, facciamo così, facciamo così, giusto che si veda, eh, perfetto, e nel body, è una persona, perciò mettiamo un nome, due punti, Luca, virgola, non un cognome, ma email, due punti, Luca, Rossi, chiocciolagmail.it, ok, poi per il core preferito, a sto giro, lo saltiamo, quindi andiamo a fare, this, Firebase, insert persona, che è, non questo, ma, questo qua, e gli passiamo l'url, e il body, l'url, ripeschiamolo qua, è quello che abbiamo copiato, più la tabella in cui volete inserirlo, mentre invece, l'oggetto, è questo, in realtà, per, l'url, potreste poi salvarlo, qua dentro, quindi potreste salvarlo, in una variabile, già tutto con persona, se tanto sapete che è persona.service, altrimenti se è generico, salvate solo l'url iniziale, che è questo qua, e poi, in base alla situazione, potreste fare url, più persona, cose del genere, insomma, potete astrarlo un po', come meglio credete, in questo caso, facciamo le cose arcodate, non è un problema, abbiamo solo una situazione, altrimenti non parte, innanzitutto, dobbiamo fare il return, qua, guardate un po', faccio il return, ed improvvisamente, se vado qua, il return è un observable object, quindi questa cosa qua, non possiamo far solo, la chiamata, dobbiamo far la chiamata, e poi, ovviamente, buttarla fuori, perché altrimenti qua, non ci arriva niente, in aggiunta, che cosa dobbiamo fare, dobbiamo riuscire a prendere, il dato, come observable, e vi faccio una domanda, perché l'abbiamo visto, come facciamo a prendere, il dato di un observable, se io mi devo mettere lì, ed osservare, che succede a un evento, che cosa faccio, io vi dico Netflix, e la risposta dovrebbe essere, la sottoscrizione, quindi vogliamo fare, un abbonamento, al nostro observable, come lo facciamo l'abbonamento, ve lo dico subito, ma tanto lo sapete, andiamo a fare un bel, punto, subscribe, eccolo qua, nel momento che abbiamo un observable, facciamo un subscribe, otteniamo dei dati, otteniamo dei data, facciamo così, e andiamo a mandare a schermo, console.log data, ok, siete pronti, vi faccio vedere che qua dentro, perché nel momento in cui faccio salva, parte automaticamente, perché parte in ngoninit, potrei farlo, on submit, qua, potrei farlo on submit, ma lo facciamo partire automaticamente, ok, quindi, prendiamo qua, vedete che non c'è assolutamente niente, provo ad aggiornare, vedete, non c'è niente, io salvo, bam, vado qua, e abbiamo un problema, ve lo dico subito perché, mi è venuto già subito in mente, perché non abbiamo messo punto json, quindi vergogna a me, che ho fatto tutta la spiegazione, e poi non ho specificato punto json, quindi persone, punto json, ogni API ha le sue alternative, ha le sue regole, Firebase funziona così, non ho detto che gli API che farete voi, sarà persone punto json, probabilmente sarà solo persone, ok, questo varia molto, torniamo, e adesso la situazione, vedete che funziona, ci ha restituito un nome strano, di base ci ha restituito l'ID, del record che abbiamo appena inserito, se io vado su corso Angular, guardate un po', tabella persone, questo qua è l'ID che abbiamo qua, vedete, n9gy, n9gy, e abbiamo qua, email e nome, ok, quindi abbiamo inserito, con successo, dei dati, quello che possiamo fare adesso, invece, è andare, ad esportare tutta sta cosa qua, nel submit, io vorrei che, lo faceste voi in realtà, senza di me, ma io, ve lo faccio vedere, come, soluzione, quindi l'idea è, stoppate il video adesso, fatelo, voglio che mi mandate, a schermo, ciò che avete scritto qua, lasciate perdere, il colore, non è, non è un problema, su questo, se volete farlo, mettervi alla prova, sono super contento, altrimenti, non è un problema, quindi, vogliamo prendere, questi dati di home form, e vogliamo buttarli qua dentro, in realtà, abbiamo già tutto, this home form, ci basta poi prendere, nome, quindi, this home form, anzi, siamo sicuri, fatemi di fare un check, no, secondo me c'è prima value, facciamo un check, quando siamo indecisi, facciamo un check, non perdiamoci in chiacca, abbiamo qua il console log, vediamo un po', corso angular, scrivo due cose, tac, devo scrivere la mail, tatatac, slat, bam bam bam, punto com, invia, abbiamo form group, abbiamo value, ok, possiamo fare, il form group, punto value, punto nome, così, va bene, possiamo fare così, quindi, torniamo qua sotto, e facciamo qua nel nome, this, punto, home form, punto, value, eccolo qua, punto, nome, let's go, e qua dentro, this, ups, this, home form, punto value, punto, email, salviamo, proviamo, vedete che non ha mandato niente, non abbiamo qua altri dati, e adesso inseriamo come nome, marco, e come email, marco, punto, verdi, ciocciola, gmail, punto, it, il colore non ci interessa, è qua solo, in bella vista, io faccio invio, e vedete che ci ha restituito, un altro valore, quindi è stato inserito, con successo, ed effettivamente, abbiamo un altro, vedete, abbiamo marco verdi gmail, e lucaros gmail, perfetto, quindi sembra funzionare, io spero, abbiate fatto giusto, in realtà, avevamo già messo tutto in place, tutto in po', tutto nel posto giusto, negli episodi precedenti, abbiamo semplicemente messo insieme, il pezzo finale, e abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ok? Nel prossimo video, vediamo come prendere questi dati, li abbiamo mandati a schermo, scusatemi, li abbiamo inseriti, e adesso è ora di prenderli, e mandarli a schermo, sotto in descrizione, sempre le solite cose, sito, secondo canale, come supportare il canale, io vi ringrazio, e alla prossima, ciao ciao! Episodio 33 di Angular, oggi vediamo come prendere i dati, che abbiamo salvato, nell'episodio precedente, con il metodo get, quindi sempre nel nostro, Firebase Service, vogliamo andare a creare, un nuovo metodo, in questo caso, get persone, chiaramente vogliamo andare, ad un url specifico, anzi, scusatemi, ad un url dinamico, e vogliamo fare, un bel return, ormai lo sapete, dis.http.get, vogliamo prendere l'url, basta, quindi vogliamo fare, questo ritorno, per poi andarci a, sottoscrivere, esattamente dove ci serve, in questo caso, non andiamo in home, andiamo in contatti, fatemi aprire contatti, eccoci qua, 1 e 2, e a sto giro, non vogliamo più, prendere, dis persone uguale, servizio prova, get persone, perché quello era, un servizio di prova, adesso abbiamo qualcosa, di un po' più incredibile, ovvero il nostro, Firebase, Firebase, quindi, Firebase, Firebase service, eccoci qua, e quello che vogliamo fare, ormai lo sapete, è un bel, dis.firebase.get persone, qual è l'url, andiamolo a prendere da qua, in realtà, ripeto, sarebbe meglio, averlo qua dentro, ok, io non lo faccio, per farvi vedere, ogni passaggio, ma, ogni volta che noi, ripetiamo queste cose qua, già un url, è ripetuto due volte, dovrebbe farvi accendere, una campanella d'allarme, dire no, perché se per caso, questo persone, diventa persone, vuol dire che io devo andare, in tutta l'applicazione, e fare, ctrl, maiusc, f, e cercare questa roba, ovunque io, l'abbia messa, sono fortunato, in un solo punto, al momento, certo lo possiamo sostituire, con questa funzionalità, ma è un altro paio di maniche, ok, quindi, ogni volta che ripetete, più di una volta, cioè ogni volta che ripetete, una volta, una stringa, o un qualcos'altro, dei blocchi di codice, pensate subito, ad esternalizzarle, e comprimerle altrove, per ora, facciamo così, non è un problema, get persone, abbiamo l'url, e chiaramente, sapete che dobbiamo, iscriverci, quindi punto, subscribe, e abbiamo i nostri data, che ci ritornano, ma come ci ritornano, ve lo dico io, ci ritornano a persone, dis persone, uguale, data, salviamo, e andiamo prima a vedere, in contatti, andiamo su contatti, bam, errore, è meglio andare qua, e fare, così, perfetto, salviamo, giustamente non ci manda schermo niente, quindi non solo, dobbiamo togliere qua, perché avevamo problemi, adesso vi faccio vedere perché, ma in più, non ho mandato a schermo, cosa ci arrivava appunto, quindi console.log, dis.persone, anzi, e io vi faccio vedere, che si abbiamo risolto l'errore, ma io voglio ottenere questo errore, e adesso vi faccio vedere il perché, teoricamente, voi vi aspettate che sostituendo dis.persone, da qua, a data, non cambia niente, in realtà, vediamo un po', abbiamo i nostri dati, eccoli qua, ma abbiamo un problema, legato, ai nostri contatti, ci dà un problema, perché ottiene object, object, non ottiene più, la lista di persone, ma ottiene un oggetto, con dentro altri oggetti, questo perché Firebase, se vedete, ci manda, questo tipo di dati, è un oggetto, che contiene questo oggetto, con questo nome di proprietà, e all'interno, un altro oggetto, negli API che farete voi, è molto probabile, che vi arriverà già l'array, di oggetti, con email, e nome, in questo caso, no, perché Firebase funziona in modo diverso, ma è giusto andare a vedere, come risolvere questo problema, perciò, dobbiamo andare a fare, una cosa che si chiama, mapping, il mapping, deriva da, map, che è la mappa, e quando noi diciamo, mappare, o rimappare, quando diciamo, mappare, vuol dire, che stiamo mettendo giù, le basi, di una zona, per capire, come è fatta la zona, se andiamo a rimappare, vuol dire, che magari è cambiata qualcosa, magari è cambiata qualcosa, nella casa, dobbiamo tirare giù un muro, dobbiamo cambiare, una parte, quindi rimappare, vuol dire, tra virgolette, per come lo intendiamo noi, è risincronizzare, il documento, la cartina, o qualsiasi cosa, quindi, quando andiamo a mappare, qua, vuol dire, che stiamo, prendendo i dati, che ci arrivano in un certo modo, e li rimescoliamo, in un altro modo, utilizziamo sempre gli stessi dati, ma facciamo qualcos'altro, in questo caso, vogliamo far sparire, completamente, gli id, di Firebase, che non ci servono, quindi è un oggetto, con dentro altri oggetti, però con proprietà, array di Firebase, che non ci interessa, noi vogliamo farlo diventare, un array di oggetti, perciò, object, punto, keys, vogliamo semplicemente, guardate qua, ci ritorna, il nome, di tutte, le proprietà, che ha l'oggetto, in questo caso, data, ce le ritorna tutte, quindi noi prendiamo, qua dentro, data, è meglio se facciamo una cosa, ve lo dico subito, altrimenti ci darà errore, facciamo data, due punti, any, ok, anticipiamo, altrimenti ci darà errore, e vi faccio vedere cosa succede, se non lo metto, quindi keys, data, punto, map, perfetto, e vogliamo mappare, prendiamo la singola chiave, ok, prendiamo la singola chiave, e cosa facciamo, facciamo un bel, return, di, data, apriamo, key, va bene, quindi, quindi stiamo andando a creare, un array, di oggetti, togliendo, l'id, perciò, facciamo, console, di dispersone, e qua sopra, console, di data, in modo che vedete, cosa abbiamo fatto, a cosa abbiamo fatto, poi tolgo any, vi faccio vedere che ci dà un problema qua, vedete, quindi, se lo mettiamo così, ci dà questo problema, per sopperire, any, potremmo essere più specifici, ma in questo caso, va bene così, perciò io apro il browser, e vedete che questo, è ciò che ci arrivava, vedete, un oggetto, si vede da qua, con dentro, due proprietà, n9gy, n9gz, e queste, e queste proprietà, avevano a loro volta dentro, degli oggetti, mentre invece, noi vogliamo un array, di oggetti, quindi già pronto, perciò poi andiamo a fare, velocemente, un loop in ng4, abbiamo ng4, e vedete che abbiamo, Luca, ok? Tra l'altro funziona ancora, perché basandoci, sul, sull'indice, di questo array di oggetti, abbiamo ancora, 0 e 1, che è comunque, Luca Rossi, e Marco Verdi, questa è pura fortuna, ma non è, ma non è un problema, perciò vedete che abbiamo, Luca e Marco, se proprio proprio, non vi fidate, in questo caso, possiamo fare, non abbiamo più, persona.cognome, potremmo avere, persona.email, io salvo, e il risultato non cambia, vedete? Abbiamo comunque, i dati, che ci sono arrivati, perfetto, quindi questo, è come prendere, i dati, avevamo già, tutto a posto, sempre dagli episodi precedenti, e adesso capite, che le cose si fanno divertenti, perché manca, la patch, quindi per modificare, i dati, e, delete, se volete, strafare, potreste, tranquillamente, ma ve lo dico tranquillamente, prendere, il forum che abbiamo in un component, aggiungergli roba, tipo la descrizione, eccetera, e andare autonomamente, a prendere, questi singoli dati, quindi sul click, cambia qua, abbiamo il subscribe, ce l'abbiamo su contatto, lo sapete, e su contatto, potreste andare a chiamare, la singola, persona, e provare a prendere, solo, Luca, quindi solo i dati di Luca, magari aggiungetegli la descrizione, direttamente su Firebase qua, potete farlo, vedete, potete aggiungere una chiave valore, non è un problema, facciamo così, potete farlo da qua, altrimenti potete cancellare tutto, e riprendere il form, togliere colore magari, e inserire la descrizione, e potete, provare a mandare a schermo, il child, quindi cliccando qua, potete andare a prendere, questi dati, se ci riuscite, è tanta roba, noi nel prossimo video, vediamo come modificare, e poi eliminare, sotto in descrizione, trovate il link al mio, secondo canale, sito, e come supportare il canale, io vi ringrazio, e alla prossima, ciao ciao, episodio numero 34, di Angular, vediamo come possiamo, eliminare, dei dati, con il metodo, delete, allora, quale cosa si fanno, un pelo complesse, perché, perché dobbiamo puntare, all'url che avevamo, che era tipo, tatata, slash, persone, punto, json, ma come abbiamo visto, già nel routing, volevamo avere una cosa tipo, l'id, dell'utente da eliminare, in questo caso, non abbiamo l'id dell'utente, ma abbiamo, l'id, vedete qua, dell'oggetto, quindi possiamo utilizzare, questo, per farla, semplice, potremmo rendere le cose, più complesse, avere qua un id, sull'utente, e verificare qua dentro, però, abbiamo questo, possiamo assolutamente, utilizzarlo, è un invoco, lo fa apposta, Firebase, perciò, perché non approfittarne, semplicemente, è importante sapere, che quel, ng, z, bla bla bla, eccetera, non va messo qua dietro, per quanto riguarda Firebase, ma va messo, attenzione, guardate un po', bisogna fare una cosa del genere, quindi, è più o meno simile, a come avevamo fatto, per il routing, se vi ricordate, quindi era persona, clienti, slash, l'id, e poi in questo caso, aggiungiamo il json, non cambia niente, se non per il json finale, ok? Detto questo, possiamo cominciare, allora, innanzitutto, andiamo sul Firebase Service, e andiamo a fare un bel, persona, abbiamo un url, che è una string, e poi abbiamo un id, che è una string, quindi, tac tac tac, tac tac tac, benissimo, quello che vogliamo fare dopo, è un, return di, dis.http.delete, apriamo, e qua dentro mettiamo, non l'url così, scusatemi, ma facciamo alte 96, per avere i backtick, e qua dentro, andiamo a mettere, l'url, così, e poi mettiamo, slash, dopodiché mettiamo, l'id, punto, json, se non conoscete, questa sintassi, andate a vedere, la string interpolation, di, is6, ok, fondamentale, importante, perché è molto comoda, e si usa, spesso e volentieri, ormai sono passati sei anni, da quando è uscita, ormai non è più, è moderna, ma ormai è utilizzata, di routine, perciò, noi qua mettiamo, l'id, allora salviamo, e al momento, io avevo fatto dei test, avevo solo Marco Verdi, perciò, andiamo prima, a reinserire, il buon Luca, quindi diciamo, Luca, lucarossi, chiocciola, gmail, punto it, invio, e magari mettiamo anche, Anna, e scriviamo, Anna Neri, giusto per avere, qualche valore in più, e vedete che qua, abbiamo, un po' di gente, perfetto, quindi ci ha aggiunto, altre due persone, perfetto, apriamole tutti, e siamo a posto, da qua, vogliamo chiamare, il delete, però non lo facciamo, sull'engine init, ma andiamo a schiacciare, un pulsante, possiamo farlo anche, dalla home, non è un problema, quindi possiamo prendere, il nostro button, lo buttiamo fuori, facciamo così, non mettiamo, type submit, non mettiamo disabled, ma mettiamo, elimina, utente, perfetto, e cosa vogliamo fare, vogliamo mettere, on click, facciamo, on, delete, persona, no, ok, quindi, on delete persona, tac, noi andiamo, sull'home component, e qua, andiamo a creare, on delete persona, che cosa andrà a fare, andrà a chiamare, this, punto, Firebase, punto, delete persona, adesso arriviamo a questa parte qua, sotto, punto, subscribe, perché tanto il punto qua, è come se fosse attaccato, lo faccio semplicemente perché l'url sarà abbastanza lungo, e ve ne renderete conto, quindi, punto subscribe, abbiamo i data, facciamo la solita arrow function, e qua dentro console.log di data, qua dentro ci serve l'url, eccolo qua, e poi ci servirebbe l'id, giusto? In questo caso per id dobbiamo metterlo noi a mano, perché? Perché non l'abbiamo passato, in giro, non l'abbiamo passato, quindi, andiamo qua, prendiamo questo id, voglio, voglio togliere Marco Verdi, quindi qua dentro, come id mettiamo lui, però vi doveste rendere conto che c'è un problema, al momento stiamo arcodando tutto, quindi capite che se avessimo solo questo con slash persone, e aggiungessimo punto json dopo, parlo di averlo qua in Firebase Service, sarebbe molto meglio, e vorrei che questa cosa la sistemiate voi, onestamente, perché vi permette di cominciare a mettere mano alle varie cose, in modo indipendente, perché è una cosa che non abbiamo fatto, ma è un'astrazione che potrebbe assolutamente aver senso, quindi qua abbiamo un problema per ora, perché stiamo arcodando, vi ho detto che dobbiamo fare l'url, qua dentro ci mettiamo l'id, quindi slash id eccetera, però qua lo facciamo, giusto? Sì, il problema è che qua l'id, il problema è che qua l'url è già punto json, fateci caso, questo, prima di slash id punto json, è già punto json, quindi al momento, per questa cosa qua, dobbiamo fare così, quindi prenderà questo, questo, gli mette slash l'id, e poi punto json, questo è un caso particolare, cercate di prendere questi url, e gestirli in modo astratti qua dentro, una sola volta, così diventa molto più facile, l'url potrebbe essere solo slash persone, e poi ogni volta, gli agganciate il json qua dentro, potreste far così, oppure potete fare una funzione, che è tipo, complete url, quindi prende l'url, gli mette il json finale, e siamo a posto, vedete voi come volete farla, però voglio che la facciate voi, io la so fare, non ho bisogno di farla, non è neanche una cosa che merita di essere spiegata, però va fatta, ok? Fondamentale, adesso che abbiamo il tutto, direi che noi possiamo testare, il delete persona, dovremmo avere la delete, on delete, bla bla bla, eccetera, vediamo, andiamo sulla home, eccolo qua, elimina utente, schiaccio, mi è tornato null, e teoricamente avrebbe senso, ma abbiamo un problema, ovvero non è riuscito ad eliminarlo, debagghiamo insieme, andiamo qua, e facciamo un bel console.log, di tutta sta roba che abbiamo scritto, vediamo un po', salviamo, verifichiamo, e il problema, ve lo dico subito, è qua, vedete, manca il trattino, avete visto? Qua il trattino non c'è, qua c'è, eccolo qua il problema, perfetto, quindi possiamo, vabbè, lasciamo questo tanto per, andiamo a ripescare l'url completo, non me ne sono accorto, eccolo qua, serve il trattino, se io adesso salvo, vado qua, elimina, vedete che è stato rimosso, perfetto, mi ha rimosso Marco Verdi, che era il primo, perfetto, quindi abbiamo ottenuto il nostro risultato, molto, molto bene, l'eliminazione è stata fatta, volevo dirvi che nell'episodio precedente, io vi ho chiesto di prendervi nei contatti, il profilo della persona, però non vi ho spiegato come farlo, e questo sarebbe il modo per farlo, quindi noi andiamo a puntare direttamente a, questo url, persone, slash, id, punto json, ok, quindi, prima probabilmente non sareste, non sarete stato in grado di farlo, a meno che ci avete buttato via qualche ora, o siete abbastanza avanti con la vostra preparazione da riuscirci, adesso però avete, tutte le carte in regola per farlo, perché adesso abbiamo anche l'id, ora però uno potrebbe dirmi giustamente, edo, però qua l'id, è, maledettamente arcodato, come faccio a passargli l'id corretto? Perché qua siamo in home giustamente, non c'è effettivamente una persona a cui prendiamo l'id, ma se fossimo in contatti, e qua avessimo il tasto elimina, dobbiamo passargli l'id, però noi qua se ci fate caso, non abbiamo nessun id, sappiamo che ci arrivava tutta sta roba, ma l'avevamo trasformata in questa, però questo id abbiamo detto che ci può servire, nella delete l'abbiamo utilizzato, sarebbe bello utilizzarlo anche nella get, per prendere il singolo dato, o singolo contatto, come vogliamo chiamarlo, e ci servirà anche per modificare i dati, perché noi vogliamo prendere quella persona con questo id, e magari modificare l'email nel prossimo episodio, come facciamo quindi ad avere una cosa così, quindi un array di persone utilizzabile qua dentro, ma a riottenere questo id? Andiamo a vedere, torniamo su contatti, torniamo su contatti, e dobbiamo ritornare qua dentro, allora, la prima cosa che dobbiamo fare, e lo facciamo insieme, è debuggare quello che ci viene passato qua, perché vediamo che noi abbiamo object keys, e poi facciamo la map di questa key, quindi noi prendiamo qua, facciamo così, e il risultato è il seguente, allora, sono TS19, 20 e 22, allora, questo qua è il dato che ci arriva, chiamiamolo sporco così direttamente la Firebase, questo qua sotto è il dato pulito da noi, questo qua sotto, sono le key di cosa? Di questo oggetto, quindi per ogni key di questo oggetto, noi prendiamo solo questo oggetto, prendiamo il sotto oggetto, ne prendiamo due in questo caso, e facciamo un array di oggetti, vi torna? Quindi prendiamo, questa key, scusatemi, vedete che abbiamo questa key, questa qua, che è questa, prendiamo il suo oggetto, e lo mettiamo in un array, poi prendiamo questo, che è questo, prendiamo il suo oggetto, lo mettiamo in un array, e otteniamo non sta roba qua ma questo perfetto io però vorrei che l'id del mio utente lato frontend mio fosse questo qua quindi come lo possiamo inserire ve lo dico subito da qua abbiamo il nostro return possiamo andare a capo possiamo andare qua a capo e dobbiamo aggiungere semplicemente una riga ovvero che data key se ci fate caso vi faccio vedere console.log di key qual è la chiave effettiva in questo map per ogni key va a prendere data key quindi questo key che cos'è salviamo questo key vedete ce l'ha ripetuto due volte perché effettivamente queste qua benissimo quindi sapendo noi che la chiave è effettivamente l'id di firebase noi possiamo dire che mentre invece data key è l'oggetto noi potremmo dire guarda che data key che è l'oggetto che stiamo prendendo mi aggiungi una nuova proprietà che si chiama id la fai uguale a key che è la nostra chiave facciamo salva magari togliamo questi due console.log per rendere le cose un pelo più pulite e guardate un po' miracolosamente qua dentro abbiamo email nome e l'id completo con tanto di trattino quindi adesso noi qua abbiamo accesso anche all'id va bene abbiamo accesso all'id perciò in realtà andando a premere noi potremmo passare qua questo id effettivo ok e da qui possiamo andare a prendere col get il dato specifico questa cosa appunto vorrei che la faceste voi è fondamentale e invece nel prossimo video noi prendiamo questo id e proviamo a fare una modifica quindi anziché annaneri gmail proviamo a fare annaneri chiocciola gmail normale punto punto com magari cambiamo la mail o il nome o chissà cosa questo è quanto mi raccomando ragazzi provate a fare quelle cose che vi ho detto che vi tengono il cervello pronto per il prossimo episodio soprattutto non solo pronto ma lo fanno un po' lavorare su cose nuove tanto avete tutti gli strumenti per farlo veramente non preoccupatevi anche se non riuscite pensateci un pochino lasciate lavorare il cervello tornateci e ce la fate sotto in iscrizione trovate il mio secondo canale sito e come supportare il canale io vi ringrazio alla prossima ciao ciao episodio 35 di angular oggi vediamo come possiamo modificare i dati con patch quindi abbiamo visto come inserire dati leggere dati eliminare dati adesso ci manca solo la modifica poi parliamo della differenza tra patch e put a sto giro useremo solo patch e poi ve lo spiego quello che faremo adesso è arcodarli quindi andrò a fare semplicemente la chiamata che modifica quello che potreste fare voi è creare un piccolo form che va a modificare ok quindi potreste avere il form di inserimento il form di modifica potreste farlo sia in un componente a parte se ci tenete oppure tutto in contatti quindi aprite il singolo contatto scusatemi in contatto non in contatti aprite il singolo contatto e da lì scegliete se fare la modifica oppure l'eliminazione con delle icone tanto sapete come collegare le varie le varie funzioni ok quindi partiamo dal principio andiamo su firebase service e scriviamo change oppure scusatemi patch persona quindi patch persona e che cosa prendiamo è una chiamata che va a modificare una persona specifica perciò ho bisogno dell'endpoint dell'id e visto che va a modificare devo passare dei dati perciò serve un body quindi andiamo a mettere un url che è una string url che è string dopo che mettiamo i di che è string e poi un body che è altro non è niente di meno che un oggetto noi apriamo non qua noi apriamo le nostre parentesi e qua dentro mettiamo vabbè il console log non ce ne frega niente a sto giro mi basta avere un return di tutta sta roba perfetto più il body ok come banalmente la post vedete abbiamo l'url così semplicemente qua andiamo a prenderli di specifico più il body stesso discorso solo che qua modifichiamo qua inseriamo ex novo benissimo quello che vogliamo andare a fare adesso in home è prendere il nostro bottone ne creiamo un altro e facciamo on patch persona in realtà qua potreste non scrivere patch perché è più lato componente è un banale change persona però vabbè è rilevante facciamo modifica utente dobbiamo andare perciò a creare on patch persona noi salviamo ci dà errore non è importante scendiamo qua sotto facciamo così salviamo ops apriamo le parentesi e facciamo dis firebase punto ormai lo sapete patch persona dobbiamo passare tre argomenti abbiamo detto due sono praticamente gli stessi a parte l'id chiaramente che vorrei che appunto faceste in modo dinamico ma non è un problema quindi andiamo a capo qua andiamo a capo qua e poi per ora il body ci buttiamo un qualcosa di di randomico quindi seguitemi un attimo come body per ora facciamo così dobbiamo cambiare questo id quindi lo arcodiamo ma sto giro dobbiamo prendere qualcosa che abbiamo perché perché l'altro id se vi ricordate era di marco verdi che abbiamo cancellato nell'episodio precedente perciò andiamo qua arcodiamo mi raccomando più avanti non potrete avere l'id che è arcodato così dobbiamo prenderlo selezionando l'utente quindi quando selezionate l'utente fate riferimento a quell'id se lavorate in contatti scusatemi in contatto che è il singolo in contatto noi abbiamo vedete persona nome persona cognome possiamo avere anche persone d quindi poi ce l'abbiamo tranquillamente qua in ts eccolo qua vedete tgd non c'è motivo per non inviarlo ok quindi abbiamo già tutto ciò che ci serve se volete fare gli indiana jones della programmazione e provare a far qualcosa in più adesso cosa voglio modificare semplicemente l'email quindi anziché modificare tutto a me basta fare email due punti andiamo a vedere cosa avevo io voglio ho preso lucarossi quindi da lucarossi gmail voglio mettere prova at prova quindi facciamo mail prova at prova gmail.com ok facciamo così abbiamo l'url che abbiamo dovuto vi ricordo togliere il punto json qua perché verrà mischiato con questo quindi sarà persone slash id punto json dopo di che abbiamo il nostro body da qua dobbiamo fare un'altra cosa che è il subscribe quindi punto subscribe e qua abbiamo sempre il nostro data facciamo così tac console.log e noi mandiamo a schermo data giusto per vedere che ha funzionato salviamo e se io vado qua devo essere super veloce modifica utente bam vedete che l'ha modificato no l'ha eliminato come mai come mai l'ha eliminato vediamo onclick allora andiamo qua e facciamo no non firebase scusatemi home component ah ok ecco qua dov'è il problema vedete perché ho copiato tutto questo senza sostituire il delete con patch mannaggia me porca miseria allora facciamo così andiamo ad inserire un nuovo utente quindi da qua mettiamo nome rimettiamo lucarossi quindi mail lucarossi chiocciolagmail.it va bene faccio invio me l'ha inserito prendiamo questi d che mi piace particolarmente eccoci qua ma tanto che ci siamo inseriamo un altro inseriamo marco marcoi va bene quindi marcoi così invio e inseriamone un ultimo che è taddeo perfetto sono ispirato oggi taddeo invia cerchiamo di non poterlo inviare più per sicurezza perfetto se guardiamo qua abbiamo tre nuove aggiunte io voglio cambiare lucarossi di cui ho già preso l'id appena l'abbiamo inserito perciò lo hardcodiamo mi raccomando qua patch lo hardcodiamo e lo hardcodiamo qua dentro perfetto salviamo e se adesso vado a fare modifica utente vedete che è passata prova gmail che è la nuova mail e se io apro qua vedete che abbiamo prova at prova gmail ok quindi ha funzionato con successo adesso parliamo della differenza tra put e patch perché di base vanno entrambi a modificare i dati salvati sul database la differenza sostanziale è che fatemi fare un piccolo schemino put patch se noi mettiamo put si aspetta che ciò che passiamo ovvero il body sia tutta la nuova entità eh ma anch'io che vado a chiudere il commento ok che ciò che passiamo sia la nuova entità di conseguenza se io vado a mettere una cosa del genere cosa mi va a fare il database non mi va semplicemente a modificare l'email perché put vuol dire mettere vuol dire che lui prende ciò che avevo prima che era nome luca email tatata e dice ah sì put tac tac ok questo è put mentre invece patch che cos'è patch invece se io ho nome luca luca va bene e email tatata se io voglio andarlo a modificare con qrt at 12345.it facendo patch e passandogli solo email così una patch se arrivate dal gaming altro non è che un fix andiamo ad aggiungere roba per sistemarne altra quindi quello che stiamo facendo è questo tac tac la patch vedetela anche come si dice patch quando mettiamo le toppe quindi in italiano patchare di base era toppare ok put è letteralmente mettere quindi stiamo mettendo tutto perciò si aspetta che è l'intera entità ed è un problema perché se il database fa dei controlli o anche il back end e dice guarda che questa cosa qua non va bene perché noi ci aspettavamo nome cognome email id eccetera quindi se noi passiamo un'entità che è così perché pensiamo di fare l'equivalente di patch ci dà errore perché il database e il back end chiunque si metta a fare controlli mi dice questa non è un'entità consona quindi put attenzione si aspetta l'entità intera magari l'entità intera è uguale all'altra non è un problema vi faccio l'esempio diciamo così non è un problema se nome luca e anche qua nome luca perché quello che a noi interessa è l'email va bene che però qua è diversa no qua è maledettamente uguale scritta così qua è diversa quindi noi di base andiamo a riprendere tutti i dati che avevamo riguardo a luca li rispediamo semplicemente modifichiamo questa e ci sta è un'alternativa si può fare anzi potremmo usare anche entrambi i metodi se vogliamo possiamo avere due funzionalità di put e patch mentre invece patch dice guarda io ti patch o ti vado a rattoppare cosa ti rattoppo l'email e quindi viene semplicemente rattoppata l'email mi raccomando questa è l'istensione quindi put intera entità che va a sostituire patch vado a rattoppare dove ho segnalato ok questo è quanto quello che avevo detto è provate a rendere il tutto più dinamico se volete aggiungere un form potreste fare una cosa del genere perché adesso entriamo nella fase finale del corso che è la registrazione login logout un app d'esempio il deploy e quant'altro quindi quello che potreste fare in realtà è innanzitutto andare su contatti quando schiacciate sul contatto prendete il profilo giusto quindi aggiungete su database descrizione eccetera eccetera e prendetelo come vi ho fatto vedere con era qua è contatti ma potete scriverlo era tipo persone l'id punto json ok l'abbiamo visto per per il patch per il delete eccetera ma poi da qua potete mettere due icone o anche due scritte con modifica ed elimina se eliminate vi va a eliminare completamente il l'elemento se lo modificate va a fare la patch in questo caso potreste fare modifica e quando fate uscire il profilo visto che ancora non sappiamo fare i dialog quindi pop up potreste semplicemente mettere qualcosa di non dinamico oppure un form che esce già qua ok se volete fare qualcosa di dinamico avete angular material e non andiamo sui form ma potreste usare i dialog eccoli qua quindi vi faccio vedere un esempio vedete questo è un dialog potreste far così ok e lo va a cambiare è roba più complessa se ve la sentite lo potete fare più avanti voglio impostare un'app d'esempio quindi sono cose che probabilmente vedremo ma se volete anticiparmi giusto per mettervi alla prova è una cosa che potete fare più avanti voglio impostare un'app d'esempio quindi sono cose che probabilmente vedremo potete fare vi ho già dato di base tutta la traccia da seguire certo tra il dire il fare c'è di mezzo il mare forse anche di più però insomma questo è quanto sotto l'inscrizione trovate il link per secondo canale sito e come supportare il canale io vi ringrazio e alla prossima ciao ciao episodio 36 di angular oggi vediamo come fare la registrazione abbiamo impostato il nostro back end con firebase abbiamo creato il nostro progetto eccetera eccetera l'abbiamo già utilizzato per fare le chiamate http quindi abbiamo tutto già sistemato o quasi per fare la registrazione di un utente piccolo disclaimer utilizziamo firebase che rende molto facile la cosa e soprattutto ha le sue regole e i suoi metodi di utilizzo nessuno vi vieta non sarò io a farlo di crearvi un vostro back end in node java python eccetera eccetera e crearvi il vostro metodo di registrazione quindi non siete obbligati a utilizzare per forza firebase è comodo è figo è bello è veloce ma potete anche fare il vostro metodo di registrazione detto questo per semplicità utilizzeremo firebase quindi obiettivo del giorno è creare un componente registrazione potremmo usare un unico componente di registrazione e accesso e alternare due cose però io per come lavoro preferisco avere sempre due componenti distaccati poniamo il caso che abbiamo la registrazione troppo lunga come form magari potrebbe essere un'applicazione finanziaria dove c'è dentro la madonna preferisco avere il codice separato in quel caso giusto per leggibilità andremo a creare la nostra route come al solito andremo a creare il form e lo testeremo dobbiamo andare a sistemare delle cose su firebase e poi andremo a creare il nostro service out che in realtà abbiamo già qua con il metodo sign up va bene questo è quanto quindi non perdiamoci in chiacchiere entriamo qua che in un nostro in un nuovo terminale facciamo ng generate component component e andiamo in componenti componenti slash potete fare registrazione in italiano oppure sign up in inglese scegliete voi è totalmente rilevante faccio sign up a sto giro solo perché è più figo da dire e ci ha creato il nostro componente let's go togliamo spec come al solito e abbiamo il nostro componente che potete vedere insomma niente di niente di incredibile togliamo qua questo togliamo la home se non ci interessa togliamo la home e adesso dobbiamo fare il route quindi scendiamo dove c'è up routing module e dove volete magari anche dopo home page magari sì possiamo farlo possiamo mettere un bel sign up e qua mettiamo sign up component perfetto quindi salviamo andiamo a verificare che home che scusatemi la nostra applicazione slash sign up ci mandi su sign up work ok a sto giro non imposteremo tutto bene con le icone eccetera perché tra due episodi quindi dopo che abbiamo finito anche il login e logout voglio fare un esempio di applicazione da zero quindi prendiamo tutto quello che abbiamo imparato e facciamo l'applicazione adesso buttiamo dentro i pezzi in modo randomico per vederne il funzionamento poi andiamo a fare tutto come come si deve va bene quindi torniamo a noi e adesso riapro un component per vedere la lista di cose da fare abbiamo creato questo dobbiamo cominciare a creare il form ora abbiamo qua già della roba quindi perché non approfittarne voi vi chiederete ed è esattamente quello che facciamo perfetto quindi creare il form e testare il submit ok quindi l'app routing non ci serve più sign up component tss sign up component html lasciamo qua sign up anzi chiamiamola tipo registrazione però magari con l'h1 giusto per vederci meglio e scriviamo registrazione ok poi dobbiamo cominciare a togliere della roba questo perché useremo il template driven form non useremo il reactive form quindi togliamo questo non ci interessa possiamo togliere questo che al momento non ci interessa il colore non ci interessa allora veniamo semplicemente per iscriverci mettere un email e una password tutto qua esattamente come login semplicemente con la registrazione andiamo a inserire un nuovo utente quindi possiamo girare qua questo campo raga vado molto veloce su sta cosa perché ormai form li sapete fare dovete solo crearmi due due campi ok quindi button disabled e possiamo mettere togliamo disable a sto giro on submit lo facciamo quindi di qua andiamo con on submit eccoci qua e prendiamo il nostro form quindi arriva un form che è un ng form ormai ve lo ricordate perfetto andiamo di qua e dobbiamo dire a questo on form che è un ng form perfetto salviamo un attimo di qua per non avere più l'errore ci richiede un argomento e passiamo on form perfetto salviamo vediamo come sta venendo abbiamo un errore form control name ok abbiamo un errore perché abbiamo lasciato della roba indietro quindi abbiamo il form control name ma giustamente non sa da dove prenderlo ok quindi facciamo così e commettiamo ng model come al solito come al solito abbiamo fatto una volta in realtà quindi ng model ng model salviamo mettiamo qua password password poi aggiungiamo type password eccolo qua aggiungiamo altre requirements che sono appunto required vogliamo che sia obbligatorio questo deve essere obbligatorio e poi magari qua un bel disabled se on form punto valid al contrario quindi me lo disabiti se non è valido vediamo che cosa abbiamo e abbiamo un bruttissimo form di registrazione se volete sistemare il css non è un problema per averlo in display flex non ci interessa almeno a me personalmente quindi abbiamo la nostra email e la password che sono obbligatoria se io scrivo qua l'email faccio così ops ho voluto mettere così tac tac punto punto it e poi la password perfetto lo possiamo inviare ora dobbiamo ancora sistemare una cosa ovvero che on submit vogliamo prendere email e password quindi vogliamo cominciare a testare il tutto prendere i nostri dati e poi vogliamo anche resettare il form e vogliamo fare il console log di tutto quindi abbiamo vogliamo scrivere un bel console punto log di form e vediamo poi i valori se ce li prende e poi fare sempre form punto reset in modo che va poi a cancellare tutti i campi e non lascia niente di duplicato salviamo abbiamo qua email scriviamo la mail tac 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 poi password perfetto facciamo invia abbiamo qua il nostro ng form ci ha mandato tutto il form se noi andiamo su value object abbiamo email e nome null giustamente perché ci da problema perché abbiamo form reset proviamo a toglierlo se vado qua email tac 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 facciamo così perfetto password invia value object perfetto abbiamo i nostri valori quindi cosa succedeva in realtà che nonostante noi abbiamo messo il form nel console log faceva reset quasi prima praticamente e quindi risultava come null se noi invece facciamo una cosa tipo email uguale form punto value punto email facciamo la stessa cosa per password password mi raccomando ricordatevi di cambiare il name del campo quindi questo qua perfetto quindi facciamo così proviamo a mandare a schermo email virgola password vediamo un po salvo inseriamo l'email che è qwerty at gmail gmail va bene punto com e poi password così faccio invio ok ce l'ha preso e ha anche resettato il il form non siete obbligati a fare il reset del form volevo solo farvi vedere come come ipotesi quindi sta nella nostra lista di cose da fare abbiamo creato il form abbiamo testato il summit funziona adesso dobbiamo spostarci su firebase andiamo perciò su firebase dove c'è il nostro progetto e andiamo inserire l'authentication quindi premete su authentication vi manderà qua e dovete andare su non su users vedete che vi dice aggiungi utente potremmo farlo noi a mano ma in realtà lo vogliamo fare con la registrazione abbiamo sign in method io qua ho già email e password perché l'ho già fatto ma voi vi mettete qui fate aggiungi nuovo provider mettete email e password la finestra che vi compare dopo aver selezionato questo è esattamente questa ok voi abilitate semplicemente email e password la cosa bella di firebase come vedete che possiamo anche inviare il link tramite email quindi non mandare la password ma mandare l'email direttamente all'indirizzo e poi fargli fare il login da lì vedete che è molto bello soprattutto guardiamo i vari provider potete aggiungere una vagonata di roba per il vostro accesso microsoft google facebook twitter senza impazzire il telefono potete aggiungere veramente veramente tanta roba ecco perché firebase dicevo che è molto comodo e veloce una volta che avete abilitato questo dobbiamo andare sul nostro database quindi tornate sul vostro progetto andiamo qua dove c'è creazione se non volo da qua nelle scorciatoie e andate su real time database quindi il nostro database che avevamo già vedete qua ci sono le nostre persone vogliamo andare sulle regole sulle regole vogliamo aggiungere questa ricitura che prendiamo da qua ovvero out diverso da null ok quindi torniamo su firebase e vogliamo inserire questo così ok sostituiamo anche questo e che cosa stiamo dicendo che possiamo leggere e scrivere su questo database esclusivamente se l'autenticazione non è null quindi se effettivamente siamo autenticati pubblichiamo le modifiche vedete che ci dice che le regole di sicurezza non sono protette stiamo facendo una cosa un po' più semplificata qualsiasi utente autenticato può soltare modificare eliminare dati dal tuo database in questo caso per noi va bene così quindi dobbiamo fare l'autenticazione perciò ci spostiamo qua verifichiamo che è tutto ok non sul component ma sul sign up qua abbiamo detto che è tutto perfetto qua è tutto perfetto e adesso vogliamo utilizzare il nostro out service e creare questo qua se vi ricordate l'avevamo usato come prova per out guard quindi per i vari route ok e noi andiamo qua e facciamo sign up quindi creiamo il metodo sign up in questo caso dobbiamo fare dis.http che qua non abbiamo punto post perciò lo andiamo a prendere da l'altro servizio che abbiamo creato che è firebase eccolo qua vedete private http client ci spostiamo su out service andiamo qua in alto ingettiamo il client correzione rapida importa perfetto l'ha importato qua va tutto bene abbiamo il nostro post e in questo caso nel post serve serve l'url e poi serve il body giusto quindi per l'url lo andiamo a creare qua va bene per non avere qua il problema potreste metterlo anche qua in alto effettivamente potremmo metterlo qua in alto togliamolo e facciamo via il const url adesso lo sistemiamo facciamo così qua mettiamo dis url e poi il body nel sign up glielo passiamo qua dal dal body perfetto gli diciamo che banalmente è un oggetto ok quindi url dobbiamo andare su google eccoci qua e scrivere firebase rest api aprite e vedete che abbiamo tutto ciò che ci può servire da qua andate a iscriviti con email e password eccovi qua e abbiamo l'endpoint che ci interessa quindi identity toolkit di google apis.com account sign up e qua la chiave serve l'ap key della nostra applicazione di firebase che adesso andiamo a prendere da qua perciò ci spostiamo inseriamo qua questo l'ap key per ora la lasciamo la andiamo a prendere da progetto impostazioni progetto e abbiamo la nostra ap key eccola qua quindi io la prendo vado poi qua e la sostituisco qua dentro perfetto in questa pagina avete poi tutta la descrizione dettagliata di come funziona l'accesso a noi interessa vedete qua iscriviti con email e password e ci dice che dobbiamo mettere l'email perfetto la parola certo che scrive recorda porca miseria ma mettete string vabbè comunque email password e poi return secure token che metteremo come true quindi queste sono le tre cose che dobbiamo che dobbiamo mandare perciò noi andiamo qua abbiamo il nostro sign up col nostro body che prendiamo da dove salviamo intanto dobbiamo andare su sign up component e qui vogliamo fare il nostro inject per il service private out service due punti out service ecco qua e poi un bel dis punto out service punto sign up let's go e nel body gli andiamo a mettere email quindi email due punti email virgola password due punti password che abbiamo salvato potreste fare direttamente così non è un problema e poi abbiamo detto che l'ultimo è return che non me lo ricorderò mai a memoria eccolo qua return secure token che noi piazziamo come true perfetto form reset lo mettiamo dopo sbagliato lo mettiamo dopo così il console lo possiamo fare non è un problema noi salviamo e vediamo il risultato giustamente non abbiamo ancora finito perché qua dobbiamo fare il subscribe quindi qua dobbiamo fare subscribe dove ci ritornano indietro dei data a sto giro una bella risposta e vogliamo fare il console log di ciò che ci torna ci dà errore perché perché non abbiamo fatto il return sul sign up ve lo dico subito quindi email e password e vogliamo mandare a schermo data andiamo a fixare questo errore in out service e qua dobbiamo fare chiaramente il return di questo ok tutto a posto il body qua ben detto che arriva da qua quindi ok 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 salviamo e verifichiamo andiamo qua corso angular siamo dentro sign up email qwerty at qwerty.qwerty anzi facciamo gmail.it ok gmail.it password qwerty stupendo invia ok vedete qua potremmo anche non fare reset perché odio sta cosa qua in realtà dovrebbe poi mandarci automaticamente nel login comunque vedete che c'è tornata indietro la risposta che è l'email tra quanto expire il token il token kind local id e refresh token se andiamo a vedere è esattamente tutto ciò che ci è arrivato uno potrebbe dire però che cos'è tutta sta roba allora l'email per l'utente appena creato ci siamo poi scade tra il numero di secondi tra cui scade il token quindi sono quindi sono 3600 diviso 60 sono 60 minuti dovrebbe durare un'ora dopodiché abbiamo id token kind local id allora abbiamo id token un token per in firebase per verificare l'autenticazione l'id lo uid dell'utente appena creato e poi il refresh token quindi questo token servirà poi da mandare ancora a firebase per ottenere il nuovo token quello che ci interessa è questo token il refresh token serve per refresciare questo token e renderlo valido ok perfetto adesso andiamo a vedere qua in corso angular authentication vedete che abbiamo il nostro utente perfetto eccolo qua prima non c'era niente c'era aggiungi utente ed effettivamente abbiamo la nostra mail il provider che è la mail data di creazione vero accesso eseguito vero uid utente eccoci qua quindi per la registrazione è veramente tutto verifichiamo qua dalla mia scaletta si è veramente tutto noi ci vediamo nel prossimo video dove parliamo di login e logout va bene sotto in descrizione trovate il link al secondo canale sito e come supportare il canale io vi ringrazio alla prossima ciao ciao episodio 37 di angular oggi vediamo il login e il logout per andare a concludere quella che è tutta la cosa legata all'autenticazione terza volta che registro questo video sono stufo ma perché ho registrato così tante volte perché in realtà ho più e più volte in realtà questa è la terza volta che vado a semplificare questa lezione le due precedenti ho cercato di semplificarle al massimo ma in realtà mi sembravano un po' troppo complesse per far passare il concetto del login andiamo a fare una cosa un po' più sporchina rispetto alle due versioni precedenti ma in realtà più intuitiva che è ciò che mi interessa allora voi vedete che qua abbiamo un errore che è 401 unauthorized stiamo cercando di prendere persone.json siamo in contatti ma ci da unauthorized il 401 ce lo becchiamo quando non abbiamo gli accessi per fare una particolare richiesta in questo caso ciò che Firebase si aspetta da noi è un token questo token ci permette di dire ehi guardami io ho questo token mi devi dare quei dati come se fosse una chiave questa cosa la potreste trovare al di fuori di Firebase per quanto riguarda il beerer token JWT token insomma ci sono tanti modi tanti tipi di token potreste trovarlo così molto più semplicemente ah un'ultima cosa se voi guardate qua su npm in realtà c'è un pacchetto che si chiama AngularFire che semplifica maledettamente le interazioni tra Angular e Firebase il motivo per cui non lo stiamo utilizzando questo pacchetto è perché voglio tenere il più simile possibile a ciò che potreste trovare con altri backend al di fuori di Firebase quindi se noi utilizzassimo Firebase e AngularFire sarebbe molto bello molto facile vedete 85.000 download a settimana questo è dedicato interamente a Firebase tuttavia quando vi scontrerete con altri backend magari anche scritti da voi non saranno la stessa cosa mentre invece nel modo in cui stiamo facendo adesso è un po' più simile ok anche se abbiamo visto come persone.json non è una cosa che andremo a chiamare in altri backend e quant'altro quindi possiamo toglierlo ma voi sappiate che se volete lavorare con Firebase come si deve c'è AngularFire detto questo torniamo finalmente a lavorare su Angular e dobbiamo cominciare a fare un po' di cose la prima è creare un form di login vi ho detto che voglio separare sign up e sign in sign up è la registrazione ok e sign in è login voglio separarli perché perché a me piace lavorare con due form distaccati con due componenti distaccati preferisco potreste avere un solo componente fate alternare login e registrazione diciamo che ai fini della lezione va bene crearne due separati perciò noi ci mettiamo qua e facciamo ng generate component componenti che è la cartella dei componenti slash sign in perfetto facciamo invio e adesso verrà creato il componente di sign in eccolo qua perfetto togliamo lo spec e per vederlo dobbiamo andare a creare il router necessario quindi cominciamo a chiudere un po' sta roba qua perfetto e qua sotto su up routing module ecco qua vogliamo andare a copiare questo con maius calte freccetta giù qua mettiamo sign in e poi qua mettiamo sign in component perfetto salviamo non abbiamo ancora finito perché perché vogliamo copiare assolutamente sign up è lo stesso modulo in questo caso il nostro form di registrazione ha solo email e password e login a email e password molto probabilmente nelle vostre applicazioni avrete nella registrazione email password nome cognome codice fiscale una foto magari della carta di identità se è un'applicazione di tipo fiscale insomma ci sono tante cose che potreste aggiungere in questo caso siamo molto fortunati motivo per cui possiamo copiarlo così com'è quindi facciamo così andiamo qua e anziché sign in works scriviamo semplicemente login molto bene dopodiché apriamo il ts apriamo il ts qua copiamo on submit tolgo questo qua ci dà problemi chiaramente e adesso dovrebbe scomparire perfetto perché abbiamo il nostro on submit qua ci dà problemi perché perché non conosce ng form lo importiamo e non conosce out service perciò lo sapete anche voi che se non lo conosce out service dobbiamo ingettarlo e quindi abbiamo private out service due punti out service bingo e abbiamo qua tutto il vero problema è che qua stiamo facendo sign up e non stiamo facendo sign in ok quindi quello che dobbiamo andare a fare è creare un sign in altra cosa credo di aver modificato sì in una delle versioni precedenti del video ma poi non l'ho riportato allo stato naturale delle cose vi ricordate che qua avevamo del body avevamo un body e qua mettavamo il body non mi piaceva così preferisco avere email email cioè butto dentro email e password da qua vedete email e password che vengono prese dal form e poi viene creato il l'oggettone da mandare qua dietro quindi se volete far così potete stoppare e copiare altra cosa che voi potreste avere a differenza mia è qua dis url che io ho sostituito vedete con dis sign up url quindi ho creato sign up url e sign in url che potete trovare sempre sulla documentazione api rest accedi con email e password non più iscriviti e vedete che è diverso sign in with password ok questo è un endpoint diverso quello che otteniamo quello che mandiamo la stessa roba quello che otteniamo è la stessa roba quindi è lo stesso id è lo stesso endpoint fino qua qua invece è sign up qua è sign in with password ok quindi in realtà l'unica cosa che cambia è questa in realtà potremmo fare una cosa più dinamica dove se è sign up l'url andiamo a scrivere qua sign up e qua lasciamo tutto uguale stessa cosa qua dietro al momento io ho diviso ho creato però un api key che è l'api key della mia applicazione che potete prendere da firebase come abbiamo già visto e la buttate qua dentro come con un template literal quindi per chi non lo sapesse fare vi consiglio a di vederlo sul mio corso di javascript ma vediamo brevemente qwerty uguale schiacciate alt fate 96 abbiamo il nostro i nostri back tick e qua dentro potete scrivere qualcosa e poi se volete aggiungere una variabile dollaro aperte graffe e mettete la vostra variabile in questo caso api key ok quindi fate così per quanto riguarda sign up e sign in url li buttate qua dentro adesso noi copiamo perché è letteralmente uguale siamo fortunati anzi siamo fortunelli facciamo sign in dis sign in url molto bene e mandiamo le stesse identiche cose non cambia niente va bene quindi torniamo poi sul component e facciamo sign in perfetto adesso andiamo a testare vediamo cosa succede andiamo a fare sign up per vedere che c'era la registrazione quindi sign up registrazione e dopo di che abbiamo sign in e abbiamo il login perfetto ripeto non cambia niente a livello di form perché in questo caso specifico è maledettamente uguale in realtà cambia tutto per quanto riguarda l'utente andate su authentication e qua lo trovate ok qua c'è il vostro utente il mio è il seguente la password fortunatamente me la ricordo quindi vado qua metto la mia password voi mettete la vostra password faccio invia e vedete che ci ritorna l'utente quindi abbiamo l'email abbiamo in quanto expire il token che è un'ora quindi tra un'ora questo token non è più valido abbiamo il local id che ci interessa e il refresh token come funziona id token e refresh token ve li spiego adesso così poi lo accantiniamo anche se in questo tutorial il refresh token non lo vediamo però se volete essere corretti fare le cose con ancora più sicurezza eccetera eccetera potreste sicuramente utilizzarlo allora guardate id token e refresh token come due chiavi ok immaginate la porta di casa vostra vicino alla porta di casa vostra c'è una sorta di computerino ok che vi rilascia le varie chiavi e quant'altro allora andiamo alla nostra porta di casa e non abbiamo chiavi perché non ci siamo mai loggati quindi andiamo al computerino ci loggiamo quando ci loggiamo il computerino vicino alla porta di casa ci dà due chiavi l'id token e il refresh token usiamo l'id token nella porta per aprirla va bene e siamo a posto tuttavia abbiamo detto che in un'ora questo token scade quindi se noi nell'ora usciamo e ritorniamo non è un problema la chiave è ancora valida ma se torniamo più di un'ora dopo da quando è stato creato il primo token quindi la prima chiave la prima chiave è scaduta se proviamo a entrare nella porta di casa nostra la chiave non funziona abbiamo due modi quindi possiamo o andare a rifare il login al computerino vicino alla porta di casa nostra rifacciamo il login perché siamo stati buttati fuori e ci rilascia ancora due chiavi ci rilascia un nuovo id token e un nuovo refresh token prendete l'id token e andate ok quindi ogni volta che voi magari siete sull'applicazione qua salta l'applicazione dopo un'ora poniamo il caso che siamo qua vi sarà successo sicuramente con internet vecchio stampo le ultime tecnologie sono molto diverse poniamo il caso siete qua dopo un'ora tornate al computer refreshatevi vi muovete da qualche parte vi dice devi rifare il login ok stesso caso è finito il token la sessione dipende come è stato come è stato creato chiamiamo la sessione quindi è finita la sessione dobbiamo rifare il login stesso discorso per la porta che vi dicevo ora o rifacciamo il login oppure abbiamo questa seconda chiave che è il refresh token il refresh token ci permette di utilizzare questa chiave per ottenere un nuovo una nuova chiave id token senza dover fare di nuovo il login quindi abbiamo già tutto salvato va bene cosa facciamo semplicemente diciamo ehi io ti do questa chiave di refresh e tu mi aggiorni la chiave di token va bene l'id token si aggiorna o con refresh o facendo un nuovo login va bene il refresh token se voi volete rifare il login ogni volta non è un problema potete anche non utilizzarlo ma è così che funziona benissimo adesso che sappiamo questa cosa qua dobbiamo tornare su angular perché perché dobbiamo creare il nostro utente quindi abbiamo bisogno di sapere l'utente se è connesso meno al momento abbiamo una cosa molto banane vedete qua e però la necessità è quella di avere un tipo di dato utente per cui quando siamo poi qua quando saremo poi in contatti ci potrà dire ciao benvenuto edoardo fai il logout qua oppure questo è il tuo id comunque abbiamo bisogno di reperire il token da qualche parte quindi dobbiamo creare sia un utente ma poi dobbiamo anche salvare il token e i dati quindi andiamo a creare una variabile su angular utente da far girare in tutta l'applicazione quindi ciao edoardo tatata eccetera logout e via discorrendo ma poi dobbiamo anche salvarle queste cose ma queste cose non possiamo salvarle come variabile in angular perché ogni volta che noi refresciamo il discorso cambia ok perdiamo tutti quelli che sono gli accessi quindi dobbiamo salvarli dove all'interno del nostro browser abbiamo qua application probabilmente conoscerete i cookie noi non usiamo i cookie non utilizziamo il session storage ma utilizziamo il local storage che persiste finché voi non cancellate ok quindi utilizzeremo il local storage per salvare quei dati del nostro utente ogni volta che una persona entra nell'applicazione che cosa succede viene qua creato l'utente se non c'è e la variabile prende i dati da qua quindi avete che qua persiste e viene creato l'utente all'interno dell'applicazione perciò ciao edoardo fai logout e quant'altro quindi ma adesso lo vedete può sembrare un po' strano ma adesso lo capite perciò prendiamo angular e sappiamo che col sign in ci ritornano tutti i vari dati quello che vogliamo fare potremmo creare l'utente qua potremmo fare delle cose molto belle e utilizzare delle funzioni di rxjs incredibili però quello che voglio fare è la cosa più sporca in assoluto per farvi capire il concetto poi quando avrete dimestichezza potrete pulire come come preferite il codice e portarlo a uno step successivo la mia priorità è sempre quella di farvi capire i concetti se vi faccio scrivere bel codice ma non capite perché l'avete scritto soprattutto ci sono troppi passaggi per scrivere questo bel codice non ha senso se vi faccio scrivere codice sporco e voi capite il concetto e poi imparata tal punto ad essere in grado di pulirlo voi capite che avete la dimestichezza per fare tutte queste cose ok io preferisco farvi fare il giro mentale perché una volta che voi lo fate il giro mentale non vi si stacca più praticamente vi resta in testa quindi la prima cosa che vogliamo fare è creare questo tipo di dato utente che non abbiamo perché se io scrivo user non c'è niente vedete io scrivo new user non c'è uno user da qualche parte vedete non c'è un tipo di dato user che posso utilizzare abbiamo tante cose abbiamo http client abbiamo string abbiamo out service che ormai è una classe potremmo anche richiamare insomma abbiamo tante cose che possiamo utilizzare ma non abbiamo user per creare uno user andiamo a creare quello che si chiama un model qui andiamo a creare un modello di dati perciò andiamo qua su app facciamo una nuova cartella la chiamiamo modelli più avanti li chiamerete probabilmente model se terrete tutto in inglese in questo caso modelli io sono della filosofia che se lavorate in italia e soprattutto avete a che fare con codici fiscali e termini che sono prettamente italiani burocratici italiani tendo ad avere il programma tutto in italiano direttive cose del genere se invece si lavora con cose più semplici che hanno effettivamente traduzioni internazionali o magari penso più avanti di lavorare con persone internazionali di varie lingue allora tengo tutte in inglese questo è il mio modo di dividere le cose in questo caso potreste avere tutte in inglese se dovessimo lavorare con codice fiscale e altre cose appunto ripeto che sono prettamente partita iva che sono prettamente italiane preferisco non tradurle come social security number eccetera perché non sono mai la stessa la stessa cosa ok qua stavo divagando comunque modelli andiamo a creare un model in questo caso user punto model punto ts e quindi cosa andiamo a fare scriviamo export class user molto bene apriamo e qua dentro nel costruttore vogliamo passare i dati dell'utente che dati ci arrivano se vi ricordate ci arriva l'email l'id dell'utente ci arriva il token l'expiration date ci arriva il refresh token che non prendiamo perciò possiamo prendere quei quattro lì email id token e expiration date perciò facciamolo allora vogliamo un la tocchiamo qua così perfetto vogliamo un public perché lo possiamo prendere ovunque email due punti string perfetto dopodiché abbiamo un public id due punti string mentre invece per quanto riguarda il token e l'expiration date li facciamo private perché vogliamo utilizzare dei getter private e mettiamo token così più avanti lo scriveremo con l'underscore ma vi faccio arrivare pian piano quindi è una stringa ok e poi abbiamo private expiration date expiration date così ed è di tipo date chiaramente perché se è una data è una data in questo caso quello che vogliamo fare è utilizzare il getter token il getter token è in realtà una funzione vi vi spiego se noi avessimo tutto public quando siamo in giro in altri componenti noi potremmo accedere a user così dis user se ce l'abbiamo punto email e ci rimanda l'email se facciamo id la stessa cosa se facciamo token e fosse pubblico la stessa cosa il fatto che è privato e ci darebbe errore perché non abbiamo accesso ok quindi come possiamo prendere questo token col getter ora o facciamo una funzione random tipo user get token e ci rimanda indietro semplicemente il token oppure possiamo utilizzare un costrutto particolare che è il get token ok che ci rimanda indietro return dis.token va bene non fa molta differenza rispetto ad avere un get token così come una funzione che abbiamo creato noi a caso il fatto è che questa qua è una parola chiave get quindi ci fa capire che è un getter di cosa di questo anche qua si potrebbe capire così è meglio la cosa bella è che avendo una funzione a prescindere che sia questa funzione o questo getter rispetto ad avere semplicemente il token così voi capite che noi qua dentro possiamo fare al token tante cose ad esempio dis.token uguale bla 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 quindi ciò che era qua non è più qua perché con la funzione a prescindere che sia una funzione o un getter capite che possiamo fare qualcos'altro in questo caso cosa vogliamo verificare quando lo mandiamo se il token è ancora valido va bene quando quindi quando l'applicazione mi chiederà il token per mandarlo indietro per l'autorizzazione andremo a vedere se effettivamente valido o meno se non è valido beh noi siamo fuori dobbiamo rifare il login o dobbiamo usare il refresh token capite quindi questo è il discorso perciò noi andiamo qua e facciamo get token ma abbiamo un problema abbiamo un doppio identificatore token e token quindi cosa si fa in questo caso si fa così vedete con l'underscore davanti che serve indicare private ma soprattutto va a dividerlo da quello che è il suo il suo getter quindi abbiamo il nostro token ma vogliamo fare in realtà una verifica e vogliamo dire if dis.expiration date non esiste oppure la data di adesso ok la data di adesso è maggiore dell'expiration date ritorni null quindi non mi ridà il token il che vuol dire che il token non è valido giusto quindi rivediamo un attimo return null che cosa succede succede che mettiamo qua l'underscore ok perfetto dicevo noi stiamo chiedendo il token il token però dovrebbe essere valido o meno in questo caso ce lo rimanda a prescindere però prima fa un controllo e mi dice che se l'expiration date per caso non esiste già dobbiamo rifare il login perché a noi serve l'expiration date ma se l'expiration date è minore della data di adesso non è valido perciò dobbiamo rifare il login e non ci può dare il token che cosa stiamo dicendo se la data di adesso ad esempio le 14 di pomeriggio ok è maggiore rispetto alle 13 che l'expiration date quindi noi ci siamo magari connessi alle 12 va bene abbiamo un'ora di validità quindi siamo connessi alle 12 e abbiamo validità fino alle 13 sono le 14 la domanda è abbastanza logica la risposta è abbastanza logica le 14 è maggiore delle 13 sì perciò vuol dire che il token vedete è già scaduto ma anche se fosse non lo stesso giorno se fosse un altro giorno ok quindi se la data in cui stiamo richiedendo questo token è maggiore rispetto alla data di scadenza voi capite che il token è scaduto chiaramente se voi andate al supermercato e comprate il 30 agosto qualcosa che è scaduto il 29 se la data di adesso è maggiore rispetto all'expiration date voi capite che è scaduto ok quindi stesso discorso perciò se è scaduto mi ritorni null se invece non è scaduto va ancora bene mi ritorni il token perfetto quindi abbiamo tutto ciò che ci serve al momento adesso che cosa facciamo dobbiamo andare a creare questo utente e quando lo andiamo a creare quando ci arrivano i dati quindi qua in out service ne vogliamo avere uno user di tipo user e fin qua perfetto non è stato trovato perciò correzione rapida lo importiamo potremmo chiamarlo direttamente così oppure possiamo fare un metodo con create user insomma poi scegliete voi la strada la strada da fare create user potremmo passare dei dati fare this user uguale new user e dentro cosa ci mandiamo vediamo qua serve email id token e expiration date quindi qua dentro servirà email id token e expiration date perfetto togliamo qua questo che non lo voglio vedere così dobbiamo mettere chiaramente i dati quindi qua vale come string e poi qua abbiamo id string token e expiration date è uguale a date quindi noi poi prendiamo tutta sta roba qua e creiamo il nostro utente quindi email tac id bam token e expiration date perfetto quindi quando poi ci logheremo andremo a creare un utente ora vogliamo crearlo questo utente e vogliamo anche salvare i dati quindi andiamo sul sign in component abbiamo il sign in qua al momento ci tornano solo i dati ma ne cosa abbiamo detto che vogliamo fare innanzitutto vogliamo salvare l'utente nel local storage quindi local storage punto set item se vado qua faccio user virgola e dentro cosa ci metto ci metto il nostro utente in realtà ci metto i data andremo a metterci lo user quindi facciamo user dobbiamo creare quindi questo user perciò potremmo fare che this punto out service punto create user molto bene e qua dentro andiamo a creare l'utente perciò cosa mettiamo dentro mettiamo dentro data punto andiamo a vedere cosa ci manda dobbiamo rifare l'accesso quindi sign in e scrivo qwerty at gmail.com scusatemi punto it e poi come password non penso sia stata giù infatti non era corretta fatemi rifare qwerty at gmail.it e poi perfetto salvo allora quello che ci ritorna quello che interessa a noi è email id token expires in quindi email id token expires in e local id perfetto quindi allora data punto expires in che però è l'ultimo e qua invece ci serve data punto id token ok dovrebbe esserci tutto qua così ci da problemi perciò qua mettiamo any siamo a posto quindi abbiamo creato il nostro utente va bene abbiamo creato il nostro utente create user rivediamo qua va a creare un nuovo user e lo assegna a user quindi adesso cosa possiamo fare ve lo dico subito potremo assegnare qua dentro cosa this out service punto user ce l'abbiamo ok però ci da problemi in realtà potremmo fare anche qua se non volessimo avere l'accesso diretto potremmo avere qua un get user poi dipende sta a voi quanto volete essere liberi o meno su queste cose qua in realtà non ha senso avere accesso ovunque secondo me all'utente perché ci servirà ci servirà in giro quindi andiamo qua e abbiamo un problema quindi il tipo user non è assegnabile al tipo string come si risolve questa cosa qua beh si risolve andando a fare una stringa di tutto questo oggettone se avete già conoscenza che cos'è una stringa ma è anche un oggetto di base un json quindi noi dobbiamo andare a prendere questo oggetto e trasformarlo in una stringa va bene che però una stringa che può essere riconvertita in un oggetto in questo caso json ci permette di fare questa cosa qua quindi prende un oggetto e lo mette in stringa ma è una stringa che poi può riconvertire in oggetto perché lo fa con uno standard ben specifico perciò se noi andiamo qua non solo voglio mandare a schermo data ma voglio mandare a schermo anche lo user quindi voglio mandarlo voglio sia mandarlo a schermo per far vedere che esiste su out service ma vediamo anche nel local storage quindi io salvo e se andiamo qua al momento non c'è niente quindi seguitemi resto su console e faccio il mio accesso qwerty at gmail.it poi metto la mia password qwerty faccio invia e vedete che otteniamo i dati indietro dal back end abbiamo poi il nostro utente lo vedete questo è il nostro utente perché fateci caso qua si chiama editoken qua si chiama underscore token come abbiamo fatto noi ok dopodiché abbiamo expiration date perfetto e poi se andiamo su application abbiamo il nostro utente vedete questo è il nostro utente stringify praticamente in versione json e qua chrome ci fa il favore di farci vedere come diventa quindi abbiamo i mail di expiration date e token ci manca un'altra cosa ovvero questa expiration date non è effettivamente un expiration date perché perché al momento sono solo dei secondi quindi questa cosa dobbiamo convertirla come facciamo andiamo a fare un bel const expiration expiration date dobbiamo andare a prendere questi questi secondi e farli diventare una data perché al momento noi abbiamo che prendiamo la data di oggi ad esempio potrebbe essere forse il 20 08 20 08 alle 14 io faccio il login ok però io so che il login dura un'ora quindi logicamente so che scade alle 20 08 e sono le 15 giusto il nostro cervello fa questo conteggio tuttavia però il computer dice ok io qua ho una date io qua poi ho semplicemente un number non si capisce di cosa è semplicemente un number il risultato finale è una date ok al computer i conti non tornano cosa dobbiamo fare dobbiamo convertire tutto in number ok e dobbiamo poi riconvertirlo in data quindi dobbiamo dire dobbiamo convertire questa data in number quindi dobbiamo avere questa data come number la data di adesso come number più un'ora di number molto bene il risultato è la data di adesso più la scadenza sempre formato number tutta cosa qua tutta sta cosa qua la convertiamo in date una volta che abbiamo il number della scadenza effettiva lo possiamo convertire come data quindi che cosa possiamo fare andiamo a fare un bel new date e qua dentro qua dentro andiamo a prendere la data di adesso quindi data di adesso e come prendiamo il tempo il numero get time ecco qua quindi prendiamo il timestamp va bene più data punto expires in expires in che è il numero che ci interessa per mille ok mille perché perché dobbiamo convertirlo in millisecondi perché il numero di adesso è in millisecondi non è in secondi qua invece abbiamo semplicemente i secondi quindi per avere questo in millisecondi dobbiamo fare per millisecondi per mille quindi abbiamo qua i nostri millisecondi tra quanto scade un'ora più il timestamp di adesso abbiamo il nostro risultato e lo convertiamo in new date che è la nuova data va bene questa expiration date la andiamo a salvare qua dentro ok molto 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 semplice adesso non mi serve data expiration date scusatemi mi serve questo molto bene quindi possiamo fare così diamo un po di spazietto anzi portiamo questo su perché console.log lo voglio staccato e noi siamo a posto quindi abbiamo sia accesso al nostro utente che il nostro utente salvato sul local storage adesso dobbiamo fare riferimento a cosa al token per ottenere l'autorizzazione perché perché se io da qua vado in contatti ho ancora problemi non sono autorizzato ma io voglio prendere questo token ok in realtà il token che vogliamo prendere è quello dell'utente perché perché se questo utente esiste vuol dire che abbiamo fatto il login sull'applicazione va bene perché questo qua può essere stato salvato precedentemente perciò noi andiamo su non out service scusatemi non su user model togliamo app routing togliamo questo e questo andiamo sul nostro servizio che in questo caso si chiamava firebase con cui facevamo le richieste e vogliamo autorizzare in realtà tutte queste chiamate facciamo solo quella che ci interessa al momento che è get persone poi le altre le potete autorizzare voi una volta che capite il discorso e il discorso è molto semplice abbiamo tutta la nostra roba se vi ricordate che era tipo bla 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 punto scusatemi slash persone punto non dispersone persone punto json che cosa dobbiamo fare adesso? dobbiamo aggiungere queste cose qua punto di domanda per aggiungere un parametro out uguale il nostro token quindi questa parte qua va aggiunta perciò facciamolo togliamo tutta sta parte qua e qua dentro in get persone facciamo diventare alt 96 una string interpolation e qua dentro mettiamo così url molto bene quindi qua dentro l'url e poi andiamo ad aggiungere così il token ci arriva perciò anche questo è una variabile e questo token da dove lo prendiamo? beh è molto facile private out service out service che è out service potremmo accedere direttamente al local storage ma diventa poi complesso perché in realtà quello che vogliamo è avere la nostra variabile out service che dipende sì dal local storage ma almeno chiamiamo direttamente questa variabile la variabile user quindi noi lavoriamo con la variabile user che però è strettamente collegata a ciò che è salvato nel local storage ok quindi qua dentro abbiamo this out service punto user punto token salviamo vediamo il risultato ci dà errore perché chiaramente ha aggiornato e ha perso tutto perché perché ogni volta che noi aggiorniamo ogni volta che noi aggiorniamo l'applicazione la variabile user viene svuotata giustamente perché al momento non è ancora collegata all'application alle cose che abbiamo salvato qua nello storage se non quando facciamo il login quindi adesso che io ho fatto aggiorna non mi dà niente proviamo a rifare il login quindi sign in ed è importante farvi vedere questa cosa qua perché altrimenti non capite il prossimo passaggio quindi email qwerty at gmail.it password qwerty facciamo il login perfetto vedete l'ha fatto ma qua era già salvato in realtà ok era maledettamente già salvato però adesso la variabile è stata rimpolpata quindi se io poi vado qua su contatti vedete che posso accedere mi ha mandato effettivamente i dati se io aggiorno abbiamo un problema ok quindi quello che dobbiamo fare adesso è rendere permanente questa cosa ovvero dobbiamo andare sul l'app component che è la prima cosa che viene lanciata quindi app component e in g on init noi dobbiamo fare la verifica ok quindi if local storage punto get item user esiste ok che cosa vai a fare? devi andare a fare qualcosa di specifico ovvero essendo logato devi dire che dis punto out service che al momento non c'è quindi dobbiamo andare a rimpolpare ogni volta che viene aggiornata l'applicazione dobbiamo dire se l'utente è salvato nello storage rimpolpami la variabile perché vuol dire che siamo già connessi ok? quindi out service buttiamolo qua dentro private out service due punti out service molto bene dis out service punto create user qua dentro dobbiamo andare a buttare cosa email id token expiration date perciò andiamolo a creare prima da qua che è più veloce const email uguale ops ho preso tutta sta roba perché facciamo così allora get item tac 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 e facciamo punto email molto bene ci dà errore perché perché dobbiamo riconvertirlo quindi json punto parse cosa parsiamo? parsiamo questo vedete facciamo così adesso abbiamo accesso all'email in realtà scusatemi sono un babbo anch'io facciamo const user uguale facciamo così lasciate perdere l'email e potremmo dire user punto email user punto id user punto token e poi user scusatemi user punto expiration date perfetto quindi abbiamo ricreato la nostra variabile perciò andiamo qua ci dà undefined perché ve lo dico io perché ecco cosa abbiamo sbagliato non abbiamo preso underscore token e underscore expiration date quindi perché qua abbiamo scritto attenzione a queste cose su modelli user model abbiamo fatto underscore token ok e underscore expiration date mentre invece qua dove siamo andati su app component abbiamo preso token expiration date quindi se adesso aggiorniamo proviamo l'applicazione si è aggiornata ma vedete che ci ha comunque dato l'accesso vedete io continuo ad andare su contatti aggiorno aggiorno la pagina siamo praticamente loggati va bene una cosa che potremmo aggiungere in realtà è cambiare l'accesso va bene is authenticated potrebbe essere this is logged in quindi possiamo cambiare this is logged in oppure se l'utente non è vuoto ok se l'utente non è vuoto potremmo dire che è loggato potete scegliere voi in questo caso rendiamola semplice facciamo is logged in va bene quindi per rifarci alla nostra guard sul sul routing perciò quando facciamo il login create user potremmo dire this punto logged in uguale true potremmo far così quindi quando andiamo a creare un nuovo utente vuol dire che siamo loggati va bene di conseguenza questo qua me lo metti true quando poi ci chiede is authenticated ci da true ok stesso discorso al contrario è per il logout quindi se volessimo fare il logout facciamo una cosa del genere logout non dobbiamo mandare niente a firebase perché a firebase in realtà non interessa dobbiamo semplicemente ripulire lo user ok e dobbiamo mettere is logged in quindi dobbiamo fare tre cose scusatemi is logged in false lo user pulirlo metterlo null e il local storage pulirlo ok quindi andiamo qua e cominciamo con this is logged in facciamo false molto bene dopodiché this punto user uguale null banalmente e scusatemi non this ma local storage punto remove item e cosa togliamo togliamo user ok quindi adesso andiamo da qualche parte vediamo un po' andiamo in app component giusto per averlo qua ad altezza di tutti gli altri e facciamo un bel button banale un bel button banale con logout e on click on click on logout perfetto quindi facciamo on logout andiamo sul nostro app component ts e qua dentro on logout cosa mi chiami mi chiami il this punto out service punto logout facciamo così vediamo un po' la situazione eccoci qua logout ho fatto logout perciò se aggiorno vedete che non riesce a leggere la proprietà token va bene abbiamo questo errore in realtà bisognerebbe mettere qua un controllo per non avere questo problema ma adesso tecnicamente noi non siamo loggati quindi se vado su application vedete che non siamo più loggati e non ci arriva niente se vogliamo riconnetterci sign in rifacciamo login qwerty at gmail.it e poi abbiamo qwerty qua io faccio invia vedete che abbiamo il nostro utente che è tornato qua abbiamo i nostri dati e se io vado su contatti ci torna tutto perfetto quindi questo è il giro del fumo super 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 basico ok cose che si possono aggiungere si può migliorare il modo in cui si fa questa cosa qua ok già si può migliorare questo ma è una cosa su cui rivedete più avanti ok al momento questo secondo me si capisce bene dobbiamo gestire gli errori abbiamo il token dell'errore ad esempio potremmo gestire il token dell'accesso errato quindi password errata email errata un'altra cosa che possiamo fare è sul routing se non siamo connessi sarebbe utile che ci rimandi da qualche altra parte oppure sul logout dove è logout out service possiamo fare private router due punti non route così ma router benissimo quindi qua abbiamo route che non ci interessa e qua potremmo fare disrouter.navigate dove potremmo andare su banalmente slash sign in proviamo da qua logout vedete che ci rimanda sul login quindi ci sono tante cose che potete andare a fare per migliorare il tutto resteremo qua veramente due tre quattro ore e non ne vale la pena la cosa che era importante era farvi capire come funzionava il concetto di accesso di token di utente questa era la mia cosa che mi premeva se avete capito questo poi fare le migliorie arrivano ok potete bloccare l'accesso al login dire che se siamo già se abbiamo già effettuato l'accesso il login ci manda automaticamente alla home page ad esempio potreste fare una cosa del genere insomma le modifiche che potete fare sono infinite provate voi ad aggiungere qualcosa sotto in descrizione al solito trovate la community in cui potete entrare chiedere se avete bisogno far vedere quello che state facendo il mio secondo canale come supportare il canale e il sito con la documentazione nel prossimo episodio vediamo di strutturare un layout di applicazione per ora abbiamo fatto le cose letteralmente a cazzo nel prossimo giro proviamo a strutturarla quindi con la pagina di login in un certo punto la pagina di registrazione il bottone in alto la sidebar insomma proviamo a creare una simile applicazione non la facciamo completa perché avete visto che solo il login è tipo mezz'ora 40 minuti eccetera stessa cosa la registrazione quindi prendete poi tutti i pezzi del corso e li mettete insieme nell'episodio di domani in cui andiamo a preparare un layout verosimile di applicazione questo è quanto vi ho già detto le cose della descrizione alla prossima ciao ciao episodio 38 di angular oggi vediamo essendo il penultimo video di questo corso salvo aggiornamenti eventuali come creare una dashboard in angular quindi andiamo a fare la nostra single web application e andiamo a fare qualcosa di un po' più ben strutturato per ora abbiamo visto solo pezzi singoli considerate questo video un esercizio quindi lo fate insieme a me la prima parte vi faccio vedere come raggiungere quell'effetto dashboard che spesso utilizzerete quando lavorerete con angular quindi io vi guido fino a lì da lì in poi le varie migliorie o l'aggiunta dei pezzi tipo login la registrazione che abbiamo già fatto lo potete integrare voi ok quindi vi faccio vedere come strutturare il layout dei componenti il routing eccetera eccetera e poi da lì in poi dovete utilizzare quelle che sono le vostre competenze per andarla a sistemare in realtà a farla come volete quindi io vado a creare quella che è la base proprio minima necessaria su cui poi in realtà potete tranquillamente salvarvi il progetto clonarlo più volte e da lì potete ripartire ogni volta quindi questa è l'idea per farciò aprite start e scrivete node command prompt lo aprite vi comparerà la solita finestra e qua andiamo a fare cd desktop ok poi dobbiamo andare cd su corsi sviluppo e da qua faccio ng new vado a creare un nuovo progetto è in g new e lo chiamo lezione 38 ng che sarebbe per per angular va bene io faccio così faccio invio e adesso comincia a chiederci vuoi l'angular routing assolutamente sì che cosa vuoi usare css s css va bene css aspettiamo che installi tutti i pacchetti ci vuole un po quindi faccio un taglio adesso perfetto ha già finito quindi adesso andiamo a fare cosa code e che cosa apriamo dobbiamo aprire lezione vediamo un po esatto se voi non avete il comando code semplicemente aprite visual studio code e lì dentro aprite la cartella e faccio così automaticamente me lo apre e abbiamo il nostro progettino dunque la lista di cose da fare è abbastanza grande cominciamo con angular material perciò prendiamo il browser andiamo qua e facciamo material get started ng add at angular material quindi andiamo qui facciamo control o accentata incolliamo invio e adesso abbiamo angular material vogliamo sì voglio fare yes molto bene deve installare altri pacchetti ma è abbastanza veloce dobbiamo scegliere il tema in dingo pink va bene typography yes include enable animations let's go mi va bene importante per quello che andremo a fare e abbiamo installato con successo angular material ora cominciamo dal principio la prima cosa che possiamo fare è ng serve quindi facciamo già partire l'applicazione e apriamo un'altra finestra di browser dunque come andiamo a strutturare abbiamo la nostra app giusto abbiamo il nostro app component e questo qua è il placeholder e noi non interessa perché perché qua dentro andremo a cambiare il route quindi abbiamo bisogno di router outlet va bene non entro proprio nel dettaglio della spiegazione ok cioè vi spiego quello che facciamo ma quello che facciamo in realtà sono cose che ho già spiegato vi spiego il motivo per cui lo facciamo ma non cosa stiamo facendo quindi il nostro app component avrà semplicemente tanti link tante pagine tanti componenti che andrà a cambiare quindi sarà semplicemente un contenitore per sign in sign up quindi logistazione login e la dashboard la dashboard sarà sempre fissa con la sidebar laterale ma avrà tante pagine all'interno che cambiano e quelli sono i children ok quindi utilizzeremo questo tipo di di struttura adesso andiamo a creare una cartella components o componenti non è un problema io la chiamo componenti eccoci qua e dobbiamo creare un po di componenti quindi dobbiamo creare il login la registrazione la dashboard e facciamo tre pagine della dashboard va bene quindi ng generate component in componenti componenti slash potete chiamarlo login e register si facciamo così che preferisco a sign in sign up e poi vogliamo mettere qua una cosa che non vi ho mai insegnato che è skip tests uguale true in questo modo non ho fatto skit porca miseria in questo modo non ci genera il file spec guardate un po vi faccio vedere ecco qua ci ha creato il componente login e vedete che non abbiamo il file spec stessa cosa da login facciamo register quindi bam molto bene io tendo a creare subito tutti i componenti che penso mi serviranno a breve giusto per una questione di ordine mentale voi fate quello che volete questo è il mio modo di lavorare voi fate quello che preferite poi dopo register abbiamo detto che ci vuole la dashboard che è la dashboard effettiva quindi la pagina principale molto molto bene eccola qua dopodiché vogliamo tre pagine della dashboard in questo caso sono solo di prova in questo caso voglio creare item 1 oppure pagina 1 facciamo pagina 1 let's go pagina 2 e pagina 3 andiamo qua facciamo pagina 2 ecco qui e poi abbiamo pagina 3 ok abbiamo tutti i nostri componenti se io li apro abbiamo già quella che è la nostra struttura e questa sarà quella che utilizzeremo adesso se noi andiamo su 4200 vedete che non c'è niente ok non abbiamo niente perché abbiamo un router outlet ma il routing non è ancora impostato perciò cominciamo dalla base andiamo su up routing eccoci qua abbiamo i nostri routes e qua dentro cominciamo con la prima cosa ovvero un bel path sul vuoto ok e che componente vogliamo vogliamo come component la dashboard ok quindi la pagina principale sarà sempre la dashboard più avanti avremo i children andiamo a fare altre pagine vogliamo fare la pagina di login e di register quindi login e register perfetto quindi abbiamo login component molto bene e poi abbiamo register component salvo e vedete che ci ha creato dashboard works zoom un pochino abbiamo dashboard works se andiamo su slash login ci manda su login works se abbiamo register ci manda su register works perfetto adesso potremmo già fare tutti gli altri routes i vari children eccetera ma voglio cominciare dalla grafica voglio cominciare a avere un po' di grafica poi settiamo tutti i path giusto per capire perché sennò sono pagine vuote non si capisce bene dove stiamo andando motivo per cui prendiamo angular material angular material eccoci qua components e dobbiamo cominciare a preparare tutto quindi direi che possiamo cominciare dai form che non vedo eccoli qua cominciamo dai form prendiamo gli api e cominciamo ad installare tutto perciò apriamo app module qua abbiamo tutti i vari componenti facciamo un po di spazio qua qua c'è app component che tiro giù benissimo e qua cominciamo a mettere i moduli perciò andiamo qua e cominciamo a inserire i moduli che sappiamo che ci interesseranno mat form field ma vi dico già di mettere form module form form module e poi reactive form module vi dico di metterli entrambi perché perché in modo che se volete usare template driven form o i reactive form avete già tutto e non dovete preoccuparvi di avere errori quant'altro più che altro perché a volte ng model non vi compare se non avete form form module oppure i form group se non avete reactive form ed è facile dimenticarsene e non capire perché da errore quindi fatelo subito che è meglio io salvo e cominciamo prendendo un form a caso facciamo una cosa molto molto banane sì mi serve un input semplicissimo questo qua voglio questo input facciamo così andiamo su login prendiamo login component qua e andiamo a fare tac e poi facciamo tac così molto bene andiamo qua mettiamo tutto in un form a cui diamo il nome di login form e lo chiamiamo come ng form queste cose le sapete già e poi facciamo ng submit on submit perfetto prendiamo questo form qua andiamo qui e poi qua dentro dobbiamo prendere il button quindi ci serve il button e dobbiamo copiare questo andiamo ad inserirlo in app module eccoci qua copiate il button module e lo importiamo perfetto mettiamo la virgola salviamo e adesso possiamo prendere il bottone da qua perciò vediamo qua un primary normale a me sta più che bene andiamo qui e dobbiamo mettere on submit sul ts eccoci qua on submit e noi per ora salviamo che cosa manca manca da mandare qua il login form in submit che ci dà problemi perché perché qui non prendiamo niente quindi prendiamo il nostro form che è un ng form perfetto e qua dentro abbiamo solo email e password da sto giro quindi const email uguale form punto value se vi ricordate punto email copiamo e poi qua facciamo la password molto bene e questa è la password ok e poi qua andremo a chiamare l'out service quindi qua vi scrivo chiamare out service in realtà forse dopo lo faccio io o lo fate voi vediamo sicuramente non vado a fare tutta la parte di login e registrazione quello che mi interessa è almeno inviare il form quindi salviamo qua e invece qui nel form cosa manca ve lo dico subito mancano sugli input un type uguale type email perfetto devo chiudere qua questo che mi ha tolto qua poi mettiamo required e voglio mettere anche ng model e poi anche il name magari facciamolo prima come name andiamo a mettere email perfetto mentre invece qua sotto come input direi che possiamo copiare tutto quindi copiamo tutto e mettiamo type password name password require ng model e poi vogliamo andare a fare un'ultima cosa innanzitutto mettere qua type uguale submit let's go e poi andiamo a fare un bel property binding e mettiamo che è disable se è il contrario di login form ops non così vabbè avrei dovuto mettere la f maiuscola ma pazienza login form punto valid quindi il contrario è is invalid e qua mettiamo invia salviamo e se andiamo su login il risultato è entusiasmante direi ci manca solo una cosa per far capire che è login noi facciamo h1 login perfetto copiamo la stessa roba in registrazione quindi togliamo questo andiamo su register andiamo qua facciamo la stessa cosa facciamo register ricordatevi di cambiare quanto meno questo register form e poi vi passate register form e register form possiamo chiudere questo copiamo on submit e andiamo a farlo anche su register e andiamo a farlo anche su register e andiamo a farlo anche su register questo è css quindi non va bene register e noi qua andiamo a metterci on submit abbiamo qua un problema correzione rapida import a form ng form da angular forms noi salviamo e abbiamo completato almeno questa parte quindi abbiamo il nostro login e la nostra registrazione perfetto adesso spostiamoci sul non sull'app component ma ci spostiamo sulla dashboard perché dobbiamo cominciare a creare la dashboard con la barra laterale e la toolbar quindi dashboard apriamo apriamo e apriamo possiamo togliere app module no ci serve torniamo qua andiamo su angular material e andiamo a prenderci la side nav eccola qua innanzitutto api prendiamo e importiamo come avete già imparato a fare quindi ci mettiamo qua side nav fatto prendiamo scendiamo incolliamo salviamo poi next step dobbiamo prendere una side nav in questo caso il basic drawer va più che bene basic side nav mi piace questa qua vedete prendete questa parte qui should run chi se ne frega perché lo togliamo questa parte qua non ci interessa ci interessa solo il css perciò dashboard facciamo così togliamo questo perfetto salviamo prendiamo il css e copiamo il css e lo incolliamo qua dentro salviamo e se andiamo qua sul vuoto vedete che abbiamo già la divisione chiaramente qua è un po più zoomato rispetto a come ce l'avrei io potete farla più larga non è un problema assolutamente io la mantengo così per farvela vedere adesso lavoriamo su questa parte qua cominciamo a lavorare sul menu e per farlo dobbiamo tornare qui sareste tentati di andare su menu vi faccio vedere sareste tentati ma qua i menu vengono aperti esclusivamente con il trigger ok potremmo fare sto sgamo avere questa cosa già fatta in realtà noi utilizzeremo le liste vedete le list e poi dovete semplicemente col css andare a dire ok quando passi sopra mi chiaramente mi cambi il background leggermente mi metti la mano per far vedere che è un link eccetera eccetera ok in questo caso noi ci limitiamo alle liste poi ve le sistemate voi andiamo qua app module e noi inseriamo anche questo lo prendiamo andiamo qua sotto salviamo perfetto vuol dire che possiamo tornare qua examples basically guardate quante liste belle che avete questa è stupenda mi piace un sacco bella anche questa stupenda e poi direi che possiamo prendere quindi questa qua l'html ok il typescript non ci interessa copiamo questa e andiamo nella nostra dashboard e dove c'è side nav content chiudete aprite e qua dentro andate a scrivere pagina 1 pagina 1 poi pagina 2 pagina 3 ok salviamo il risultato è il seguente va bene un menu bruttino ma fa la sua figura adesso dobbiamo lavorare sul main content perché noi qua dentro dobbiamo avere le varie pagine e le varie sottopagine sono in realtà dei children ok quindi questo è il main component dashboard ma il dashboard ha dei sottocomponenti che sono la pagina 1 che sarà qua dentro la pagina 2 e la pagina 3 perciò dobbiamo tornare su up routing che sarà probabilmente questo ottimo e da qui che cosa dobbiamo dire dobbiamo dire che abbiamo dei children quindi abbiamo dei figli children effetto apriamo e qua dentro dobbiamo andare a creare degli altri path quindi cominciamo e facciamo le cose più ovvie perciò path e andiamo su pagina 1 quindi pagina 1 ma non così dai facciamo pagina 1 pagin bene dopodiché spazio come component andiamo su indovinate un po' pagina 1 facciamo virgola e con alt maius che freccetta giù tiriamo giù due volte per fare pagina 2 e pagina 3 vedete come si fanno alla svelta molte cose il setup iniziale in realtà una volta che lo imparate si fa veramente veloce pagina in realtà ci avevo perso settimane le mie prime volte ma pazienza pagina 3 noi salviamo non è abbastanza perché perché dobbiamo andare a linkare il tutto quindi andiamo sulla dashboard e dobbiamo fare un bel router link eccoci qua e mandiamo su pagina 1 copiate il tutto due volte e scrivete indovinate cosa pagina 2 e pagina 3 salviamo eccoci qua siamo sempre nella nostra dashboard ma se premo continua a non succedere niente perché vedete che qua in alto cambia e siamo in pagina 1 pagina 2 pagina 3 che cosa abbiamo dimenticato abbiamo dimenticato il router outlet qua dentro quindi apriamo e qua dentro vedete dove c'è il content della side nav qua dentro dobbiamo mettere un router outlet se avete già capito l'errore state già andando molto molto bene salviamo il risultato vedete è il seguente pagina 3 pagina 2 pagina 1 quindi la struttura iniziale del dell'applicazione è già a buon punto che cosa manca vi faccio vedere se io vado sulla dashboard non succede niente ma tendenzialmente quando voi aprite una dashboard un'applicazione fatta così abbiamo già qualcosa generalmente apre questa prima pagina l'apre già di default quindi abbiamo la nostra dashboard e nella prima pagina magari c'è l'home page le notizie ok quindi automaticamente ce l'ha però non è che se io vado qua ho vuoto e devo selezionare la prima voce in realtà la prima è già selezionata di default chiamatela home page chiamatela come volete ma avete capito il discorso quindi dobbiamo andare sul routing e digli che vuoto vuol dire automaticamente pagina 1 lo sapete fare anche se adesso il cervello vi sta esplodendo e ve lo dico io dobbiamo andare in children aprire un altro path in questo caso facciamo mayoscult e vado su fatto la stessa cosa e qua come path metto vuoto quindi se vuoto non ci serve nessun component ci serve solo un redirect to il redirect va a pagina 1 perfetto e poi ci manca un'altra cosa che è path match che mettiamo come full quindi deve capire che è esattamente questo tipo di path se è così e non c'è nient'altro quindi se è vuoto ci deve rimandare qua e il risultato è pressoché incredibile se io tolgo qua vedete che mi rimanda comunque su pagina 1 quindi ogni volta che io arrivo sulla dashboard sono su pagina 1 pagina 2 pagina 3 c'è un problema il primo problema è che io qua il mio login ho la registrazione ma io posso vedere la pagina 1 come mai posso vedere la pagina 1 perché non abbiamo ancora messo can activate vi ricordate se noi andiamo qua noi vorremmo proteggere tutti questi path e li vogliamo proteggere con il nostro out guard quindi vogliamo dire se sei loggato puoi vedere tutta sta roba altrimenti finisce automaticamente di qua come facciamo beh è molto semplice facciamo qua una bella virgola spazio mettiamo can activate e qua dentro dobbiamo mettere out guard ma non ce l'abbiamo ancora quindi andiamola a creare ci mettiamo qua in app creiamo una nuova cartella che chiamiamo out in cui gestirete tutte le varie cose sull'accesso e qua dentro andiamo a creare un nuovo file che si chiama out.guard.ts e in realtà potreste già fare anche il service out quindi qua sotto ng generate service in out slash lo chiamate out perfetto ce l'ha creato potevamo fare anche senza lo spec non perché non mi piace lo spec ma perché non voglio fare i test e in realtà togliamo guard così e facciamo ng generate guard scusatemi ng generate guard che almeno fa tutto da solo out out non voglio scrivere il placeholder ci chiede can activate si can activate va bene e adesso ci ha creato anche la guard eccoci qua perfetto abbiamo già il nostro codice sample togliete questa parte qua se vi da fastidio a sto giro non è un problema e cosa vogliamo fare quello che in realtà abbiamo già fatto negli episodi precedenti quindi dobbiamo innanzitutto aggiungere un constructor constructor in cui dentro porteremo l'out service che ci servirà scusatemi non dobbiamo far così ma dobbiamo importare private out service due punti out service perché chiaramente avremo bisogno dell'out service e poi lo vedrete a brevissimo qua dentro return true non ci interessa non ci interessa perché perché dobbiamo fare un altro controllo quindi dobbiamo dire if vi ricordate dis punto out service is logged in che ancora non abbiamo non preoccupatevi is logged in che è una variabile che semplicemente traccia se siamo loggati o meno mi ritorni true di conseguenza vuol dire che io posso andare dove posso andare su quel path altrimenti else dove mi rimandi mi prendi dis router che non abbiamo ancora perciò lo importiamo andiamo qui e facciamo virgola private router due punti router invio e adesso possiamo chiamarlo dis punto router punto navigate eccoci qua e navigate dove andiamo andiamo su login login adesso non mi ricordo se è così o con lo slash onestamente non me lo ricordo raga provatelo in entrambe i modi quindi abbiamo un problema non c'è login perciò dobbiamo aprire il nostro service e dobbiamo andare a creare una semplice variabile is logged in che abbiamo usato anche quando abbiamo reso le cose più complicate con l'accesso però al momento utilizziamo solo questo al momento andiamo a prendere sufficiente questo oppure potreste fare un metodo che ritorna is authenticated se volete utilizzare i metodi è rilevante ma adesso non abbiamo più problemi ci manca in realtà solo una cosa abbiamo un altro errore ecco qua dobbiamo ritornare return false ok io salvo e se noi come is logged in mettiamo false salviamo abbiamo ancora una cosa che manca ovvero se andiamo sul routing dobbiamo mettere questo activate dobbiamo aggiungergli l'out guard giusto giusto adesso salviamo vedete che non siamo loggati perciò se ve lo qua ci ha rimandato il login vedete provo andare sulla dashboard e mi rimanda comunque al login provo andare alla registrazione e mi manda la registrazione voglio andare sul login mi manda sul login voglio andare sulla pagina 1 ci provo mi rimanda sul login ok quindi l'unico modo che abbiamo per arrivare alla dashboard è essere loggati e lo sapete fare ora mancano alcune cose innanzitutto ricambiamo questo a true perché dobbiamo tornare sulla dashboard e vedete che se andiamo qua siamo loggati e possiamo spostarci di pagina che cosa manca adesso manca tener traccia dobbiamo fare l'highlight della voce di menu che abbiamo selezionato quindi torniamo sulla dashboard dov'è dashboard component html e aggiungiamo router link active e che cosa usiamo usiamo la classe active che adesso andiamo a creare quindi gli diciamo che se questo questa voce di menu punta a pagina 1 e pagina 1 è attiva mi metti la classe active quindi ricapitoliamo questa voce di menu punta a router link pagina 1 se siamo effettivamente in pagina 1 ovvero che router link è attivo che cosa mi metti mi metti questa classe active potete mettere pippo ripeto è un caso che active è active ok è semplicemente per capirci qualcosa copiamo e utilizziamo la stessa classe salviamo prendiamo qua e andiamo a creare questa classe active che avrà semplicemente un background color di cosa di red per fare schifo non ci siamo dimenticati di chiudere qua queste mannaggia me quindi salviamo e ci siamo dimenticati un'altra cosa di metterlo tra parentesi quadrate perfetto abbiamo dimenticato un po di roba salviamo e adesso vedete che se passo da una all'altra abbiamo effettivamente la voce evidenziata io provo andare su dashboard normale e vedete che mi torna comunque sulla prima perfetto adesso manca un'ultima cosa che è la toolbar quindi voglio una toolbar che è la seguente eccola qua quindi importiamola dobbiamo importare un po di roba allora dobbiamo importare app module e cominciamo con questo poi mettiamo la toolbar e poi importiamo ciò che manca tipo le icone e altre cose salvo andiamo sugli esempi e a me va bene la banalissima app questa qua basica voglio solo capire qual è la differenza ok color primary c'è scritto va bene color primary color primary ok non cambia assolutamente niente quindi mat toolbar copiamo in ts non c'è niente css va bene adesso lo prendiamo quindi andiamo su dashboard perché la vogliamo sopra tutte le varie pagine o potreste voler addirittura sopra qua quindi dovete dividere dovete metterla addirittura sopra la side ma dipende come volete strutturarla io vi do solo questo questo indizio e poi come color mettiamo primary dovrebbe prendercelo abbiamo un problema con le icone perciò dobbiamo andare sulle icon ecco qua e importiamo anche icon vedo che bisognava importare un po di roba e adesso andiamo su app module e importiamo qua le icone quindi io prendo le icone noi siamo qui facciamo così tac e il risultato è il seguente un po uno schifo fatemi de zoomare ok manca il flex quindi andiamo qui devo tornare sulla toolbar scusatemi quindi toolbar examples prendiamo questo css copiamo e devo prendere dashboard css buttiamo qua questo e poi una cosa che non voglio è la scritta my app e l'icona quella là che chiude non mi interessa salviamo e vedete che abbiamo la nostra toolbar con qua i tasti potreste avere qua il tasto di logout adesso lo andiamo a cercare abbiamo qua i bottoni che cambiano la pagina quindi andiamo a cercare tra le icone icon vediamo se c'è la lista direttamente qua no andate su font google.com slash icons e le avete tutte e da qua andiamo a cercare log out vediamo un po eccolo qui log out ok allora c'è differenza tra i simboli e le icone voi mettete icone copiamo log out questo qua e qua dentro vedete dove c'è share e favorite facciamo log out così se volete farla in basso come discord non è un problema sulla sulla side nav eh quindi per intenderci se volete mettere qua log out qua l'utente in basso non è un problema al momento l'abbiamo messo qua in alto ok quindi qua andrete a mettere su long click di questo bottone dovete collegarvi all'out service log out va bene far quello che abbiamo fatto con local storage is not login eccetera eccetera quindi qua tutto a posto per andare a chiudere questa lezione e poi dirvi cosa potreste sistemare voglio solo farvi un esempio con le tabelle ok quindi prendiamo le tabelle che potreste lavorarci perché sono molto belle allora abbiamo qua la tabella abbiamo gli api dobbiamo prendere la tabella andiamo qui app module andiamo a mettere la tabella facciamo un po' di spazio mat table module ci spostiamo qua sotto tac virgola andiamo poi a prenderci una tabella questa qua random va assolutamente bene il css ok table width 100 possiamo cominciare qua quindi prendete item 1 non ci interessa più la dashboard ho chiuso tutto vabbè chiudo tutto al diavolo prendiamo pagina 1 non item 1 cominciamo dal css incolliamo chiudiamo apriamo l'html e il typescript a livello typescript ci serve un po' di roba per i dati poi voi ve li tirerete giù da da firebase cominciamo con l'html che mi piace un pelo di più ci spostiamo su ts da qua html pagina works where salviamo abbiamo dei problemi dobbiamo perciò prendere tutta sta roba non serve che copiate tutto il componente copiate i dati qua la const e l'export interface e poi copieremo questa parte qua sotto quindi andate qua sopra e copiate l'interface che è stata creata adesso ve la spiego e poi la parte sotto ok andate qua e da qua fate così salviamo non da più problemi ed effettivamente abbiamo la nostra tabella che potete tenere full screen oppure se preferite fare come preferisco fare io vi basta un div in questo caso prendiamo una section per fare la svelta prendete una section facciamo così tanto è unica in questo componente quindi poi possiamo andare qua su pagina 1 però magari css e dire che section aprite padding 40 pixel e vedete che adesso è un po' più bello quindi andiamo pagina 2 3 vedete poi torniamo su pagina 1 come funziona questa tabella ve la faccio vedere veloce perché non abbiamo mai parlato delle tabelle in angular material allora la tabella è in realtà composta da column def position name weight che sono quelli che abbiamo qua vedete la stessa cosa e fa riferimento vedete column displayed columns quindi va a prendere le colonne gli header delle colonne da displayed columns quindi dobbiamo avere sicuramente un array di stringhe con i nomi delle colonne dopo che abbiamo il data source che sono i dati effettivi che li prende da element data altro non è che una costante a sto giro va bene quindi ha il data source è semplicemente una costante e questa costante è un array di oggetti basta motivo per cui è in maiuscolo è questo motivo potreste prendere tutto questo array buttarlo qua dentro direttamente potete far arrivare da Firebase adesso ci arriviamo però questo element data altro non è che tipo è di tipo periodic table tipo periodic table ha semplicemente creato un'interfaccia dove c'è nome position weight symbol quindi vuol dire che ogni valore che io metto qua dentro deve avere per forza avete quindi errore metto position ok metto 11 virgola e poi metto qwerty due punti faccio qualcos'altro e mi da problemi perché? perché ha detto che questo element data è formato da un array di oggetti periodic element quindi è formato da un array di periodic element periodic element è un tipo che si è creato lui ed è semplicemente un oggetto con dentro queste quattro cose va bene? basta è così che funziona e la tabella va a ciclare adesso abbiamo fatto tutto il giro del fumo che a me interessava quindi ricapitoliamo abbiamo visto il login perfetto da qua potete mettere a posto il login potete andare su vai a register se non hai ancora un account da qua dovete farvi spostare sul login che abbiamo già visto agli episodi precedenti arrivate qua sulla dashboard quindi dovete impostare login dovete impostare il logout che fate da questo bottone dovete impostare la registrazione dovete eventualmente crearvi un nuovo progetto firebase vedete questo era quello che ho usato io prima qua ne dovete creare un altro avete già il video sul setup di firebase da qui ah per chi magari sta guardando questo video dal nulla senza aver seguito il corso vi consiglio di guardare il corso in primis ma comunque su firebase vi servirà come servizio l'autenticazione e il real time database questo è il massimo che vi posso dire per il resto guardate gli episodi precedenti perché non è pensato per essere un video stand alone cioè sì se però potete imparare cosa arrivate a fare arrivate a fare questa roba qua se è quello che vi interessa se volete il login e quant'altro ne ho già parlato negli episodi precedenti quindi da qua cosa andate a fare potete cambiare il nome delle pagine potete inserire le pagine che volete logout se volete mettere il vostro utente qua in basso un'altra cosa che potete fare è prendere i dati effettivamente da firebase quindi potreste crearvi due collezioni di dati la prima magari sui periodic table se volete utilizzare questa e andate a prendere i dati da firebase e soprattutto potreste aggiungere dei bottoni con aggiungi nuovo elemento e lo inserite voi dalla modal quindi potreste fare una cosa del genere avrete il vostro bottone dov'è? modal, modal, modal si chiama dialog non modal scusatemi potreste avere una cosa del genere vedete fate aggiungi nuovo periodic element e qua dentro fate ta 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 ok e lo va ad aggiungere su firebase poi potreste avere qua ci sono, ve le faccio vedere sulle tabelle c'è la possibilità di selezionare le varie righe vi faccio vedere su examples se scendete dobbiamo scorrere un po' tantino ecco qua vedete potete selezionare tutte potete selezionarla solo una sarebbe bello che se almeno una è selezionata avete la possibilità di eliminare qua c'è un bottone con elimina quindi se ne selezionate una potete eliminarne una selezionate tutti ve le fa eliminare tutte ok? e poi altrimenti se volete premendo effettivamente su una riga aprite un nuovo dialog in cui vi fa modificare effettivamente la roba e potete patchare come abbiamo già fatto la riga e i suoi dati questo è quanto poi cosa potreste fare in un'altra pagina? semplicemente fate delle card quindi create un'altra collection di roba o continuate a usare questi dati qua la periodic table semplicemente aggiungetegli magari un link di un'immagine che mandate a schermo creando delle card quindi prendete le card prendete una cosa del genere ecco qua e mi mandate a schermo la definizione dell'elemento la sua posizione la sua sigla e poi magari un'immagine figa che prendete da google tutta con la galassia o con l'elemento insomma scegliete quello che volete però quello che mi interessa è che andate a mettere registrazione login logout qua andate a prendere questi dati dinamicamente li collegate quindi al get all'inserimento alla modifica e all'eliminazione e infine nella pagina 2 provate a fare la stessa cosa in realtà non mettete la modifica eccetera mi basta solo che prendete gli elementi e rimanete a schermo come card quindi con i vari ng4 che abbiamo già visto questo è il mio compito io vi ho portato fin qua e potete usare questa base chiaramente renderla un po' più bella e interessante per i vostri prossimi progetti però ve l'ho spiegato perché poteva essere complesso da qua è tutto in mano vostra finite per favore l'esercizio c'è sotto in descrizione la mia community se volete mandare parlare tra di voi se avete problemi eccetera se volete mandare i vostri progetti spesso e volentieri i messaggi riesco a leggerli anche io quindi se poi mandate gli screen di quello che sta venendo io sono solo sono solo contento altro non ho da dire una volta che avete finito l'esercizio da lì in poi potete fare la vostra applicazione come la volete questo è quanto nel prossimo episodio vediamo come fare il deploy dell'applicazione quindi dobbiamo fare un po' di passaggi per rendere questa applicazione che funziona da noi in locale ma magari metterla su netlify o altri servizi va bene sotto in descrizione trovate il link al secondo canale sito e come supportare il canale io vi ringrazio e alla prossima ciao ciao episodio 39 ed ultimo del corso di angular oggi vediamo come fare il deploy della nostra app in angular online quindi continueremo a utilizzare firebase un altro servizio che potreste utilizzare è netlify ok quindi questi sono due dei molteplici servizi che potreste utilizzare quello che andiamo a fare è molto semplice impostiamo le variabili d'ambiente andiamo a buildare il progetto effettivo nell'applicazione finale e poi andiamo a ostare su firebase dunque questa è l'applicazione lezione 38 di angular quindi quella che ho creato per farvi vedere la dashboard per mostrare però le variabili d'ambiente devo andare a prendere il progetto precedente ovvero quello che ho utilizzato per tutto il resto del corso perché io vi ho fatto la creazione dell'applicazione qua vi ho detto di aggiungere firebase eccetera eccetera però io personalmente non l'ho fatto quindi fatemi andare a prendere l'altro progetto ecco qua questo sicuramente lo riconoscerete è quello col firebase service user model insomma è quello che abbiamo usato per 38 video praticamente quindi voglio cominciare dalle variabili d'ambiente e ve le spiego già ve le avevo citate in un momento di passione durante il corso e parlo della cartella environments la cartella environments è fatta da due file environment e environment prod environments vuol dire ambienti i due ambienti sono l'ambiente di test quello che risulta come environment.ts e poi environment prod che è l'ambiente di produzione il discorso è il seguente anche se ve l'ho già citato poniamo il caso che stiamo sviluppando la nostra applicazione chiaramente abbiamo già la stessa applicazione magari online che sta andando quindi abbiamo una versione che gli utenti stanno usando quindi versione di produzione e poi una versione di prova ok dobbiamo testare un nuovo database così come qua invece utilizziamo il database come servizio agli utenti il database però capite che non sarà mai lo stesso magari questo è fatemi mettere un numero a caso facciamo finta che sia un ip scriviamo un ip randomico ma anche sbagliato voglio solo che capite il concetto giusto per non mettere niente di di vero ok quindi questo è l'indirizzo a cui c'è il primo database e questo è l'indirizzo a cui c'è il secondo database perché utilizziamo due database diversi perché chiaramente non vogliamo che la versione di prova vada ad intaccare la versione di produzione e non vogliamo che i dati di produzione quindi dove c'è magari roba realistica come carte di credito eccetera eccetera vengano utilizzate come prova quindi abbiamo fatemi fare dei 6000 ip perché se trova qua non la posso vedere ok perfetto così mi piace così mi piace di più allora facciamo così e facciamo così perfetto qui ne abbiamo due ip diversi su cui punta il database come facciamo però a dirgli è se sei in test devi utilizzare questo se sei in produzione devi utilizzare questo è molto semplice utilizzando questi due file quindi qua noi andremo a mettere ad esempio il ip database come cosa ve lo dico subito come questo ah però questo è prod giusto mentre invece nell'altro questo qua che è test andremo a fare la stessa cosa ma con questo indirizzo ip vedete intanto qua cancello tutto perfetto salvo e qua vado ad inserire l'ip del database in test l'idea è che poi noi nell'app come vedrete a breve andiamo a richiamare questo environment environment punto ip di b automaticamente l'applicazione punterà a questo quando però sarà in produzione lo capirà automaticamente angular non preoccupatevi quando sarà in produzione andrà a prendere automaticamente questa variabile quindi capite che noi in realtà qua dentro dentro environment potremo avere una serie di cose gli api key di firebase potremo avere un progetto di firebase di prova così come un progetto di firebase in produzione e tante altre cose ok ho reso l'idea del perché utilizziamo l'environment adesso cosa dobbiamo andare a fare dobbiamo effettivamente andare a mettere l'api key di firebase quindi noi ce l'avevamo in non componenti ma servizi presumo no credo in out out service qua ad esempio ci serve il nostro api key probabilmente anche in firebase service ci serve l'ap key perché qua viene passato l'url quindi da qualche parte dobbiamo richiamarlo anche qua probabilmente dove richiamiamo get persone eccetera però avete capito il discorso poniamo il caso solo qui in out service abbiamo questo ap key va bene che siamo fortunati perché in realtà al momento coincide sia in produzione che in test ma se ne avessimo due diversi chiaramente dovremmo andare a sistemarli quindi togliamo questo da qua e andiamo a richiamare qui ap key quindi scriviamo in realtà firebase api key se volete facciamo così e qua buttate la stringa allo stesso modo essendo identico salviamo allo stesso modo lo fate qua salvo e come andiamo a fare per richiamare l'api key è molto semplice in questo caso voglio utilizzare api key altrimenti dovrei richiamare ogni volta environment bla 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 quindi io assegno una volta sola l'environment all'api key e poi la riutilizziamo questo è un passaggio extra ma potreste farlo direttamente qua dentro quindi in questo caso vogliamo fare environment automaticamente ce lo importa vedete punto firebase api key in questo modo se siamo in test ci prende questo se siamo in prod ci prende questo in questo caso è uguale ma se non lo fosse voi capite che abbiamo fatto una cosa molto interessante perché non dobbiamo occuparci di fare ok una cosa o l'altra una cosa o l'altra il controllo viene fatto automaticamente quindi se non voleste avere un intermediario del genere potreste fare semplicemente così ok nessuno vi vieta di farlo si capisce però è molto bello perché si capisce che tutto ciò che è environment può cambiare tra il test e la produzione e questo è il primo step fatemi abbassare e torniamo sull'altro progetto voi dovreste avere tutto uguale voi dovreste avere tutto in un unico progetto se avete fatto il compito che vi ho richiesto adesso dobbiamo andare a buildare il progetto perché questa applicazione così non va bene perché vedete ci sono tanti file che non ci interessano che servono esclusivamente a noi per lavorare quindi andiamo qua e facciamo ng build build è costruire dall'inglese quindi andiamo a costruire l'applicazione finale ovvero ciò che noi possiamo effettivamente andare a deployare quindi ng build fate partire e lo seguiamo insieme vediamo cosa succede vedete che sta generando il bundle il bundle è il pacchetto unico quindi mentre lo fa è abbastanza veloce perché non pesa niente questa applicazione mentre lo fa che cosa va a prendere va a prendere tutto il nostro javascript html css e ce lo mette in un unico bundle nella cartella dist ok quindi abbiamo dist e poi la cartella del nostro progetto vedete che abbiamo l'html l'index html poi questo main che va a prendere tutta la nostra applicazione ok poi abbiamo il polyfills per tradurlo in linguaggio javascript per browser meno recenti e poi abbiamo la parte runtime quindi come vedete più qua c'è tutto lo style css quindi alla fine che cos'è un'applicazione angular un'applicazione angular è letteralmente un file html un file css e un file javascript poi qua abbiamo due javascript in più il polyfills e il runtime ma a livello logico noi abbiamo vedete qua abbiamo runtime abbiamo polyfills e abbiamo il main quindi tutta la nostra applicazione in realtà è un html un css e in questo caso tre javascript va bene tutto ciò per tutto quello che abbiamo fatto capite che se abbiamo semplicemente del css javascript e html a noi basta un qualsiasi hosting statico qualsiasi cosa che è in grado di mandare a schermo html css e javascript non ci serve nient'altro ok quindi questo è in realtà angular angular se ci pensate tutto quello che abbiamo fatto che fa scomparire fa scomparire un componente ne mostra un altro eccetera eccetera sono tutte cose che noi in realtà possiamo tranquillamente raggiungere con del banale javascript mi mostri questa cosa non me ne mostri un'altra eccetera eccetera chiaro con javascript non possiamo andare a fare bene quella cosa di componenti eccetera ma noi lo possiamo fare con angular angular poi prende tutta sta roba e dice ok tutta sta roba qua in realtà in banale javascript html css è così e noi abbiamo sti pochi file chiaramente più l'applicazione è grossa più file avrete ovvio ci sono anche tutti i vari asset come le immagini eccetera eccetera però questo è il discorso e il progetto l'abbiamo buildato adesso dobbiamo caricarlo su firebase quindi scrivete firebase hosting andate su firebase hosting scendete e qua c'è la lista dei passi da fare quindi rega di comando di firebase schiacciate qua e qua abbiamo le indicazioni su come configurare aggiornare la firebase cli quindi scendiamo per windows e noi possiamo scaricare il file binario della cli perfetto quindi lo scarichiamo pesa 231 mega quindi aspettiamo che finisca ha finito quindi io lo lancio pc protetto da windows non è un problema noi facciamo i segui comunque qua sta partendo la cli di firebase vedete firebase eccolo qua allora ci dice che non siamo connessi quindi dopo facciamo la il login e poi ci dice posso collezionare informazioni bla 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 no su queste cose assolutamente no vi aprirà poi automaticamente sul browser la pagina per collegare il vostro account google voi scegliete quale account volete e qua avete finito adesso prendete questo percorso che è il percorso che punta alla vostra applicazione riaprite la firebase cli e fate cd andate nella cartella e adesso fate firebase init vuoi inizializzare firebase project in this directory assolutamente si perfetto e ci chiederà che feature di firebase vuoi utilizzare in questa directory noi utilizziamo hosting vedete configure file for firebase hosting perfetto mentre invece noi non vogliamo fare l'hosting con github quindi solo questo hosting molto bene e io ho sbagliato lo devo selezionare con la spacebar scusatemi e riproviamo mi rifà la stessa domanda voglio fare sì e devo andare con la barra spaziatrice quindi tac perfetto posso fare invio allora ci chiederà di associarlo ad un progetto firebase che abbiamo chiaramente su firebase se voi avete fatto i due progetti quindi quello dei primi 37 corsi e quello dell'episodio precedente nuovo dovreste avere due progetti altrimenti potreste fare un nuovo progetto ad hoc in questo caso io vado con existing project ok dovreste farlo anche voi indipendentemente da quello che avete e in questo caso ho solo il corso angular se voi avete fatto il progetto anche per l'esercizio utilizzate questo in questo caso io vado avanti e ci chiede che cartella vuoi mettere come public dobbiamo utilizzare questa cartella che vedete qua dist slash il nome della cartella che c'è dentro dist perciò fate dist slash e poi mettete in questo caso devo mettere lezione 38 ng facciamo invio e adesso ci chiede vuoi configurarla come applicazione single page application yes quindi facciamo yes molto bene sette automatic bids and deploy with github no perché non non ce l'abbiamo a sto giro e poi c'è già un index html vuoi fare l'override no molto bene ha completato l'inizializzazione di firebase e per concludere adesso dobbiamo semplicemente scrivere firebase deploy quindi facciamo firebase deploy aspettiamo sta deployando la nostra applicazione molto 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 bene guardiamola insieme e abbiamo il progetto hosting url della nostra applicazione eccolo qua quindi se io prendo e vado a vedere apro vado e vedete che c'è la nostra applicazione avete visto ecco qua la nostra applicazione molto 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 bene chiaramente mi dà già loggato perché perché io non ho fatto tutta la parte di login eccetera ho detto che ero loggato se provo ad andare su login vedete non distingue se sono loggato o meno sa solo che avevo messo logged in però l'applicazione è tecnicamente online perfetto molto molto semplice signori con questo episodio anzi con quest'ultimo deploy si conclude il corso di angular io spero vi sia stato utile andrò forse ad aggiungere roba molto probabilmente quindi lo terrò magari aggiornato andrò ad aggiungere cose aggiuntive però per me questo è l'ultimo episodio andrò probabilmente a fare o sul mio sito o su udemy un mega corso di angular perché qua adesso dovrebbero essere circa 10 più ore di corso ma in realtà ho lasciato fuori tanta roba quindi se volete un corso nello specifico non per imparare a utilizzare angular ma per diventare dei veri maestri di angular sappiate che andrò a fare o su udemy o sul mio corso qualcosa da 30 e più e più ora al momento non è ancora stato fatto fatemi sapere sotto nei commenti se vi può interessare non ho altro a dire a parte che sotto in descrizione c'è sempre le solite cose secondo canale sito dove andrò a mettere la documentazione e come supportare il canale noi ci vediamo nel prossimo corso spero vi sia stato utile ciao 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 ciao